1. Quando lo vidi per la prima volta, Terry Lennox era ubriaco in una Rolls Royce fuori serie, di fronte alla terrazza del Dancers. Il custode del parcheggio aveva portato fuori la macchina e continuava a tenere lo sportello aperto perché Terry Lennox lasciava pensolare il piede sinistro come si avesse dimenticato di possederlo. Aveva un volto giovanile, ma i capelli di un bianco calcinato. Bastava guardarlo negli occhi per capire che era saturo d'alcol fino alla radice dei capelli, ma per il resto aveva l'aria di un qualsiasi simpatico giovanotto in abito da sera che si fosse lasciato vuotare il portafogli in un locale esistente solo a tale scopo. Gli sedeva accanto una giovane donna, una donna dalla chioma di una bella sfumatura tizianesca dal sorriso remoto sulle labbra. Le fasciava alle spalle un mantello di visone azzurro che quasi faceva sembrare la Rolls Royce un'automobile come tutte le altre. Quasi, ma non del tutto. Nulla pu riuscirvi. Il custode del parcheggio era il solito tipo piuttosto volgare, con la giacchetta bianca e il nome del ristorante ricamato in rosso sul davanti. cominciava ad averne abbastanza. «Sentite, signore», disse con una punta di impazienza nella voce, «vi spiacerebbe molto tirar dentro la gamba in modo che possa chiudere lo sportello, oppure devo spalancarlo e lasciarvi cadere?». La ragazza gli scoccò un'occhiata che avrebbe dovuto trafiggerlo e fu riuscirgli da almeno dieci centimetri dietro la schiena. Ma l'uomo non batteciglio. Il Dancers è frequentato da quel tipo di clienti che si disincantano sul modo con cui i quattrini appalate possono influenzare la personalità. Una bassa automobile sportiva, straniera, scoperta, si infilò nel parcheggio. Un tizio ne scese e si servì dell'accendino per accendere una lunga sigaretta. Indossava una camicia a scacchi, pantaloni gialli e stivali da cavallerizzo. Si incamminò a lunghi passi, lasciandosi dietro una scia di nuvole di incenso, senza neppure degnare di uno sguardo la Rolls-Royce. Probabilmente la giudicava un macinino. Ai piedi della gradinata che porta sulla terrazza si soffermò per incastrarsi il monocolo nell'occhio. Con un grazioso sfoggio di fascino, la ragazza disse, «Ho una splendida idea, tesoro, perché non portiamo la macchina chiusa a casa tua e non prendiamo quella scoperta? È una notte meravigliosa per risalire la costa fino a Montecito. Conosco della gente laggiù che ha organizzato un ballo intorno alla piscina». Il giovanotto dai capelli bianchi rispose in tono cortese, «Spiacentissimo, ma la macchina scoperta non ce l'ho più. Sono stato costretto a venderla». Dal tono di voce, dal modo di articolare le parole, si sarebbe detto che non avesse bevuto nulla di più forte del succo d'arancia. «Venduta, tesoro, che cosa vuol dire?» Si scostò da lui sul sedile, ma la sua voce divenne molto molto più lontana. «Voglio dire che non ho potuto farne a meno», rispose il giovane, «perché avevo bisogno di quattrini». «Oh, capisco». In quel momento una fetta di spumone non si sarebbe sciolta su di lei. L'inserviente aveva ormai alla sua merced il giovanotto dai capelli bianchi, con le spalle al muro della miseria. «Senti, amico», disse, «devo parcheggiare una macchina. Ci vediamo qualche altra volta, forse». Spalancò lo sportello. Subito l'ubriaco scivolò dal sedile e cadde a terra piombandovi col fondo dei pantaloni. Mi avvicinai allora e decisi di intervenire. «Credo che sia sempre un errore intromettersi nelle faccende di un ubriaco. Anche se ti conosce e ti ha in simpatia, non è escluso che ti rifili un pugno sui denti». Lo afferrai sotto le ascelle e lo rimisi in piedi. «Grazie infinite», fece lui. La ragazza si mise al volante. «Diventa così maledettamente inglese quando ha bevuto», disse con una voce fredda come l'acciaio. «Grazie per averlo tirato su. Lo metterò sul sedile posteriore», dissi. «Mi spiace moltissimo, ma ho un appuntamento e sono in ritardo». Innestò la marcia e la Rolls si mise in moto. «E' un cane sperduto», soggiunse con un gelido sorriso. «Forse riuscirete a trovargli una cuccia. E' abituato a girovagare come cani landaggi, più o meno». Ella Rolls si infilò sussurrante nella strada trasversale che porta al Sunset Boulevard, svoltò a destra e scomparve. La stavo seguendo con lo sguardo quando l'inserviente tornò. Reggevo sempre in piedi l'uomo, ora profondamente addormentato. «Bel modo di fare», dissi al tipo con la giacchetta bianca. «Certo», fece lui, cinico, «dovrebbe perdere tempo con un ubriaco, con quelle curve e il resto. Lo conoscete? Ho sentito la bella chiamarlo Terry, altrimenti non lo distinguerei da un carro bestiame, ma lavoro qui da due settimane soltanto». «Andate a prendermi la macchina, vi dispiace», gli diedi lo scontrino. Quando venne a fermarsi dinanzi a noi con la mia Rolls, mi sembrava di sostenere un sacco di piombo. L'uomo con la giacchetta bianca mi aiutò a mettere il fardello sul sedile anteriore. Il passeggero aprì un occhio, ci ringraziò e si riaddormentò. «E' l'ubriaco più gentile che abbia mai conosciuto», dissi all'uomo con la giacchetta bianca. «Ne vengono di tutte le forme, di tutte le dimensioni, di tutti i tipi», disse. «E sono tutti quanti dei rifiuti. Si direbbe che a questo qui gli abbiano fatto un'operazione di plastica facciale». «Già», gli diedi un dollaro e mi ringraziò. Aveva ragione per quanto concerneva l'operazione di plastica facciale. Il lato destro del volto del mio nuovo amico era teso, bianchiccio, segnato da sottili cicatrici. La pelle intorno alle cicatrici era lustra. Un'operazione di plastica è drastica, anche. «Che cosa vi proponete di farne?» «Portarlo a casa e fargli passare la sbronza quanto basta perché possa dirmi dove abita». L'uomo con la giacchetta bianca sogghignò. «E va bene. Ingenuo. Al vostro posto lo lascerei cadere in un rigagnolo e continuerei per la mia strada. Questi ubriaconi non fanno altro che procurare un sacco di guai. Mi sono fatto una filosofia, io, su certe cose. Con la concorrenza che c'è al giorno d'oggi bisogna risparmiare le proprie energie per difendersi quando si è attaccati». «Già, vedo che vi è stata molto utile», dissi. Parve interdetto, poi incominciò a inalberarsi, ma ormai ero sulla macchina e l'avevo messa in moto. In parte aveva ragione, naturalmente. Terry Lennox mi procurò un sacco di guai, ma in fin dei conti questo è il mio mestiere. Abitavo quell'anno in una casa a Yucca Avenue, nel distretto di Laurel Canyon, una piccola casa sul fianco della collina, in un vicolo cieco, con una lunga rampa di scale di legno rosso che conduceva all'ingresso e un boschetto di eucalipti di fronte. Era immobiliata e apparteneva a una donna trasferitasi per qualche tempo nel Lidao a stare con la figlia rimasta vedova. L'affitto era basso, in parte perché la proprietaria desiderava poter tornare su breve preavviso e in parte a causa della rampa di scale. La donna era troppo vecchia per affrontarla ogni volta che tornava a casa. In qualche modo riuscì a portar su l'ubriaco. Era desideroso di facilitarmi il compito, ma aveva le gambe di gomma e continuava ad addormentarsi nel bel mezzo delle sue frasi di scusa. Apri la porta, lo trascinai dentro, lo distesi sul divano, gli gettai sopra una coperta e lasciai che dormisse. Russò come un trombone per un'ora. Poi si destò di colpo e volle andare nel bagno. Quando ne uscì, mi sbirciò socchiudendo le palpebre, strabuzzando gli occhi e domandò dove diavolo si trovasse. Glielo spiegai. Disse che si chiamava Terry Lennox, che abitava in un appartamento a Westwood e che nessuno lo aspettava. Aveva la voce chiara e non impastata. Disse che avrebbe gradito una tazza di caffè forte. Quando gli portai il caffè, lo sorbì con cautela, tenendo il piattino sotto la tazza. «Come mai mi trovo qui?» domandò guardandosi intorno. «Siete scivolato giù da una Rolls al Dancers. La vostra amica vi ha piantato in asso». «Già», mormorò, «non ve' dubbio che ne avesse tutte le ragioni». «Siete inglese?» «Ho vissuto in Inghilterra, ma non ci sono nato. Se potessi chiamare un tassì, vi toglierei il disturbo». «Ce n'è uno che vi aspetta». Discese la rampa di scale per conto suo. Non parlò molto durante il tragitto fino a Westwood, se non per dire che ero stato molto gentile e che gli dispiaceva avermi dato tanto disturbo. Probabilmente aveva ripetuto le stesse frasi tante volte a tanta gente che erano di vedute automatiche. L'appartamento era piccolo, soffocante e impersonale. Avrebbe potuto esservisi trasferito quello stesso pomeriggio. Su un tavolino da caffè di fronte a un divano letto di un verde violento verano una bottiglia di whisky, piena a metà, del ghiaccio sciolto in una brocca, tre bottiglie vuote di acqua di sales, due bicchieri e un posacenere di cristallo pieno di mozziconi, sporchi e no di rossetto per le labbra. Non vidi né una fotografia né un oggetto personale qualsiasi nella stanza. Sarebbe potuta essere una camera d'albergo presa in affitto per un incontro o un addio, per bere qualcosa e conversare, per un fuggevole amplesso. Non aveva l'aspetto di un posto abitato da qualcuno. Mi offrì da bere. Dissi di no, grazie, e non mi misi a sedere. Quando me ne andai mi ringraziò ancora, non come se avessi scalato una montagna per lui, ma neppure come se non avessi fatto nulla di straordinario. Fu un po' incerto e un po' timido, ma diabolicamente educato. Rimase sulla soglia fino a quando l'ascensore automatico non salì e io non fui entrato. Tutto poteva fargli difetto, ma non le buone maniere. Ma non aveva più accennato alla ragazza, e neppure aveva detto di non avere più un impiego né prospettive per il futuro, e di essere rimasto quasi senza un dollaro dopo aver pagato il conto al Dancers per una squaldrina ad alto bordo, che non si era preso la briga di fermarsi quanto bastava per impedire che venisse portato al fresco da qualche automobile della polizia, o derubato da un disonesto conducente di tassi e poi gettato nel primo terreno da costruzione abbandonato. Scendendo con l'ascensore fui tentato di tornare su a togliergli la bottiglia di whisky, ma non era affar mio e d'altronde non sarebbe servito a nulla. Quando vogliono trovano sempre il modo di procurarsi liquori. Tornai a casa mordendomi il labbro. Si dice che io sia un uomo duro, eppure qualcosa di quel tipo mi aveva commosso. Non sapevo che cosa esattamente, a meno che non si fosse trattato dei capelli bianchi, del volto sfregiato, della voce limpida, della sua compitezza. Nulla di più, forse. E non c'era ragione per cui dovessi rivederlo. Non era altro che un cane randaggio, come aveva detto la ragazza. 2. Lo rividi nella prima settimana di dicembre. I negozi di Hollywood Boulevard cominciavano a riempirsi di stupidi e costosissimi doni natalizi, e i quotidiani andavano proclamando quanto sarebbe stato terribile se la gente non si fosse affrettata a fare in tempo gli acquisti di Natale. Ma sarebbe stato terribile in ogni caso. Succede sempre così. Mi trovavo a circa tre isolati dal palazzo dove ho l'ufficio, quando vidi un'automobile della polizia col furgone e i due piedi piatti su di essa intenti a fissare qualcosa accanto alla vetrina di un negozio. Il qualcosa era Terry Lennox, o ciò che restava di lui. E il poco che ne restava non era bello a vedersi. Si appoggiava all'angolo della vetrina. Doveva assolutamente appoggiarsi a qualcosa. Aveva la camicia sporca col colletto abbottonato, che in parte gli usciva fuori dalla giacca e in parte no. Non si era sbarbato da quattro o cinque giorni. Aveva il naso affilato e la faccia così pallida che le lunghe e sottili cicatrici si scorgevano appena. E i suoi occhi erano come fuori in uno strato di neve. Evidentemente i due poliziotti sulla macchina stavano per arrestarlo. Pertanto mi avvicinai rapidamente e lo afferrai per un braccio. Tiratevi su e camminate, dissi adottando la maniera forte. Gli strizzai l'occhio di nascosto. Ce la fate? Siete ubriaco? Mi guardò vagamente, poi atteggiò le labbra al suo sorrisetto che gli incurvava una metà soltanto della bocca. Lo sono stato, bisbigliò. Adesso credo di essere soltanto un po' vuoto. D'accordo, ma muovete i piedi. È come se foste già quasi salito sul furgone degli ubriachi. Compì lo sforzo e si lasciò accompagnare, fra gli oziosi che si trovavano sul marciapiede fino al margine della strada. C'era lì un posteggio di tassi e io spalancai lo sportello del primo che vidi. Tocca prima a quello, disse l'autista indicando col pollice il tassi davanti al suo. Voltò la testa e vide Terry. Ammesso che ci arriviate, soggiunse. È un caso di emergenza e il mio amico si sente male. Già, fece il conducente, potrebbe andare a sentirsi male in qualche altro posto. Cinque dollari, dissi, e fatemi vedere il vostro bel sorriso. Ah, d'accordo, rispose infilando una rivista con un marziano sulla copertina dietro il retrovisore. Allungai il braccio e spalancai lo sportello. Feci entrare Terry Lennox e l'ombra dell'automobile della polizia oscurò lo sportello opposto. Un poliziotto dai capelli grigi discese e si avvicinò. Girai intorno al tassi per andargli incontro. Un momentino a voi. Che sta succedendo qui? Il signore con la biancheria sporca è davvero un vostro intimo amico? Abbastanza intimo perché sappia che ha bisogno di me. Non è ubriaco. Per ragioni finanziarie senza dubbio, disse il poliziotto. Allungò la mano ed io mi misi sulla licenza. La esaminò e me la restituì. Ho ho, disse. Un investigatore privato che rastrella il cliente. Il suo tono mutò e divenne duro. Questo mi dice qualcosa sul vostro conto, signor Marlow. Ma sul suo? Si chiama Terry Lennox, lavora nel cinema. Molto interessante, disse il poliziotto sarcastico. Si sporse nel tassi e scrutò Terry nell'angolo. Direi che non deve aver lavorato molto in questi tempi. Direi che non ha dormito sotto un tetto. Direi anche che si è dato al vagabondaggio e pertanto dovremmo arrestarlo. Non può essere che arrestiate vagabondi, osservai. Non a Hollywood. Stava ancora fissando Terry. Come si chiama il vostro amico? Philip Marlow, rispose Terry ad agio. Abita nella Yucca Avenue, Laurel Canyon. Il poliziotto tirò la testa fuori dal finestrino, si voltò e fece un gesto con la mano. Potreste averglielo detto un minuto fa. Potrei, ma non glielo detto. Mi fissò per uno o due secondi. Per questa volta la bevo, disse. Ma toglietelo dalla strada. Salì sulla macchina della polizia e la macchina partì. Salì sul tassi, percorremmo il tragitto di tre isolati fino al parcheggio in cui mi servivo e passammo sulla mia macchina. Diedi all'autista i cinque biglietti. Mi guardò brutto e scosse la testa. Solo quello che segna il tassametro, amico. Ho un dollaro netto, se proprio ci tenete. Anch'io ho sofferto la fame. A Frisco. E nessuno mi ha mai fatto salire su un tassi. È una città dal cuore di pietra, quella. San Francisco, dissi meccanicamente. Io la chiamo Frisco, ribatté. Vadano all'inferno i suoi gruppi di minoranza. Grazie. Prese il dollaro e ripartì. Andammo in un ristorante per automobilisti dove servivano panini imbottiti che avevano l'area di poter essere appetiti dai cani. Ne feci mangiare un paio a Terry Lennox, innaffiati da una bottiglia di birra. Poi lo accompagnai a casa mia. La rampa di scale gli riuscì ancora faticosa, ma sorrise e ansimò, e fece la scalata. Un'ora dopo si era sbarbato, aveva fatto il bagno e sembrava di nuovo umano. Ci mettemmo a sedere sorbendo due bibite molto allungate. Per fortuna avete ricordato il mio nome, dissi. Era mio dovere, rispose. Ho anche cercato il vostro indirizzo sull'elenco telefonico. Potevo far meno. E allora perché non telefonarmi? Sono sempre in casa. Ho anche un ufficio. E per quale ragione avrei dovuto disturbarvi? Sembra che aveste dovuto disturbare qualcuno. A quanto pare non avete molti amici. Oh, ne ho, disse. In un certo senso. Fece girare il bicchiere sul piano del tavolo. Chiedere aiuto non è facile, specie quando la colpa è tutta nostra. Alzò gli occhi con uno strano sorriso. Forse uno di questi giorni smetterò di bere. Lo dicono tutti, vero? Ci vogliono circa tre anni. Tre anni? Parve impressionato. Di solito sì. È tutto un mondo diverso. Dovete abituarvi a una gamma di colori meno accesi, a una scala di suoni meno alti. Dovete tener conto delle ricadute. Tutta la gente che conoscevate vi sembrerà un po' estranea. Molti dei vostri amici non vi piaceranno addirittura più e voi non piacerete a loro. Questo non sarebbe un gran cambiamento, disse. Si voltò e guardò l'orologio. Ho lasciato al deposito degli autobus di Hollywood una valigia che vale 200 dollari. Se potessi svincolarla, ne acquisterei una meno costosa e impegnerei l'altra ricavando quanto basta per il biglietto dell'autobus fino a Las Vegas. Laggiù posso trovare lavoro. Non dissi nulla. Mi limitai ad annuire e rimasi seduto sorbendo la bibita. State pensando che quest'idea avrebbe potuto venirmi un po' prima? Fece lui in tono sottomesso. Sto pensando che dietro a tutto questo c'è qualcosa, qualcosa che non mi riguarda. Il lavoro al quale avete accennato è una certezza o solo una speranza? Una certezza. Un tale che conoscevo molto bene sotto le armi dirige un club laggiù, il club Terrapin. In parte è un briccone naturalmente. Lo sono tutti, ma per il resto è un bravo figliolo. Posso darvi il denaro per il biglietto e qualcosa in più, ma vorrei essere certo che servirà qualcosa di definitivo. Meglio parlargli al telefono. Vi ringrazio, ma non è necessario. Randy Star non mi abbandonerà. Non mi ha mai abbandonato. E la vigilia può essere impegnata per 50 dollari. Lo so per esperienza. Sentite, dissi. Sono disposto a darvi quello che vi occorre, ma non prendetemi per un minchione del cuore troppo tenero. Voglio avervi fuori dai piedi perché ho un presentimento su di voi. Davvero? Chinò gli occhi sul bicchiere. Si era limitato a sorbire la bibita di quando in quando. Ci siamo visti due volte sole e siete stato più che buono con me entrambe le volte. Che genere di presentimento? Il presentimento che la prossima volta vi troverò impegolato in guai troppo grossi perché possa togliervi dai pasticci. Non conosco la ragione di questo presentimento, ma ce l'ho. Si toccò dolcemente il lato destro del viso con la punta di due dita. Forse è per questa. Deve darmi un aspetto piuttosto truce, presumo, ma è una ferita onorata o perlomeno il risultato di una ferita. Non si tratta di questo. La ferita mi è del tutto indifferente. Sono un investigatore privato. Rappresentate un problema che non devo risolvere, ma il problema c'è. Chiamate la premonizione. Parlate se volete di senso del carattere. Forse quella ragazza non vi abbandonò al dancer solo perché eravate ubriaco. Forse aveva un presentimento anche lei. Sorrise leggermente. È stata mia moglie. Si chiama Silvia Lennox. La sposai per il suo denaro. Mi alzai e lo fissai aggrottando le sopracciglia. Vi preparerò delle uova strapazzate. Avete bisogno di mangiare. Aspettate un momento, Marlowe. Vi state domandando come mai, se ero senza un soldo e Silvia a quattrini a palate non le ho chiesto qualche dollaro. Avete mai sentito parlare di orgoglio? Mi offendete, Lennox. Davvero? Il mio orgoglio è diverso. È l'orgoglio di un uomo che non possiede altro. Mi dispiace se vi irrito. Andai in cucina, preparai uova strapazzate e prosciutto, caffè e pane abbrustolito. Mangiammo nell'angolo della cucina che serviva da sala da pranzo. La casa era stata costruita nell'epoca in cui era di moda questa sistemazione. Dissi che dovevo andare in ufficio e che avrei ritirato la valigia al ritorno. Lennox mi diede lo scontrino. Aveva riacquistato un po' di colore e non aveva più gli occhi così infossati nelle orbite da doverli cercare brancolando. Prima di uscire misi la bottiglia del whisky sul tavolo di fronte al divano. Servitevi dell'orgoglio con questa, dissi. E telefonati a Las Vegas, non fosse altro che per farmi un favore. Si limitò a sorridere e a stringersi nelle spalle. Ero ancora preoccupato scendendo i gradini. Non sapevo perché, non più di quanto conoscessi la ragione per cui un uomo doveva morire di fame e vagabondare per le strade invece di impegnare il suo guardaroba. Ma a quali che fossero le sue abitudini, Terry vi si atteneva. La valigia era la cosa più incredibile che si possa immaginare. Una valigia di cinghiale che, nuova, doveva essere stata di un color crema pallido. Aveva le chiusure in oro. Era di fabbricazione inglese e se si fosse potuto acquistarla negli Stati Uniti sarebbe costata con ogni probabilità 800 dollari e non 200. La posai sul pavimento dinanzi a lui. Osservai la bottiglia sul tavolo. Non l'aveva toccata. Era sobrio quanto me. Stava fumando, ma quasi controvoglia. «Ho parlato correnti», disse. «Si è arrabbiato perché non gli ho telefonato prima». «Ci vuole un estraneo per aiutarvi», disse. «Un regalo di Silvia?» Additai la valigia. Guardò fuori dalla finestra. «No, mi è stata regalata in Inghilterra molto tempo prima che la conoscessi. Molto tempo fa, in vero. Vorrei lasciarla qui, se poteste prestarmene una vecchia». Tolsi i cinque biglietti da 20 dollari dal portafogli e li lasciai cadere di fronte a lui. «Non ho bisogno di garanzie». «Non ci pensavo affatto. So bene che non fate prestiti i suoi impegni. Il fatto è che non voglio portarla a Las Vegas e poi non ho bisogno di tutto questo denaro». «Sta bene. Tenete il denaro e io terrò la valigia, ma è facile rubare in questa casa». «Non avrebbe importanza», disse in tono indifferente. «Non avrebbe alcuna importanza». Si cambiò d'abito e cenammo da musso verso le cinque e mezzo. Niente liquori. Prese l'autobus per Caguenga e io tornai a casa in macchina assorto in riflessioni. La valigia si trovava sul letto, dove lui l'aveva svuotata mettendo le sue cose nella leggera valigetta datagli da me. In una delle due serrature vera una chiavetta d'oro. La chiusi, legai la chiave alla maniglia e misi la valigia sullo scaffale più alto dell'armadio dei vestiti. Non sembrava del tutto vuota, ma ciò che conteneva non era affermio. Era una notte silenziosa e la casa sembrava più deserta del solito. Misi la scacchiera sul tavolo e tentai una difesa francese contro Stenitz. Mi battei in 48 mosse, ma lo feci sudare un paio di volte. Il telefono squillò alle nove e mezzo e la voce che udì mi parve vagamente familiare. «Parlo con il signor Philip Marlowe?» «Sì, sono Marlowe». «È Silvia Lennox che parla, signor Marlowe. Abbiamo avuto un breve incontro di fronte al Dancers una sera del mese scorso. In seguito ho saputo che eravate stato così cortese da accompagnare Terry a casa». «L'ho accompagnato, infatti». «Saprete, presumo che siamo divorziati. Tuttavia mi preoccupo un poco per lui. Ha lasciato libero l'appartamento che aveva a Westwood e sembra che nessuno sappia dove si trova». «Ho notato, infatti, quanto eravate preoccupata la sera in cui ci incontrammo». «Sentite, signor Marlowe, sono stata sua moglie. Gli ubriachi non mi piacciono. Forse ero un po' irritata e forse avevo qualcosa di piuttosto importante da fare. Voi siete un investigatore privato e si può porre la questione su un piano professionale se lo preferite». «Non c'è bisogno di porla su alcun piano, signora Lennox. Terry si trova su un autobus diretto a Las Vegas. Ha un amico laggiù che gli procurerà un posto». Si rianimò immediatamente. «Oh, a Las Vegas? Quanto è sentimentale da parte sua. Ci sposammo in quella città». «Penso che lo abbia dimenticato», disse, «altrimenti sarebbe andato in qualche altro posto». Invece di riattaccare, rise. Fu una risatina spiritosa. «Siete sempre così sgarbato con i vostri clienti?» «Non siete una cliente, signora Lennox?» «Potrei esserlo un giorno o l'altro, chissà. Diciamo allora, con le vostre amiche?» «La risposta è identica. Il vostro ex marito era a terra, morto di fame, sporco, senza un becco di un quattrino. Avreste potuto cercarlo e trovarlo se non aveste avuto di meglio da fare. Non voleva niente da voi allora e probabilmente non vuole niente da voi neppure adesso». «È una faccenda questa?» disse lei, gelida, «della quale non potete saper nulla. Buonanotte». E riattaccò. Aveva perfettamente ragione. Inutile dirlo, e io avevo torto marcio. Ma sentivo di non aver sbagliato. Ero soltanto irritato. Se avesse telefonato mezz'ora prima, la rabbia mi avrebbe consentito di battere in pieno Stenitz. A parte il fatto che Stenitz era morto da 50 anni e che le sue mosse erano elencate in un manuale sul gioco degli scacchi. 3. Tre giorni prima di Natale ricevetti un assegno al portatore di una banca di Las Vegas per la somma di 100 dollari. Lo accompagnava un biglietto scritto su carta intestata di un albergo. Terry mi ringraziava, mi augurava buon Natale e ogni felicità. Diceva di sperare di potermi vedere presto. Il bello veniva nel post scriptum. «Silvia e io stiamo incominciando una seconda luna di miele. Dice di non volergliene, per favore, se ha desiderato tentare ancora una volta». Appresi altri particolari in una delle snobistiche colonne nella parte del giornale riservata alle cronache mondane. Non le leggo spesso, solo quando resto accorto di altre cose da odiare. Il vostro corrispondente è tutto un fremito per la notizia che Terry e Silvia Lennox si sono riappacificati a Las Vegas, i due tesori. Lei è la figlia minore del multimilionario Arlan Potter di San Francisco e Peeble Beach, naturalmente. Silvia sta facendo decorare al nuovo da Marcel e Jean Dux tutta la villa di Enzino, dallo scantinato al tetto nel più mozzafiato del Dernier Cree. Kurt Westherme, il penultimo marito di Silvia, miei cari, le donò questa capannuccia di 18 stanze come regalo di nozze. Forse ve ne ricorderete. «E dove è andato a finire, Kurt?» vi domanderete. «Ve lo domandate, no?» «Bene, la soluzione dell'enigma si può trovare a Saint-Tropez, ed è una soluzione definitiva. La si può trovare anche in una certa duchessa dal sangue molto blu, con due bambini assolutamente adorabili. E forse vi domanderete anche cosa pensa Arlan Potter della rapacificazione. Ci si può solo abbandonare alle supposizioni. Il signor Potter è una di quelle persone che non concedono mai interviste. Gettai il giornale in un angolo e accesi il televisore. Dopo il vomito da cani delle cronache mondane, persino la lotta libera sembrava interessante. Ma i fatti probabilmente erano veri. Sulle cronache mondane è bene che lo siano. Riuscì a figurarmi la capanna di 18 stanze che poteva accompagnarsi ad alcuni dei milioni di Potter. Per non parlare delle decorazioni di Dois, nel più recente simbolismo subfallico. Ma non riuscì affatto a immaginarmi Terry Lennox, intento a gironzolare in mutandine da bagno intorno a una piscina nelle Bermude e a radiotelegrafare al maggiordomo di mettere in ghiacciolo champagne. D'altronde non avevo alcuna ragione di provarmici. Se l'amico voleva farsi mantenere, la cosa non mi riguardava. Desideravo soltanto non rivederlo mai più. Eppure, sapevo che l'avrei rivisto. Se non altro a causa di quella sua dannata valigia di cinghiale con le serrature platinate in oro. Erano le cinque di una piovosa sera di marzo quando entrò nel mio ufficio. Sembrava mutato e invecchiato del tutto astemio e severo e meravigliosamente calmo. Aveva l'aria di un tipo che abbia imparato ad accontentarsi di succhi di frutta. Indossava un impermeabile bianco-argento. Portava i guanti, ma non aveva il cappello e le sue candide chiome erano lisce come il ventre di un uccelletto. Andiamo in un bar poco frequentato e beviamo qualcosa, disse, come se si trovasse lì già da dieci minuti. Purché ne abbiate il tempo, si intende. Non ci stringemmo la mano, non lo facevamo mai. Gli inglesi non si scambiano ogni momento strette di mano come gli americani e lui, pur non essendo inglese, aveva assimilato alcune delle loro abitudini. Dissi, passiamo da casa mia e ritiriamo quell'elegante valigia. Mi preoccupa in un certo senso. Crollò il capo. Mi fareste un favore se me la teneste? Perché? Così, vi dispiace. È una specie di legame con il periodo in cui non ero un fannullone buono a niente. Storie, dissi, ma sono affari vostri. Se vi secca perché pensate che qualcuno possa rubarla? Anche questo è affar vostro. Andiamo a bere qualcosa. Andammo al Victor. Mi ci portò con una jouette Jupiter, color ruggine dall'esile capote di canapa, sotto la quale verrà appena il posto per noi due. Il rivestimento era in pelle chiara e le rifiniture sembravano ad argento. Non vado tanto per il sottile con le automobili, ma quella dannata macchina mi fece venire l'acquolina in bocca. Disse che in seconda faceva i cento. Aveva una leva del cambio corta e robusta che gli giungeva malappena all'altezza del ginocchio. Quattro marce, disse. Non hanno ancora inventato un cambio automatico che funzioni con una di queste automobili. E in realtà non ce n'è bisogno. Può partire in terza, anche in salita, e la terza è veloce abbastanza per lo meno del traffico. Un dono di nozze? No, solo un regalo casuale di quelli che si ricevono dopo aver detto «Ho visto esposta una bella macchina». «Sono molto viziato». «Bene», dissi, «purché non ci sia il cartellino del prezzo». Mi sbirciò con la lapida occhiada e riportò lo sguardo sull'asfalto bagnato. I due tergicristallo frusciavano dolcemente sul piccolo parabrezza. «Il cartellino del prezzo? C'è sempre un cartellino del prezzo, amico mio. Pensate forse che non sia felice?» «Scusate, ero fuori strada». «Sono ricco. Chi diavolo vuole essere felice?» Aveva un'amarezza nella voce che mi riuscì nuova. «Come va con il bere?» «Magnificamente, vecchio mio. Per qualche strana ragione sembra che riesca a cavarmela, ma non si sa mai, vero?» «Forse non siete mai stato realmente alcolizzato». Sedemmo in un angolo del bar Victor e sorbimmo un cocktail che chiamavamo Succhiello. «Qui non sanno prepararli», disse Terry. «Quello che chiamano Succhiello non è altro che un po' di succo di cedro o di limone con gin, un cucchiaino di zucchero e uno schizzo di amaro. Un vero Succhiello è per metà gin e per metà succo di cedro di marca Rose e nient'altro. Batte in pieno il Martini». «Non sono mai stato schizzinoso per quanto riguarda i liquori. Come mai siete diventato amico di Randy Star? Mi hanno detto che è un tipaccio». Si appoggiò allo schienale e parve cogi d'abondo. «Credo che lo sia davvero. Credo che lo siano tutti, ma non lo dimostra. Potrei farvi il nome di un paio di tipi della stessa cricca a Hollywood che recitano la parte a perfezione. Ma Randy se ne infischia. A Las Vegas è un onesto uomo d'affari. Andate a trovarlo quando vi capiterà di passare di lì. Diventerete amici». «Non è molto probabile. Non mi piacciono i gangster». «Parole, Marlow. Il mondo è quello che è. Ce l'hanno dato due guerre e dobbiamo tenercelo. Randy, io e un altro tizio ci trovammo in un pasticcio una volta. Così è sorto una specie di legame fra noi». «Allora perché non vi rivolgete a lui quando ne avete bisogno?» Mandò giù il cocktail e fece cenno al cameriere. «Perché non potrebbe rifiutarsi di aiutarmi?» Il cameriere portò altri due bicchieri e io dissi «Queste sono solo ciance per me. Se per caso quel tipo vi dovesse qualcosa, pensate al suo tornaconto. gradirebbe l'opportunità di potersi sdebitare in parte». Scosse ad agio la testa. «So che avete ragione. Naturalmente gli ho chiesto un posto, ma ho lavorato quando l'ho avuto. Domandare favori o ricompense? No. Ma li accettate da un estraneo?» Mi guardò negli occhi. «L'estraneo può tirare dritto e fingere di non aver sentito». Bevemmo tre cocktail, semplici, e non ne risentii. Sarebbero bastati a scuotere un uomo realmente intossicato. Presumo, quindi, che doveva aver superato la crisi. Poi mi riaccompagnò con la macchina in ufficio. «Ceniamo alle otto e un quarto», disse. «Solo i milionari possono permetterselo. Al giorno d'oggi solo la servitù dei milionari lo sopporta. Verrà molta bella gente». Da allora in poi divenne per lui una sorta di abitudine, farsi vedere verso le cinque. Non andavamo sempre nello stesso bar, ma entravamo più spesso nel Victor che in qualsiasi altro locale. Forse esercitava su di lui un richiamo per ragioni che non conoscevo. Non beveva mai molto e se ne stupiva egli stesso. «Deve essere qualcosa di simile alla febbre terzana», disse. «Quando ti prende è un guaio. Quando non ce l'hai è come se non l'avessi mai avuta». «Non capisco una cosa. Perché un uomo privilegiato come voi possa aver voglia di bere in compagnia di un investigatore da quattro soldi?» «Fate il modesto?» «Niente affatto. Solo che non me ne rendo conto. Sono un tipo ragionevolmente cordiale, ma non facciamo parte dello stesso ambiente. Non so neppure quali luoghi frequentiate, a parte Enzino. Dovrei supporre che la vostra vita familiare sia felice». «Non ho alcuna vita familiare». Di nuovo stavamo bevendo succhielli. Il locale era quasi deserto. Si udiva il solito lieve trepestio dei bevitori abituali che stavano cercando di mettersi in forma sugli sgabelli, al banco. Quei tipi di bevitori che afferrano molto ad agio il bicchiere e che si sorvegliano la mano per non rovesciare qualcosa. Non capisco. Oh, dovrei?» «Un colosso, ma senza trama, come dicono negli ambienti del cinema. Credo che Silvia sia abbastanza felice, anche se non necessariamente con me. Nel nostro mondo questo non ha molta importanza. Quando non si deve lavorare né preoccuparsi del denaro, c'è sempre qualcosa da fare. Non è realmente divertente, ma i ricchi non lo sanno. Non si sono mai divertiti. Non desiderano mai qualcosa sul serio, tranne forse la moglie di un altro. E anche questo è un desiderio piuttosto scialbo in confronto all'intensità con cui la moglie dello stagnino desidera tende nuove per il salotto». Non dissi nulla. Lasciai che continuasse a parlare. «Quasi sempre non faccio che ammazzare il tempo», disse, «ed è duro da morire. Un po' di tennis, un po' di golf, un po' di nuoto e di equitazione e lo squisito piacere di osservare gli amici di Silvia che cercano di resistere fino all'ora di cena prima di annegare nell'alcol la loro noia». «La sera in cui andasti a Las Vegas?» mi disse che gli ubriaconi non le piacevano. Sorrise di sbieco. Mi stavo tanto abituando alla sua faccia sfregiata che la notavo solo quando un mutamento di espressione ne poneva in risalto la legnosità. «Intendeva parlare di ubriachi senza un soldo. Se hanno denaro, sono soltanto forti i bevitori. Quando vomitano sulla veranda, ci pensa il cameriere. Avreste potuto farne a meno di venervi a trovare in questa situazione?» Terminò di bere d'un fiato e si alzò. «Devo affrettarmi, Marlow. Oltretutto vi annoio e Dio solo sa se sto annoiando anche me stesso». «Non mi annoiate. Sono abituato ad ascoltare. Prima o poi può darsi che riesca a capire perché vi piace fare la parte del cagnolino di lusso». Si sfiorò appena la cicatrice con la punta del dito. Atteggiò le labbra un lieve, remoto sorriso. «Doveste domandarvi perché Silvia mi voglia intorno e non perché io desideri star lì, impaziente attesa, su un cuscino di seta, di sentirmi accarezzare la testa». «Vi piacciono i cuscini di seta?» dissi e mi alzai per andarmene con lui. «Vi piace dormire fra le lenzuola di seta e poter suonare il campanello e vedere arrivare il maggiordomo con un sorriso deferente?» «Potrebbe darsi. Sono cresciuto in un orfanotrofio di salsete». Uscimmo nella stanca sera ed egli disse che aveva voglia di camminare. Eravamo arrivati sulla mia macchina e per una volta tanto ero riuscito a impadronirmi del conto prima di lui. Lo seguì con lo sguardo mentre si allontanava. La luce di una vetrina gli illuminò per un attimo i capelli bianchi, strappandone argente i riflessi mentre svaniva nella nebbia sottile. «Mi piaceva di più ubriaco, squaltrinato, affamato, avvilito e orgoglioso. Ma era proprio così? Forse preferivo farla parte del protettore. Era difficile capire da quali motivi fosse spinto. Nel mio mestiere c'è il momento delle domande e il momento in cui si lascia il cliente sul fuoco a lenta cottura finché non bolle. Ogni poliziotto in gamba lo sa. È un gioco che ha le sue regole, come la partita a scacchi o il pugilato. Certi tipi bisogna incalzarli e far loro perdere l'equilibrio. Altri occorre prenderli a pugni e finiscono per battersi anche loro. Mi avrebbe raccontato la storia della sua vita se glielo avessi chiesto, ma non gli domandai neppure in che modo fosse rimasto ferito al viso. Se glielo avessi domandato e me lo avesse detto, due vite si sarebbero salvate. Ma solo forse nulla di più. 4. L'ultima volta che bevemmo insieme in un bar fu in maggio e prima della solita ora, subito dopo le quattro. Terry sembrava stanco e più smunto, ma si guardò intorno con un sorriso lento e soddisfatto. Mi piacciono i bar non appena vengono aperti, quando l'aria dentro è ancora fresca e pulita e tutto è lustro e il barista si dà l'ultima occhiata allo specchio per vedere se ha la cravatta dritta e i capelli ben ravviati. Mi piacciono le bottiglie ben allineate sugli scaffali dietro al banco e i bei bicchieri scintillanti e il senso di aspettativa. Mi piace osservare il barista che riempie il primo bicchiere dal pomeriggio e lo mette sulla sottocoppa e vi posa accanto il tovagliolino ripiegato. Mi piace gustare ad agio il liquore, il primo sorso tranquillo nel pomeriggio di un bar silenzioso. È stupendo. Fui d'accordo con lui. L'alcol è come l'amore, disse. Il primo bacio è magico, il secondo intimo, il terzo un'abitudine e poi si spoglia la donna. È proprio così brutto? Gli domandai. È un'eccitazione molto intensa ma un'emozione impura, impura nel senso estetico. Non disprezzo il sesso, è necessario e non è detto che debba essere osceno, ma ha sempre bisogno di una messa in scena. Per renderlo affascinante occorre un'industria con capitali di miliardi di dollari e costa ogni centesimo di questi miliardi. Si guardò intorno e sbadigliò. Non ho dormito bene. È bello qui, ma fra poco gli ubriachi affolleranno il locale e parleranno a voce alta e rideranno. E le dannate femmine cominceranno ad agitare le mani, a voltarsi di qua e di là, a far tintinnare i loro maledetti braccialetti e a mettere a frutto forme procaciche più tardi nella serata. Avranno un lieve ma riconoscibilissimo odor di sudore. «Calmatevi», dissi. «E va bene, sono umane, sudano, si sporcano, devono andare al gabinetto. Che cosa vi aspettavate? Farfalle dorate in una rosea nebbia?» Vuotò il bicchiere e lo tenne capovolto e guardò una goccia fermarsi lenta sull'orlo e poi tremare e cadere. «Mi dispiace per lei», disse ad agio. «E' così irrimediabilmente cagna. Può darsi che anch'io ne sia innamorato in un certo qual modo remoto. Un giorno l'altro avrà bisogno di me e sarò l'unico tipo a starle intorno che non voglia approfittarsene. Molto probabilmente allora taglierò la corda». Mi limitai a fissarlo. «Vi date molto da fare per mettervi in buona luce», dissi dopo un attimo. «Sì, lo so. Sono debole di carattere, senza coraggio, senza ambizione. Un tipo come me non ha che un grande momento in vita sua. Un volteggio perfetto sul trapezio più alto. Poi passa il resto dei suoi giorni cercando di non cadere dal marciapiede nel rigagnolo». «A che cosa mira tutto questo discorso?» Mi tolsi di tasca la pipa e cominciai a caricarla. «Silvia è spaventata. Spaventata da morire. Di che cosa? Non lo so. Non parliamo più molto. Forse quel vecchio. Arlan Potter è un figlio di cane, un uomo spietato. Tutto dignità vittoriana alla superficie. Dentro è crudele come un giannizzero della Gestapo. Silvia è una sgualdrina. Lui lo sa e la odia e non può farci niente. Ma aspetta e tiene gli occhi aperti. E se mai Silvia dovesse restare coinvolta in un grosso scandalo, la spezzerebbe in due e seppellirebbe le due metà a mille chilometri l'una dall'altra». «Siete suo marito?» Alzò il bicchiere vuoto e lo abbassò con forza sull'orlo del tavolo. Si frantumò con un colpo secco. Il barista sbarrò gli occhi, ma non disse niente. «Così, amico, così!» «Oh, certo, sono il marito!» «Lo dice lo Stato civile!» «Sono i tre gradini di marmo e il grande portone verde e il battente di rame con il quale si bussa, un colpo lungo e due brevi, per essere ammessi dalla cameriera nella stanza di tolleranza da cento dollari». Mi alzai e misi un po' di denaro sul tavolo. «Parlate maledettamente troppo!» «E' maledettamente troppo di voi! Ci vedremo qualche altra volta!» Uscii lasciandolo seduto al tavolino, offeso e smorto, per quanto mi consentì di vedere la consueta illuminazione al neon dei bar. Mi gridò qualcosa, ma continuai a camminare. Dieci minuti dopo ero pentito, ma dieci minuti dopo mi trovavo altrove. Lui non si fece più vedere in ufficio. Mai più, non una sola volta. Lo avevo colpito nel vivo. Non lo rividi per un mese. Quando ricomparve, erano le cinque del mattino e cominciava appena a far giorno. Gli squilli insistenti del campanello mi strapparono dal letto. Corsi lungo il corridoio, attraversai la stanza di soggiorno e aprì la porta. Indossava un leggero soprabito col bavero alzato e sembrava che tremasse. L'attesa di un cappello scuro di feltro gli nascondeva gli occhi. Aveva in mano una rivoltella. 5. La rivoltella non era puntata contro di me. Si limitava a tenerla in mano. Si trattava di un'arma automatica di medio calibro, di fabbricazione estera, senza dubbio una colta o una savage. Con quella faccia bianca, con le cicatrici, col bavero alzato e la tesa del cappello abbassata e la rivoltella, sarebbe potuto saltar fuori da uno di quei film gialli all'antica che cercavano di spaventare a ogni incosto. Mi accompagnerete in automobili a Tijuana per prendere un aereo alle 10 e un quarto, disse. Ho il passaporto, il visto e ho pensato a tutto tranne che al mezzo di trasporto. Per certe mie ragioni non posso prendere il treno, un autobus o un aereo da Los Angeles. 500 dollari sarebbero un compenso ragionevole per una corsa fino a Tijuana. Rimasi sulla soglia e non mi scostai per lasciarlo entrare. 500 dollari più la rivoltella, domandai. Abbassò gli occhi sull'arma con un'espressione piuttosto remota, poi la lasciò scivolare nella tasca. Potrebbe essere una difesa, disse. Per voi, non per me. Entrate allora, mi scostai ed egli si fece avanti con mosse esauste e si lasciò cadere su una sedia. La stanza di soggiorno era ancora buia a causa delle folte piante che la proprietaria aveva lasciato crescere fino a nascondere le finestre. Feci scattare l'interruttore di una lampada da tavolo e gli chiesi una sigaretta. L'accesi, poi chinai gli occhi su di lui. Mi arruffai i capelli, che erano già arruffati. Atteggiai le labbra al solito e logoro sorriso. Che diavolo mi succede? Dormire in una mattinata così bella, alle 10 e un quarto, eh? Bene, ne abbiamo di tempo. Andiamo in cucina e preparerò un po' di caffè. Mi trovo in un guaio grosso, investigatore da strapazzo. Mi chiamava così per la prima volta, ma in un certo senso si armonizzò con lo stile del suo arrivo, con gli abiti che indossava, con la rivoltella e il resto. Sarà una giornata magnifica. C'è un lieve venticello. Sentite quei vecchi e grandi eucalipti dall'altra parte della strada bisbigliare fra loro? Parlano dei bei vecchi tempi in Australia, quando i canguri saltavano sotto i loro rami e gli orsetti koala si divertivano a farsi portare l'uno sulle spalle dell'altro. Sì, ho vagamente capito che eravate nei guai. Parliamone dopo che avrò bevuto un paio di tazze di caffè. Sono sempre un po' stordito quando mi sveglio. Andiamo a conferire col signor Huggins e il signor Young. Sentite, Marlowe, non è questo il momento di... Non abbiate paura, vecchio mio. Il signor Huggins e il signor Young sono ottime persone. Producono il caffè Huggins Young. Gli hanno dedicato l'intera vita. È il loro orgoglio e la loro gioia. Uno di questi giorni farò in modo che ottengano il meritato riconoscimento. Per adesso, dai loro sforzi, non hanno ricavato altro che quattrini. Non si può pretendere che ne siano soddisfatti. Lo lasciai dopo questa spiritosa ghiacchierata e andai in cucina. Misi l'acqua a scaldare, tolsi la caffettiera dalla mensola e vi misi il caffè macinato misurandolo con cura. L'acqua stava già fumando. Riempì la parte inferiore della macchinetta e la posai sul gas. Vi misi su la parte superiore e la feci fare un mezzo giro in modo che si abitasse. A questo punto Terry mi seguì. Si addossò per un attimo allo stipide della porta, poi girò intorno al tavolo e si lasciò scivolare sulla sedia. Tremava ancora. Presi sulla mensola una bottiglia di vecchio cognac e gliene versai una buona dose in un bicchiere grande. Sapevo che il bicchiere grande era necessario. Ciò nonostante, dovette servirsi di tutte e due le mani per accostarlo alle labbra. Inghiottì, posò il bicchiere con un tonfo e si appoggiò di colpo allo schienale facendo cigolare la sedia. Per poco non svenivo, bofonchiò. Si direbbe che sia in piedi da una settimana. Non ho chiuso occhio per tutta la notte. La caffettiera cominciava a gorgogliare. Abbassai la fiamma e guardai l'acqua che saliva. Rimase ferma per qualche attimo in fondo al tubo di vetro. Aumentai la fiamma quanto bastava per far superare all'acqua il gomito del tubo e subito la riabbassai. Rimestai il caffè macinato e lo coprì e regolai il timer in modo che suonasse di lì a tre minuti. Un tipo molto metodico, Marlow. Nulla doveva interferire col suo sistema di preparare il caffè. Neppure una rivoltella in mano a un disperato. Gli versai dell'altro cognac. Statevene lì seduto, dissi. Non dite una parola e restate dove siete. Beve la seconda dose con una mano sola. Mi lavai in fretta nel bagno e il campanello del timer trillò proprio mentre rientrava in cucina. Spensi il gas e posai la caffettiera sul tavolo. Perché riferisco tutti questi particolari? Perché l'atmosfera carica di tensione ingrandiva ogni piccola cosa. Faceva sì che ogni gesto acquistasse il risalto e sembrasse molto importante. Era uno di quei momenti di ipersensibilità in cui ogni movimento automatico, per quanto acquisito da lungo tempo, per quanto abituale, diviene un distinto atto della volontà. È come imparare a camminare dopo la poliomilite. Ogni minima mossa è nuova, assolutamente nuova. Il caffè era colato completamente e il vapore sfuggì con il solito sibilo e il nero liquido gorgogliò e poi la superficie ridivenne liscia. Tolsi la parte superiore della macchinetta e la posai sullo scolapiatti. Riempì due tazze e aggiunsi del cognac nella sua. Per voi caffè nero, Terry. Nella mia tazza misi due sollette di zucchero e un po' di panna. Cominciavo a sottrarmi all'incantesimo adesso. Avevo aperto il frigorifero e preso la panna senza essere consapevole di ogni mio movimento. Sedetti di fronte a lui, non si era mosso. Se restava così, rannecchiato nell'angolo della cucina, irrigidito. Poi, inaspettatamente, chinò la testa sul tavolo ed eccolo singhiozzare. Non vado affatto a me quando mi allungai verso di lui e gli tolsi la rivoltella dalla tasca. Era una Mauser calibro 7,65. Un gioiello. La fiutai. Non era stata adoperata. Estrasse il caricatore. Era pieno. Nessun proiettile in canna. Alzò la testa e vide il caffè e ne beve un poco ad agio, senza guardarmi. Non ho ucciso nessuno, disse. Beh, non recentemente in ogni modo. Sarebbe stato necessario pulire la coltella. Non credo che avreste potuto sparare a qualcuno con questa. Vi dirò tutto, mormorò. Aspettate un momento. Tranguggiai il caffè più in fretta che potei, compatibilmente con la sua temperatura. Poi tornai a riempirmi la tazza. La situazione è questa, dissi. Badate bene a ciò che mi direte. Se davvero volete che vi accompagna a Tijuana, ci sono due cose che non devo sapere. La prima... Mi state ascoltando? Annui in modo quasi impercettibile. Fissava con uno sguardo vacuo la parete sopra di me. Le cicatrici erano livide quel mattino. Aveva la pelle di un pallore quasi cadaverico, ma le cicatrici sembravano stagliarvisi sopra ugualmente. La prima, ripetei ad agio, è che se avete commesso un delitto o qualsiasi cosa ritenuta delittuosa dalla legge, un reato grave, si intende, io non devo saperlo. La seconda è che se sapete con certezza che un delitto del genere è stato commesso, io non devo essere informato neppure di questo. Se volete che vi porti a Tijuana. È chiaro? Mi fissò negli occhi. Mise a fuoco lo sguardo, ma era uno sguardo spento. Il caffè tuttavia cominciava ad agire. Era sempre pallido, ma non tremava più. Gli riempì di nuovo la tazza aggiungendovi il cognac, come prima. Vi ho detto che mi trovo in un guaio, mormorò. L'ho capito. Non voglio sapere che genere di guaio. Devo guadagnarmi da vivere e agire in modo che non mi tolgano la licenza. Potrei minacciarvi con la rivoltella, disse. Sorrisi e spinsi avanti l'arma sul tavolo. Abbassò gli occhi su di essa, ma non la toccò. Non potreste tenermi sotto la minaccia di questa rivoltella fino a Tijuana, Terry. Non riuscireste a farlo attraversando il confine, salendo la scaletta dell'aereo. Sapete, di quando in quando mi capita l'occasione di adoperare questi aggeggi. Non parliamone più della rivoltella. Farei una bella figura se dicesse ai poliziotti che mi avete costretto ad agire come volevate voi. Ammesso naturalmente, e questo non lo so, che ci sia qualcosa da dire alla polizia. Sentite, disse, fino a mezzogiorno o anche a un'ora più tarda di mezzogiorno nessuno andrà a bussare alla porta. La servitù sa bene che non deve disturbarla quando dorme fino a tardi. Ma verso mezzogiorno la sua cameriera busserà all'uscio ed entrerà. Lei non sarà in camera sua. Continuai a sorbire il caffè, non dissi nulla. La cameriera vedrà che il letto è rimasto intatto, continuò. Allora le verrà in mente di andare a cercarla altrove. C'è un vasto padiglione degli ospiti, piuttosto lontano dalla villa. Ha un suo viale d'accesso. Un'auto rimessa e via dicendo. Silvia vi ha trascorso la notte. La cameriera finirà col trovarla lì. Mi accigliai. Devo essere molto cauto nella scelta delle domande da farvi, Terry. Non potrebbe aver trascorso la notte fuori di casa? Avrà lasciato i vestiti sparsi per tutta la stanza. Non mette a posto mai nulla. La cameriera si renderà conto che si è infilata una vestaglia sul pigiama e che di conseguenza può essere soltanto nel padiglione degli ospiti. Non necessariamente, dissi. Può trovarsi soltanto lì. Diavolo, credete che non sappiano che cosa succede nel padiglione degli ospiti? La servitù sa sempre tutto. Andate avanti, dissi. Si passò un dito sulla guancia non segnata dalle cicatrici con tanta forza da lasciarvi una striscia rossa. È nel padiglione degli ospiti, continuò ad agio. La cameriera troverà. Troverà Silvia, ubriaca, fradicia, paralizzata, incosciente, congelata fino alle sopracciglia. Lo interruppi con voce aspra. Oh, riflettè profondamente. Certo, soggiunse. Proprio così. Silvia regge bene all'alcol. Quando supera i limiti, le sue sono autentiche sbornie. E con questo non c'è altro da dire, osservai. Oh, quasi. Consentitemi di improvvisare. L'ultima volta in cui ci trovammo insieme in un bar. Fui un po' rude con voi. Vi piantai in asso, se ve ne ricordate. Mi avevate dato i nervi in un modo infernale. Riflettendoci, in seguito, mi resi conto che vi sforzavate soltanto di sottrarvi col cinismo alla sensazione del disastro. Dite di avere il passaporto e il visto. Occorre un po' di tempo per ottenere il visto per il Messico. Non lasciano entrare chiunque. Di conseguenza, avevate progettato di prendere il volo da qualche tempo. Mi domandavo appunto fino a quando avreste resistito. Credo di aver sentito il vago obbligo di restarli vicino, di essermi illuso che avrebbe avuto bisogno di me e non soltanto come un paravento per impedire al vecchio di ficcare il naso troppo nelle sue faccende. A proposito, ho tentato di telefonarvi due volte stanotte. Dormo profondamente. Non ho sentito. Poi sono andato in un bagno turco, restandovi per un paio d'ore. Ho fatto un bagno di vapore, un tuffo, una doccia, il massaggio e un paio di telefonati da lì. Ho lasciato l'automobile alla Brea e Fontaine. Sono venuto a piedi. Nessuno mi ha visto svoltare in questa strada. Possono interessarmi le telefonate? Una era per Arlan Potter. Il vecchio è andato ieri a Pasadena in aereo per certi affari. Non si trovava a casa. Non è stato facile avere la comunicazione, ma infine mi ha parlato. Gli ho detto che ero spiacente, ma che partivo. Guardò di sbieco, pronunciando queste parole, osservando la finestra dietro il lavandino e il cespuglio che frusciava contro la rete metallica. Come l'ha presa? Era addolorato. Mi ha augurato buona fortuna. Ha domandato se avevo bisogno di denaro. Terry fece una risata rauca. Denaro? Sono le prime sei lettere del suo alfabeto. Gli ho detto che ne avevo in abbondanza. Poi ho telefonato alla sorella di Silvia. La conversazione è stata pressappoco identica. Non c'è altro. Desidero domandarvi una cosa, disse. L'avete mai sorpresa con un uomo nel padiglione degli ospiti? Crollò il capo. Non ci ho mai provato. Non sarebbe stato difficile. Non lo fu mai. Il caffè sta diventando freddo. Non ne voglio più. Uomini a non finire, eh? Ma siete tornato e l'avete risposata. Mi rendo conto che è molto appetibile. Eppure sono un imbecille, ve l'ho detto. Diavolo, perché la lasciai la prima volta? Perché in seguito mi sentì un vigliacco ogni volta che la rividi? Perché preferì rotolarmi nelle fogne piuttosto che chiederle del denaro? Si è sposata cinque volte, escluso me, e tutti gli ex mariti sarebbero dispostissimi a occorrere a un cenno del suo ditino, e non soltanto per i milioni che possiede. È davvero appetibile, dissi. Guardai l'orologio. Perché dovete partire proprio alle dieci e un quarto da Tijuana? C'è sempre posto su quell'aereo. A Los Angeles nessuno vuole sorvolare le montagne con un DC-3 quando è possibile prendere un coni e arrivare in sette ore a città del Messico. Ma i coni non si fermano dove voglio andare io. Mi alzai e mi appoggiai al tavolino. Ora tiriamo le somme e non interrompetemi. Siete venuto qui stamane molto sconvolto, chiedendomi di accompagnarvi a Tijuana a prendere un aereo. Avevate la rivoltella in tasca, ma non è necessario che me ne sia accorto. Mi avete detto di aver sopportato il più possibile di essere giunto al limite della pazienza. Avete trovato vostra moglie ubriaca fradicia dopo essere stata in compagnia di un uomo. Siete uscito di casa recandovi al bagno turco per far passare il tempo fino a stamane e avete telefonato al padre e alla sorella di vostra moglie per avvertirli di ciò che stavate per fare. Dove eravate diretto non era affar mio. Avevate i documenti necessari per entrare nel Messico. Neppure le ragioni della vostra partenza mi riguardavano. Siamo amici e ho fatto quanto mi avevate chiesto senza pensarci su troppo. Perché non avrei dovuto accontentarvi? Non mi avete dato un soldo? Avevate l'automobile ma eravate troppo sconvolto per poter guidare? Anche questo è affar vostro. Siete un tipo emotivo e avete riportato una grave ferita di guerra. Credo che dovrò andare a prendere la vostra automobile e lasciarla in autorimessa. Si frugò in tasca e spinse verso di me sul tavolo un portachiavi. Sembra credibile? Domandò. Dipende da chi ascolta. Non ho finito. Non avevate preso nulla tranne gli abiti che indossavate e un po' di denaro avuto da vostro suocero. Avevate lasciato tutti i regali avuti da lei compresa quella meravigliosa macchina parcheggiata alla Brea e Funtain. Volevate andarvene il più pulito che fosse possibile. D'accordo dirò così ora vado a sbarbarmi e a vestirvi. Perché fate questo Marlow? Versatevi da bere mentre mi faccio la barba. Uscì lasciandolo seduto e rannicchiato nell'angolo della cucina. Aveva ancora il cappello e il soprabito ma sembrava molto più rianimato. Entrai nel bagno e mi sbarbai. Ero in camera da letto e mi stavo annodando la cravatta quando si affacciò sulla soglia. Ho lavato le tazze nel caso che... disse. Ma ho riflettuto. Forse fareste meglio a chiamare la polizia. Chiamatela voi. Non ho niente da dire. Volete che lo faccia? Girai sui tacchi e gli scoccai un'occhiata cattiva. Maledizione! Urlai quasi. Cristo non potete piantarla! Mi dispiace. Certo che vi dispiace. I tipi come voi si pentolano sempre e sempre troppo tardi. Si voltò e tornò lungo il corridoio nella sala di soggiorno. Terminai di vestirmi e andè a chiudere a chiave l'ingresso di servizio. Quando entrai nella stanza di soggiorno si era assopito su una sedia, la testa reclinata da una parte e la faccia esangue. Completamente affranto dalla stanchezza. Faceva pena. Gli toccai la spalla e si destò ad agio come se una distanza infinita lo separasse da me. Quando vidi che la mente gli si era snebbiata, dissi. Non ci vorrebbe una valigia? Ho ancora quella chiara di cinghiale nell'armadio. È vuota, disse con indifferenza. E poi è troppo vistosa. Senza valigia attirereste ancora di più l'attenzione. Tornai in camera da letto, apri l'armadio, mi alzai in punta di piedi e tolsi la valigia di cinghiale dallo scaffale alto. Il rivestimento di legno compensato che rifiniva in alto l'armadio a muro era movibile. Lo sollevai, mi allungai il più possibile e lasciai cadere il portachiavi di cuoio dietro una delle polverose assicelle di sostegno. Posai la valigia sul pavimento, la spolverai e vi gettai dentro un po' di roba. Due pigiama che non avevo mai indossato, un tubetto di dentifricio, il mio spazzolino da denti di riserva, un paio di asciugamani di poco valore, una mezza dozzina di fazzolette di cotone, un tubetto di crema da barba da 15 centesimi di dollaro e uno di quei rasoi di sicurezza che vengono dati in omaggio insieme alle lamette. Tutti oggetti nuovi, senza iniziale e tali da non attrarre l'attenzione, se si eccettua il fatto che qualora fossero realmente appartenuti a lui sarebbero stati migliori. Aggiunsi al resto una pinta di whisky ancora nel suo involucro. Chiusi la valigia, lasciai la chiave in una delle serrature e la portai di là. Terry si era riaddormentato. Apri la porta senza destarlo, portai la valigia in garage, la misi sul mio macinino scoperto dietro il sedile anteriore. Portai fuori la macchina, chiusi a chiave il garage e sali in casa per svegliare Terry. Chiusi anche la porta e partimmo. Guidai in fretta, ma non tanto da essere inseguito da qualche pattuglia della pulizia stradale. Lungo il tragetto parlammo appena e neppure ci fermammo per mangiare qualcosa. Non avevamo tempo abbastanza. Al confine non ci fermammo. Sulla mesa, l'altipiano spazzato dal vento dove si trova l'aeroporto di Tiguana, parcheggiai la macchina accanto agli uffici dell'aeroporto. Rimasi seduto al volante osservando Terry che acquistava il biglietto. Le eliche del DC-3 erano già in moto, a basso regime quanto bastava per riscaldare i motori. Il pilota, un bell'uomo alto in uniforme grigia, conversava con un gruppo di quattro persone. Uno dei suoi interlocutori era alto più di un metro e ottanta e aveva con sé un fucile da caccia nella sua fodera. Gli stavano accanto una ragazza in pantaloni, un uomo piccoletto di mezza età e una donna dai capelli grigi, tanto alta da far sembrare quest'ultimo un anerottolo. Vicino al gruppo si trovavano inoltre altri tre o quattro individui, evidentemente messicani. Sembrava che i passeggeri fossero tutti lì. La scaletta era già stata accostata allo sportello ma nessuno si dimostrava ansioso di salire sull'aereo. Poi un cameriere di bordo messicano discese la scaletta e rimase accanto a essa in attesa. A quel che pareva mancava un impianto di altoparlanti. I messicani salirono sull'aereo ma il pilota continuò a chiacchierare con gli americani. C'era una grossa pacard parcheggiata accanto alla mia macchina. Discesi e andai a dare un'occhiata al permesso di circolazione nel cassetto del cruscotto. Forse un giorno o l'altro imparerò a badare i fatti miei. Mentre tiravo fuori la testa vidi che la donna alta di statura mi fissava. Poi Terry si avvicinò attraversando il viale polveroso. Tutto fatto disse è giunto il momento di dirci addio. Tese la mano e gliela strenzi. Sembrava del tutto rimesso ora. Era solo stanco enormemente stanco. Sollevai la valigia di cinghiale dalla holz e la posai a terra. La fissò rabbioso. Vi avevo detto che non la volevo scattò. C'è dentro una buona pinta di whisky Terry e anche di pigiama e altra roba. Tutti oggetti anonimi. Se non la volete lasciatela in deposito oppure gettate la via. Ho le mie buone ragioni disse il ritato. E io pure. A un tratto sorrise afferrò la valigia e mi strinse il braccio con la mano libera. Sta bene amico siete voi il capo e ricordate se le cose si mettessero male avete mano libera. Non mi dovete niente. Abbiamo bevuto insieme qualche volta. Siamo diventati amici e io ho parlato troppo di me stesso. Ho lasciato cinque biglietti da cento dollari nel barattolo del caffè. Non vi arrabbiate. Preferirei che non lo aveste fatto. Non riuscirò mai a spendere la metà di quello che ho. In bocca al lupo Terry. I due messicani stavano salendo la scaletta dell'aereo. Un tipo tozzo dalla faccia larga e bruna uscì dalla porta dell'ufficio. Fece gesti con le braccia e indicò l'aereo. Salite a bordo. Dissi. So che non l'avete uccisa. Per questo mi trovo qui. Mi dispiace. Fece lui in tono appaccato. Ma vi sbagliate. Mi avvicinerò molto ad agio all'aereo. Avrete tutto il tempo di fermarmi. Si avviò e io lo seguì con lo sguardo. Il tipo sulla soglia dell'ufficio aspettava ma senza troppa impazienza. I messicani si impazientiscono molto di rado. Si chinò. Toccò la valigia di cinghiale e sorrise a Terry. Poi si fece da parte e Terry varcò la soglia. Di lì a poco uscì dalla porta opposta dove si trovavano quelli della dogana quando si arriva. Si diresse sempre a passi lenti verso la scaletta. Giunto accanto a essa si fermò e si voltò a guardarmi. Non fece un cenno né salutò con la mano. E io mi regolai nello stesso modo. Poi salì sull'aereo e la scaletta venne tolta. Salì sulla holz e accesi il motore. Feci marcia indietro e voltai e attraversai una metà del parcheggio. La donna alta e l'uomo piccoletto si trovavano ancora sul campo. La donna sventolava un fazzoletto. L'aereo cominciò a spostarsi verso l'estremità della pista alzando nuvole di polvere. L'ha giunto, voltò e i motori furono spinti al massimo con un rombotonante. L'apparecchio cominciò ad avanzare guadagnando lentamente velocità. La polvere si levo turbinando dietro l'aereo. Infine, eccolo in aria. Lo guardai sollevarsi ad agio nel vento e svanire nel nudo cielo azzurro a sud-est. Poi me ne andai. Al posto di frontiera, nessuno mi degnò di uno sguardo. Come se la mia faccia avesse la stessa importanza delle lancette di un orologio. 6. Il tragitto da Tijuana è lungo. È uno degli itinerari più tediosi dello Stato. Tijuana è insignificante. Laggiù non pensano ad altro che ai quattrini. Il ragazzotto che si avvicina alla tua macchina ti guarda con gli occhi grandi e luttuosi e ti dice, un ventino per piacere, signore. Cercherà un attimo dopo di venderti la sorella. Tijuana non è il Messico. Nessuna cittadina di confine può essere più di questo. Una cittadina di confine come non esiste porto che sia qualcosa più di un porto. San Diego, uno dei più bei porti del mondo e in esso non vedi altro che navi e qualche peschereccio. Di notte e fiabbesco, la risacca canta con la stessa dolcezza di una vecchia signora che intoni un inno. Ma Marlow deve tornare a casa a contare i cucchiaini d'argento. La strada al nord è monotona, quanto una nenia di marinai. Attraversi una cittadina, discendi la china di un colle, passi lungo un tratto di spiaggia e poi di nuovo ecco una cittadina, la china di un colle e un tratto di spiaggia. Erano le due quando arrivai ed essi mi aspettavano in una macchina scura, chiusa, senza la targa della polizia, senza il fanalino rosso. C'era soltanto la doppia antenna, ma non sono esclusivamente le macchine della polizia ad averla. Mi trovavo già a metà della rampa di scale quando scesero e mi diedero una voce. La solita coppia di agenti con i soliti vestiti e la consueta, rigida disinvoltura di movimenti. Quasi che il mondo intero aspettasse, pavido e azzettito, di sentirsi dire da loro che cosa deve fare. «Vi chiamate Marlow? Vogliamo parlarvi!» Uno dei due mi lasciò intravedere il luccichio di un distintivo. Per quello che riuscì a scorgerne avrebbe potuto far parte del servizio sanitario. Aveva i capelli di un biondo grigiastro e sembrava prepotente. Il suo compagno era alto, di bell'aspetto, pulito, con un'aria di precisa malvagità, un mascalzone colto. Avevano occhi penetranti e sornioni, pazienti e cauti, occhi freddi e sdegnosi, occhi da poliziotto. Diventano così a furia di essere passati in rivista prima della libera uscita alla scuola di polizia. «Sergente Green, della squadra centrale omicidi!» e indicando il collega, «L'agente Dayton!» Continuai a salire e aprì la porta. Non si stringe la mano a pezzi grossi della polizia cittadina. Sarebbe una intimità eccessiva. Si misero a sedere nella stanza di soggiorno. Spalancai le finestre. La brezza sussurrava. Fu Green a parlare. «Un tale a nome Terry Lennox! Lo conoscete, eh?» «Beviamo qualcosa in compagnia, di quando in quando. Abita a Enzino, ha sposato un'ereditiera, mai stato a casa sua.» «Di quando in quando?» disse Green, «con quale frequenza?» «È un'espressione vaga, lo so, l'ho scelta apposta. Possiamo esserci trovati una volta alla settimana o una volta ogni due mesi.» «Avete conosciuto sua moglie?» «Una volta, molto fuggevolmente, prima che si risposassero.» «Quando e dove lo avete visto l'ultima volta?» Presi la pipa sul tavolino e la caricai. Green si sporgeva in avanti, quasi sfiorandomi. Quello più alto si appoggiava allo schienale tenendo la punta della penna a sfera appoggiata a un tacquino dall'orlo rosso. «A questo punto dovrei dire perché tante domande?» «E voi rispondereste, spetta a noi interrogare.» «E allora limitatevi a rispondere, eh?» Accesi la pipa. Il tabacco era un po' troppo umido. Mi occorsero tre fiammiferi e un po' di tempo, prima che si accendesse a dovere. «Il tempo non mi mancava», disse Green, «ma già ne ho adoperato parecchio aspettando che arrivaste.» «E dunque fuori, amico! Sappiamo chi siete e voi sapete che non ci troviamo qui per divertirci.» «Stavo solo riflettendo», dissi. «Andavamo piuttosto spesso al Victor e non tanto spesso alla Lanterna Verde, al Toro e Orso e quel locale in fondo allo strip che si sforza di aver l'aria di una locanda inglese.» «Piantatela di tergiversare!» «Chi è morto?» domandai. L'agente Dighton aprì bocca. Aveva una voce dura, matura, una di quelle voci che avvertono non cercare di farmi fesso. «Limitatevi a rispondere alle domande, Marlow. Stiamo conducendo un'inchiesta. Non è necessario che sappiate altro.» Forse era stanco e irritabile. Forse mi sentivo un po' in colpa. Avrei potuto odiare quel tipo senza neppure conoscerlo. Mi sarebbe bastato dargli un'occhiata ed essere preso dal desiderio di fargli cadere i denti con un calcio. «Finitela, amico!» dissi. «Mettete da parte queste maniere per il tribunale dei minorenni. Anche per loro sono come il raglio di un asino.» Green ridacchiò. E sul volto di Dighton nulla mutò che fosse percettibile, ma di colpo parve più vecchio di dieci anni e di vent'anni più repellente. Il respiro, passandogli per il naso, sibilò un poco. «E' stato abilitato alla professione legale», disse Green. «Non si può menare il camperlaia con Dighton.» Mi alzai ad agio e mi avvicinai alla libreria. Tolsi dallo scaffale il volume rilegato del codice penale della California. lo porsi a Dighton. «Vorreste essere così cortese da trovarmi il paragrafo in cui si dice che devo rispondere alle domande?» Si teneva del tutto immobile, stava per picchiarmi e lo sapevamo entrambi, ma intendeva aspettare il momento opportuno. Questo significava che non era certo di essere spalleggiato da Green se fosse uscito dai limiti. Disse «Ogni cittadino ha il dovere di collaborare con la polizia, in qualsiasi modo, anche mediante un'azione fisica e particolarmente rispondendo a qualsiasi domanda di natura non incriminante che la polizia ritenga necessario porre.» Pronunciò queste parole con voce dura, enfatica e recisa. «Succede così?» dissi. «Quasi sempre in seguito a intimidazioni indirette o dirette. Legalmente quest'obbligo non esiste. nessuno ha obbligo di parlare con la polizia, in qualsiasi momento o in qualsiasi luogo.» «Oh, chiudete il becco!» disse Green spazientito. «State tergiversando e lo sapete benissimo. Sedetevi! La moglie di Lennox è stata assassinata, in un padiglione per gli ospiti nella villa di Ensino. Lennox ha tagliato la corda, o comunque non si riesce a trovarlo. Di conseguenza stiamo cercando un uomo sospetto di assassinio. Siete soddisfatto?» Gettai il codice su una sedia e tornai a mettermi sul divano, sedendo dall'altra parte del tavolino di fronte a Green. «E allora perché venite da me?» domandai. «Non sono mai stato in quella casa, ve l'ho già detto.» Green si accarezzò le cosce su e giù, su e giù. Mi sorrise tranquillo. Dayton si teneva immobile sulla sedia e mi trapassava con lo sguardo. «Perché il vostro numero di telefono è stato scritto su un taccuino in camera sua nelle ultime 24 ore», disse Green. «È un taccuino in cui segna gli appuntamenti, un calendario da tavolo, e il foglietto di ieri è stato strappato, ma i numeri sono rimasti impressi in quello di oggi. Non sappiamo quando vi abbia telefonato, non sappiamo dove sia andato, o perché o quando, ma dobbiamo chiedercelo.» «Perché nel padiglione degli ospiti?» domandai senza aspettarmi che rispondesse. E invece rispose. Arrossì un poco. «Sembra che lei vi andasse molto di frequente durante la notte. Riceveva visitatori. La servitù riesce a vedere attraverso gli alberi quando la luce è accesa. Le automobili vanno e vengono. A volte tardi, a volte tardissimo. Quel che è troppo è troppo, no? Non illudetevi.» Lennox è l'uomo che cerchiamo. Andò da quella parte verso l'una del mattino, fu visto per caso dal maggiordomo. Tornò indietro solo, una ventina di minuti dopo, forse. Poi non accadde altro. La luce restò accesa. Stamane di Lennox neanche l'ombra. Il maggiordomo va nel padiglione degli ospiti. La signora è nuda come una sirena sul letto e posso dirvi che il maggiordomo non l'ha riconosciuta dal viso. Praticamente non ha più la faccia. La testa è stata sfracellata con una statuetta di bronzo che rappresenta una scimmia. «Terry Lennox non è capace di fare una cosa simile», disse. «Sì, è vero. Lei lo ingannava. È una storia vecchia. Lo ha sempre ingannato. Avevano divorziato e si erano risposati. Ma credo che il matrimonio lo avesse reso felice. Ma perché avrebbe dovuto prendersela proprio adesso?» «Nessuno può saperlo», rispose Green con pazienza. «Succede ogni momento, tanto agli uomini quanto alle donne. Uno manda giù, manda giù e manda giù. Poi basta. Probabilmente egli stesso non sa perché perde il lume della ragione proprio in quel particolare momento. Comunque lo perde e ci scappa il morto. E così noi entriamo in azione. E così vi facciamo una semplice domanda. E così finitela di menare il camperlaia o vi portiamo dentro». «Non vi risponderà, sergente», disse Dayton acido. «Ha letto quel codice. E come un sacco di gente che legge il codice, crede che la legge sia quello». «Voi prendete appunti», disse Green, «e lasciate riposare il cervello. Se davvero siete tanto abile, vi permetteremo di cantare un inno nella sala di riunioni della polizia». «Andate all'inferno, sergente, se posso dirlo con il dovuto rispetto per il vostro grado». «Picchiatevi, voi due», disse a Green. «Lo prenderò fra le braccia quando cadrà». Dayton posò il taccuino e mise con gran cura la penna a sfera accanto a esso. Si alzò con una vivida luce negli occhi, si avvicinò e venne a piantarmisi di fronte. «In piedi, furbone! Non crediate che mi lasci insultare da un insetto come voi solo perché ho frequentato l'università!» Cominciai ad alzarmi. Non ero ancora ben equilibrato quando mi colpì. Un gancio sinistro, subito doppiato con un destro. Squillarono campanelli, ma non era per la cena. Ricaddi a sedere di colpo e scossi il capo. Dayton era sempre di fronte a me. Sorrideva adesso. «Riproviamoci», disse. «Questa volta non eravate pronto. Non ci siamo trovati in condizioni di parità». Guardai Green. Si stava fissando il pollice come se studiasse una pellicina sull'unghia. Non mi mossi né parlai aspettando che alzasse gli occhi. Se mi fossi rimesso in piedi, Dayton mi avrebbe colpito una seconda volta. Poteva colpirmi ancora in ogni caso. Ma se mi fossi alzato e mi avesse colpito, lo avrei fatto a pezzi, perché i suoi pugli dimostravano come fosse un pugile di scuola. Li piazzava nel punto giusto, ma ce ne sarebbero voluti molti per mettermi fuori combattimento. E in tono quasi assente, Green osservò. «Buon lavoro, Billy, ragazzo mio. Gli avete dato proprio quello che voleva, una lezione coi fiocchi». Poi alzò gli occhi e disse blando. «Riproviamo, tanto per rispettare la forma, Marlowe. Quando vedeste Terry Lennox per l'ultima volta? Dove e come? Di che cosa parlaste e da dove venivate poco fa? Sì o no?» Dayton aveva assunto un atteggiamento più rilassato, ma in equilibrio perfetto. Aveva una molle dolce luce negli occhi. «E l'altro tipo?» domandai ignorandolo. «Quale altro tipo?» «Quello nella stalla, nel padiglione degli ospiti. Era completamente nuda. Non verrete a dirmi che si trovava lì per fare un solitario?» «Questo lo si vedrà dopo, quando avremo preso il marito». «Splendido, ma non sarà un po' scomodo, tanto più che avete già qualcun altro da cercare?» «Se non parlatevi, portiamo dentro, Marlowe!» «Come testimone oculare?» «Come testimone un corno!» «Come sospetto, sospetto di complicità dopo il delitto, per aver aiutato un indiziato a fuggire. Secondo me avete portato quel tale in qualche posto. E per il momento una supposizione mi basta. Il capo è severo in questi giorni. Conosce il codice, ma è incline alle amnesie. Potrebbe essere un guaio per voi. In un modo o nell'altro vi faremo parlare. E più sarà difficile riuscirvi, più è certo che ci sarà utile». «Tutto fiato sprecato con lui!» disse Dighton. «Conosce il codice!» «Tutti credono che sia sprecato!» disse Green, calmo. «Ma funziona sempre, Marlowe! Vi arresto!» «E va bene», dissi. «Arrestatemi. Terry Lennox era mio amico. Ho investito in lui una certa quantità di sentimento. Quanto basta per non gettarlo al vento solo per far piacere a un poliziotto. Avete degli indizi contro di lui? Forse più di quanto non mi abbiate detto. Il movente, l'occasione e il fatto che ha tagliato la corda. Il movente è una vecchia storia, neutralizzata da tempo, divenuta quasi parte di un accordo. Non li ammiro certi accordi, ma quel ragazzo è fatto così. Un po' debole e molto buono. Il resto non significa un bel niente, eccettuato il fatto che egli sapeva della morte di sua moglie e si rendeva conto di essere per voi un comodo bersaglio. All'inchiesta, se ce ne sarà una e se mi interrogeranno, dovrò rispondere alle domande. Mi rendo conto che siete un brav'uomo, Green, proprio come mi rendo conto che il vostro collega è uno dei tanti maledetti pietipiatti affetti da un complesso di superiorità. Se davvero volete cacciarmi in un guaio grosso, permettetegli di colpirmi ancora. Gli romperò le ossa». Green si alzò e mi guardò con aria afflitta. Dayton non si era mosso. Un tipo coriaceo, a senso unico, uno di quelli che prima di grattarsi la schiena devono avere il tempo di riflettere. «Farà una telefonata», disse Green, «ma so già quale sarà la risposta. Siete nei pasticci, Marlow, pasticci grossi. Toglietevi dai piedi e andate all'inferno». Queste ultime parole erano rivolte a Dayton. Dayton girò sui tacchi, tornò indietro e riprese il tacquino. Green si avvicinò al telefono e sollevò ad agio il ricevitore, col volto bonario atteggiato a quella sua lenta, pesante espressione di rincrescimento. «Questo è il guaio con i poliziotti. Siete dispostissimi a odiarli a morte e poi ne incontrate uno che vi ispira simpatia». E il capitano disse di portarmi dentro e senza complimenti. Mi misero le manette. Non perquisirono la casa, che sembrava lasciarli del tutto indifferenti. Forse mi giudicavano troppo esperto perché potessi nascondervi qualcosa di compromettente. E in ciò si sbagliavano. Ricerche accurate avrebbero fatto saltar fuori le chiavi dell'automobile e quando la macchina fosse stata trovata, come prima o poi sarebbe accaduto, avrebbero accertato che quelle erano le sue chiavi e che Terry era stato con me. In realtà, come si seppe in seguito, la scoperta delle chiavi non avrebbe avuto alcuna importanza. L'automobile non fu mai trovata dalla polizia. Venne rubata durante la notte, portata con ogni probabilità a El Paso, munita di nuove chiavi e documenti falsi e infine posta in vendita a città del Messico. È un sistema comunissimo. La maggior parte dei proventi torna allo Stato sotto forma di eroina. Tutto questo rientra nella politica del buon vicinato, come la concepiscono i delinquenti. 7. Il capo della squadra omicidi era quell'anno un certo capitano Gregorius, un tipo di poliziotto che va facendosi più raro, ma non si è affatto estinto. Uno di quelli che risolvono i delitti con le luci abbaglianti, i manganelli di gomma, i calci nelle reni, le ginocchiate al linguine, i pugni al plesso solare, le bastonate alla base della spina dorsale. Sei mesi dopo fu denunciato per falso, estromesso dalla polizia senza processo e in seguito venne calpestato a morte da un grosso stallone nella sua fattoria del Wyoming. In quel momento ero la sua vittima. Sedeva dietro la scrivania senza giacca con le maniche della camicia rimboccate fino alle spalle. Era calvo come un mattone e stava mettendo su pancia come tutti gli uomini muscolosi arrivati a una certa età. Aveva gli occhi di un grigio pesce. Il grosso naso era tutto un ricamo di vasi capillari rotti. Stava sorbendo una tazza di caffè con gesti nervosi. Aveva il dorso delle tozze, forti mani, folto di pelo e ciuffetti di peli grigiastri gli sporgevano dalle orecchie. Annaspò sulla scrivania spostando alcune carte e guardò Green. Green disse abbiamo ottenuto un solo risultato capo. Non vuole parlare. Il numero telefonico ne fa un indiziato. È arrivato in macchina e non dice dove è andato. Conosce molto bene l'ennoxa e non vuole dire quando lo ha visto l'ultima volta. Crede di essere un duro disse Gregorius con l'indifferenza. Potremmo fargli cambiare idea. Pronunciò queste parole quasi se ne infischiasse e probabilmente se ne infischiava davvero. Nessuno era abbastanza in gamba per lui. Il fatto è che il procuratore distrettuale fiuta un gran numero di grossi titoli per questa faccenda e non ha torto se si pensa chi è il padre della donna. Sarà bene pizzicare per lui questo messere. Mi guardò come se fossi un mozzicone di sigaretta, una sedia vuota. Un oggetto qualsiasi capitato gli dinanzi agli occhi che non rivestiva per lui il minimo interesse. In tono rispettoso Dayton disse. Appare chiaro che tutto il suo atteggiamento ha avuto lo scopo di determinare una situazione in cui potesse rifiutarsi di parlare. Ha citato la legge a suo favore e mi ha provocato inducendomi a percuoterlo. Gregorius lo sbirciò gelido. Deve essere facile provocarvi se ci riesce questo imbecille. Chi gli ha tolto le manette? Green disse di essere stato lui. Rimettetegliele disse Gregorius. Strette fate in modo che si svegli. Green mi rimise le manette o meglio si accinse a rimettermele. Dietro la schiena! Abbaiò Gregorius. Green mi ammanettò i polsi dietro la schiena. Sedevo su una dura sedia. Più strette! disse Gregorius. Che lo mordano! Green streinse ancora. Cominciai a sentirmi le mani interpidite. Finalmente Gregorius mi guardò. Ora potete parlare e non tirate per le lunghe. Non risposi. Si appoggiò allo schienale e soghignò. La mano di lui si allungò ad agio verso la tazza del caffè e la strinse. Si chinò un poco in avanti. La tazza partì ma mi sottrassi a essa gettandomi di lato giù dalla sedia. Caddi con violenza sulla spalla, rotolai su me stesso e mi rialzai ad agio. Avevo ormai le mani completamente intorpidite. Avevano perduto il senso del tatto. Le braccia sopra le manette cominciavano a dolermi. Green mi aiutò a rimettermi a sedere. Il caffè aveva bagnato in parte lo schienale e il fondo della sedia ma per la maggior parte si era versato sul pavimento. Il caffè non gli piace, disse Gregorius. È svelto, si muove rapidamente, ha buoni riflessi. Nessuno fiatò. Gregorius mi fissava con quei suoi occhi da pesce. Qui dentro, amico, una licenza da investigatore privato non ha più importanza di un biglietto da visita e adesso fuori questa dichiarazione in un primo momento verbale. La trascriveremo in seguito e che sia completa. Dateci, diciamo, un resoconto completo dei vostri movimenti a partire dalle dieci di ieri sera. Dico completo. Questo ufficio sta svolgendo indagini su un assassino e il principale indiziato è irreperibile. Voi siete in qualche modo in rapporto con lui. Sorprende la moglie con un altro e le riduce la testa a una poltiglia di carne viva, di ossa e di capelli inzoppati di sangue. Con la solita statuetta di bronzo, la nostra vecchia conoscenza, non è originale ma funziona. Se pensate che un dannato investigatore privato possa venire qui a citarmi la legge in un caso del genere, caro il mio uomo, state per passarvela molto brutta. In questo paese non c'è polizia che possa svolgere il suo compito sfogliando il codice. Voi siete a conoscenza di certi fatti e io li voglio. Avreste potuto negare e io avrei potuto non credervi, ma non avete neppure negato. A me non la date a bere, amico mio, siatene certo. Avanti, parlate. Mi farete togliere le manette, capitano? Domandai. Se facessi una dichiarazione, voglio dire. Potrebbe darsi, siate breve. Se vi dicessi che nelle ultime ventiquattro ore non ho veduto l'ennox, che non gli ho parlato e non ho idea di dove possa trovarsi, questo vi soddisferebbe, capitano? Forse, se vi credessi. Se vi dicessi che l'ho veduto e dove e quando, ma senza sapere che aveva assassinato qualcuno o che un delitto era stato commesso e per di più, che non ho idea di dove possa trovarsi in questo momento, non ne sareste affatto soddisfatto, vero? Se mi deste maggiori particolari potrei ascoltare. Se diceste dove, quando, che aspetto aveva, di che cosa avete parlato, dove era diretto, si potrebbe approdare a qualcosa. Con i vostri sistemi, dissi, si approderebbe probabilmente a fare di me un complice. Gli si gonfiarono i muscoli della mascella. Aveva gli occhi di un ghiaccio sporco. E allora? Non so, dissi. Vorrei consultarmi con un avvocato. Sarei disposto a collaborare. Che ne direste se facessimo venire qui qualcuno dall'ufficio del procuratore distrettuale? Fece udire una breve, rauca risata, ma smise subito. Si alzò ad agio e girò intorno alla scrivania. Si chinò verso di me, con una delle manacce sul piano della scrivania e sorrise. Poi, senza mutare espressione, mi colpì sul lato del collo con un pugno che parve di ferro. Il colpo fu sferrato da non più di 15 o 20 centimetri. Per poco non mi spaccò la testa. La bile mi affluì in bocca e sentì, mischiato a essa, il sapore del sangue. Non udivo altro che un forte ronzio nel cervello. Lui si chinava su di me continuando a sorridere, la mano sinistra sempre sulla scrivania. La sua voce parve giungere da una lontananza remota. Ero duro, ma sto invecchiando. Avete preso un buon pugno, amico. Ma non avrete altro da me. Abbiamo uomini nel carcere cittadino che dovrebbero lavorare nel macello. Forse non dovremmo tenerli perché non sono pugili cortesi e delicate come piumini da cipria sul genere del nostro Dayton, qui. E non hanno quattro marmocchie o un giardinetto coltivato a rose come Green. Le loro distrazioni sono ben diverse. Avete qualche altra divertente idea su ciò che potreste dire qualora vi decideste a parlare? Finché rimarrò ammalettato, no, capitano. Fu doloroso pronunciare anche queste poche parole. Si chinò ancora di più verso di me, sentì l'odore del suo sudore, il puzzo di un alito fetido. Poi si raddrizzò, girò intorno alla scrivania, piantò sulla sedia allenatiche massicce. Prese fra le mani una riga a tre spigoli e fece scorrere il pollice su uno degli spigoli come se fosse stato la lama di un coltello. Fissò Green. Che cosa state aspettando, sergente? Aspetto ordini! Green macinò le due parole come se odiasse il suono della sua stessa voce. Avete bisogno di spiegazioni e il vostro incartamento dice che siete un uomo esperto. Voglio una dichiarazione particolareggiata sui movimenti di questo individuo nelle ultime 24 ore. Forse è per un periodo più lungo, in seguito, ma ora 24 ore possono bastare. Voglio che la dichiarazione sia firmata, controfirmata da testimoni e controllata. La voglio entro due ore. Poi desidero che costui venga ricondotto qui, pulito, in ordine e senza lividi. È un'altra cosa, sergente. Si interruppe e scoccò a Green un'occhiata che avrebbe congelato una patata appena tolta dall'olio bollente. La prossima volta che porrò a un indiziato qualche compita domanda, non voglio che ve ne stiate lì a guardarmi come se gli avessi strappato un orecchio. «Sì, signore!» Green si voltò verso di me. «Andiamo!» ringhiò. Gregorius scoprì i denti guardandomi. Avevano un gran bisogno di essere puliti. «Fuori di qua, collega!» «Sì, signore», disse in tono cortese. «Probabilmente non ne avevate l'intenzione, ma mi avete fatto un piacere. Con la collaborazione dell'agente Dayton, avete risolto un problema invece mia. A nessuno piace tradire un amico, ma con voi io non tradirei neppure un nemico. Siete non soltanto un gorilla, ma un incompetente. Non sapete condurre la più semplice delle indagini. Ero sul filo d'un rasoio e avreste potuto farmi cadere da un lato o dall'altro. E invece avete preferito maltrattarmi, lanciarmi in faccia il caffè, prendermi a pugni quando non potevo fare altro che riceverli. D'ora in poi non vi direi neppure che ora segna l'orologio a muro del vostro ufficio». Per qualche strana ragione rimase seduto del tutto immobile e mi lasciò dire. Poi sorrise. «Non siete altro che il solito meschino individuo che ha in odio la polizia, amico. Ecco quello che siete, investigatore da strapazzo, uno che ha in odio la polizia». «Esistono posti in cui i poliziotti non vengono odiati, capitano, ma in quei posti voi non fareste parte della polizia». Ingoiò anche questo. Credo che potesse permetterselo. Con ogni improbabilità aveva ingoiato di peggio molte volte. Poi il telefono posto sulla scrivania squillò. Gregorius guardò l'apparecchio e fece un gesto. Oseguente Dayton girò intorno alla scrivania al suo ricevitore. «Ufficio del capitano Gregorius. Parla l'agente Dayton». Ascoltò, rannuvolandosi appena aggrottò le sopracciglia. Disse in tono mellifluo. «Un attimo, prego, signore». Porse il ricevitorio a Gregorius. «L'ispettore Capolbright, signore». Gregorius si accigliò. «Lui? Cosa vuole quel bastardo?» Afferrò il ricevitore, lo tenne per un attimo in mano e la faccia gli si spianò. «Gregorius, ispettore». Rimase in ascolto. «Sì, è qui nel mio ufficio, ispettore. Gli ho posto qualche domanda. Non è disposto a collaborare». «Proprio per niente». «Cosa? Cosa?» Un improvviso feroce cipiglio gli contorse il volto con scure pieghe. Il sangue gli arrossò la fronte, ma il suo tono di voce non subì il minimo mutamento. «Se è un ordine diretto dovrebbe esserci dato dal capo della polizia, ispettore. Certo, agirò di conseguenza in attesa della conferma. Certo, diavolo no, nessuno l'ha toccato con un dito. Sì, signore, immediatamente». Rimise a posto il ricevitore. Mi parve che la mano gli tremasse un poco. Alzò gli occhi su di me, poi guardò Green. «Toglietegli le manette», disse con un tono di voce neutro. Green fece scattare la serratura delle manette. Mi strofinai le mani in attesa di sentire le punture da spillo, le trafitture della circolazione del sangue che riprende. «Chiudetelo nel carcere di Contea», disse Gregorius ad agio. «E' sospettato di assassinio e il procuratore distrettuale ci ha strappato di mano il caso. Un bel sistema abbiamo in questa città». Nessuno si mosse. Green, vicino a me, respirava forte. Gregorius alzò gli occhi su Dayton. «Che cosa state aspettando, pallone gonfiato? Un cono gelato, magari?» Per poco, Dayton non soffocò. «Non mi avete dato ordini, capo». «Dite, signore, quando vi rivolgete a me, maledizione. Sono il capo per i sergenti e per chi ha un grado superiore a quello di sergente. Non per voi, Pivello, non per voi. Fuori!» «Sì, signore!» Dayton si diresse rapidamente verso la porta e uscì. Gregorius si mise in piedi, si avvicinò alla finestra e lì rimase voltandoci le spalle. «Venite, andiamocene!» mi bisbigliò Green all'orecchio. «Portatelo fuori di qui prima che gli fracassi la faccia a furia di calci!» disse Gregorius alla finestra. Green andò alla porta e l'aprì. Fece per uscire. Gregorius abbaiò a un tratto. «Un momento! Chiudete quella porta!» Green la chiuse e si addossò a essa. «Venite qui, voi!» Latrò Gregorius rivolto a me. Non mi mossi. Rimasi dove mi trovavo, fissandolo. Neppure Green si mosse. Vi fu un teso silenzio. Poi, molto ad agio, Gregorius attraversò la stanza e mi fronteggiò quasi sfiorandomi. Si ficcò in tasca le grosse, dure mani. Si dondolò sui tacchi. «Mai toccato con un dito!» disse fra i denti come parlasse fra sé. Aveva uno sguardo remoto, inespressivo, muoveva convulsamente le labbra. Poi mi sputò in faccia. Fece un passo indietro. «Non c'è altro! Grazie!» Girò sui tacchi e tornò alla finestra. Green riaprì la porta. Barcai la soglia, cercandomi in tasca il fazzoletto. 8. Nella cella numero 3 della sezione penale ci sono due giacigli, tipo vagone letto, ma la sezione non era molto affollata ed ebbi la cella tutta per me. Nella sezione penale si è trattati molto bene. Si hanno in dotazione due coperte, né sporche né pulite e un materasso tutto gobbe spesso 5 cm che va posto su una banda di stecche metalliche incrociate. C'è una stanza del WC con l'acqua corrente, un lavabo, salviette di carta e un pezzo di sapone grigio e sabbioso. L'edificio della prigione è pulito e non puzza di disinfettante. Le pulizie sono affidate ai carcerati che tengono buona condotta. Il materiale necessario non viene loro lesinato. Le guardie ti valutano con un'occhiata e sanno giudicarti. A meno che tu non sia ubriaco o uno squalibrato o non ti comporti come tale, puoi tenere i fiammiferi e le sigarette. Fino al primo interrogatorio puoi indossare i tuoi abiti. Dopo ti metti la tenuta del carcere, senza cravatta, senza cintura, senza lacci delle scarpe. Te ne stai seduto sul giaciglio e aspetti. Non c'è altro da fare. Nella sezione ubriachi non si sta altrettanto bene. Niente giaciglio, niente sedia, niente coperte, niente di niente. Ci si distende sul nudo pavimento, si sta accocolati sul buco del WC e ci si vomita in grembo. È l'abisso dell'abiezione. Lo so per esperienza. Per quanto fosse ancora giorno, le luci del soffitto erano accese. Dietro la porta d'acciaio, nella parte dell'edificio in cui si allineavano le celle, le piccole finestre erano quasi completamente chiuse da sbarre d'acciaio. Gli interruttori della luce si trovavano prima della porta corrazzata. La luce si spegneva alle nove di sera. Nessuno apriva la porta d'acciaio o avvertiva. Potevi leggere un giornale o una rivista ed essere nel bel mezzo di una frase. Senza il minimo suono, senza uno scatto, un avvertimento, le tenebre. E fino all'alba della notte estiva restavi lì, senza poter far altro se non dormire, quando ci riuscivi, o fumare, se avevi qualche sigaretta, o pensare, se potevi pensare a qualcosa che non fosse peggio del non pensare affatto. In carcere l'uomo non ha personalità. Costituisce un trascurabile problema di sistemazione e qualche trascrizione su appositi moduli. Nessuno sicura di sapere chi lo ami o chi lo odi, che aspetto abbia, che cosa abbia fatto nella sua vita. Nessuno si occupa di lui, a meno che non si renda molesto. Nessuno lo maltratta. Gli si chiede soltanto che entri tranquillamente nella cella assegnatagli e vi resti tranquillo dopo esservi entrato. Non c'è nulla contro cui ribellarsi, contro cui impazzire di rabbia. I carcerieri sono uomini placidi, senza animosità né sadismo. Tutto quello che si legge su uomini che sbraitano e urlano, che picchiano contro le sbarre, facendole tintinnare con i cucchiai, sui guardiani che accorrono con manganelli. Tutto ciò è pura immaginazione per il pubblico. Un buon carcere è uno dei luoghi più tranquilli del mondo. Nel cuore della notte potresti percorrere il corridoio delle celle e guardare attraverso gli spioncini. Vedresti la gobba di una coperta marrone o un ciuffo di capelli o un paio di occhi che fissano il vuoto. Potresti udire qualcuno che russa. Molto di rado potresti udire un uomo in preda incubi. La vita nel carcere è come sospesa, senza scopo né significato. In un'altra cella potrebbe capitarti di vedere un uomo che non riesce a dormire oppure tenta di tormentarsi. Siede sull'orlo del giaciglio senza far nulla. Ti guarda, oppure no. Tu lo guardi, non dici nulla e lui non dice nulla. Non c'è niente da dirsi. Nell'angolo della parte dell'edificio in cui si allineano le celle può esservi una seconda porta d'acciaio che conduce alla stanza dei riconoscimenti. Una delle pareti è di rete metallica verniciata in nero. Sulla parete opposta sono disegnate linee che indicano la statura. In alto potenti lampade a luce diffusa. Di solito si entra in questa stanza al mattino, subito prima che il capitano del turno di notte smonti dal servizio. Ci si mette in fila contro le linee che indicano la statura e si è abbagliati dalle lampade e non ve luce dietro la rete metallica. Tuttavia là dietro c'è molta gente. Poliziotti, agenti, cittadini che sono stati derubati o aggrediti o truffati o fatti scendere dalla loro automobile sotto la minaccia di una rivoltella puntata o frodati dei loro risparmi. Non li si vede né li si ode. Si ode la voce del capitano che fa il turno di notte. La si sente forte e chiara. Il capitano vi fa muovere come se foste un cane ammaestrato. È stanco, cinico, competente. È il regista di uno spettacolo, lo spettacolo più replicato della storia e che non riveste per lui più alcun interesse. Voi, proprio voi, state dritto. Tirate indietro la pancia. Su il mento. Indietro le spalle. Su con la testa. Guardate dritto innanzi a voi. Voltatevi a destra. Voltatevi a sinistra. Voltatevi ancora verso di noi e alzate le mani. Il palmo in avanti. Il palmo indietro. Rimboccatevi le maniche. Nessuna cicatrice. Capelli castanoscuri. Qualche cappello grigio. Occhi castani. Statura 1,80. Peso circa 85 kg. Nome Philip Marlowe. Professione investigatore privato. Bene. Bene. Lieto di rivedervi, Marlowe. Nient'altro. Avanti il successivo. Obbligatissimo, capitano. Grazie per il tempo che mi avete dedicato. Vi siete dimenticati di farmi aprire la bocca. Ho qualche bella otturazione. È uno splendido dente falso di porcellana. Un ponte e un dente falso di porcellana del valore di 86 dollari. Avete anche dimenticato di guardarmi nel naso. Ci avreste trovato molti tessuti cicatrizzati. Operazione al setto nasale. È che razza di macellaio, quel che me la fece, ci impiegò due ore. So che oggi eseguono lo stesso intervento in 20 minuti. Mi ruppi il naso giocando a rugby, capitano. Un lieve errore di calcolo nel tentativo di placcare una palla che stava per essere calciata in aria. Placcai invece il piede del giocatore, dopo che aveva colpito la palla. Calcio di punizione da 15 metri. È pressappoco altrettanto cerotto e insanguinato. mi tolsero dal naso, un centimetro alla volta, il giorno dopo l'operazione. Non sto contando storie, capitano. Mi limito a riferirvi i fatti. Sono i piccoli particolari ad avere importanza. Il terzo giorno, un guardiano aprì la porta della cella verso la metà della mattinata. C'è il vostro avvocato. Spegnete il mozzicone della sigaretta e non sul pavimento. Lo gettai nella tazza del WC. L'uomo mi accompagnò nel parlatorio. Un tale, alto, pallido, bruno, era lì in piedi, intento a guardare fuori dalla finestra. Sul tavolo c'era una gonfia borsa marrone. L'avvocato si voltò e aspettò che la porta venisse chiusa. Poi sedette accanto alla borsa, a un'estremità di un malconcio tavolo di quercia proveniente dall'arca. E Noè lo aveva già acquistato di seconda mano. L'avvocato aprì un porta sigarette di argento battuto, lo posò di fronte a sé e mi guardò. Accomodatevi, Marlowe. Vi andrebbe una sigaretta? Mi chiamo Endicott, Sewell Endicott. Ho avuto l'incarico di difendervi, senza alcuna spesa da parte vostra. Suppongo che vi farebbe piacere uscire di qui, no? Mi misi a sedere e presi una sigaretta. Mi porse l'accendino. Lieto di rivedervi, signora Endicott. Ci siamo già conosciuti. Quando eravate procuratore distrettuale. Annui. Non rammento, ma è possibilissimo, sorrise debolmente. Quella carica non faceva per me. Credo di non essere abbastanza spietato. Chi vi manda? Non sono autorizzato a dirvelo. Se mi accettate come vostro difensore, la parcella verrà pagata. Ciò significa, immagino, che l'hanno preso. Si limitò a fissarmi. Aspirai una boccata di fumo. Era una di quelle sigarette col filtro. Sapeva di nebbia filtrata attraverso un batuffolo di cotone. Se allude all'ennox, disse. E naturalmente è così. No, non l'hanno preso. Perché tanti misteri sul conto di chi vi manda, signor Endicott? Il mio mandante desidera conservare l'anonimato. Ne ha il diritto. Accettate di essere difeso da me? Non lo so, risposi. Se non hanno preso Terry, perché mi trattengono? Nessuno mi ha chiesto nulla. Nessuno mi ha avvicinato. Si accigliò e abbassò gli occhi guardandosi le dita, lunghe e delicate. Il procuratore distrettuale Springer si occupa personalmente della cosa. Può darsi che sia stato troppo impegnato per potervi interrogare. Ma avete il diritto di conoscere l'accusa che vi viene mossa e di essere ascoltato in un'udienza preliminare. Posso farvi liberare su cauzione promuovendo un'inchiesta sui motivi dell'arresto. Probabilmente conoscete la legge. Mi hanno arrestato perché sospetto di assassinio. Si strinse nelle spalle spazientito. È solo una formula. Avrebbero potuto arrestarvi per violazione dei regolamenti municipali e per altra decina di cause. Molto probabilmente vi accusano di complicità dopo il delitto. Avete portato l'ennox in qualche posto, vero? Non risposi. Lasciai cadere sul pavimento l'insipida sigaretta e la schiacciai col tacco. Handicott si strinse ancora una volta nelle spalle e si accigliò. Supponiamo allora che lo abbiate fatto in via del tutto ipotetica. Per potervi accusare di complicità devono dimostrare il dolo. In questo caso ciò significherebbe la conoscenza del fatto che era stato commesso un omicidio e che l'ennox si stava sottraendo alla giustizia. In ogni modo potete sempre essere rilasciato su cauzione. Naturalmente voi siete in effetti un testimone oculare. Ma in questo stato nessuno può essere trattenuto in arresto come testimone oculare se non in seguito a un'ordinanza del tribunale. Ne può essere considerato testimone oculare senza una dichiarazione del giudice. Tuttavia coloro che applicano la legge riescono sempre a trovare il modo di fare ciò che vogliono. Già? Disse. Un agente a nome Dayton mi ha percosso. Un capitano della squadra omicidi, un certo Gregorius, mi ha scaraventato in faccia una tazza di caffè. Mi ha colpito sul collo con tanta violenza da far scoppiare un'arteria. Guardate, è ancora gonfio. E quando una telefonata dall'ispettore capo Albright gli ha impedito di consegnarmi alla banda dei massacratori, mi ha sputato in faccia. Avete perfettamente ragione, signor Handicott. Chi applica la legge riesce sempre a fare come più gli piace. Guardò l'orologio da polso con un'espressione molto astratta. Volete essere posto in libertà provvisoria su cauzione o no? Grazie. Credo di no. Il pubblico giudica già a metà colpevole chi viene posto in libertà provvisoria e se in seguito viene prosciolto, si dice che aveva un buon avvocato. Questo è stupido, disse spazientito. E va bene, è stupido. Sono stupido, altrimenti non mi troverei qui. Se siete in contatto con l'Ennox, ditegli di non preoccuparsi più per causa mia. Non sono qui dentro per lui, sono qui per me stesso. E non mi lamento, fa parte del mio mestiere. In seguito al mestiere che faccio, la gente viene da me con i suoi guai. Guai grossi, guai piccoli, ma in ogni caso, guai che i clienti non vogliono far sapere alla polizia. Per quanto tempo continuerebbero a rivolgersi a me se si sapesse che è bastato un piccolo contrattempo con la polizia per demolirmi e fare di me un vigliacco? Mi rendo conto del vostro punto di vista, disse ad agio. Ma consentitemi di correggervi in un particolare. Non sono in contatto con l'Ennox, lo conosco appena. Sono un funzionario del tribunale, al pari di ogni avvocato. Se sapessi dove si trova l'Ennox, non potrei evitare di riferirlo al procuratore distrettuale. Al massimo potrei ottenere di consegnarlo in un momento in un luogo determinati dopo aver avuto un colloquio con lui. Nessun altro può essersi dato la pena di mandarvi da me. Mi considerate un bugiardo? Si chinò per spegnere il mozzicone della sigaretta contro la parte inferiore del tavolo. Mi sembra di ricordare che siete della Virginia, signor Handicott. In questo paese siamo effetti da una sorta di fissazione storica sugli uomini della Virginia. Li consideriamo campioni della cavalleria e dell'onore del sud. Sorrise. Molto ben detto. Vorrei solo che potesse essere vero. Ma stiamo perdendo tempo. Se aveste un briciolo di buonsenso, vi sareste affrettato a dire alla polizia che non vedevate l'Ennox da una settimana. Non era necessario che fosse vero. Sotto giuramento avreste sempre potuto riferire la verità. Non esiste alcuna legge che vieti di mentire ai poliziotti. E loro lo sanno. Sono molto più soddisfatti quando si mente che quando ci si rifiuta di parlare. Il silenzio è una diretta sfida alla loro autorità. Che cosa vi aspettate di ricavarne? Non risposi. E in vero non sapevo come rispondergli. Si alzò, prese il cappello, chiuse di scatto il porta sigarette e se lo mise in tasca. Avete voluto recitare la scena madre? Disse Fretto. Reclamare i vostri diritti e appellarvi alla legge? Fin dove può arrivare l'ingenuità a Marlow? Un uomo come voi, che dovrebbe sapere il fatto suo? La legge non è la giustizia. Si tratta di un meccanismo molto imperfetto. Se premete proprio i bottoni giusti e siete anche fortunato, potete ottenere giustizia. La legge non è mai stata altro. Non ha mai voluto essere altro che un meccanismo. Ritengo che non abbiate alcuna intenzione di lasciarvi aiutare. Di conseguenza tolgo il disturbo. Potrete farmi avvertire se cambierete idea. Aspetterò ancora per un giorno o due. Se arrestano Terry, non si cureranno più di sapere come si ha fuggito. A loro preme soltanto lo spettacolo da circo che possono ricavare dal processo. L'assassinio della figlia del signor Arlan Porter è una notizia dai titoli cubitali in tutto il paese. Uno che lusinga le folle come Springer potrebbe benissimo raggiungere la carica di procuratore generale grazie allo spettacolo e da procuratore generale diventare governatore. E da governatore... Mi interruppi e lasciai che il resto della frase si volatilizzasse. Handicott atteggiò le labbra a un lento sorriso di derisione. Non credo che conosciate molto bene il signor Arlan Potter, disse. E se non arrestano Lennox, non vorranno sapere come si ha fuggito, signor Handicott. Lasceranno cadere nel dimenticatoio al più presto possibile tutta questa storia. Avete già previsto ogni evenienza, vero Marlow? Ne ho avuto il tempo. Per quanto concerne il signor Arlan Potter, so soltanto che, vi dice, valga 100 milioni di dollari e che è il proprietario di 9 o 10 giornali. Come va la pubblicità? La pubblicità? Parlò in tono gelido questa volta. Già? Nessun giornalista mi ha intervistato. Prevedevo di fare molto chiasso sui giornali con questa storia, di farmi una propaganda profigua. Un investigatore privato va in carcere per non tradire un amico. Si diresse verso la porta e si voltò con la mano sulla maniglia. Mi divertite, Marlow. Siete infantile in certe cose. È vero, 100 milioni di dollari possono comprare molta pubblicità, ma se impiegati con scaltrezza, amico mio, possono anche comprare molto silenzio. Aprì la porta e usci. Ed ecco poi entrare il guardiano che mi riaccompagnò alla cella numero 3 della sezione penale. Suppongo che non rimarrete a lungo con noi se vi difende Handicott, disse in tono cordiale, chiudendomi dentro. Speravo, risposi, che avesse ragione. 9. Il guardiano del primo turno di notte era un tipo biondo, massiccio, dalle grosse spalle e dal sorriso amichevole. Di mezza età, aveva da tempo imparato a ignorare sia la compassione sia l'ira. Desiderava solo trascorrere otto ore in pace e sembrava che con lui quasi ogni cosa fosse consentita. Aprì la porta della cella. «Una visita per voi. Un tale dell'ufficio del procuratore distrettuale. Non dormite, eh?» «Ehm, è un po' presto per me. Che ore sono?» «Le 10 e 14». Rimase sulla soglia ed esaminò la cella. Una coperta era distesa sul giaciglio più basso. L'altra, ripiegata, fungeva da cuscino. Verano un paio di salviette di carta usata nel cestino dei rifiuti, vera un rotolo di carta igienica sull'orlo del lavabo. Approvò con un cenno della testa. «Niente di personale qui dentro?» «Soltanto io». Lasciò aperta la porta della cella. Ci incamminammo lungo un corridoio silenzioso fino all'ascensore e salimmo nell'ufficio. Un grassone vestito di grigio stava accanto alla scrivania fumando la pipa. Aveva le unghie sporche e puzzava. «Sono Spranklin, dell'ufficio del procuratore distrettuale», mi disse con voce dura. «Il signor Grains vi aspetta di sopra». Allungò la mano dietro l'anca e tirò fuori le manette. «Vediamo un po' se vanno bene». Il guardiano e l'impiegato dell'ufficio gli rivolse un sorriso profondamente divertito. «Cos'è Sprank? Temete che vi scappi nell'ascensore?» «Non voglio guai», grugnì. «Una volta un tizio mi è sfuggito di mano. Me ne fecero passare di tutti i colori. Andiamo, figliolo!» L'impiegato spinse un modulo verso di lui ed egli lo firmò con uno svolazzo. «Non corro mai rischi inutili», disse. «Non si sa mai che cosa possa succedere in questa città». Un furgone della polizia aveva scaricato in quel momento un ubriaco con un occhio pesto e insanguinato. Ci dirigemmo verso l'ascensore. «Siete nei pasticci, figliolo!» mi disse Spranklin mentre salivamo. «Pasticci tremendi!» Pareva che la cosa gli procurasse una vaga soddisfazione. «Uno può cacciarsi in guai grossi in questa città!» L'addetto dell'ascensore voltò la testa e mi strizzò l'occhio. Sorrisi. «Non cercate di far brutti scherzi, figliolo!» mi disse Spranklin con severità. «Ho sparata un uomo una volta. Aveva tentato di tagliare la corda. Me ne hanno fatto passare di tutti i colori!» «E non è ancora finita, no?» riflette. «No!» disse. «In un modo o nell'altro se ne passano sempre di tutti i colori. È una città spiedata questa! Nessun rispetto!» Uscimmo e varcammo la soglia con la doppia porta degli uffici del procuratore distrettuale. Il centranillo telefonico non funzionava. Non vera nessuno sulle sedie della sala d'aspetto. In un paio di uffici splendeva la luce. Spranklin aprì la porta ad una stanzetta illuminata che conteneva una scrivania, uno schedario, una o due sedie di legno e un uomo massiccio dal mento duro, dagli occhi stupidi. Era rosso in faccia e proprio in quel momento stava infilando qualcosa nel cassetto della scrivania. «Potreste bussare, no?» abbaiò a Spranklin. «Scusate, signor Grans!» barbittò Spranklin. «Mi preoccupava il detenuto!» Mi spinse nell'ufficio. «Devo togliergli le manette, signor Grans!» «Non so perché diavolo gliel'abbiate messe!» disse Grans acido. Osservò Spranklin mentre mi faceva scattare le manette sui polsi. Spranklin aveva un mazzo di chiavi delle dimensioni di un grappolo d'uva e faticò a trovare quella giusta. «Ok, fuori dai piedi!» disse Grans. «Aspettate fuori per portarlo in cella!» «Veramente avrei terminato il mio orario, signor Grans!» «Il vostro orario termina quando ve lo dico io!» Spranklin arrossì e fece uscire di sghimbescio dalla porta il grasso deretano. Grans lo guardò con una luce selvaggia negli occhi, poi non appena la porta si fu chiusa volse su di me lo stesso sguardo. Accostai una sedia e mi lasciai cadere. «Non vi ho detto di sedervi!» abbaiò Grans. Mi tolsi di tasca una sigaretta e me la ficcai in bocca. «E non vi ho detto neppure che potete fumare!» ruggì Grans. «Mi è permesso fumare in cella perché non dovrei fumare qui!» «Perché il mio ufficio è qui comando io!» Sulla scrivania galeggiava un forte odore di whisky. «Mandatene giù un altro sorso!» disse. «Vi calmerà! Entrando vi abbiamo interrotto, se non sbaglio!» Si appoggiò con violenza sullo schienale della sedia e si imporporò di in faccia. Strofinai un fiammifero e accesi la sigaretta. Dopo un interminabile minuto, Grans disse in tono mellifluo. «Ok, fate il ribelle, eh? Siete un vero uomo, eh? Volete sapere una cosa? Sono di ogni forma e di ogni dimensione quando entrano qui, ma escono tutti quanti con le stesse dimensioni. piccoli e con la stessa forma, piegati in due. Per quale ragione volevate parlarmi, signor Grans? E non abbiate soggezione se volete attaccarvi a quella bottiglia. Io stesso mando giù un sorso quando sono stanco o nervoso o se ho lavorato troppo. Sembra che il pasticcio nel quale vi siete cacciato non vi preoccupi troppo. Credo di non essermi cacciato in alcun pasticcio. Lo vedremo e intanto voglio da voi una dichiarazione completa». Aditò il registratore a nastro posto su un tavolino accanto alla scrivania. «La registreremo subito e la faremo trascrivere domani. Se il capo sarà soddisfatto della dichiarazione, potrà rimettervi in libertà purché vi impegnate a non allontanarvi dalla città. Avanti». Mise in moto il registratore. Aveva una voce fredda, recisa e offensiva il più possibile, ma la sua mano destra continuava a spostarsi verso il cassetto della scrivania. Era un po' troppo giovane per avere vene sul naso, ma le aveva, e il bianco degli occhi era di un colore malsano. «Sono così stufo», dissi. «Stufo di cosa?», scattò. «Di ometti severi in piccoli uffici severi che dicono parolette severe, le quali non significano proprio niente. Ho trascorso 56 ore in carcere. Nessuno mi ha infastidito. Nessuno ha cercato di dimostrarvi di essere un uomo duro. Non ne avevano bisogno. La loro durezza la tenevano in ghiacciaia per i casi urgenti. E perché sono stato arrestato? Per sospetti. Quale dannato sistema legale può consentire di ficcare dentro un uomo solo perché un piedipiatti non ha ottenuto risposta alle sue domande? Di quale prove disponeva? Di un numero telefonico segnato su un taccuino? E che cosa credeva di dimostrare tenendomi in carcere? Un bel niente, eccettato il fatto che aveva il potere di farlo. E adesso siamo da capo con voi. Ecco che cercate di farmi capire quale potenza siete in grado di generare in questa scatola da sigari che chiamate il vostro ufficio. E incaricate quella bambinaia a tremebonda di portarvi qui a un'ora inoltrata della sera. Credete forse che l'essermene rimasto solo a pensare per 56 ore e mi abbia spappolato il cervello? Pensate che vi piangerò in grembo e vi supplicherò di accarezzarmi il capo perché mi sono sentito spaventosamente solo nella grande prigione? Finiamola, Grenz. Bevete un sorso e siate umano. Sono disposto a presumere che vi limitiate a fare il vostro dovere. Ma prima di cominciare toglietevi i pugni di ferro. Se davvero siete in gamba non ne avete bisogno e se vi occorrono non siete bravi abbastanza per tenermi testa. Rimase seduto ascoltandomi e fissandomi. Poi fece un sorriso acidulo. Bel discorsetto, disse. Ora che vi siete sfogato, passiamo alla dichiarazione. Volete rispondere a domande specifiche o preferite riferire i fatti a modo vostro? Ho parlato al vento, dissi. Non intendo fare alcuna dichiarazione. Siete avvocato e sapete che non ne ho l'obbligo. Giusto, riconobbe gelido. Conosco la legge e conosco la prassi della polizia. Vi offro l'opportunità di scagionarvi. Se non volete accettarla, me ne infischio. Posso convocarvi domattina alle 10 per la contestazione dell'accusa in vista dell'udienza preliminare. Potrete anche chiedere di essere rilasciato su cauzione. E se ci riuscirete, nonostante la mia opposizione, non sarà cosa da niente. Vi costerà caro. È uno dei mezzi a nostra disposizione. Abbassò gli occhi su un foglio che aveva sulla scrivania, lo lesse e lo rovesciò. Su quale accusa? Gli domandai. Capitolo trentaduesimo del codice penale. Complicità dopo il fatto. Un reato grave. Può fruttarvi cinque anni di prigione. Meglio arrestare Lennox prima, disse in tono cauto. Granz aveva in mano una carta. Lo sentivo dal suo modo di agire. Non sapevo quanto valesse, ma una carta in mano doveva averla senz'altro. Si appoggiò allo schienale, prese una penna e la fece girare ad agio tra il palmo delle mani. Poi sorrise. Se la stava godendo un mondo. Non è facile per Lennox passare inosservato a un Marlowe. Con la maggior parte degli individui occorre una fotografia. Una fotografia grande e chiara. Ma non con un tipo che ha un lato della faccia completamente sfregiato da cicatrici, per non parlare dei capelli bianchi a meno di trentacinque anni di età. Abbiamo quattro testimoni, forse di più. Testimoni di cosa? Sentivo in bocca un sapore amaro, come quello della bile dopo il pugno del capitano Gregorius. Questo mi ricordò che il collo mi doleva ancora ed era gonfio. Me lo strofinai ad agio. Non fate lo gnorri, Marlowe. Un giudice di corte d'appello di San Diego e sua moglie si erano recati per caso a salutare il figlio e la nuora che partivano su quell'aereo. Tutti e quattro videro Lennox e la moglie del giudice notò la macchina con la quale arrivò e l'uomo che lo accompagnava. Non volete recitare una preghiera? Interessante, dissi. Come li avete pescati? Diramando un appello speciale per radio e per televisione. Una descrizione particolareggiata è stata sufficiente. Il giudice ha telefonato. Sembra importante, dissi in tono equo. Ma occorre un po' più di questo, Granz. Dovreste arrestare Lennox e dimostrare che è colpevole di assassinio. Poi dovete provare, che io lo sapevo. fece schioccare un dito contro il modulo del telegramma. Credo che berrò quel sorso, disse. Ho lavorato troppo per notti e notti. Aprì il cassetto e posò una bottiglia e un bicchierino sulla scrivania. Riempì il bicchierino fino all'orlo e ne trangoggiò d'unfiato il contenuto. Ora va meglio, disse. Molto meglio. Spiacente di non potervi offrire da bere perché siete in arresto. Rimise il turaccelo sulla bottiglia e la scostò, ma non tanto da non averla portata di mano. Ah, sì, dobbiamo provare alcune cose, dite voi. Bene, potrebbe darsi che avessimo già una confessione, amico. Un vero peccato, eh? Una sensazione di gelo come la pressione della punta di un dito mi percorse l'intera spina dorsale, simile a un insetto che si stesse arrampicando. E allora perché volete una dichiarazione da me? Soghignò. Ci garba avere una documentazione in piena regola. L'enox verrà ricondotto qui e processato. Più prove potremo procurarci, meglio sarà. Se collaborerete con noi, saremo disposti a passare sopra molte cose, molto più importanti di ciò che vi chiediamo. Lo fissai. Giocherellò con i fogli di carta, si voltò sulla sedia, guardò la bottiglia e dovette fare uso di molta forza di volontà per non afferrarla. Forse vi piacerebbe sapere tutto per filo e per segno, dissi ad un tratto guardandomi di sbieco. Bene, furbone, tanto per dimostrarvi che non sto scherzando. Ecco come stanno le cose. Mi sporsi verso la scrivania e lui credette che volessi prendere la bottiglia. Si affrettò ad afferrarla e a metterla nel cassetto. Volevo soltanto lasciar cadere il mozzicone della sigaretta nel portacenone. Tornai ad appoggiarmi allo schienale e ne accesi un'altra. Grenz parlò in fretta. Lenox discese dall'aereo a Mazatlan, una cittadina di circa 35.000 abitanti, dove si trova un aeroporto intermedio. Scomparve per due o tre ore. Poi un uomo alto, dai capelli neri e dalla carnagione scura, con quelle che sembravano cicatrici di numerose coltellate, acquistò un biglietto per Torreon, dando il nome di Silvano Rodríguez. Parlava bene lo spagnolo, ma non abbastanza bene per uno che si chiamasse così. Ed era troppo alto per essere un messicano con la pelle così scura. Il pilota lo segnalò, ma i poliziotti arrivarono troppo tardi a Torreon. I poliziotti messicani non sono saette, riescono bene soprattutto nell'ammazzare la gente. Prima che arrivassero, l'uomo aveva noleggiato un aereo recandosi in una cittadina di montagna che si chiama Otatoclan, una piccola località di soggiorno estivo sul lago. Il pilota dell'aereo noleggiato aveva fatto la scuola di guerra nel Texas. Parlava bene l'inglese. Lennox finse di non capirlo. Ammesso che fosse Lennox, lo interruppi. Un momento di pazienza, amico. Era Lennox senz'altro. Dunque, arrivò a Otatoclan e firmò il registro dell'albergo, questa volta come Mario De Cerva. Aveva una rivoltella, una Mauser 765, cosa che nel Messico non è affatto strana, naturalmente. Ma il pilota giudicò che il tipo fosse sospetto e lo segnalò alla polizia locale. Così sorvegliarono Lennox, si informarono a città del Messico e poi intervennero. Grenz prese un righello e se lo avvicinò all'occhio, come per constatare se fosse diritto. Un gesto del tutto inutile che gli consentì di evitare di guardarmi. Dissi, mmm, un tipo in gamba, quel pilota. È gentile con i suoi clienti. Questa faccenda puzza. Alzò improvvisamente gli occhi su di me. Vogliamo solo, disse asciutto, un processo sbrigativo. Terremo conto di tutte le attenuanti. Ci sono aspetti della cosa dei quali non terremo conto e, in fin dei conti, la famiglia è molto influente. Arlan Potter, volete dire? Annuì seccamente. Per mio conto è uno sbaglio madornale. Springer avrebbe potuto ricavarne un trionfo. Ci sono tutti gli elementi essenziali. Sessualità, scandalo, quattrini, una bella moglie infedele, un marito ferito in guerra. Presumo che le cicatrici siano dovute a una ferita di guerra. Diavolo! Avrebbe occupato per settimane le prime pagine dei giornali. Tutti gli imbecilli degli Stati Uniti si sarebbero sollazzati e noi facciamo in modo che, cada subito nel dimenticatoio. Alzò le spalle. Ok, se il capo preferisce così, è affar suo. Volete farla sì o no, questa dichiarazione? Si voltò verso il registratore che aveva ronzato sommessamente per tutto questo tempo, con la piccola luce rossa accesa. Spegnetelo, dissi. Si girò di scatto e mi scoccò un'occhiata cattiva. Ci state bene in carcere? Non c'è male? Non si incontrano persone di classe, ma chi diavolo se ne infischia? Siate ragionevole, Grenz. Vorreste fare di me uno spione? Sarò cocciuto, forse, o addirittura sentimentale, ma sono anche pratico. Supponete di dovervi rivolgere a un investigatore privato? Sì, sì, lo so, non vorreste saperne, ma supponete che non vi fossero rimaste altri vie di uscita. andreste forse a scegliere uno che avesse tradito i suoi amici? Mi fissò con odio. E c'è un altro paio di cosette. Non vi sembra che Lennox abbia adottato per fuggire una tattica un po' troppo trasparente? Se voleva essere arrestato non c'era bisogno che si desse tanta pena e se non voleva essere preso era intelligente abbastanza per non recitare la parte del messicano proprio nel Messico. E con questo vorreste dire? Parve ringhiasse ora. Voglio dire che potreste aver cercato di farmi bere un sacco di frottole inventate da voi, che non è mai esistito alcun Rodriguez con i capelli tinti, né alcun Mario De Cerva o Tato Clan, e che non sapete dove si trovi Lennox più di quanto sappiate dove il pirata barba nera abbia nascosto il tesoro. Tirò fuori un'altra volta la bottiglia, riempì il bicchierino e ne mandò giù d'unfiato il contenuto come prima. Si calmò. Adagio. Si voltò sulla sedia e spensa il registratore. Mi sarebbe piaciuto lavorarvi, disse con voce raschiante. Siete il tipo di furbo che mi piace avere per le mani. Questa faccenda graverà su di voi per molto tempo, intelligentone. Vi resterà sospesa sulla testa mentre camminerete e mangerete e dormirete. E al primo sgarro ci servirà per conciarvi a dovere. Per il momento sono costretto a fare una cosa che mi rivolta le viscere. Annaspò sulla scrivania, vicinò a sé il foglio rovesciato, lo girò e lo firmò. Quando un uomo sta scrivendo il proprio nome, è facile capirlo, assume un atteggiamento tutto particolare. Si alzò, poi girò intorno alla scrivania, spalancò la porta della sua scatola da scarpe e sbraitò il nome di Spranklin. Il grassone entrò. Granz gli diede il foglio. Ho appena firmato l'ordine di scarcerazione, disse. Sono un pubblico funzionario e a volte i miei doveri sono spiacevoli. Vi interesserebbe sapere perché l'ho firmato. Mi alzai. Se volete dirmelo. Il caso Lennox è chiuso, caro signore. Non esiste più. Oggi pomeriggio, nella sua stanza e in albergo, Lennox ha scritto una confessione completa e si è sparato. Ha otato, clan. Proprio come vi avevo detto. Rimasi dove mi trovavo, guardando nel vuoto. Con la coda dell'occhio vidi Granz indietreggiare ad agio, quasi temesse che stessi per colpirlo. Per un attimo dovetti avere un'espressione molto minacciosa. Poi, eccolo ancora una volta dietro la scrivania. E Spranklin mi prese per il braccio. Andiamo. Muovetevi. Disse in tono lamentoso. Un uomo ha pure il diritto di trascorrere la serata in casa, di quando in quando. Uscì insieme a lui e chiusi la porta. La chiusi ad agio, come se in quella stanza fosse appena morto qualcuno. 10. Tolsi il foglio di carta carbone dal modulo dei miei oggetti personali. Lo voltai e scrissi la ricevuta sull'originale. Mi rimisi in tasca le mie cose. C'era un tale appoggiato all'estremità del banco dell'ufficio. Quando feci per allontanarmi si raddrizzò e mi rivolse la parola. Era alto un metro e ottanta e smilzo come un fil di ferro. Mi serve il passaggio fino a casa? Nella fredda luce sembrava giovane eppure vecchio, stanco e cinico, ma non aveva l'aria di un arruffone. Per quanto? Gratis. Sono l'Only Morgan del Journal. Sto mietendo notizie. Oh, alla polizia, dissi. Solo per questa settimana. Il mio normale campo di azione è il municipio. Uscimmo dall'ufficio e ci avvicinammo alla sua macchina nel parcheggio. Alzai gli occhi verso il cielo. C'erano stelle, ma le velava il bagliore delle luci cittadine. Era una notte fresca, piacevole. L'aspirai dentro di me. Poi sei lì sull'automobile ed egli partì. Abito lontano, a Laurel Canyon, dissi. Lasciatemi pure dove vi fa più comodo. Ti portano dentro in macchina, disse lui, ma non si preoccupano di sapere come tornerai a casa. Pur ripugnandomi, in un certo senso, questo caso mi interessa. Sembra che non ci sia alcun caso, dissi. Terry Lennox si è ucciso oggi nel pomeriggio. Così dicono loro. Molto, purtroppo, osservò Lonnie Morgan guardando dritto innanzi a sé e attraverso il parabrezza. L'automobile scivolava lungo strade tranquille. Le aiuta a innalzare il loro muro. Quale muro? Qualcuno sta innalzando un muro intorno al caso Lennox, Marlowe. Siete abbastanza intelligente per rendervene conto, no? Le cose non si svolgono come dovrebbero. Il procuratore distrettuale è partito stanotte per Washington. Una sorta di tacito accordo. Ha mollato la più bella occasione di farsi della reclam che gli fosse capitata da anni. Perché? Inutile domandarlo a me. Sono stato tenuto da parte, al fresco. Perché qualcuno ha fatto in modo che gli convenisse. Ecco perché. Non alluda ad alcunché di grossolano, come un pacco di manconote. No, qualcuno gli ha fatto una promessa che per lui è importante e c'è una sola persona interessata al caso che ne abbia la possibilità. È il padre della donna. Appoggiai la testa sull'angolo del sedile. Sembra alquanto inverosimile, dissi. È la stampa? Arlan Potter è il proprietario di alcuni giornali, ma la concorrenza? Mi rivolse un fuggevole sguardo divertito. Poi tornò a concentrarsi sulla guida. Avete fatto il giornalista? No. I giornali appartengono ai ricchi e vengono diretti dai ricchi. I ricchi fanno parte tutti quanti della stessa cricca. Certo c'è la concorrenza, una concorrenza spietata, violenta, per quanto riguarda la diffusione, la priorità nelle notizie, l'esclusività di certi articoli. Fino a quando essa non danneggia il prestigio, i privilegi, la posizione dei proprietari. Se accade questo, ecco che si abbassano le serrande. Le serrande, amico mio, sono state abbassate sul caso Lennox. Il caso Lennox, amico mio, sfruttato a dovere, avrebbe potuto far vendere molte copie di giornali. Non gli manca niente. Il processo avrebbe richiamato corrispondenti da tutti gli Stati Uniti, ma non ci sarà alcun processo. Per il fatto che Lennox è stato tempestivamente tolto di mezzo. Come ho già detto, la sua morte è molto opportuna, per Arlan Potter e per la famiglia. Mi raddrizzai e lo guardai accigliato. Secondo voi è tutta una messa in scena? Torse Sardoni con la bocca. Potrebbe darsi che Lennox sia stato aiutato a commettere il suicidio. Può darsi che abbia resistito un poco all'arresto. I poliziotti messicani premono molto facilmente il grilletto. Se volete, sono disposto a scommettere che nessuno ha contato i fori dei proiettili. Forse siete in errore, dissi. Conoscevo molto bene Terry Lennox. Da un pezzo era indifferente a qualsiasi cosa. Se lo avessero preso vivo, li avrebbe lasciati fare a modo loro. Lonnie Morgan crollò il capo. Sapevo quel che avrebbe detto e lo disse. Niente da fare. Se avesse sparato alla moglie o l'avesse uccisa con un colpo in testa, forse sì, ma l'assassinio è stato troppo brutale. La donna aveva le braccia ridotte in poltiglia. Al massimo Lennox se la sarebbe cavata con qualche attenuante e anche una simile sentenza avrebbe puzzato. Dissi. Potreste anche avere ragione. Si voltò ancora a guardarmi. Dite che lo conoscevate. Credete anche voi che sia stata una messa in scena? Sono stanco. Non me la sento di pensare questa sera. Seguì un lungo silenzio. Poi Lonnie Morgan disse in tono sommesso. Se fossi un tipo davvero in gamba, anziché un misero cronista stipendiato, mi convincerei forse che non l'ha affatto uccisa. È un'idea. Si ficcò una sigaretta fra le labbra e l'accese strofinando un fiammifero sul cruscotto. Fumò in silenzio, col volto atteggiato a un fermo cipiglio. Giungemmo a Laurel Canyon e gli disse dove doveva voltare dal diale, dove doveva voltare ancora per entrare nel vicolo. La macchina rompò su per il pendio e si fermò di fronte alla scala di legno rosso. Discesi. Grazie per il passaggio, Morgan. Vi andrebbe di bere qualcosa? Mi prenoto per un'altra volta. Penso che preferiate restare solo? Ho molte occasioni di star solo, maledettamente troppe. Dovete dire addio a un amico, mormorò. Doveva esservi amico se per causa sua vi siete lasciato ficcare dentro. Chi ha detto che abbia fatto questo? Sorrise appena. Il fatto che non possa pubblicarlo non significa che non lo sappia, amico. Arrivederci. Ci ritroveremo. Chiusi lo sportello e lui voltò la macchina e discese il pendio. Quando i fanalini di coda furono scomparsi all'angolo, salì i gradini, presi i giornali ed entrai nella casa deserta. Accesi tutte le luci e spalancai le finestre. Le stanze sapevano di chiuso. Preparai un po' di caffè e lo bevi e tolsi le cinque banconote da 100 dollari dal barattolo. Erano ben arrotolate e conficcate da un lato sotto il caffè. Passeggiai avanti e indietro con la tazzina del caffè in mano. Accesi il televisore, lo spensi, mi misi a sedere, mi alzai, mi rimisi a sedere. Diedi una scorsa ai giornali che si erano ammonticchiati dinanzi alla porta. Il caso Lennox aveva occupato all'inizio le prime pagine ma quel mattino si era già ridotto a una mezza colonna della pagina della cronaca cittadina. C'era una fotografia di Silvia ma non quella di Terry. C'era una mia istantanea della quale ignoravo l'esistenza. Los Angeles, l'investigatore privato trattenuto per essere interrogato. C'era una fotografia grande della villa dell'Ennox a Encino. Una dimora in stile pseudo inglese con molti tetti a guzzi. Ci sarebbe voluto un centinaio di dollari solo per far lavare le finestre. Sorgeva su una piccola altura, in un apprezzamento di terreno di due acri, una proprietà enorme per la zona di Los Angeles. C'era la fotografia del padiglione degli ospiti, una riproduzione in miniatura della villa. Il padiglione si trovava fra gli alberi. Entrambe le fotografie erano state evidentemente scattate da lontano e poi ingrandite e ritoccate. I giornali non ne pubblicavano alcuna di quella che definivano la camera della morte. Avevo già letto e veduto tutto ciò in carcere, ma lo rilessi e lo guardai ora con occhi diversi. Non mi disse altro se non che una donna bella e ricca era stata assassinata e che la stampa aveva dovuto disinteressarsi quasi completamente dell'episodio. L'influenza in gioco aveva quindi cominciato ad agire quasi all'inizio. I giornalisti della cronaca nera dovevano aver cercato di azzannare in vano. Lo si capiva. Se Terry aveva parlato col suocero a Pasadena la notte stessa in cui Sylvia era stata assassinata, parecchi giannizzeri di Potter si erano certo precipitati sul posto prima ancora che la polizia fosse stata avvertita. Ma vi era un particolare che non risultava affatto chiaro. Il modo in cui ella era stata uccisa. Nessuno sarebbe riuscito a farmi credere che Terry avesse fatto una cosa simile. Spensi le luci e mi misi a sedere accanto a una finestra spalancata. Fuori nei cespugli un merlo poliglotta modulò alcuni trilli e ammirò se stesso prima di accingersi a dormire. Poiché il collo mi doleva mi sbarbai feci la doccia mi coricai e rimasi supino in ascolto come se in una remota lontananza nelle tenebre potessi udire una voce quella voce calma paziente che spiega ogni cosa. Non la udì e sapevo che non l'avrei udita. Nessuno mi avrebbe spiegato il caso Lennox. Non occorrevano spiegazioni. L'assassino aveva confessato ed era morto. Non vi sarebbe stata neppure un'inchiesta. Molto opportuno come aveva fatto osservare Lonnie Morgan del journal. Se Terry Lennox aveva ucciso sua moglie tanto meglio. Non vero alcun bisogno di processarlo e di rendere pubblico ogni sgradevole particolare. Se non l'avesse uccisa meglio ancora. I morti sono i migliori colpevoli di questo mondo. Non si difendono. La mattina dopo mi rasai ancora. Mi vesti, andai in centro con la macchina come sempre e la parcheggiai nel solito posto. E se il custode del parcheggio sapeva per caso che ero divenuto un personaggio importante riuscì magnificamente a nasconderlo. Feci le scale, percorsi il corridoio e mi tolsi di tasca le chiavi per aprire la porta. Un tizio bruno con l'aspetto di un damerino mi stava osservando. Siete Marlow? E con questo? Restate in ufficio, disse. Un tale vuole parlarvi. Distaccò la schiena della parete e si allontanò con mosse languide. Entrai nell'ufficio e presi la posta. Ce n'era dell'altra sulla scrivania dove l'aveva messa la donna che faceva le pulizie durante la notte. Dopo aver spalancato le finestre, apri le buste e gettai via quel che non mi interessava, vale a dire praticamente tutto. Feci scattare l'interruttore del campanello che mi avvertiva dell'arrivo di un cliente nell'altra stanza. Caricai la pipa, l'accesi e poi me ne rimasi lì seduto ad aspettare che qualcuno invocasse il mio intervento. Pensai a Terry Lennox con un certo distacco. Già stava indietreggiando verso lontananze remote, con i capelli bianchi, il volto sfregiato, quel suo fiacco fascino, quel suo bizzarro orgoglio. Non lo giudicai né lo analizzai, così come non gli avevo mai posto domande sulla ferita o sulle ragioni per cui aveva sposato una donna del genere di Silvia. Era come qualcuno che si incontra a bordo di una nave e con il quale si fa una conoscenza piuttosto intima, pur senza conoscerlo mai davvero. Se n'era andato come un'amicizia di bordo, quando il nuovo compagno ti saluta sul molo dicendo, non perdiamoci di vista, vecchio mio, e tanto tu, quanto lui, sapete benissimo che non farete nulla per non perdervi di vista, che molto probabilmente non vi rivedrete mai più. Se lo rivedeste, lui sarebbe una persona del tutto diversa, un estraneo qualsiasi col quale ci si trova a gomito a gomito. Come vanno gli affari? Oh, non c'è male, avete un bel aspetto, anche voi. Sono ingrassato un po' troppo, non ingrassiamo tutti? Ricordate quel viaggio sulla Franconia, o qualsiasi altro piroscafo? Oh, sicuro, un viaggio splendido, vero? Un viaggio splendido, un corno. Ti eri annoiato a morte. A lui gli avrevi rivolto la parola solo perché non c'era nessun altro che ti interessasse. Forse era accaduta la stessa cosa fra Terry Lennox e me. Ma no, non proprio. Possedevo una parte di lui. Avevo investito in lui tempo e denaro, e tre giorni passati al fresco per non parlare di un destro alla mascella e di un pugno nel collo che sentivo ancora quando deglutivo. Adesso era morto, e non avrei potuto neppure restituirgli di 500 dollari. Questo mi addolorava. Sono sempre le piccole cose ad addolorarci. Il campanello della porta e il telefono squillarono nello stesso momento. Risposi anzitutto al telefono, perché il campanello significava soltanto che qualcuno era entrato nella minuscola sala d'aspetto. Il signor Marlow, il signor Endicott desidera parlarvi. Un momento, prego. L'avvocato venne all'apparecchio. «Qui Sewell Endicott», disse. Quasi non sapesse di essere già stato annunciato dalla sua segretaria. «Buongiorno, signor Endicott». «Lieto di sapere che vi hanno rilasciato. Forse la vostra idea di non fare alcuna opposizione era giusta». «Non si è trattato di un'idea, ma solo di testardaggine». «Non credo che vi infastidiranno ancora, ma se la facessero e aveste bisogno di aiuto, avvertitemi». «Perché dovrebbero venire a cercarmi? L'uomo è morto. Incontrerebbero infernali difficoltà solo per provare che siamo mai stati insieme. Poi dovrebbero provare che aveva commesso un omicidio e stava sottraendosi alla legge». Si schiarì la voce. «Forse», disse in tono cauto, «non avete saputo che ha lasciato una completa confessione». «Me lo hanno detto, signor Endicott. Sto parlando con un avvocato. Sarebbe azzardato ricordarvi che occorrerebbe anche provare tanto l'autenticità quanto la veridicità della confessione». «Temo di non avere il tempo per una dissertazione legale», disse in tono aspro. «Parto in aereo per il Messico, con un dovere piuttosto melanconico da compiere. Riuscirete probabilmente a immaginare di che cosa si tratta, no?» «Dipende da chi rappresentate. Non me l'avete detto, ricordate?» «Ricordo perfettamente. Bene, arrivederci, Marlowe. La mia offerta di aiuto è sempre valida, ma consentitemi anche di offrirvi un piccolo consiglio. Non siate troppo sicuro di esservela cavata. Siete impegolate in una faccenda molto delicata!» Riattaccò. Rimisi a posto con cura il ricevitore. Per un attimo rimasi con una mano sull'apparecchio, accigliato. Poi mi cancellai il cipiglio dal volto e mi alzai per aprire la porta di comunicazione con la sala d'aspetto. Un uomo sedeva accanto alla finestra sfogliando una rivista. Indossava un vestito azzurro verdastro con un disegno a scacchi blu quasi invisibili. Teneva le gambe accavallate e calzava mocassini neri, di quelli con due soli occhielli per le stringhe che sono comodi a portarsi quasi quanto pantofole e non ti bucano i calzini ogni volta che percorri mezzo chilometro a piedi. Nel taschino della giacca aveva un fazzoletto bianco ben ripiegato e dietro a esso spuntava l'estremità di un paio di occhiali da sole. Aveva capelli folti, neri e ondulati e una carnagione molto scura. Mi guardò con occhi brillanti come quelli di un uccello e sorrise sotto minuscoli baffi. La cravatta era di un marrone scuro annodata a farfalla sulla camicia immacolata. Gettò da parte la rivista. Le sciocchezze che scrivono questi individui? Disse. Ho letto un articolo su Costello. Già, sanno tutto di Costello, come io so tutto di Elena di Troia. Cosa posso fare per voi? Mi esaminò Placido. Tarzan su un grande monopattino rosso. Disse. Cosa? Voi, Marlow, Tarzan su un grande monopattino rosso. Vi hanno maltrattato molto? Qua e là. A voi che importa? Dopo che Albright aveva parlato a Gregorius? No, dopo no. Annui brevemente. È stata un'ottima idea chiedere a Albright di imporsi a quell'imbecille. Vi ho domandato che cosa ve ne importa. Fra parentesi non conosco l'ispettore Albright e non gli ho chiesto un bel niente. Perché dovrebbe intervenire a mio favore? Mi fissò, improvvisamente incupito. Si alzò ad agio con la grazia di una pantera, attraversò la stanza e andò a dare un'occhiata nell'ufficio. Mi fece un rapido cenno della testa affinché lo seguissi ed entrò. Era un tipo che la faceva da padrone ovunque si trovasse. Entrai dopo di lui e chiusi la porta. Rimasi accanto alla scrivania guardandosi intorno, divertito. Un ufficio modesto, disse. Molto modesto. Andai a mettermi dietro la scrivania e aspettai. Quanto guadagnate in un mese, Marlowe? Lasciai correre e accesi la pipa. Settecentocinquanta dollari al massimo, disse. Lasciai cadere un fiammifero spento nel posacenere e soffiai fuori il fumo. Siete una pulce, Marlowe. Siete una miserabile. Siete tanto piccolo che occorre una lente da ingrandimento per vedervi. Non aprì bocca. Vi commuovete per niente. Siete un facilone o un bonaccione in tutto. Fate conoscenza con un tale, bevete di quando in quando qualcosa insieme a lui, gli raccontate qualche barzelletta, gli passate qualche soldarello quando è a terra ed eccovi tutto suo. Come uno scolaretto che legge Frank Miriwell. Non avete fegato, intelligenza, conoscenze, risparmi e allora sfoggiate falsi atteggiamenti e vi aspettate che la gente si commuova. Tarzan su un grande monopattino rosso. Abbuzzò un logro sorrisetto. Per conto mio non valete un soldo bucato. Si sporse sulla scrivania e mi appioppò un marrovescio casuale e sprezzante, senza l'intenzione di farmi male, e il sorrisetto gli induggiò sulla faccia. Poi quando non battei ciglio neppure per questo, sedette ad agio, appoggiò un gomito sulla scrivania e si sostenne il bruno mento con la mano bruna. I vividi occhi da uccello mi fissavano e non verrà altro in essi se non quella brillantezza. Lo sapete chi sono, buono a niente? Vi chiamate Menendez. I ragazzi vi chiamano Mendy. Lavorate nello strip. Sì, eh? E come ho fatto a diventare tanto importante? Non saprei. Probabilmente avete cominciato come ruffiano in una casa di tolleranza messicana. Si tolse di tasca un porta sigarette d'oro e accese una sigaretta di tabacco scuro con un accendino d'oro. Soffiò uno sbuffo di fumo a sprigno e annui. Posò il porta sigarette d'oro sulla scrivania e lo accarezzò con la punta delle tita. Sono un tipaccio importante, Marlow. Guadagno denaro a palate. Devo guadagnare molti quattrini per ungere gli individui che vanno unti se si vogliono fare i soldi che occorrono per ungerli. Ho una casa a Belair che mi costa 90.000 dollari e ne ho già spesi più di altrettanti per arredarla. Ho una bella moglie bionda platino e due figli che frequentano college privati nell'est. Mia moglie ha gioielli che valgono 150.000 dollari e pellice vestiti per altri 75.000 dollari. Ho un maggiordomo, due cameriere, un cuoco, un autista senza contare la guardia del corpo che mi segue passo per passo. Ovunque vado me la passo da re. Il meglio di tutto, i cibi più raffinati, i liquori più costosi, i vestiti migliori, i migliori appartamenti in albergo. Ho una villa in Florida e un panfilo con cinque uomini di equipaggio. Ho una Bentley, due Cadillac, una Chrysler giardinetta e una MG per mio figlio. Fra un paio d'anni ne regalerò una anche a mia figlia. Voi cosa avete? Non molto, risposi. Quest'anno ho una casa in cui abitare, tutto solo. Senza una donna. Soltanto per me. Inoltre possiedo quello che potete vedere qui è 1.200 dollari in banca e qualche altro migliaio di dollari investiti in buoni del tesoro. Ho risposto in modo soddisfacente alla domanda. Qual è la cifra massima che vi abbia fatto guadagnare un incarico? 850 dollari. Gesù, fino a che punto può svilirsi un individuo? Finitela di recitare e ditemi che cosa volete. Spense la sigaretta fumata a metà e immediatamente ne accese un'altra. Si appoggiò allo schienale della sedia. Mi guardò e incurvò le labbra. Eravamo in tre a mangiare in una piccola trincea al fronte, disse. Faceva un freddo d'inverno. C'era neve dappertutto. Mangiavamo roba in scatola, roba gelata. Pioveva qualche granata. I colpi dei mortai erano più fitti. Il freddo ci aveva fatto illividire. Dico illividire. Rendi star e io. E' questo Terry Lennox. Un proiettile di mortaio viene a cadere proprio in mezzo a noi e per non so quale ragione non esplode. Quei tedeschi ne sanno di trucchi, col loro distorto senso dell'umorismo. Magari pensi che il proiettile non esploda e invece tre secondi dopo eccolo scoppiare. Terry lo afferra e balza fuori dalla trincea prima ancora che Rendi e io si riesca a rimetterci dalla sorpresa. Ma veloce come il fulmine fratello. Come un bravo giocatore di baseball. Si getta faccia a faccia in giù e scaglia lontano il proiettile e quello esplode in aria. Quasi tutte le schegge gli passano sopra la testa ma una lo colpisce in faccia. Proprio in quel momento i tedeschi vengono all'attacco e quando abbiamo il tempo di guardarci intorno non siamo più lì. Menendez si interruppe e mi fissò con lo sguardo vivido e fermo dei suoi occhi neri. Grazie per avermelo detto, murmurai. Vi mettete sulla buona strada Marlow. Così va bene. Rendi e io parlammo della cosa e ci dicemmo che quanto era successo a Terry Lennox sarebbe bastato a fracassare il cranio a chiunque. Per molto tempo lo credemmo morto ma non lo era. I tedeschi lo avevano fatto prigioniero. Lo curarono per un anno e mezzo circa. Lo curarono bene ma gli fecero troppo male. Ci costò parecchi quattrini venirlo a sapere e ci costò parecchio trovarlo. Ma ci eravamo arricchiti col mercato nero dopo la guerra. Potevamo permettercelo. Per averci salvato la pelle Terry non guadagnò altro che mezza faccia nuova. I capelli bianchi è una grave malattia nervosa. Tornato all'est e incominciò a bere. Si fece arrestare qua e là. Divenne uno straccio. Qualcosa lo tormentava ma non riuscimmo mai a sapere che cosa fosse. Poi fummo informati che aveva sposato quella ricca dama e che se la passava bene. A un tratto divorzia. Si ritrova a terra. La risposa e lei crepa. Rendi e io non possiamo fare niente per lui. Non accetta nessun aiuto da noi eccettuato quel posto a Las Vegas e quando si trova realmente nei guai non si rivolge a noi. Si rivolge a un buon al niente come voi. A un tipo che si lascia sballottare dai poliziotti. E poi è la sua volta di crepare senza dirci una parola. Senza offrirci l'opportunità di ricambiare. Ho delle conoscenze nel Messico che avrebbero potuto farlo sparire per sempre. Avrei potuto farlo uscire dagli Stati Uniti più in fretta di quanto un illusionista non riesca a mescolare un mazzo di carte. Ma no. Corre a piagnucolare da voi. Mi viene il volta stomaco al solo pensarci. Un buon al niente. Uno che si lascia maltrattare dai poliziotti. I poliziotti possono maltrattare chiunque. Che cosa volete che faccia? Voglio solo che la piantiate. Disse Menendez in tono duro. Piantarla di far che? Di cercare di farvi della pubblicità con il caso Lennox. È finito. Chiuso. Terry è morto e vogliamo che venga lasciato in pace. Quel ragazzo ha sofferto troppo. Un delinquente sentimentale. Disse. Mi stupisce. Badate a come parlate. Buona niente. Badate a come parlate. Men di Menendez non discute. Avverte e basta. Trovate qualche altro espediente per guadagnare un dollaro. È chiaro? Si alzò. Il colloquio era finito. Prese i guanti di pelle di cinghiale bianca come la neve. Sembrava che non li avesse mai usati. Un tipo elegante il signor Menendez ma molto duro dietro l'apparenza da damerino. Non vado in cerca di pubblicità. Disse. E nessuno mi ha offerto un compenso. Per quale ragione dovrebbero pagarmi? Non me la date a bere Marlow. Non avete passato tre giorni al fresco solo per bontà di cuore. Siete stato pagato. Non dico da chi. Ma posso bene immaginarlo. È l'uomo al quale sto pensando a mezzo in abbondanza. Il caso Lennox è chiuso e resterà chiuso anche se... Si interruppe di colpo e frustò con i guanti l'orlo della scrivania. Anche se Terry non l'ha uccisa. Disse. La sorpresa di lui fu sottile come loro su un falso anello anunziale. Vorrei poter essere d'accordo con voi su questo buono al niente. Ma è assurdo. Tuttavia anche se non fosse assurdo e se Terry ha voluto che le cose stessero così, così resteranno. Non dissi nulla. Dopo un attimo atteggiò le labbra un lento sorriso. Tarzan sul grande monopattino rosso. Fece con voce strascicata. Un uomo in gamba. Un uomo duro. Mi permette di entrare qui dentro e di camminargli addosso. Uno che si lascia comperare con pochi spiccioli e si fa maltrattare da chiunque. Né denaro, né famiglia, né prospettive. Nulla. Ci vediamo. Buono al niente. Rimasi seduto con le mascelle serrate fissando il luccichio del porta sigarette d'oro sull'angolo della scrivania. Mi sentivo vecchio e stanco. Mi alzai e presi il porta sigarette. Dimenticate questo. Dissi girando intorno alla scrivania. Ne ho una mezza dozzina. Fece in tono beffardo. Quando gli fui abbastanza vicino gli porsi l'oggetto. Allungò la mano con un gesto indifferente. Che ne dite di una mezza dozzina di questi? Gli domandai. E lo colpì in pieno ventre il più forte possibile. Si piegò in due miagolando e il porta sigarette cadde sul pavimento. Menendez indietreggiò contro la parete e agitò convulsamente le mani avanti e indietro. Faceva fatica a riempirsi d'aria ai polmoni. Sudava. Molto ad agio con uno sforzo enorme si raddrizzò e di nuovo ci guardammo negli occhi. Allungai la mano e gli passai un dito sull'osso della mascella. Rimase immobile. Infine riuscì a far affiorare un sorriso dalla sua faccia abbronzata. Non credevo che ne foste capace. Disse. La prossima volta portate una rivoltella o non chiamatemi buono a niente. Ho un uomo armato che mi accompagna. Portatelo con voi. Ne avrete bisogno. Non è facile mandarvi in bestia Marlow. Spostai da un lato il porta sigarette d'oro col piede. Poi mi chinai a raccattarlo e glielo diedi. Lo prese e se lo infilò in tasca. Non riuscivo a capirvi. Disse. Non capivo perché avete creduto opportuno perdere tempo per venire qui a fare il bullo. Poi siete diventato monotono. Tutti i duri sono monotoni. È come giocare a carte con un mazzo fatto soltanto da assi. Dite di avere tutto ma non avete un bel niente. Ve ne state semplicemente seduto ad ammirare voi stesso. Non c'è nulla di strano se Terry non è venuto a chiedervi aiuto. Sarebbe stato come farsi prestare del denaro da una puttana. Si premette delicatamente il ventre con due dita. Spiacente che abbiate detto questo. Buono a niente. Potreste colpire il segno una volta di troppo. Si avvicinò alla porta e la spalancò. Fuori la guardia del corpo si scostò dalla parete opposta e si voltò. Menendez fece un cenno con la testa. La guardia del corpo entrò nell'ufficio e rimase lì a guardarmi senza espressione. Guardalo bene, Cic, disse Menendez. Accertati di poterlo riconoscere, se fosse necessario. Tu e lui potreste incontrarvi un giorno di questi. L'avevo già visto, capo, disse il damerino bruno dalle labbra sottili, parlando senza muovere le labbra come fanno tutti. Non mi preoccuperebbe per niente. Non lasciare che ti colpisca le budella, disse Menendez con un acido sorriso. Ha un destro poco divertente. La guardia del corpo si limitò a sogginare. Non riuscirebbe ad avvicinarsi abbastanza. Bene, arrivederci, buono a niente, mi disse Menendez e uscì. Ci vediamo, fece l'angelo custode gelido. Mi chiamo Cic Agostino. Credo che mi riconoscerete. Sì, come un giornale sporco, disse. Ricordami di non camminarti sulla faccia. Gli si gonfiarono i muscoli della mascella, poi girò improvvisamente sui tacchi e seguì il suo capo. La porta si chiuse ad agio, spinta dal congegno pneumatico. Ascoltai, ma non udì i loro passi lungo il corridoio. Camminavano con la morbidezza dei gatti. Tanto per accertarmi, aprì di nuovo la porta dopo un minuto e guardai fuori. Ma non c'era anima viva nel corridoio. Tornai alla scrivania, mi misi a sedere e per qualche tempo mi domandai per quale ragione un gangster locale abbastanza importante come Menendez, aveva ritenuto necessario venire personalmente nel mio ufficio ad avvertirmi di non ficcare il naso in cose che non mi riguardavano. E questo solo pochi minuti dopo che avevo ricevuto un avvertimento analogo, anche se espresso in modo diverso, da Sewell Endicott. Non approdai a niente in questo modo e pensai allora di tanto valeva di prendere di petto la questione. Alzai il ricevitore e chiamai il Club Terrapin a Las Vegas. Philip Marlowe chiedeva di parlare personalmente col signor Randy Star. Il signor Star era fuori città. Desideravo parlare con qualcun altro? No, non lo desideravo. A dire il vero non avevo neppure una gran voglia di parlare con Star. Era stata soltanto una fuggevole idea. Si trovava troppo lontano per potermi colpire. Dopodiché nulla accadde per tre giorni. Nessuno mi diede un colpo in testa o mi sparò o mi chiamò al telefono per ammonirmi di non fare il ficcanaso. Nessuno mi assunse per trovare la figlia fuggita di casa, la moglie fedifraga, la collana di perle smarrita o il testamento scomparso. Non feci altro che starmene seduto a contemplare la parete. Il caso Lennox svanì quasi con la stessa rapidità con la quale era sorto. Vi fu un'inchiesta sommaria e non venne convocato. Ebbe luogo a un'ora inconsueta, senza essere preannunciata e senza una giuria. Il magistrato inquirente pronunciò la sentenza in base alla quale la morte di Silvia Potter Westerheim era stata premeditatamente causata da suo marito, Terence William Lennox, e in seguito deceduto fuori della zona soggetta alla giurisdizione del magistrato inquirente. Presumibilmente la confessione venne letta durante l'inchiesta. Presumibilmente la veridicità ne fu controllata quanto bastava per soddisfare il magistrato. Vi fu il permesso di celebrare i funerali. La salma di Silvia venne trasportata in volo al nord e sepolta nella tomba di famiglia. I giornalisti non furono invitati ad assistere alla sepoltura. Nessuno concesse interviste, meno di tutti Arlan Potter, che non ne concedeva mai. Era inaccessibile, quasi quanto il Dalai Lama. Gli individui che possiedono un centinaio di milioni di dollari conducono un'esistenza tutta particolare dietro una rete protettiva di camerieri, guardie del corpo, segretari, avvocati e sottomessi dirigenti. Presumibilmente mangiano, dormono, si fanno tagliare i capelli e indossano vestiti, ma non lo si sa mai con certezza. Tutto ciò che si legge o si sente dire di loro è stato manipolato da un gruppo di persone addette alle relazioni pubbliche, lautamente pagate, per creare e mantenere una proficua personalità, un che di netto, di semplice e di affilato, come un ago sterilizzato per iniezioni ipodermiche. Non è necessario che sia vero, basta semplicemente che questa personalità immaginaria si accordi con i fatti accertati e i fatti accertati si possono contare sulla punta delle dita. Nel tardo pomeriggio del terzo giorno il telefono squillò ed eccomi in conversazione con un tale che disse di chiamarsi Howard Spencer, di trovarsi in California per conto di una casa editrice di New York. Stava compiendo un breve giro d'affari, desiderava parlare con me di una certa questione. Volevo essere così cortese da incontrarmi con lui nel bar dell'hotel Ritz-Beverly alle undici della mattina dopo? Gli domandai di che questione si trattasse. È piuttosto delicata, disse, ma perfettamente onesta. Nel caso in cui non dovessimo trovarci d'accordo vi ricompenserò per il tempo perduto, naturalmente. Vi ringrazio, signor Spencer, ma non sarà necessario. Vi sono stato raccomandato da qualche mia conoscenza? Da qualcuno che vi conosce ed è anche informato dei vostri recenti attriti con la polizia, signor Marlow. Posso dire che proprio questo mi ha interessato. I miei affari, tuttavia, non hanno nulla a che vedere con il tragico episodio in questione. È solo che, ma parliamone bevendo qualcosa, anziché al telefono. Siete certo di voler avere rapporti con un individuo che è stato al fresco? Rise. Tanto il suo modo di ridere quanto la sua voce erano piacevoli. Parlava come i new yorkesi all'antica. Dal mio punto di vista, signor Marlow, questo è un titolo di merito. Non già consentitemi di aggiungere il fatto che siete stato, come dite voi, al fresco, ma il fatto, diciamo, che abbiate saputo dar prova di un'estrema riservatezza, anche mentre eravate sottoposti a pressioni. Era un tipo che si esprimeva a furia di virgole, come nei romanzi letterari, perlomeno al telefono. D'accordo, signor Spencer, ci vediamo domattina. Mi ringraziò e riattaccò. Mi domandai chi avesse potuto raccomandarmi. Pensai che poteva essere stato Stewell Handicott e gli telefonai per accertarmene. Ma si trovava fuori città da una settimana e ancora non era tornato. La cosa, d'altronde, non aveva molta importanza. Persino nel mio mestiere di quando in quando si riesce ad accontentare un cliente. E a me occorreva un incarico perché avevo bisogno di denaro. O così, credetti, finché non tornai a casa quella sera e non trovai la lettera che conteneva un ritratto di Madison. 12. La lettera si trovava nella cassetta della posta rossa e bianca che riproduce un nido di uccelli ai piedi della rampa di scale di casa mia. Il merlo poliglotta di legno che si solleva quando la cassetta contiene qualcosa era alzato. Ciò nonostante, forse non avrei aperto lo sportello perché non ricevevo mai posta all'indirizzo di casa, ma il merlo poliglotta aveva perduto la punta del becco molto di recente. La rottura nel legno era ancora fresca. Qualche monello in gamba si era servito del suo fuciletto atomico. Sulla busta c'era la stampigliatura Correo Aereo. Una costellazione di francobolli messicani e l'indirizzo vergato in una calligrafia che avrei anche potuto non riconoscere se negli ultimi tempi i miei pensieri non si fossero accentrati senza posa sul Messico. Non riuscì a leggere la data sul timbro postale. era stato stampigliato a mano e il timbro aveva assorbito inchiostro da un cuscinetto quasi asciutto. Il contenuto della busta era piuttosto voluminoso. Salì la scala e mi misi a sedere nella stanza di soggiorno per leggere la lettera. La serata sembrava molto silenziosa. Forse la lettera di un morto apporta un grande silenzio. Cominciava senza data e senza alcun preambolo. Me ne sto seduto accanto alla finestra in una stanza al secondo piano di un albergo non troppo pulito di Otatoclan, un villaggio di montagna sul lago. Sul marciapiede, proprio sotto la mia finestra, c'è una cassetta postale e quando il mosso è venuto a portarmi il caffè gli ho detto che mi imbucherà questa lettera, ordinandogli di tenerla sollevata bene in alto in modo che possa vederla prima che l'infili nella cassetta postale. Dopo aver fatto questo avrà una banconota da 100 pesos, un'enorme somma di denaro per lui. Perché tutte queste precauzioni? C'è un tipo dalla carnagione scura con le scarpe a punta e la camicia sporca fuori dalla porta a sorvegliarmi. Sta aspettando qualcosa. Non so di che cosa si tratti ma non mi lascia uscire. Questo non ha molta importanza, purché la lettera venga imbucata. Voglio che riceviate questo denaro perché non ne ho bisogno e perché andrebbe senza dubbio a finire nelle mani di gendarmi locali. Non intende essere una ricompensa. Consideratelo come delle scuse per avervi procurato tanti fastidi e come un pegno di stima nei riguardi di un uomo molto retto. Ho sbagliato tutto da cima a fondo, come sempre, ma ho sempre la rivoltella. Ho l'impressione che con ogni probabilità vi sarete convinto di una certa cosa. Potrei averla uccisa e probabilmente l'ho fatto, ma non sarei mai stato capace di farle il resto. Questo genere di brutalità non fa per me. C'è quindi qualcosa di molto losco, ma non ha importanza. L'essenziale ora consiste nell'evitare un inutile scandalo. Suo padre e sua sorella non mi hanno fatto alcun male. Devono vivere la loro vita e io sono nauseato della mia. Non fu Silvia a fare di me un miserabile. Lo ero già. Non posso spiegarvi in modo molto chiaro perché mi abbia sposato. Fu soltanto un capriccio, credo. Perlomeno è morta giovane e bella. Dicono che la lussuria invecchia l'uomo, ma mantiene giovane la donna. Ma quali assurdità non vengono dette? Si dice che i ricchi possono sempre tutelarsi e che nel loro mondo regna eternamente l'estate. Ho vissuto con loro. Sono gente tediata e sola. Ho scritto una confessione. Provo un certo senso di schifo e sono non poco spaventato. Si legge di situazioni del genere nei romanzi, ma non è la verità. Quando capitano, quando tutto ciò che rimane è una rivoltella in tasca, quando ci si ritrova con le spalle al muro in uno sporco alberghetto che non si ha che una via d'uscita, credetemi amico mio, non c'è nulla di nobile o di drammatico in questo. È soltanto orribile, sordido, grigio e tetro. Dimenticatevi quindi di tutto questo e di me. Ma prima bevete un succhiello invece mia, al Victor, e quando farete il caffè, versatene una tazza, metteteci un goccio di whisky e accendetemi una sigaretta e posatela accanto alla tazza. E poi dimenticate tutto. Terry Lennox è finito. Addio dunque. Qualcuno ha bussato alla porta. Penso che sia il mozzo con il caffè. Se non è lui, ci sarà una sparatoria. In genere mi piacciono i messicani, ma detesto le loro prigioni. Addio. Terry. Era tutto qui. Pieghai la lettera e la rimisi nella busta. Era stato senz'altro il mozzo con il caffè a bussare, altrimenti non avrei mai ricevuto la lettera. La lettera con un ritratto di Madison. Un ritratto di Madison è una banconota da 5.000 dollari. Si trovava di fronte a me, verde e nuovissima, sul tavolo. Non ne avevo mai veduta una. Persino molti impiegati di banca non ne hanno mai vedute. Molto probabilmente individui come Randy Starre e Melendez le portano in tasca, considerandole spiccioli. Se entri in una banca e chiedi una banconota da 5.000 dollari, non ce l'hanno quasi mai. Devono procurarsela presso la riserva federale. E possono passare parecchi giorni. E in tutti gli Stati Uniti ce n'è soltanto un migliaio in circolazione. La mia sembrava irradiare un bel bagliore. Creava una piccola luminosità solare tutta sua. Rimasi seduto a fissarla per molto tempo. Infine la misi nel cassetto della scrivania e andai in cucina a preparare il caffè. Feci come Terry mi aveva chiesto. Fosse o no un sentimentalismo. Riempì i due tazze. Mesi nella sua un goccio di whisky e la posai sul lato del tavolo dove si era seduto la mattina in cui l'aveva accompagnata all'aeroporto. Accesi per lui una sigaretta e la misi nel posacenere accanto alla tazza. Guardai il vapore alzarsi dal caffè e il sottile filo di fumo levarsi inanellato della sigaretta. Fuori, nei cespugli, un uccelletto svolazzava qua e là, parlando fra sé con sommessi cinguetti, facendo di quando in quando frullare brevemente le ali. Poi il vapore non si alzò più dal caffè e la sigaretta smise di mandar fumo e non fu altro che un mozzicone spento sull'orlo di un portacenere. La gettai nel secchio dei rifiuti sotto il lavandino, rovesciai il caffè nel lavandino, lavai la tazza e la rimisi a posto. Tutto qui. Non sembrava fatto sufficiente per 5.000 dollari. Dopo qualche tempo andai al cinema. Non mi giovò per niente. Quasi non vidi le immagini sullo schermo. Il film non era che un frastuono ed enormi volti. Tornato a casa, provai una partita a scacchi, ma anch'essa non aveva alcun senso. Così mi coricai. Ma non presi sonno. Alle tre del mattino camminavo avanti e indietro nella stanza, ascoltando Cacciaturian al lavoro in una fabbrica di trattori. Secondo lui era un concerto per violino, secondo me la pala di un ventilatore che ortava contro lo schermo di protezione e andasse pure all'inferno. Una notte in bianco per me è rara come un postino grasso. Se non fosse stato per il signor Howard Spencer e per il Ritz-Beverly avrei scolato una bottiglia, sborniandomi solennemente. E promisi a me stesso che se avessi rivisto un tipo compito, ubriaco in una Rolls Royce, mi sarei rapidamente allontanato in varie direzioni. Non c'è trappola più mortale di quella che prepariamo con le nostre stesse mani. 13. Alle 11 sedevo nel terzo separé sulla destra, entrando dal salone da pranzo. Avevo le spalle rivolte alla parete e vedevo chiunque entrasse e uscisse. Era una mattinata limpida, senza nebbia, senza neppure la bruma alta e il sole faceva baluginare la superficie della piscina che, partendo dalla parete di cristallo del bar, si stendeva fino all'estremità opposta del salone da pranzo. Una ragazza in costume bianco di pelle di pesce cane, una ragazza dal corpo provocante, si stava arrampicando sulla scaletta del trampolino più alto. Osservai la striscia candida che appariva tra l'abbronzatura delle cosce e il costume. La osservai con carnalità. Poi ella scomparve, nascosta dall'ampio sbalzo del tetto. La vidi lampeggiare verso l'acqua con una doppia giravolta. Gli spruzzi balzarono tanto in alto da catturare il sole e si accesero con arcobaleni graziosi, quasi quanto la ragazza. Poi, eccola, salire la scaletta, togliersi la cuffia di gomma bianca, scuotere la bionda chioma. I sole natiche su un tavolinetto bianco e sedette accanto a un ciccione in pantaloni bianchi, con gli occhiali da sole e la pelle così abbronzata che poteva essere soltanto il bagnino della piscina. L'uomo allungò la mano e le diede una pacca sulla coscia. Lei spalancò la bocca grande come un secchio e rise. Ciò pose fine al mio interessamento nei suoi riguardi. Non udivo la risata, ma quel buco nella faccia, quando faceva scorrere la chiusura lampo sui denti, mi bastava. E il bar era quasi deserto. Tre separe più in là, due intelligentoni cercavano di vendersi a vicenda a vecchi soggetti della 20th century fox, servendosi di gesticolazioni di entrambe le braccia anziché di denaro. C'era un telefono sul tavolino, tra i due, e ogni tre o quattro minuti si sfidavano per vedere chi avrebbe telefonato a Zanouk, un'idea luminosa. Erano giovani, bruni, dinamici e pieni di vitalità. Si servivano in una conversazione telefonica della stessa energia muscolare che a me sarebbe bastata per trasportare un ciccione su per quattro rampe di scale. Vi era un tipo melanconico su uno sgabbello lungo il banco del bar. Parlava al barista che puliva uno specchio e lo ascoltava con il plastico sorriso di chi sta compiendo uno sforzo per non urlare. Il cliente era un uomo sulla quarantina, magnificamente vestito e ubriaco. Voleva parlare e non si sarebbe potuto fermare neppure se avesse voluto tacere. Era cortese e cordiale e nel momento in cui lo udì, sembrava che non avesse la lingua troppo impastata, ma si capiva che non avrebbe mollato la bottiglia se non dopo essersi addormentato una volta scesa la notte. Così si sarebbe comportato per tutto il resto della sua esistenza. La vita di lui era fatta in quel modo. Non avreste mai potuto sapere come si fosse conciato così poiché, anche se ve l'avesse detto, non sarebbe stata la verità. Nella migliore delle ipotesi vi avrebbe riferito una versione deformata della verità, come lui la ricordava. C'è un uomo melanconico come quello in tutti i tranquilli bar di questo mondo. Guardai l'orologio. L'indaffarato rappresentante dell'industria editoriale era già in ritardo di 20 minuti. Avrei aspettato mezz'ora e poi me ne sarei andato. Non è mai redditizio consentire al cliente di far tutto a modo suo. Se riesce a imporsi su di voi, presumerà che anche gli altri possano farlo e non vi paga per questo. Per giunta, in quel momento, non avevo tanto bisogno di lavoro da consentire che un imbecille dell'Est approfittasse della mia pazienza. Da rassegnarmi all'alterigia di uno di quei dirigenti che se ne stanno in un ufficio rivestito a pannelli all'85esimo piano con una serie di pulsanti sulla scrivania e il telefono interno e una segretaria diplomata, una di quelle segretarie dai grandi, meravigliosi, promettenti occhi. Quel tipo di dirigenti che ti fissano un appuntamento per le nove precise che, se non ti trovano tranquillamente seduto con un sorriso compiaciuto sulle labbra, quando arrivano due ore dopo, pavoleggiandosi in un elegantissimo doppio petto, si lasciano andare a un parossismo di oltraggiata capacità direttiva. A un parossismo tale da sconvolgere il loro sistema nervoso e da costringerli a trascorrere cinque settimane ad Acapulco per recuperare la consueta energia dittatoriale. Il vecchio cameriere si avvicinò e mi sbirciò sorgnone il bicchiere di whisky e acqua quasi vuoto. Scossi la testa e lui chinò la zazzera bianca e proprio in quel momento ecco entrare un sogno. Per un attimo mi parve che nel bar regnasse il più teso silenzio, che i due intelligentoni avessero smesso di fare gli intelligentoni, che l'ubriaco sullo sgabbello avesse interrotto la sua nenia. Parve il momento in cui il direttore d'orchestra picchia la bacchetta sull'eggio e alza le braccia e resta con le braccia tese. La giovane donna era esile e molto alta, in un abito a giacca bianco con una scarpa bianca punteggiata di nero al collo. Aveva i capelli del loro pallido duran principessa delle fiabe. Vi era su di essi un cappellino nel quale si rannicchiavano come uccelletti nel nido. I suoi occhi erano di un celeste fiordaliso, un colore raro, celati da ciglia lunghe e fin troppo bionde. Si avvicinò al tavolino di fronte al mio e si sfilò un lungo guanto bianco mentre il vecchio cameriere spostava il tavolino come nessun cameriere lo ha mai spostato per me. Sedette e infilò i guanti sotto il fermaglio della borsetta e ringraziò il cameriere con un sorriso così dolce, così squisitamente puro che per poco il vecchio non ne fu paralizzato. Ella gli disse qualcosa a voce molto bassa. Il cameriere si affrettò ad allontanarsi, chino in avanti. Ecco un uomo che realmente aveva una missione nella vita. La fissai. Mi sorprese, intento a guardarla. Spostò di un paio di centimetri la direzione del suo sguardo e io non mi trovai più lì, per lei, ma dovunque mi trovassi stavo trattenendo il respiro. Ci sono bionde e bionde e al giorno d'oggi questa è quasi una battuta di spirito. Tutte le bionde hanno i loro vantaggi, eccettuate forse quelle metalliche che sotto la tintura sono bionde quanto gli Zulu e per quanto concerne l'indole sono tenere quanto un marciapiede. C'è la bionda piccoletta e furba che cinguetta e ciangotta e l'imponente bionda statuaria che con uno sguardo azzurro come il ghiaccio ti mette con le spalle al muro. C'è la bionda che ti guarda dall'alto in basso e ha un buon profumo ad è tutta vibrante e luminosità e ti si attacca al braccio ed è sempre tanto, tanto stanca quando l'accompagna a casa. Fa il consueto gesto di diniego e ha il solito dannato mal di capo e tu vorresti stordirla con un colpo in testa, ma in fondo sei lieto di aver saputo dell'emicrania prima di aver investito in lei troppo tempo e denaro e troppe speranze. Poiché l'emicrania la difenderà sempre è un'arma che non si logora mai ed è mortale quanto il pugnale dei bravi o la fiala di veleno di Lucrezia. C'è la bionda tenera, accondiscente ed alcolizzata che non si cura di ciò che indossa, purché si tratti di visone o di dove va, purché la meta sia un club notturno di lusso e vi si possa bere champagne a volontà. C'è la bionda minutina e vivace che è una piccola camerata e vuole fare a mezzo quando si paga il conto ed è piena di luce e di buonsenso e conosce a fondo la lotta giapponese e può scaraventare a terra un autista di camion facendoselo volteggiare sulla spalla senza saltare più di una frase nell'articolo di fondo del Saturday Review. C'è la pallida, esangue e bionda, affetta da un'anemia di tipo non fatale ma incurabile. È molto languida, è molto crepuscolare, parla con una voce bassa che pare venire dall'oltretomba e non puoi toccarla neppure con un dito. In primo luogo perché non ne hai alcuna voglia, in secondo luogo perché sta leggendo The Wasteland o Dante nella lingua originale o Kafka o Kierkegaard oppure sta studiando il Provenzale. Adora la musica e quando l'orchestra filarmonica di New York suona Eindsmith sa dirti quale dei sei violoncelli abbia attaccato con un quarto di misura troppo tardi. Mi si dice che anche Toscanini ne era capace. Così sono in due e infine c'è la bionda sfarzosa e spettacolare che seppellisce tre gangster e poi sposa due milionari con un milione di dollari ciascuno e conclude la sua carriera con una villa rosa pallido a Cap d'Antibes, con un Alfa Romeo al completo di autista e vice autista e una scuderia di aristocratici squattrinati che tratta dal primo all'ultimo con l'affettuosa, distratta con discendenza di un vecchio duca quando augura la buonanotte al suo maggior domo. Il sogno di fronte a me non apparteneva a nessuna di queste categorie e neppure a questo mondo. Era inclassificabile, una donna remota e limpida come acqua di montagna e elusiva come l'acqua di fonte e in colore. Ero ancora intento a fissarla quando una voce accanto a me disse Sono tremendamente in ritardo. Domando scusa, la colpa è di questi. Sono Howard Spencer, voi siete Marlowe naturalmente. Voltai la testa e lo guardai. Era un uomo di mezza età, piuttosto grassoccio, vestito in modo trasandato ma ben sbarbato e con il rad i capelli pettinati con cura sulla testa dalle orecchie a ventola. Portava un vistoso panciotto a doppio petto, uno di quegli indumenti che ben dirrado capita di vedere in California se non indosso a un bostoniano di passaggio. Aveva occhiali non cerchiati e dava colpetti a una vecchia logora borsa che presumibilmente conteneva i questi. Tre nuovissimi manoscritti di romanzi. Sarebbe imbarazzante mollarli prima di avere un pretesto per rifiutarli. Fece cenno al vecchio cameriere che aveva appena indietreggiato dopo aver posto un altro bicchiere di liquido verdastro di fronte al sogno. Ho un debole per il gin con il succo d'arancia, una bibita davvero strana. Mi farete compagnia? Bene. Annui e il vecchio cameriere si allontanò. Indicando la borsa disse, come sapete che verranno rifiutati? E se valessero qualcosa l'autore non sarebbe venuto personalmente a portarmeli in albergo? Li avrebbe qualche agente letterario di New York? Allora perché non li avete restituiti? In parte per non offenderlo, in parte per quella probabilità su mille che dà da vivere a tutti gli editori, ma in genere ci si trova un cocktail e si viene presentati a ogni genere di persone e c'è sempre qualcuno che ha scritto un romanzo. E poiché si è già bevuto abbastanza per sentirsi benevoli e ben disposti nei confronti dell'intera umanità, si dice che si sarebbe ben lieti di esaminare il manoscritto. Dopodiché esso viene lasciato al vostro albergo con tale strabiliante rapidità che si è costretti a fare lo sforzo di leggerlo. Ma non credo che vi interessino molto gli editori e i loro problemi. Il cameriere portò i bicchieri. Spencer afferrò il suo e mandò giù un lungo sorso. Non aveva notato alla bionda di fronte a noi, tutta la sua attenzione era impegnata da me. Evidentemente sapeva stabilire i contatti personali con molta abilità. «Se fa parte del lavoro», disse, «posso leggere un libro di quando in quando». «Uno dei nostri autori più importanti risiede da queste parti», disse con indifferenza. «Forse avrete letto qualcosa di suo, è Roger Wade». «Capisco», fece un melancolico sorriso. «Non vi piacciono i romanzi storici, ma si vendono in modo strepitoso». «Non c'è nulla da capire, signor Spencer. Ho sfogliato uno dei suoi libri una volta, mi è parso una porcheria. O forse non avrei dovuto dirlo». Sorrise. «Oh no, molta gente la pensa come voi, ma il fatto è che attualmente ogni suo romanzo è un successo, e tutti gli editori debbono avere un paio di scrittori di questo genere, dati i costi del giorno d'oggi». Sbirciai la bionda. Aveva bevuto il succo di cedro, quello che era, e stava guardando un microscopico orologio da polso. Il locale si era riempito un poco, ma non era ancora molto chiassoso. I due intelligentoni continuavano ad agitare le braccia e l'ubriaco sullo sgabbello aveva ora un paio di compagni. Tornai a fissare Howard Spencer. «Ha a che vedere con la questione di cui mi avete parlato?» gli domandai. «Questo Wade, intendo dire». Annui. Mi stava osservando attentamente. «Ditemi qualcosa di voi, signor Marlowe, purché non vi dispiace, naturalmente». Che cosa volete sapere? «Sono un investigatore privato autorizzato e faccio questo mestiere da un pezzo. Sono un lupo solitario. Non ho moglie, sto arrivando alla quarantina e non sono ricco. Mi hanno messo dentro più di una volta e non mi occupo di divorzi. Mi piacciono i liquori, le donne e il gioco degli scacchi e alcune altre cose. I poliziotti non mi hanno eccessivamente in simpatia, ma ne conosco un paio con i quali vado d'accordo. Sono di origine americana, nato a Santa Rosa. Ho perduto entrambi i genitori, non ho fratelli né sorelle e quando una volta o l'altra mi faranno la pelle in qualche vicolo scuro, come potrebbe accadere a chiunque del mio mestiere e a moltissima gente che faccia altri mestieri e non ne abbia alcuno di questi tempi, nessun uomo o nessuna donna se ne dispereranno. Capisco, mormorò, ma tutto questo non mi dice esattamente quello che voglio sapere. Terminai di bere il gin col succo d'arancia. Non mi piaceva. Gli sorrisi. Ho messo un particolare, signor Spencer. Ho in tasca un ritratto di Madison. Ho un ritratto di Madison. Temo di non... Una banconota da 5.000 dollari, disse. La porto sempre con me. È il mio portafortuna. Buon Dio, disse in tono soffocato, non è terribilmente pericoloso? Chi ha detto che al di là di un certo punto tutti i pericoli si uguagliano. Credo sia stato Walner Bagot. Parlava di uno spazzacamino. Poi sorrise. Scusate, ma io faccio l'editore. Avete ragione, Marlow. Mi fiderò di voi. Se non lo facessi, mi direste di andare all'inferno, vero? Ricambia il sorriso. Chiamò il cameriere e ordinò altri due gin. Ecco qui, disse in tono riflessivo. Siamo molto preoccupati per Roger Wade. Non riesce a completare un libro. Sta perdendo il controllo di se stesso e deve esserci una ragione. Si direbbe che stia per crollare. Beve fuori di misura e va soggetto a violente crisi di collera. Di quando in quando scompare per giorni e giorni. Non molto tempo fa ha scaraventato la moglie giù dalle scale e la poverina è stata ricoverata all'ospedale con cinque costole rotte. Non ci sono disaccordi tra loro nel senso comune del termine. Assolutamente nessuno. Wade perde il lume della ragione solo quando ha bevuto. Spencer si appoggiò sullo schienale e mi fissò con aria afflitta. Dobbiamo fare in modo che quel libro venga completato. Ci è indispensabile. Fino a un certo punto il mio lavoro dipende da esso. Ma non si tratta soltanto di questo. Vogliamo salvare un abilissimo scrittore capace di produrre libri assai migliori di quelli che ha scritto fino a oggi. Sta accadendo qualcosa di molto grave. In questo mio viaggio non ha neppure voluto ricevermi. Mi rendo conto che può sembrare un compito da psichiatra. Ma la signora Wade non la pensa così. È convinta che il marito sia sanissimo di mente ma che qualcosa lo stia preoccupando a morte. Un ricatto per esempio. I Wade sono sposati da cinque anni. Può darsi che si tratti delle conseguenze di un episodio avvenuto nel passato di Roger. Potrebbe anche trattarsi ma è solo una supposizione di un investimento automobilistico dopo il quale egli abbandonò la vittima. Chissà che qualcuno non disponga delle prove per ricattarlo. Non sappiamo insomma di che cosa si tratta e vogliamo saperlo. E siamo disposti a pagare bene per porre rimedio alla situazione. Se risulterà che occorre l'intervento di un medico. Tanto peggio. In caso contrario deve esserci una spiegazione e nel frattempo la signora Wade ha bisogno di protezione. Roger potrebbe ucciderla la prossima volta. Non si sa mai. Arrivarono altri due gin. Non toccai il mio e guardai Spencer che beveva ad un fiato alla metà della bibita. Accesi una sigaretta e mi limitai a fissarlo. Non vi serve un investigatore? Dissi poi. Vi serve un mago? Che diavolo potrei fare? Se per caso mi trovassi lì proprio al momento giusto e se lui non fosse troppo robusto per le mie forze potrei metterlo fuori combattimento e portarlo a letto ma dovrei essere presente. C'è una probabilità contro cento. Lo sapete bene. Ha pressappoco la vostra corporatura? Disse Spencer. Ma non è robusto quanto voi e potreste trovarvi sempre lì. Sarebbe difficile e gli alcolizzati sono scaltri. Approfitterebbe certo di una mia momentanea assenza per dare ne scandescenze. Non sono disponibile per un posto di bambinaia. Una bambinaia non servirebbe. Roger Wade non è un uomo da accettare di essere sorvegliato in questo modo. È un uomo molto intelligente e ha perduto il controllo di se stesso. Ha guadagnato troppo denaro scrivendo romanzi di scarto per il grosso pubblico. La sola salvezza di uno scrittore consiste nel continuare a scrivere. Se in lui c'è qualcosa di buono salterà fuori. D'accordo? Dissi in tono stanco. È preoccupante ed è anche maledettamente pericoloso. C'è in lui un colpevole segreto e cerca di annegare i rimorsi nell'alcol. Ma io non mi occupo di questi problemi signor Spencer. Capisco. Guardò l'orologio da polso con un cipiglio preoccupato che gli corrugò il volto e lo fece sembrare vecchio e più piccolo. Bene non potete volermene se ho fatto un tentativo. Allungò la mano verso la borsa rigonfia. Io guardai la giovane donna dai capelli d'oro. Stava per andarsene. Il cameriere con la zazzera bianca si chinava su di lei con il conto. Gli diede un po' di denaro e un dolce sorriso e lui parve felice come se avesse scambiato una stretta di mano con Dio. Ella si ritoccò le labbra, si infilò i lunghi guanti bianchi e il cameriere spostò il tavolino sin quasi a metà del passaggio per lasciarla uscire. Sbirciai Spencer. Fissava accigliato il bicchiere vuoto sul lato del tavolino. Aveva la borsa sulle ginocchia. Sentite, dissi. Se lo desiderate andrò a trovare quell'uomo e cercherò di farmi un'idea su di lui. Parlerò con la moglie ma secondo me mi scaraventerà fuori di casa. Una voce che non era quella di Spencer disse. No signor Marlow non credo che farebbe una cosa simile al contrario credo che vi troverebbe simpatico. Alzai la testa e vidi due occhi violetti. Il sogno era in piedi accanto al tavolino. Mi alzai e mi addossai alla parete del separe nell'atteggiamento goffo che si assume quando non si può sgattaiolar via. Vi prego non alzatevi disse lei con una voce fatta della stessa sostanza che serve per foderare le nuvole estive. So di dovervi delle scuse ma mi è parso importante avere l'opportunità di osservarvi prima di presentarmi. Sono Aileen Wade disse Spencer in tono arcigno. La cosa non lo interessa Aileen? Ella fece un dolce sorriso. Non sono d'accordo. Mi ricomposi. Ero rimasto lì in precario equilibrio con la bocca aperta respirando in fretta con una trepida educanda. Quella donna era davvero un portento. Veduta da vicino aveva un effetto quasi paralizzante. Non ho detto che non mi interessa signora Wade. Ho detto ho creduto di dire che ritengo di non essere utile e che forse commetteremo un errore gravissimo se ci provassi. Le conseguenze potrebbero essere preoccupanti. Si fece seria. Il sorriso era scomparso. La vostra decisione è troppo frettolosa. Non potete giudicare la gente da quello che fa. Se proprio volete giudicarla dovete basarvi su quello che è. Annui vagamente. Poiché queste erano proprio le cose che avevo pensato a proposito di Terry Lennox. Giudicandolo dalle sue azioni non voleva assolutamente nulla eccettuato il fuggevole gesto di coraggio in trincea. Ammesso che Menendez avesse detto la verità ma i fatti non rappresentavano certamente tutto. Era stato un uomo che non si sarebbe potuto non apprezzare. Quante persone si conoscono nella vita nelle quali si possa dire altrettanto. E per poterlo fare dovete conoscerla continuò lei con dolcezza. Arrivederci signor Marlow se doveste cambiare idea. Apri rapidamente la borsetta e mi diede un biglietto da visita. E grazie per essere venuto. Fece un cenno di saluto a Spencer e si allontanò. La seguì con lo sguardo nel bar e nell'atrio rivestito di specchi che portava al salone da pranzo. Aveva un portamento meraviglioso. La guardai voltare sotto l'arcata del vestibolo. Viri l'ultimo lampeggiare della gonna bianca mentre scompariva. Poi mi rimisi a sedere nel separé e afferrai il bicchiere con il gin e il succo d'arancia. Spencer mi stava osservando. Aveva una luce dura negli occhi. Buon lavoro, dissi. Ma avreste dovuto darle un'occhiata di quando in quando. Un sogno come lei non vi resta seduto di fronte per venti minuti senza che lo notiate. È stato sciocco da parte mia, vero? Cercava di sorridere ma in realtà non ne aveva l'intenzione. Non gli era piaciuto il mio modo di guardarla. La gente si fa certe strane idee sugli investigatori privati quando si pensa di averne uno in casa nostra. Non crediate di poter avere me in casa vostra, dissi. Comunque inventate prima qualche altra storia. Dovete trovare di meglio anziché cercare di farmi credere che qualcuno, ubriaco o no, possa aver scaraventato quella dea giù dalle scale fracassando le cinque costole. Arrossì irrigidì le mani sulla borsa. Pensate che sia un bugiardo? Che importa? Avete recitato la commedia? Forse siete voi stesso un po' innamorato della signora. Balzò in piedi. E il vostro tono non mi va a genio? Disse. E non sono sicuro di trovarvi simpatico. Fatemi un favore, non pensateci più. Credo che questo basterà ricompensarvi del tempo perduto. Gettò sul tavolo un biglietto da 20 dollari. Poi aggiunse qualche dollaro per il cameriere. Per un attimo continuò a fissarmi. Aveva uno sguardo acceso ed era ancora rosso in faccia. Sono sposato e ho quattro figli. Disse a un tratto. Congratulazioni. Fece un verso soffocato nella gola. Girò sui tacchi e se ne andò. Camminava molto in fretta. Lo seguì per qualche tempo con lo sguardo. Poi abbassai gli occhi. Vuotai il bicchiere. Mi tolsi di tasca il pacchetto delle sigarette. Ne feci scivolare fuori una. Me la ficcai tra le labbra e l'accesi. Il vecchio cameriere si avvicinò e guardò il denaro. Posso servirvi qualche altra cosa, signore? No, i quattrini sono tutti per voi. Li raccolse ad agio. Questo è un biglietto da 20 dollari, signore. Il vostro amico si è sbagliato. Sa leggere. È tutto per voi, dissi. E vi ringrazio molto, davvero. Siete proprio certo, signore? Certissimo. Chinò il capo e si allontanò continuando a serbare un'espressione preoccupata. Il bar andava affollandosi. Due demi-virges aerodinamiche mi passarono accanto canticchiando e facendo gesti di saluto. Conoscevano gli intelligentoni nel separe più avanti. L'atmosfera cominciò a riempirsi di tesoro e di unghie laccate di rosso. Fumai mezza sigaretta fissando accigliato il vuoto. Poi mi alzai per andarmene. Mi voltai a prendere le sigarette e qualcuno mi urtò con violenza alle spalle. Era proprio ciò di cui avevo bisogno. Girai sui tacchi ed ecco il profilo di un giovialone dal largo sorriso con un vestito di flanella di lana troppo abbondante. Gesticolava salutando qualcuno col braccio teso, come tutti i cafoni, e aveva il sorriso a forno del tipo che riesce a sbolognare qualsiasi cosa. Lo afferrai per il braccio teso e lo feci piroettare. Ehi, che vi prende? Il passaggio non è forse abbastanza largo per il vostro carattere? Si liberò il braccio con uno scrollone e mi mise su una dura grinta. Niente buffonate, fanfarone, potrei slogarvi la mascella. Ha ha, feci. Potreste giocare a baseball nella squadra degli Yankees e far centro con un filone di pane. Strense il pugno grassoccio. Tesoro, pensate alla manicure, gli dissi. Si controllò. Andate al diavolo spiritoso, fece beffardo. Vi darò una lezione qualche altra volta, quando avrò meno pensieri per la testa. Potrebbe essere ancora più vuota. Filate, ringhiò. Ancora una spiritosagine e avrete bisogno di una dentiera nuova. Gli sorrisi. Fate pure, sagoma, ma servitevi di un dialogo più originale. Cambiò espressione, rise. Lavorate nel cinema, amico? No, mi occupo soltanto delle fotografie che espongono negli uffici postali. Ci vediamo dal fotografo della polizia, allora, disse e si allontanò, continuando a sorridere. Era tutto molto insulso, ma mi liberò dall'ira. Passai nell'atrio e attraversai il vestibolo dell'albergo fino all'ingresso. Mi soffermai sulla soglia per mettermi gli occhiali scuri. Solo quando fui salito sull'automobile mi venne in mente di dare un'occhiata al biglietto di visita di Aileen Wade. Era un biglietto litografato, ma non di quelli eleganti, poiché conteneva l'indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono. Signora Aileen Stairs Wade, 1247 Idle Valley Road. Telefono Idle Valley 56324. Conoscevo benissimo la Idle Valley e sapevo che era molto mutata dai tempi in cui vi si entrava passando per un cancello e verano degli agenti privati di sorveglianza e il casino da giuoco sul lago e le ragazze allegre da 50 dollari. I ricchi borghesi si erano trasferiti nella zona dopo la chiusura del casino. I ricchi borghesi l'avevano tramutata in un sogno della piccola proprietà privata. Il lago e le rive del lago appartenevano a un circolo e a chi non veniva ammesso a far parte del circolo non poteva andare a sguazzare nell'acqua. Era una località esclusiva, nell'unica superstita eccezione del termine che non significhi semplicemente costosa. La Idle Valley faceva per me come il gusto della cipolla può armonizzarsi con quello della banana. Howard Spencer mi telefonò sul finire del pomeriggio. Gli erano passati i fumi dell'ira. Voleva dirmi di essere spiacente e riconoscere che non si era comportato bene e domandarmi se avessi per caso cambiato idea. Andrò a trovarlo se me lo chiederà, altrimenti niente da fare. Capisco, il compenso sarebbe molto elevato. Sentite, signor Spencer, disse in tono spazientito, non si può comprare il destino. Se la signora Wade ha paura di quell'uomo può lasciarlo, questo è affar suo. Nessuno al mondo potrebbe proteggerla dal marito 24 ore su 24. Una simile protezione non è possibile, ma non volete soltanto questo. Volete sapere perché e come e quando quell'individuo abbia cominciato a scavalcare la staccionata e poi agire in modo che non lo faccia più. Perlomeno fino a quando non avrà terminato il libro. E questo spetta a lui. Se davvero vuole scrivere quel dannato romanzo, si terrà lontano dai liquori finché non lo avrà portato a termine. Pretendete maledettamente troppo. Sono tutti elementi di un'unica situazione, disse. Si tratta di un unico problema, ma credo di capire. È un'indagine un po' troppo sottile rispetto a quello cui siete abituato. Bene, vi saluto. Torno a New York questa sera in aereo. Fate buon viaggio. Mi ringraziò e riattaccò. Dimenticai di dirgli che avevo dato i suoi 20 dollari al cameriere. Per un attimo pensai di richiamarlo, poi mi dissi che era già anche troppo deluso. Chiusi l'ufficio e mi incamminai verso il Victor per bere un succhiello, come Terry mi aveva chiesto di fare nella lettera, ma poi cambiai idea. Non mi sentivo abbastanza in vena di sentimentalismi. Entrai nel bar-ristorante Laury, bevi un martini e ordinai costolette e un budino. Rientrato in casa, accesi il televisore e guardai i pugili. Non valevano un soldo. Non erano che un branco di maestri di danza che meritavano di essere assunti da Arthur Murray. Non facevano altro che saltellare e abbassarsi e cercare di sorprendere l'avversario a furia di finta e in una posizione non equilibrata. Non uno di loro avrebbe potuto colpire abbastanza duramente per svegliare sua nonna da un pisolino. Il pubblico fischiava e l'arbitro seguitava a battere le mani per incitarli all'azione, ma quelli continuavano a dondolare, a saltellare e a cimentarsi in allunghi di sinistro. Feci scattare la manopola su un altro canale ed ecco un dramma giallo. L'azione si svolgeva in uno spogliatoio. Le facce erano stanche, ultrafamiliari e non eccessivamente belle. Il dialogo era tanto insibido che persino una casa cinematografica di quarto ordine lo avrebbe rifiutato. Il poliziotto aveva un cameriere negro per le battute comiche. Non ce n'era bisogno, bastava lui a far ridere. E gli annunci commerciali avrebbero nauseato un caprone e fatto esplodere bottiglie di birra. Spensi il televisore fumai una sigaretta lunga, fresca, dura. Mi diede sollievo alla gola. Era fatta di buon tabacco. Dimenticai di guardare di che marca forse. Stavo già per andarmene a letto quando mi telefonò il sergente Green della squadra omicidi. Ho pensato di farvi piacere avvertendovi che il vostro amico Lennox è stato sepolto un paio di giorni fa nella cittadina del Messico dove è morto. Un avvocato incaricato della famiglia è andato laggiù e ha presenziato alla cerimonia funebre. Siete stato molto fortunato stavolta Marlow. La prossima volta che vi salterà il ticchio di aiutare qualcuno ad attraversare il confine. Non fatelo. Da quante pallottole è stato colpito? Che diavolo dite? Abbaio. Poi tacque per un attimo. Poi disse in tono un po' troppo ocauto. Da una, direi. Di solito è sufficiente quando perfora il cranio. L'avvocato porterà una serie di impronte digitali e tutto ciò che aveva in tasca. C'è altro che vorreste sapere? Sì, ma non siete in grado di dirmelo. Vorrei sapere chi ha ucciso la moglie di Lennox. Per tutti i diavoli! Granz non vi ha detto che ha lasciato una completa confessione. L'hanno pubblicata ai giornali del resto. Non li leggete più? Grazie per avermi telefonato, sergente. È stato davvero gentile da parte vostra. Sentite, è Marlow! Disse con una voce rauca. Se vi siete messo in testa idee bislacche su questo caso potreste procurarvi un sacco di guai parlandone. Il caso è chiuso, risolto, è messo nella naftalina e per voi è stata una fortuna dannata. La complicità dopo il reato può fruttare cinque anni di carcere in questo stato. Ma consentitemi di dirvi qualcos'altro. Da un pezzo faccio parte della polizia e ho imparato una cosa con certezza. Non sempre si viene messi dentro per quello che si è fatto. Tutto dipende da come si fanno apparire le cose in tribunale. Buonanotte! Troncò la conversazione. Riattaccai il ricevitore dicendomi che un poliziotto onesto fa sempre il burbero quando non ha la coscienza tranquilla. E così si comportano i poliziotti disonesti. E così ci comportiamo tutti, me compreso. 14. La mattina dopo il campanello suonò mentre mi toglievo il borotalco dal lobo di un orecchio. Dopo aver aperto la porta mi trovai di fronte a un paio di occhi di un azzurro violetto. Il sogno indossava questa volta un vestito di lino marrone con una sciarpa rossa. Non portava gli orecchini e neppure il cappello. Sembrava palliduccia ma non come se qualcuno l'avesse scaraventata giù dalle scale. Mi rivolse un sorrisetto esitante. So che non sarei dovuta venire qui a importunarvi signor Marlow. Probabilmente non avete ancora fatto colazione ma ero riluttante a recarmi nel vostro ufficio e non mi piace parlare di questioni personali al telefono. Si capisce. Entrate signora Wade. Vi andrebbe una tazza di caffè? Entrò nella stanza di soggiorno e si misi a sedere sul divano senza guardarsi intorno. Posò la borsetta in equilibrio sul grembo e mantenne un atteggiamento composto con i piedi uniti. Sembrava piuttosto riservata. Aprì le finestre e alzai le persiane e tolsi un posacenere pieno dal tavolino di fronte a lei. Grazie. Caffè senza latte per favore e senza zucchero. Andai in cucina e misi un tovagliolo di carta su un vassoio verde di metallo. Il tovagliolo di carta sembrava orrendo come un colletto di celluloide. Lo appallottolai e tolsi dal cassetto una di quelle cosucce ricamate che si accompagnano a minuscoli tovaglioli triangolari. Apperteneva alla casa, come la maggior parte dell'arredamento. Presi due tazzine da caffè di porcellana rosa, le riempì e portai il vassoio nella stanza di soggiorno. Sorseggiò il caffè. Ottimo, disse. Siete bravo. Beh, l'ultima volta che ho bevuto il caffè in compagnia è stato subito prima di andare dentro, dissi. Sapete, suppongo che mi hanno messo al fresco, signora Wade. Annui. Naturalmente. Eravate sospettato di averlo aiutato a fuggire, vero? Non lo dissero. Avevano trovato il mio numero di telefono su un calendario da tavolo in camera sua. Mi posero delle domande alle quali non risposi. Quasi sempre per il modo nel quale mi vennero fatte. Ma non credo che questo possa interessarvi. Posò con gesti attenti la tazzina e si appoggiò allo schienale e mi sorrise. Le offrì una sigaretta. Non fumo, grazie. Certo che mi interessa. Un nostro vicino conosceva il Lennox. Lui dovette impazzire. Non sembrava affatto un uomo capace di fare una cosa simile. Caricai la pipa e l'accesi. Credo di sì, dissi. Forse impazzì. Aveva riportato una brutta ferita in guerra, ma è morto ed è tutto finito. E non credo che siate venuta qui per parlare di lui. Scosse il capo ad agio. Era un vostro amico, signor Marlow. Dovete esservi fatto un'opinione ben precisa e penso che siate un uomo molto deciso. Schiacciai il tabacco nella pipa e la riaccesi. Me la presi con calma e la fissai al di sopra del fornello della pipa, mentre l'accendevo. Sentite, signora Wade, dissi infine, la mia opinione non ha alcuna importanza. Capita ogni giorno. La gente più impensata commette i più impensati delitti. Vecchie dame ben educate avvelenano intere famiglie. Ragazzetti bene allevati si danno alle rapine e alle sparatorie. Si scopre che direttori di banca ritenuti onestissimi e integerrimi per vent'anni sono degli incalliti truffatori. E i romanzieri fortunati, famosi, in apparenza felici, si ubriacano e spediscono le mogli all'ospedale. Sappiamo maledettamente poco di ciò che passa per la mente degli altri, anche dei nostri migliori amici. Credevo che queste parole l'avrebbero infiammata, ma non fece altro che stringere le labbra e socchiudere gli occhi. Howard Spencer non avrebbe dovuto parlarvene, disse. La colpa è stata mia. All'inizio non ero abbastanza esperta per stare alla larga da lui, ma ora so che una cosa non è mai possibile fare con chi beve troppo, cercare di impedirglielo. Probabilmente lo saprete meglio di me. Senza dubbio non potete impedirlo con la persuasione, disse. Se si è fortunati e se si ha la forza necessaria, si può a volte impedire a chi beve di farsi del male o di farne agli altri, ma anche per questo occorre della fortuna. Silenziosa, riprese il piattino e la tazza. Aveva mani adorabili, come tutto il resto di lei. Le unghie erano meravigliosamente ben fatte, lucide e solo lievemente laccate. Howard, vi ha detto che questa volta non si è incontrato con mio marito? Sì. Finì di bere il caffè e rimise con cautela la tazzina sul vassoio. giocarellò con il cucchiaino per qualche attimo. Poi prese a parlare senza guardarmi. Non vi ha detto la ragione perché non la conosce. Voglio molto bene, Howard, ma è un uomo dittatoriale, vuole occuparsi di tutto. Crede di essere molto efficiente. Attesi, senza dir nulla. Seguì un nuovo silenzio. Elle alzò rapidamente gli occhi su di me e di nuovo distolse lo sguardo. Con voce molto bassa disse, mio marito è scomparso da tre giorni. Non so dove si trovi. Sono venuto a chiedervi di trovarlo e di ricondurlo a casa. Oh, è già accaduto. Una volta arrivò in automobile fino a Portland. Si sentì male in un albergo e dovette far chiamare un dottore perché l'aiutasse a superare la crisi. È un miracolo se arrivò così lontano senza cacciarsi nei guai. Non aveva toccato cibo per tre giorni. Un'altra volta andò in uno stabilimento di bagni turchi a Long Beach, una di quelle cliniche svedesi. E l'ultima volta si rifugia in una specie di piccolo convalescenziario privato, probabilmente non molto rispettabile. Questo accadde meno di tre settimane orsuno. Non volle dirmi il nome del convalescenziario, né spiegarmi dove si trovava. Disse soltanto che si era soggettato a una cura e che stava benissimo. Ma era mortalmente pallido e debole. Riuscì a intravedere l'uomo che lo accompagnò a casa. Un uomo alto di statura, con uno di quei complicati costumi da cowboy che si vedono soltanto sul palcoscenico o nei film musicali in Technicolor. Lasciò Roger sul viale, fece marcia indietro con la macchina e si allontanò immediatamente. «Potrebbe essere un ranch attrezzato al luogo di soggiorno», disse. «Alcuni di quei vaccari addomesticati investono tutto ciò che possiedono fino all'ultimo soldo in imprese del genere. Le donne vanno pazze per loro. È l'unica ragione per la quale esistono certi tipi». Aprì la borsetta e ne tolse un foglio piegato in due. «Vi apportate un assegno di 500 dollari, signor Marlow. Volete accettarlo come anticipo?» Mise l'assegno sul tavolino. Lo guardai ma non lo toccai. «Perché?» disse. «Affermate che è scomparso da tre giorni. Occorrono tre o quattro giorni per far passare un'ubriacatura e indurre il paziente a mangiare qualcosa. Non tornerà come ha sempre fatto? O vi sono motivi per cui ritenete che questa volta sia diverso». «Non può andare avanti così, signor Marlow. L'alcol finirà per ucciderlo. Gli intervalli vanno facendosi sempre più brevi. Sono molto preoccupata. Più che preoccupata sono spaventata. Non è naturale. Siamo sposati da cinque anni. Roger ha sempre bevuto, ma non è mai stato un alcolizzato psicopatico. C'è qualcosa di molto losco. Voglio sapere di che cosa si tratta. Non ho dormito più di un'ora stanotte». «Avete idea della ragione per cui beve?» Gli occhi violetti mi stavano fissando con fermezza. Sembrava un po' fragile quel mattino, ma senza dubbio non in difesa. Si morse il labbro inferiore e scosse la testa. «A meno che non si tratti di me», disse infine quasi in un bisbiglio. «Gli uomini si disinnamorano delle mogli». «Non sono che uno psicologo dilettante, signora Wade. Nel mio mestiere occorre intendersi un poco anche di psicologia. Secondo me è più probabile che si sia disinnamorato di ciò che scrive». «È possibilissimo», fece lei con pacatezza. «Immagino che tutti gli scrittori attraversino crisi del genere. È vero che sembra non riesca a finire un libro al quale sta lavorando, ma non è detto che da quel romanzo dipenda la sua possibilità di pagare l'affitto. Non credo che si tratti di una ragione sufficiente». «Che tipo di uomo è quando non ha bevuto?» Sorrise. «Beh, io sono piuttosto prevenuta. A me pare che sia un uomo molto simpatico». «E quando ha bevuto?» «È orribile, spietato, duro, crudele. Crede di essere spiritoso ed è soltanto perverso». «Avete omesso l'aggettivo violento». Inarcò le sopracciglia dorate. «Lo è stato solo una volta, signor Marlow, e si è attribuita troppa importanza alla cosa. Non lo avrei mai detto a Howard Spencer. Fu Roger stesso a parlargliene». Mi alzai e girellai per la stanza. La giornata sarebbe stata calda. Abbassai la persiana a una delle finestre per non lasciare entrare il sole. Poi le parlai chiaro. «Ieri ho consultato il chi è?» «Ha 42 anni. Si è sposato soltanto con voi, non ha figli. I suoi vengono dalla Nuova Inghilterra. Ha frequentato Andover e Princeton. Ha combattuto in guerra e si è fatto onore. Ha scritto dodici di quei romanzi erotici e pseudo-storici e non ce n'è uno che non sia entrato a far parte dell'elenco dei best-sellers. Deve aver guadagnato parecchio. Sembra il tipo che, se si fosse disinnamorato di sua moglie, lo avrebbe detto e avrebbe chiesto il divorzio. Se si fosse attaccato a un'altra donna, con ogni probabilità, sareste venuta a saperlo e, in ogni caso, non avrebbe dovuto ubriacarsi solo per dimostrare di essere torturato dai rimorsi. Poiché siete sposati da cinque anni, ne aveva 37 quando ebbero luogo le nozze. Direi che a quell'età doveva conoscere quasi tutto ciò che veda sapere sulle donne. Dico quasi tutto perché nessuno è completamente informato al riguardo. Mi interruppi e la guardai e lei mi sorrise. Non ferivo la sua suscettibilità. Continuai. Howard Spencer ha supposto, non so davvero basandosi su cosa, che Roger Wade possa essere tormentato da un episodio avvenuto molto tempo prima che vi sposaste, un episodio che ora si ripercuoterebbe su di lui con conseguenze più gravi di quanto egli possa sopportare. Spencer pensava a un ricatto. Ne sapete qualcosa? Scosse ad agio la testa. Intendete dire se so che Roger abbia versato grosse somme di denaro a qualcuno? No, non ne so niente. Non mi imbischio nelle sue questioni finanziarie. Potrebbe aver speso molto denaro senza che io lo sapessi. Benissimo allora. Non conoscendo il signor Wade non posso farmi un'idea chiara di come reagirebbe se qualcuno lo ricattasse. Se è di indole violenta potrebbe torcere il collo al suo persecutore. Se il segreto, qualunque esso sia fosse tale da poter ledere la sua posizione sociale o professionale o per arrivare agli estremi da causare l'intervento della polizia, potrebbe rassegnarsi a pagare, perlomeno temporaneamente, ma tutto questo non ci fa prodare a nulla. Volete che venga trovato? Siete crociata? Siete più che crociata? E sta bene. Vedrò di trovarlo, ma non voglio il vostro denaro, signora Wade. Non per il momento, almeno. Frugò ancora una volta nella borsetta e ne tolse due pezzi di carta gialla. Sembravano foglietti di tacquino piegati in due e uno di essi aveva l'aria di essere stato appallottolato. Ella li spiegò e me li porse. Uno l'ho trovato sulla scrivania, disse. Era molto tardi, o meglio molto presto, le prime ore del mattino. Sapevo che aveva bevuto e sapevo che non era salito di sopra. Verso le due scesi per vedere se stesse bene, o relativamente bene, disteso sul pavimento, sul divano o in qualche altro posto. Invece se ne era andato. L'altro pezzo di carta si trovava nel cestino, anzi era rimasto impigliato nell'orlo, senza cadervi dentro. Esaminai il primo pezzo di carta, quello non spiegazzato. Vi era una breve frase scritta a macchina, nulla di più. Diceva. Non mi importa di amare me stesso e non c'è più alcun altro che io possa amare. Firmato. Roger. F. Scott Fitzgerald. Wade. P.S. Per questo non ho mai completato l'ultimo filibustiere. Significa qualcosa per voi, signora Wade? Non è altro che una posa. È sempre stato un grande ammiratore di Scott Fitzgerald. Dice che dopo Coleridge, Fitzgerald è il più grande scrittore dedito all'alcol che prendeva stupefacenti. Notate la scrittura a macchina, signor Marlow? Chiara, uguale, senza un errore. L'ho notata. La maggior parte della gente non riesce a scrivere correttamente neppure il proprio nome, quando è ubriaca. Spianai il foglietto spiegazzato. Ancora un dattilo scritto, anch'esso senza errori né disuguaglianze di battuta. La frase diceva. Non mi piacete, dottor V, ma in questo momento siete l'uomo che fa per me. Ellen Wade parlò mentre ero ancora intento a esaminare il foglio. Non ho la più pallida idea di chi possa essere il dottor V. Non conosciamo alcun medico il cui nome cominci con questa lettera. Ritengo sia quello che dirige il convolascenziario di cui Roger è andato l'ultima volta. Quando il vaccaro lo accompagnò alla casa, vostro marito non fece alcun nome, neppure nomi di località. Scosse la testa. Nulla. Ho consultato l'elenco telefonico. Ci sono decine di medici d'ogni genere e ve ne sono alcuni il cui cognome comincia con una V. Ma potrebbe anche non trattarsi del cognome. Con ogni improbabilità non è neppure un medico, dissi. E a questo proposito c'è la questione del pagamento in contanti. Un vero medico accetterebbe un assegno, un ciarlatano no. Potrebbe servire da prova a suo carico. Inoltre un tipo del genere non avrebbe la mano leggera. Una stanza e il vitto nella sua clinica verrebbero a costare salati, per non parlare delle iniezioni. Parve interdetta. Iniezioni? Tutti i ciarlatani si servono di stupefacenti con i clienti. Li spediscono nel mondo dei sogni per 10 o 12 ore e quando tornano in sé sono dei bravi ragazzi. Ma il servirsi abusivamente di narcotici può procurare vitto e alloggio presso lo zio Sam, il che è ancora più salato. Capisco. Roger molto probabilmente aveva in tasca centinaia di dollari. Ci sono sempre somme ingenti nel cassetto della sua scrivania. Non so perché. Penso che si tratti di una mania e in questo momento il cassetto è vuoto. Ok, dissi. Cercherò di trovare il dottor V. Non so davvero in che modo, ma farò del mio meglio. Riprendete pure l'assegno, signora Wade. Ma perché? Non vi spetta un... In seguito, grazie. E preferirei averlo dal signor Wade. Non gli piacerà in nessun caso ciò che sto per fare. Ma se è ammalato e bisognoso di aiuto? Avrebbe potuto chiamare il suo medico, chiedere a voi di farlo. Se ne è guardato bene, ciò significa che non voleva saperne. Rimise l'assegno nella borsetta e si alzò. Sembrava disperata. Il nostro medico si è rifiutato di curarlo, disse con amarezza. Ci sono centinaia di medici, signora Wade. Ognuno di loro lo prenderebbe immediatamente in cura e quasi tutti gli rimarrebbero accanto per qualche tempo. Al giorno d'oggi, anche nella professione medica, infierisce la concorrenza. Capisco. Dovete avere ragione senz'altro. Si diresse verso la porta e io l'accompagnai e aprì. Avereste potuto chiamare un medico di vostra iniziativa. Perché non l'avete fatto? Mi fissò negli occhi con un vivido sguardo, filtrato forse attraverso un velo di lacrime. Era un bocconcino davvero delizioso. Perché amo mio marito, signor Marlow. Sono disposta a fare qualsiasi cosa al mondo pur di aiutarlo. Ma so che tipo di uomo sia. Se mi fossi rivolta a un medico ogni volta che beveva troppo non sarei rimasta a lungo sposata. Non si può trattare un uomo adulto come un bambino che abbia il mal di gola. Si può, se alcolizzato. Molte volte è maledettamente indispensabile. Era in piedi accanto a me. Sentivo il suo profumo. O mi pareva di sentirlo. Ma forse si trattava soltanto della giornata d'estate. Anche ammesso che vi fosse qualcosa di disonorante nel suo passato. Disse strascicando le parole a una una come se ciascuna di esse avesse un sapore amaro. Persino qualcosa di delittuoso per me non avrebbe alcuna importanza. Ma non voglio che lo si scopra per colpa mia. Eppure non avete nulla da obiettare se Howard Spencer a incaricarmi di scoprirlo. Sorrise molto lentamente. E credete davvero che potessi aspettarmi di sentirvi dare ad Howard una risposta diversa da quella che gli avete dato? Da voi un uomo che è andato in carcere pur di non tradire un amico? Grazie del complimento ma non è questo il motivo per cui sono stato messo dentro. Annui e dopo un attimo di silenzio mi salutò e discese gli scalini di legno rosso. L'osservai mentre saliva sulla sua automobile una piccola Jaguar grigia che sembrava nuovissima. La portò fino al termine del vicolo e voltò. La mano guantata di lei mi fece cenni di saluto mentre discendeva il pendio. Poi la macchina girò all'angolo e scomparve. C'era un oleandro rosso contro la facciata della casa. Udì un frullo d'ali fra il fogliame e un merlo poliglotta appena uscito dal nido prese a pigolare in tono ansioso. Lo vidi in equilibrio su uno dei ramoscelli più alti. Batteva le ali come se gli riuscisse difficile non cadere. Dal cipresso all'angolo del muro giunse un unico imperioso verso di ammonimento. Il pigolio cessò immediatamente l'uccello tacque. Rientrai e chiusi la porta lasciandolo in pace alla sua lezione di volo. anche gli uccelletti devono imparare. 15. Per quanto crediate di essere bravi dovete pure avere un punto di partenza, un nome, un indirizzo, un ambiente, un'atmosfera, un punto di riferimento qualsiasi. Io non avevo altro che due righe battute a macchina su un foglietto spiegazzato. Non mi piacete dottor V ma in questo momento siete l'uomo che fa per me. Con questo avrei potuto pattugliare l'oceano pacifico e impiegare un mese spulciando gli elenchi di una mezza dozzina di associazioni mediche di contea e ottenere come risultato un bel nulla. Nella vostra città i ciarlatani fanno razza come porcellini d'India. Vi sono otto contene, raggio di 150 chilometri dal municipio e in tutte le cittadine di ogni contea esistono medici, alcuni autentici dottori, altri arruffoni autorizzati soltanto a tagliarvi i calli o immassaggiarvi la schiena. Dei veri medici taluni sono ricchi e altri poveri, taluni sono onesti e altri non troppo certi di potersi consentire il lusso dell'onestà. Un paziente ben provvisto di quattrini e già vicino alla meta del delirium tremens potrebbe far la fortuna di molti vecchi arruffoni che non sono riusciti ad arricchire con il commercio delle vitamine e degli antibiotici. Ma senza un indizio non si sa da dove cominciare. Io non avevo l'indizio e non lo aveva neppure Alan Wade o non sapeva di averlo. E anche se avessi trovato qualcuno che potesse essere ritenuto sospetto e il cui nome cominciasse con l'iniziale giusta sarebbe stato possibilissimo fare un buco nell'acqua per quanto concerneva Roger Wade. La frase poteva essere una qualsiasi farneticazione passata gli per la mente mentre si stava ubriacando. Così come l'allusione a Scott Fitzgerald poteva essere altro che un modo tortuoso per dire addio. In una situazione del genere lo metto senza risorse cerca di ricorrere ai potenti. Pertanto telefonai a un tale che conoscevo un funzionario dell'organizzazione Cairn a Beverly Hills specializzata nel disbrigo delle pratiche concernenti gli incidenti automobilistici e in realtà nello sbrogliare qualsiasi imbroglio con sistemi più o meno legali. Questo tale si chiamava George Peters e disse di potermi concedere dieci minuti di tempo purché mi fossi precipitato subito da lui. Gli uffici occupavano il secondo piano di uno di quei rosei palazzi di lusso dove le porte degli ascensori si aprono automaticamente grazie a una cellula foto elettrica dove i corridoi sono freschi e silenziosi e nel parcheggio c'è un nome in ogni box e il farmacista di fronte si sloga il polso a furia di riempire boccette di sonniferi. La porta era grigio all'esterno con lettere di metallo lustre affilate come un coltello nuovo. Organizzazione Cairn SI. Presidente Gerald C. Cairn. E sotto in lettere più piccole direzione. La si sarebbe detta una società di investimenti finanziari. Dentro vi era un'anticamera piccola e brutta ma di una bruttezza voluta e costosa. I mobili erano scarlati e di un verde scuro. Le pareti di un verde cenere uniforme e i quadri avevano cornici di un verde più scuro di almeno tre tonalità. Rappresentavano tipi in giubba rossa su grossi cavalli col pallino di saltare altissime siepi. Vi erano due specchi senza cornice argentati con una lieve ma disgustosa sfumatura di rosa. Le riviste sul lucido tavolino erano recentissime tutte protette da una custodia di plastica. L'individuo che aveva decorato quell'ambiente non era tipo da lasciarsi spaventare dai colori. Probabilmente indossava una camicia gialla, pantaloni rosso mora, scarpe zebrate e mutande vermiglie con le iniziali ricamate in un bel giallo mandarino. Tutto questo non era che inutile messa in scena. Decorazione vetrinistica. I clienti dell'organizzazione Cairn sbolsavano un minimo di 100 dollari al giorno e pretendevano di essere serviti a domicilio. Non facevano certo anticamera nelle sale d'aspetto. Cairn era un ex colonnello della polizia militare, un uomo grande e grosso, bianco e roseo, duro come una tavola. Mi avevano offerto un posto una volta ma non ero stato mai così disperato da doverlo accettare. Ci sono 190 modi di essere bastardi e Cairn li conosceva tutti. Un pannello scorrevole di vetro smerigliato si aprì e una segretaria mi fissò. Aveva un sorriso di ferro e occhi che sarebbero riusciti a contarvi il denaro nel portafogli tenuto nel taschino posteriore dei pantaloni. Buongiorno, posso esservi utile? Posò sul banco un registro relegato in pelle verde. Siete atteso, signor Marlow? Non vedo il vostro nome sulla lista degli appuntamenti. È una questione confidenziale. Gli ho parlato per telefono. Capisco, come si scrive il vostro cognome, signor Marlow? E qual è il vostro nome di battesimo? Glielo dissi. Scrisse nome e cognome su un modulo rettangolare. Poi infilò il margine del modulo sotto un orologio a timbro. Chi dovrebbe impressionare tutta questa messa in scena? Domandai. Siamo molto precisi per quanto concerne ogni in particolare. Rispose Gelida. Il colonnello Cairn dice che non si può mai sapere e che le più triviali minuzie possono rivestire un'importanza vitale. Oh, tutto l'opposto. Osservai, ma non capì. Quando ebbe completato le registrazioni, alzò gli occhi e disse, vi annuncerò al signor Peters. Risposi che ciò mi rendeva molto felice. Un minuto dopo, una porta si aprì nel rivestimento a pannello e Peters mi fece cenno di passare in un grigio corridoio da nave da battaglia nel quale si allineavano piccoli uffici che sembravano celle di prigione. Il suo aveva un rivestimento acustico sul soffitto. Vi erano una scrivania grigia d'acciaio con due sedie anch'esse grigie ed acciaio, un dittafono grigio su una mensola grigia, un telefono e un servizio da scrivania dello stesso colore, come le pareti e il pavimento. Vi erano alle pareti due fotografie incorniciate, una di Cairn in divisa, con l'elmetto e una di Cairn in borghese, seduto alla scrivania con un'espressione imperscrutabile. Vi era inoltre alla parete una frase incorniciata in lettere d'acciaio su uno sfondo grigio. Diceva «I funzionari della Cairn vestono, parlano e si comportano da gentiluomini in ogni momento e in ogni luogo. Questa regola non ha eccezioni». Peters attraversò la stanza con due lunghi passi e scostò una delle fotografie. Incassato nella grigia parete vi era un grigio microfono. Lo tolse dalla nicchia, staccò un filo e lo rimise a posto. Poi tornò a nasconderlo con la fotografia. «Verrei licenziato immediatamente», disse, «se quel figlio di una puttana non fosse uscito per togliere dai guai un attore che ha investito qualcuno mentre guidava ubriaco. Tutti gli interruttori dei microfoni sono nel suo ufficio. Li ha fatti installare dappertutto. L'altra mattina gli ho proposto di far mettere una microcamera a raggi infrarossi dietro uno specchio trasparente nella sala d'aspetto. L'idea non gli è andata troppo a genio. Forse perché non l'ha avuta lui». Si mise a sedere su una delle dure grigie sedie. Lo fissai. Era un uomo goffo, dalle lunghe gambe, con una faccia ossuta e un principio di calvizie. Aveva quella pelle logore abbronzata degli uomini che hanno vissuto molto all'aria libera e con ogni sorta di tempo. Gli occhi erano molto infossati e il labbro superiore lungo quasi quanto il naso. Quando sorrideva, la metà inferiore del volto scompariva in due enormi pieghe che dalle pinne nasali andavano fino ai lati della larga bocca. «Come fai a resistere?» gli domandai. «Accomodati, amico mio. Respira senza soffiare col naso. Tieni la voce bassa e ricorda che un funzionario della Cairn rispetto a un misero investigatore da strapazzo come te e un Toscanini paragonata a una scimmia che suona l'organetto». Si interruppe e sorrise. «Resisto perché non me ne frega niente. Guadagno bene e ogni volta che Cairn si comporta come se stessi scontando una condanna in quel supercarcere che diresse in Inghilterra durante la guerra, intasco l'assegno dello stipendio e fischietto. E tu? In quali guai ti sei cacciato? Ho saputo che te la sei passata brutta poco tempo fa». «Non mi lamento per questo. Vorrei dare un'occhiata al vostro schedario sui medici che la fanno in barba alla legge. So che ne avete uno, me l'ha detto Eddie Daust, dopo aver dato le dimissioni, annui. Eddie era un pochino troppo suscettibile per l'organizzazione Cairn. L'aschedario al quale alludi è segretissimo. Le informazioni confidenziali non devono essere rivelate e strane in nessuna circostanza. Vado a prenderlo subito». Uscì e io osservai il grigio cestino della carta e il linoleum grigio e il rivestimento di cuoio grigio del tampone della carta assorbente. Peters rientrò con una cartella grigia in mano, la posò sulla scrivania e la aprì. «Cristo, non avete proprio niente qui dentro che non sia grigio?» «Tinte funzionali, ragazzo mio, sono lo spirito dell'organizzazione. Sì, una cosa che non è grigia ce l'ho». Aprì un cassetto della scrivania e ne tolse un sigaro lungo circa 20 centimetri. «Un Upman Dirty», disse. «Mi è stato regalato da un vecchio gentiluomo inglese che ha vissuto per 40 anni in California e seguita a parlare come gli inglesi. Quando non è ubriaco sa fare sfoggio di molta superficiale cortesia e questo mi fa piacere, perché la maggior parte della gente non sa che cosa sia la cortesia, superficiale o no, compreso Cairn, il quale è cortese come le mutande di un fonditore. Quando ha bevuto, questo cliente ha la strana abitudine di emettere assegni su banche che non hanno mai sentito parlare di lui. Ma li onora sempre e con il mio affettuoso aiuto è riuscito finora a evitare la prigione. Mi ha dato questo sigaro. Vogliamo fumarlo insieme come due capi indiani intenti a progettare un massacro? Non riesco a fumare i sigari. Peters guardò melanconicamente l'enorme sigaro. «Neppure io», disse. «Avevo pensato di regalarlo a Cairn, ma non si può proprio dire che sia un sigaro per un uomo solo, anche se si tratta di Cairn». Si accigliò. «Sai una cosa? Ho parlato troppo di Cairn. Devo avere i nervi tesi». Lasciò cadere il sigaro nel cassetto e guardò la cartella aperta. «Che cosa vuoi sapere?» «Sto cercando un alcolizzato dei gusti dispendiosi e abbastanza ricco per soddisfarli. Fino a questo momento non ha firmato assegni a vuoto. Perlomeno non ho saputo niente. Va soggetto a crisi di violenza e la moglie si cruccia per lui. Ritiene che sia nascosto in qualche clinica, ma non è certa. Il solo indizio in nostro possesso è una frase strampalata in cui si accenna un certo dottor V. Non conosciamo che l'iniziale. L'amico è ormai scomparso da tre giorni». Peters mi fissò cogitabondo. «Non è molto», disse. «Perché preoccuparsene. Se lo trovo prima che torni mi pagano». Mi guardò ancora per qualche attimo e scosse la testa. «Non capisco, ma non ha importanza. Ora vedremo». Cominciò a sfogliare le pagine della cartella. «Non è molto facile», osservò. «Questa gente va e viene. Una semplice iniziale non significa un granché». Tolse una pagina della cartella, continuò a sfogliare, ne tolse un'altra e infine una terza. «Sono tre», disse. «Il dottor Amos Varley, un osteopatico, lussuosa abitazione ad Adlatena. Fao faceva visite notturne per 50 dollari. Ha due infermiere diplomate. Un paio d'anni fa ha avuto noie con l'ispettorato di narcotici e gli è stato sequestrato in ricettario. Le informazioni sul suo conto non sono molto aggiornate». Presi nota del nome e dell'indirizzo di Altadena. «Abbiamo poi il dottor Lester Vucanice, otorino laringoiatra, palazzo Stockwell, sull'Hollywood Boulevard. Questo è un volpone. Riceve quasi sempre la clientela nel suo studio e sembra che sia specializzato in sinusiti croniche. Ho un sistema davvero ingegnoso. Vai da lui, accusi emicranie da sinusite e lui ti pratica irrigazioni nasali. Anzitutto, naturalmente, deve anestetizzarti con una novo caina. Ma se il tuo aspetto gli va a genio, può non trattarsi di novo caina. Capisci?» «Certo», presi nota anche di questo nominativo. «Interessante», soggiunse Peters continuando a leggere. «Ovviamente la difficoltà consiste nei rifornimenti e così il nostro dottor Vucanice va molto spesso a pescare a largo di Esenada e viaggia con un aereo personale». «Beh, non credo che durerà a lungo se è lui a introdurre gli stupefacenti nello Stato». Peters riflette, poi scosse la testa. «Non sono d'accordo. Può continuare per tutta la vita, se non è troppo avido. L'unico vero rischio che corre è rappresentato da un cliente insoddisfatto. Scusami, volevo dire un paziente, ma probabilmente sa come sbrigarsela. Lavora da 15 anni nello stesso studio». «Dove diavolo ve la procurate questa roba?» gli domandai. «Siamo un'organizzazione, ragazzo mio. Non un lupo solitario come te. Alcune informazioni ce le procurano i nostri stessi clienti, altre le otteniamo mediante indagini. Cairn non ha paura di spendere. Sa farsi degli amici quando vuole. Sa essere gioviale». «Gli piacerebbe questa conversazione? Non parliamo di lui!» La nostra ultima offerta per oggi è un certo Weringer. Chi ha compilato la sua scheda è molto prolisso. Sembra che una poetessa si sia uccisa un certo momento nel ranch di Weringer, a Sepulveda. Dirige una specie di ritiro artistico per scrittori e per quei tipi che desiderano solitudine e un'atmosfera congeniale. La retta è modesta. Sembra onesto. Si fa chiamare dottore ma non esercita la medicina. Potrebbe anche essere laureato in filosofia. «Francamente non capisco perché la sua scheda si trovi qui dentro. A meno che non si tratti di quel suicidio». Prese fra le dita un ritaglio di giornale incollato un foglio bianco. «Già, dose eccessiva di morfina! Nessuna prova che Weringer ne sapesse qualcosa!» «Weringer mi piace», dissi. «Mi piace molto». Peters chiuse la cartella e vi batté sulla mano. «Non hai letto questa roba», disse. Si alzò e uscì. Quando rientrò nella stanza ero in piedi pronto ad andarmene. Cominciai a ringraziarlo ma mi interruppe. «Senti un po', osservò. Il tuo uomo potrebbe trovarsi in centinaia di posti». Dissi che lo sapevo. E, a proposito, ho sentito dire qualcosa sul tuo amico Lennox che potrebbe interessarti. Uno dei nostri informatori ha conosciuto un tale a New York cinque o sei mesi fa che corrisponde esattamente alla descrizione. «Ma questo tizio non si chiamava Lennox», dice. «Si chiamava Marston». Naturalmente potrebbe sbagliarsi. Quell'individuo era sempre ubriaco e quindi non si può proprio essere certi. Dissi. «Dubito che si trattasse della stessa persona perché avrebbe dovuto cambiare nome. Ha un passato militare che può essere controllato». «Non lo sapevo. Il nostro informatore si trova a Seattle in questo momento. Se ti interessa potrei parlargli quando sarà di ritorno. Si chiama Ashterfeld». «Grazie di tutto, George. Sono stati dieci minuti molto lunghi». «Potrei avere bisogno di te un giorno l'altro». «L'organizzazione Cairn», disse, «non ha mai bisogno di nulla da nessuno». Fece un gesto volgare con il pollice. Lo lasciai nella sua grigia cella metallica e me ne andai attraversando la sala d'aspetto. Sembrava bellissima adesso. Le tinte chiassose avevano un senso dopo la cella di prigione. 16. A qualche distanza dall'autostrada, in fondo al canyon Sepulveda, c'erano due gialli pilastri quadrati. Da uno di essi pendeva aperto un cancello a cinque sbarre. Accanto al cancello vi era un cartello appeso alla rete metallica. Strada privata, vietato l'ingresso. L'aria era calda e ferma e colmava l'odore di gatto degli eucalipti. Entrai con la macchina e seguì una strada inghiaiata intorno al pendio di un colle, su per una lieve salita, oltre un crinale e giù dall'altro lato in una valle ombrosa. Faceva caldo nella valle, una temperatura superiore di tre o quattro gradi a quella dell'autostrada. Vidi ora che la strada inghiaiata terminava tracciando un ampio cerchio intorno a un prato delimitato da pietre dipinte a calce. Sulla via sinistra vi era una piscina vuota e nulla sembrava più vuoto di una piscina senza acqua. Sui tre lati della piscina si stendevano i resti di una radura erbosa e vi erano qua e là sedie a sdraio di legno rosso con cuscini molto sbiaditi. I cuscini erano stati un tempo di vari colori, azzurri, verdi, gialli, arancione, rosso-ruggine. Le cuciture laterali si erano aperte in certi punti, mancavano i bottoni e questo aveva fatto sì che i cuscini si fossero afflosciati. Sul quarto lato della piscina vi era l'altro recinto di rete metallica di un campo da tennis. Il trampolino della piscina sembrava affetto dall'artrite deformante e molto stanco. La stuoia che lo copriva pendeva sfilacciata, i sostegni metallici erano arrugginiti. Giunsi al termine della strada e mi fermai di fronte a un edificio di legno rosso dal tetto cadente e dall'ampia veranda. La porta d'ingresso era protetta da zanzariere di rete metallica. Grosse mosche se ne stavano posate sulla rete. Dall'edificio sentieri si diramavano fra le querce della California, sempre verdi e sempre polverose, e fra le querce, sparsi sul fianco della collina e taluni quasi completamente nascosti, vi erano rusti civillini. Quelli che vedevo avevano l'aspetto desolato della stagione morta. Le porte erano chiuse, dietro le finestre si intravedevano tirate, tende di cotonina di qualche stoffa del genere. Veniva fatto immaginare lo spesso strato di polvere sui davanzali. Spensi il motore e rimasi lì, con le mani sul volante, in ascolto. Non si udiva il minimo suono. Il luogo sembrava morto quanto i faraoni, se seccetto al fatto che la porta, dietro la zanzariera metallica, era aperta e che qualcosa si muoveva nella penombra nella stanza. Poi udì un lieve fischiettare ben modulato. Una figura maschile si profilò dietro la zanzariera, l'aprì e discese gli scalini della veranda. Era uno spettacolo. Il giovanotto portava un cappello da gaucho, nero e piatto, con la cinghia sotto il mento. Indossava una camicia di seta bianca, immacolata, aperta sul collo con i polsini molto stretti e le maniche a sbuffo. Aveva al collo una sciarpa nera annodata, ma non nel centro, in modo che uno dei lembi era corto e l'altro scendeva sin quasi alla cintola. Portava un'ampia fascia nera alla vita e pantaloni neri di un nero carbone attillati ai fianchi e ricamati in oro fino al punto in cui cominciavano a scampanare con pieghi abbondanti e bottoni forati lungo le pieghe. Calzava scarpe basse e leggere di cuoio nero dai tacchi alti. Si fermò in fondo agli scalini e mi guardò continuando a fischiettare. Era sottile come una frusta. Aveva occhi color grigio fumo, i più grandi e più inespressivi che avessi mai veduto, con lunghe e seriche ciglia. I suoi lineamenti erano delicati e perfetti, pur non essendo privi di energia. Aveva un naso diritto e quasi ma non del tutto sottile. La bocca sbocciava con suave perfezione di disegno. C'era una fossetta nel mento e le orecchie piccole aderivano con grazia alla testa. La pelle aveva quel greve pallore che il sole non riesce mai a far scomparire. Si mise in posa con la mano sinistra sul fianco e tracciò una graziosa curva nell'aria con la destra. «Salve!» disse. «Bella giornata, vero?» «Fa molto caldo qui per i miei gusti». «E il caldo mi piace!» L'assersione era recisa, definitiva e poneva termine alla discussione. Le mie preferenze non potevano interessarlo. Sedette sul primo scalino, tirò fuori da qualche posto una lunga lima e cominciò a limarsi le unghie. «Siete della banca?» domandò senza alzare gli occhi. «Cerco il dottor Weringer!» Smise di lavorare con la lima e puntò lo sguardo verso una calda, remota lontananza. «Chi è?» domandò, ostentando il massimo disinteresse. «E il proprietario di questo posto! Siete laconico come l'inferno, vero? Come se non lo sapeste!» Tornò a dedicarsi alla lima e alle unghie. «Siete stato male informato, bello mio! E il posto appartiene nella banca! C'è un sequestro ipotecario, una cessione in garanzia. Ho dimenticato i particolari!» Alzò gli occhi su di me con l'espressione di chi non si curi minimamente dei particolari. Discesi dalla Halls e mi appoggiai allo sportello che ardeva, poi mi spostai verso un punto un po' più arieggiato. «Di quale banca si tratterebbe?» «Non dovete saperlo! Non c'entrate! Non c'entrate per niente! Non è cosa che vi riguardi! Andatevene, bello mio! Filate e subito!» «Devo trovare il dottor Weringer!» «Il posto è chiuso! Bello mio! Questa è una strada privata, come sta scritto sul cancello. Qualche imbecille ha dimenticato di chiudere il cancello? Siete il custode?» «In un certo senso! Non fatemi altre domande, è bello mio! Non c'è da fidarsi del mio carattere!» «Che cosa fate quando andate in bestia? Ballate il tango con uno scoiattolo?» Balzò in piedi con flessuosa grazia, sorrise per qualche attimo, un vacuo sorriso. «A quanto pare dovrò scaraventarvi in quel vecchio macinino!» disse. «E' più tardi! Per adesso dove posso trovare il dottor Weringer?» Mise la lima nel taschino della camicia e afferrò qualcos'altro con la mano destra. Un breve movimento ed ecco le dita di lui infilate in un lucente pugno di ferro. Aveva la pelle sugli zigomi più tesa e in quei suoi grandi occhi color fumo ardeva una fiamma. Venne a gran passi verso di me. Indietreggiai per avere più spazio. Continuò a fischiettare, ma il fischio era più acuto e stridulo. «Non è necessario picchiarci!» gli dissi. «Non abbiamo alcuna ragione per batterci e potreste strapparvi quel bel vestito!» E fu rapido come un lampo. Mi piombò addosso con un balzo felino e colpì di sinistro, velocissimo. Mi aspettavo un diretto e spostai la testa a quanto bastava, ma la sua intenzione era quella di afferrarmi il polso destro e ci riuscì. Aveva anche una presa salda. Mi fece perdere l'equilibrio e la mano col pugno di ferro mi passò alle spalle. Un colpo come quello alla nuca e sarei stato fuori combattimento. Se mi fossi inarcato all'indietro mi avrebbe colpito in faccia o sulla parte superiore del braccio all'attaccatura della spalla. Nell'una o l'altra ipotesi avrei avuto la faccia fracassata o il braccio rotto. In una situazione del genere c'è una cosa sola da fare. Mi gettai avanti, assecondando il suo sforzo. Nel balzo gli bloccai il piede sinistro dal di dietro, gli afferrai la camicia e la sentì lacerarsi. Qualcosa mi colpì alla nuca, ma non era il metallo. Mi girai di scatto a sinistra e lui mi passò sopra il fianco. Cadde come un gatto e fu di nuovo in piedi prima che avesse ritrovato un qualsiasi equilibrio. Sorrideva adesso. Era felicissimo di ciò che stava succedendo. Il suo lavoro gli piaceva. Si avventò contro di me. Una robusta voce muggente urlò da qualche punto. Erl! Smettila immediatamente! Immediatamente! Mi hai sentito? Il giovanotto, vestito di gauccio, si fermò. Aveva sulla faccia una specie di smorfia distorta. Fece un rapido gesto e il pugno di ferro scomparve nell'ampia fascia che gli stringeva la vita. Mi voltai e vidi un uomo massiccio con una camicia hawaiana che correva verso di noi lungo uno dei sentieri agitando le braccia. Ci giunse accanto un po' trafelato. Sei pazzo! Erl! Non dite mai più una cosa simile, dottore! Mormorò Erl. Poi sorrise, girò sui tacchi e andò a sedersi sugli scalini della veranda. Si tolse il cappello a larga tesa, tirò fuori un pettine e cominciò a ravvivarsi i folti capelli neri con un'espressione assente. Uno o due secondi dopo ripresi a fischiettare sommessamente. L'uomo massiccio con la camicia vistosa rimase dove si trovava e mi squadrò. Rimasi dove mi trovavo e lo squadrai. Che cosa succede? Grugni. Chi siete, signore? Mi chiamo Marlow. Cerco il dottor Weringer. Il ragazzo, Erl, ha voluto fare il prepotente. Credo che il caldo gli dia la testa. Sono io il dottor Weringer, disse con dignità. Voltò la testa. Entra in casa, Erl. Erl si alzò ad agio. Scoccò al dottor Weringer uno sguardo cogidabondo, scrutatore, con quei suoi grandi occhi annebbiati, privi d'ogni espressione. Poi salì gradini e aprì la porta con la rete metallica. Uno sciame di mosche ronzò irritato e tornò a posarsi sulla rete quando la porta si fu chiusa. Marlow? Il dottor Weringer si voltò di nuovo a osservarmi. E che cosa posso fare per voi, signor Marlow? Erl dice che la vostra attività qui è cessata. Esatto. Aspetto solo che alcune formalità legali siano perfezionate prima di andarmene. Erl e io siamo rimasti soli. Sono deluso, dissi assumendo un'espressione delusa. Credevo che un tale a nome Wade fosse qui con voi. Inarcò un paio di sopracciglia che avrebbero attratto l'attenzione di un fabbricante di spazzole. Wade? Non è affatto escluso che conosca un Wade. Si tratta di un cognome abbastanza comune. Ma perché dovrebbe trovarsi qui? Per la cura. Si accigliò. Quando un tizio ha delle sopracciglia come quelle, il suo è un attentico cipiglio. Sono medico, signore, ma non esercito più. A che genere di cura alludete? Wade è alcolizzato. Si ubriaca di quando in quando e scompare. A volte torna a casa per conto suo, a volte viene accompagnato e talora occorre qualche ricerca prima che si possa ripescarlo. Mi tolsi di tasca un biglietto da visita e glielo porsi. Lo lesse senza alcun piacere. Che cos'ha Erl? gli domandai. Crede di essere Rodolfo Valentino qualcosa del genere. Di nuovo aggrottò le sopracciglia. Mi affascinavano. In parte si incurvavano per conto loro per quasi quattro centimetri. Alzò le spalle tutta ciccia. Erl è del tutto innocuo, signor Marlow. Certe volte un po' incantato. Potremmo dire che vive in un mondo di fiabe. Lo dite voi, dottore. Stando a quanto mi risulta, è piuttosto umanesco. Oh là là, signor Marlow. Esagerate senza dubbio. A Erl piace recitare una parte. Sotto questo punto di vista. È infantile. Volete dire che è matto? Ribattei. Questo posto è una specie di convalescenziario, vero? O lo era? No, di certo. Quando era aperto si trattava di una colonia per artisti. Forniva loro vitto e alloggio, la possibilità di fare dello sport e di distrarsi e soprattutto la solitudine. E tutto ciò in cambio di una retta modesta. Gli artisti, come probabilmente saprete, solo di rado sono ricchi e dicendo artisti intendo a parlare naturalmente anche di scrittori, musicisti e così via. È stata per me un'occupazione ereditizia, finché è durata. Si rattristò pronunciando queste parole. Le sopracciglia si incurvarono esternamente verso il basso, proprio come le sue labbra. Se fossero stati un po' più lunghe sarebbero andate a finirgli in bocca addirittura. Lo so, dissi. Risulta sullo schedario. Risulta anche il suicidio che è stato commesso qui qualche tempo fa. Un caso di intossicazione da stupefacenti, vero? Rinunciò all'espressione rattristata e ne assunse una di meraviglia. Quale schedario? Domandò in tono aspro. Abbiamo uno schedario su quelli che chiamiamo i tipi delle finestre sbarrate, dottore. Sapete quei posti in cui ci si può rifugiare quando si è colti da certe crisi. Piccoli convalescenziari privati o cliniche o come diavolo le chiamate, che curano gli alcolizzati, le intossicazioni da stupefacenti, le forme meno gravi di pazzia. Le cliniche di questo genere devono essere autorizzate, disse il dottor Berringer con voce aspra. Certo, perlomeno in teoria. A volte però dimenticano di chiedere l'autorizzazione. Si irrigidì. Riusciva a fare sfoggio di una certa dignità. L'insinuazione è offensiva, signor Marlowe. Non so davvero perché il mio nome sia stato incluso nello schedario di cui parlate. Devo pregarvi di andarvene. Torniamo sull'argomento di Wade. Non potrebbe magari trovarsi qui sotto falso nome? Non c'è nessuno qui tranne Earl e io. Siamo completamente soli. E ora, se volete scusarmi... Vorrei dare un'occhiata in giro. A volte si riesce a mandare tanto in bestia questi individui da indurli a perdere il controllo, ma il dottor Berringer faceva eccezione. Mantenne il suo atteggiamento dignitoso, completamente assecondato dalle sopracciglia. Mi voltai a guardare la casa. Dalla porta veniva un suono di musica, di musica da ballo e un lievissimo schioccare di dita. Scommetto che sta ballando, disse. È un tango. Scommetto che sta ballando tutto solo là dentro. Un bel tipo davvero. Volete andarvene o no, signor Marlowe? O preferite che chieda Earl di aiutarmi a buttarvi fuori dalla mia proprietà? Ok, ok, me ne vado. Non prendetevela, dottore. C'erano soltanto tre nomi che iniziavano con la V e il vostro sembrava il nominativo più promettente. Era il solo vero indizio di cui disponevamo, dottor V. Wade aveva scritto queste parole su un pezzo di carta prima di andarsene, dottor V. «Devono essercene a decine», osservò il dottor Berringer in tono pagato. «Oh, sicuro, ma non ce ne è a decine nel nostro schedario o della finestra sbarrate. Grazie per il tempo che avete perduto, dottore. Earl mi lascia piuttosto interdetto». Mi voltai, mi avvicinai all'automobile e vi salì. Prima ancora che avessi chiuso lo sportello, il dottor Berringer era accanto a me. Si sporse in avanti con un'espressione cordiale. «Non è necessario litigare, signor Marlow. Mi rendo conto che nella nostra professione si deve essere non di rado piuttosto intriganti. Per quale ragione Earl vi lascia interdetto?» È così evidentemente toccato. Dove si trova un individuo toccato è logico aspettarsi che ce ne siano altri. Quel giovanotto è un maniaco depressivo, vero? E in questo momento sta attraversando la fase euforica. Mi fissò in silenzio con un'espressione grave e cortese. «Molta gente interessante e ricca di talento ha soggiornato qui, signor Marlow. Non tutti avevano il cervello a posto come potete averlo voi. Gli uomini geniali sono spesso nevrotici, ma non sarei in grado di ospitare e curare pazzi alcolizzati, neppure se questo genere di lavoro mi piacesse. Non ho alcun collaboratore eccetto Earl, e lui non è certo il tipo da curare pazienti». «E secondo voi che cosa sarebbe capace di fare, dottore, a parte i balletti?» Si appoggiò allo sportello. Parlò con voce bassa e in tono confidenziale. «I genitori di Earl erano cari amici miei, signor Marlow. Qualcuno deve pure occuparsi di Earl e purtroppo essi non sono più in vita. Earl deve condurre un'esistenza tranquilla, lontano dal frastuono e dalle tentazioni delle città. È incostante ma fondamentalmente innocuo. Lo domino con assoluta facilità, come avete visto». «Siete molto coraggioso», dissi. Sospirò. Le sopracciglia ondeggiarono ad agio, come antenne di un insetto sospettoso. «È stato un sacrificio», disse. «Un sacrificio piuttosto duro. Avevo creduto che Earl potesse aiutarmi. Gioca magnificamente al tennis, nuota e si tuffa da campione. È capace di ballare l'intera notte e quasi sempre l'amabilità personificata. Ma di quando in quando vi sono stati degli incidenti?» Agitò la mano larga come per scacciare ricordi spiacevoli. «Alla fine sono stato costretto a prendere una decisione. O sbalazzarmi di Earl o rinunciare alla mia attività». Levò entrambe le mani col palmo in su, le girò e le lasciò ricadere sui fianchi. Aveva gli occhi umidi di lacrime. «Ho venduto», disse. «Questa serena valletta diventerà un terreno da costruzione. Vi saranno marciapiedi e fanali, ragazzi in monopattino e frastornanti a parecchi radio. Ci sarà persino...» E si lasciò sfuggire un sospiro disperato. «La televisione!» Fece un ampio gesto circolare con la mano. «Spero che salveranno gli alberi», disse. «Ma temo di no. Sui crinali sorgeranno al loro posto le antenne della televisione, ma quel giorno Earl e io saremo molto lontani, voglio sperare». «Arrivederci, dottore. Mi sanguina il cuore per voi». Pese la mano. Era umidiccia, ma molto ferma. «Apprezzo la vostra simpatia e la vostra comprensione, signor Marlow, e mi rincresce di non potervi essere utile nelle ricerche del signor Slade». «Wade», dissi. «Scusatemi, Wade, naturalmente. arrivederci e buona fortuna, signore». Avviai la macchina e ripercorsi la strada inghiaiata. Ero triste, ma non proprio come avrebbe voluto il dottor Weringer. Uscì dal cancello e continuai fino alla curva dell'autostrada in modo da poter parcheggiare l'automobile senza che si potesse vederla dal cancello. Discesi e tornai indietro a piedi, fino al recinto di rete metallica, in un punto dal quale riuscivo a intravedere il cancello. Rimasi lì, sotto un ecolipto, e aspettai. Passarono circa cinque minuti, poi un'automobile si avvicinò lungo la strada privata facendo stridere la ghiaia. Mi allontanai dal punto in cui mi trovavo e mi nascosi fra i cespugli. Udì un cigolio, poi lo scatto di un grosso lucchetto e il tintinnio di una catena. Il motore dell'automobile salì di giri e la macchina tornò indietro. Quando il rombo del motore fu svanito in lontananza, tornai sulla mia holz e voltai in direzione della città. Passando accanto all'ingresso della strada privata del dottor Weringer, vidi che il cancello era chiuso con un lucchetto e una catena. Non più visitatori per oggi. Grazie. 17. Rifeci i trenta e più chilometri fino alla città e pranzai. Mangiando la faccenda mi parve sempre più ridicola. Non si trova la gente col sistema che stavo mettendo in pratica. Si conoscono interessanti individui come Earl e il dottor Weringer, ma non ci si imbatte nell'uomo che si cerca. Si consumano gomme, benzina, parole d'energia nervosa in un gioco che non è redditizio. Riuscire è ancora più improbabile che indovinare un numero alla roulette. Con tre nomi che cominciavano per V, avevo tante probabilità di rintracciare il mio uomo quanto di battere un baro alle carte. In ogni caso, al primo tentativo si fa sempre un buco nell'acqua. Ci si trova in un vicolo cieco. È un palloncino che mi scoppia in faccia senza neppure far rumore. Tuttavia, Weringer non avrebbe dovuto dire Slade invece di Wade. Era un uomo intelligente, non avrebbe dimenticato tanto facilmente un nome e in ogni caso lo avrebbe dimenticato del tutto. Forse sì e forse no, non lo conoscevo abbastanza per poter esserne sicuro. Sorbendo il caffè pensai agli altri due medici, Bucanich e Varley. Sì o no? Mi avrebbero tenuto occupato per la maggior parte del pomeriggio e poi non era escluso che telefonassi a casa Wade, nella Idle Valley, per sentirmi dire che il capofamiglia aveva fatto ritorno al suo domicilio e per il momento stava benissimo. Per quanto concerneva il dottor Bucanich, non c'erano difficoltà. Abitava soltanto a una mezza dozzina di isolati di distanza, ma il dottor Varley dimorava sulle alture di Altadena, un lungo caldo noioso viaggio in macchina. Sì o no? La decisione finale fu sì, per tre buone ragioni. Anzitutto non la si sa mai abbastanza lunga in fatto di attività clandestine e di coloro che vi si dedicano. In secondo luogo, qualsiasi informazione avessi potuto aggiungere allo schedario che Peters aveva consultato, per me sarebbe stato un modo come un altro per ringraziarlo e dimostrargli la mia riconoscenza. In terzo luogo, non avevo altro da fare. Bagai il conto, lasciai la macchina dove si trovava e mi incamminai verso il palazzo Stockwell. Era un vecchio edificio, con rivendita di sigari e sigarette nell'ingresso e un ascensore non automatico che dondolava e non voleva saperne di fermarsi alla stessa altezza dei pianerottoli. Il corridoio del sesto piano era stretto e le porte avevano riquadri di vetro smerigliato. Un edificio più vecchio e molto più sporco di casa mia. Pieno zeppo di medici dentisti, cultori della scienza cristiana che non se la cavavano troppo bene. Avvocati di quelli che si spera vengano scelti dall'avversario, medici e dentisti di quelli che riescono a malapena tirare avanti. Non troppo abili, non troppo puliti, non troppo onesti. Tre dollari e versateli all'infermiera, prego. Uomini stanchi, scoraggiati, che si rendono esattamente conto della loro situazione, che sanno quale può essere la loro clientela e fino a che punto si possa spremerla. Si prega di non chieder credito. Il dottore riceve, il dottore non riceve. È un molare molto cariato il vostro, signor Kaczynski. Se desiderate il nuovo tipo di otturazione acrilica che equivale in tutto e per tutto a una capsula in oro, posso farvela per 14 dollari. Il dottore riceve, il dottore non riceve. Facciamo tre dollari. Versateli all'infermiera, prego. In un palazzo come questo ci sono sempre alcuni individui che guadagnano molto denaro, ma non ne hanno l'aria. Si mimetizzano con lo squalido sfondo, che serve a essi da mascheramento. Avvocati disonesti, specializzati in truffe sulle cauzioni versate per ottenere la libertà provvisoria. Individui che procurano aborti e fingono di essere qualsiasi cosa che possa conciliarsi con l'arredamento dei loro gabinetti. Spacciatori di stupefacenti che si fanno passare per urologi, dermatologi o specialisti in qualsiasi branca della medicina, tale da chiedere cure frequenti e un normale ricorso alle anestesie locali. Il dottor Vucanic aveva una sala d'aspetto piccola e male ammobiliata, nella quale sedevano scomodamente dieci pazienti. Il loro aspetto era comunissimo e non destava alcun sospetto. D'altronde, un intossicato da stupefacenti tenuto sotto controllo medico non si distingue da un contabile vegetariano. Dovete aspettare tre quarti d'ora. I pazienti entravano per due porte. Un otorino laringoiatra attivo può curare anche quattro pazienti contemporaneamente, purché si disponga di spazio a sufficienza. Finalmente, entrai. Fui fatto sedere su una poltrona di cuoio marrone, accanto a un tavolo coperto da una candida tovaglia e sul quale si trovava una serie di strumenti. Contro la parete gorgogliava uno sterilizzatore. Il dottor Vucanic entrò, dinamico, con il camice bianco e lo specchietto rotondo assicurato alla fronte. Sedette dinanzi a me, su uno sgabello. Emi crani e da sinusite, eh? Molto forti? Esaminò la scheda datagli dall'infermiera. Dissi che erano spaventose e accecanti, specie subito dopo che m'ero alzato al mattino. Annui, con aria saggia. Tipico, disse e inserì un cappuccio di vetro su un oggetto che sembrava una penna stilografica. Me lo spinse in bocca. Stringete le labbra, ma non i denti, per favore. Così dicendo, allungò il braccio e spense la luce. Non c'erano finestre. Un ventilatore ronzava in qualche posto. Il dottor Vucanic estrasse il tubo di vetro e riaccese la luce. Mi osservò attentamente. Nessuna congestione, signor Marlow. Se soffrite di emicranie non sono dovute a una sinusite. Oserei dire addirittura che non avete mai sofferto di sinusite in vita vostra. Vedo che avete subito in passato un'operazione al setto nasale. Sì, dottore, in seguito a un calcio durante una partita di rugby. Annui. C'è una piccola scheggia ossea che avrebbero dovuto asportarvi. Tuttavia, non è sufficiente a ostacolare la respirazione. Si reclinò all'indietro sullo sgabello, reggendosi il ginocchio con le mani. Che cosa desiderate da me in realtà? Domandò. Era un uomo dal volto scavato, scialbo e pallido. Sembrava un topo bianco affetto da tubercolosi. Volevo parlarvi di un mio amico. È in pessime condizioni. Fa lo scrittore. Guadagna molto, ma ha i nervi in cattivo stato. È bisognoso di aiuto. Per giorni e giorni cade in preda a crisi violente. Gli occorre quella piccola dose extra, ma il suo medico non vuole più collaborare. Che cosa intendete dire esattamente con collaborare? Domandò il dottor Bucanic. Gli occorre soltanto una iniezione di quando in quando per calmarsi. Pensavo che forse avremmo potuto accordarci. Il compenso sarebbe elevato. Spiacente, signor Marlow. Non mi occupo di casi del genere. Si alzò. Una proposta espressa piuttosto brutalmente, se mi è consentito dirlo. Il vostro amico può consultarmi, se così di desidera. Ma sarà bene che sia effettivamente ammalato e abbia bisogno di cure. Fanno 10 dollari, signor Marlow. Finitela, dottore. Siete sulla lista. Il dottor Bucanic si addossò alla parete e accese una sigaretta. Stava guadagnando tempo. Soffiò fuori il fumo e lo contemplò. Gli diedi uno dei miei biglietti da visita affinché contemplasse quello, piuttosto lo guardò. Di che lista si tratterebbe? Domandò. Le case di cura clandestine. Penso che conosciate già il mio amico. Si chiama Wade. Penso che abbiate potuto nasconderlo in una cameretta bianca. È scomparso da casa. Siete un asino, mi disse il dottor Bucanic. Non mi comprometto per robetta da quattro soldi come le cure da quattro giorni con pazienti alcolizzati. Oltretutto non servono a nulla. Non ho alcuna cameretta bianca e non conosco questo vostro amico. Ammesso che esista. Sono dieci dollari e in contanti. E subito. O preferite che chiami la polizia e vi accusi di avermi chiesto narcotici. Sarebbe divertente, dissi. Fate pure. Uscite, fanfarone. Mi alzai dalla poltrona. Credo di essermi sbagliato, dottore. L'ultima volta il mio amico, dopo essersi ubriacato, andò a rifugiarsi presso un medico il cui cognome comincia per V. Tutto si svolse nel più assoluto segreto. Lo accolsero a tarda ora della notte e lo riaccompagnarono a casa quando ebbe superato la crisi, ma non aspettarono neppure di vederlo entrare. Logico quindi che quando egli torna a ubriacarsi e a scomparire, noi esaminiamo i nostri schedari in cerca di un indizio. Ci risultano tre medici, il cui cognome cominci per V. Interessante, fece lui con uno smorto sorriso. Continuava a guadagnare tempo. Su che cosa è basata la scelta? Lo fissai. Stava spostando ad agio su e giù la mano destra sulla parte posteriore del braccio sinistro, dal lato interno. aveva il volto coperto da un velo di sudore. «Spiacente, dottore, i nostri sistemi sono riservatissimi». «Scusatemi un momento, c'è un altro paziente che...» Si allontanò senza completare la frase e uscì. Durante la sua assenza un'infermiera fece capolino alla porta, mi scrutò brevemente e si ritirò. Poi il dottor Bucanici tornò nella stanza camminando allegramente. Era sorridente e sereno, aveva gli occhi illustri. «Come? Siete ancora qui?» Parve molto stupito, o finse di esserlo. «Credevo che la breve visita avesse avuto a termine». «Me ne vado. Mi era parso di dovervi aspettare». Ridacchiò. «Sapete una cosa, signor Marlow? Viviamo in tempi straordinari. Se non fosse stato per 500 miserabili dollari avrei potuto farvi ricoverare in un ospedale con parecchie ossa rotte. È comico, non è vero?» «Esilarante», dissi. «Vi siete praticato un'endovena, eh, dottore? Per bacco se tirano su!» Mi avviai verso la porta. «Hasta luego, amico!» «Cinguettò. Non dimenticate i 10 dollari. Dategli all'infermiera!» Si avvicinò all'apparecchio del telefono interno al suo ricevitore e disse qualcosa mentre uscivo. Nella sala d'aspetto, le stesse 10 o 12 persone o altre 10 o 12 persone identiche a quelle di prima continuavano a sedere su comode sedie. L'infermiera entrò immediatamente in azione. «Sono 10 dollari, signor Marlow. Richiediamo l'immediato pagamento in contanti!» Continuai a dirigermi verso la porta, passando fra i piedi dei clienti. Balzò su una sedia e girò intorno alla scrivania. Spalancai la porta. «Che cosa succede quando non vi pagano?» domandai. «Ve ne accorgerete di quello che succede?» rispose con ira. «Certo, voi fate il vostro mestiere e io il mio. Date un'occhiata al biglietto di visita che ho lasciato di là e vedrete qual è il mio mestiere». Uscii. I pazienti mi osservavano con sguardi di disapprovazione. Non era il modo di trattare il dottore. 18. Con il dottor Amos Varley fu tutto molto diverso. Il dottor Varley possedeva un'antica, vasta dimora in un antico grande giardino ombreggiato da vecchie, grandi querce. Era una massiccia costruzione in legno con complicate ornamentazioni sugli aggetti delle verande e le colonnine dei parapetti bianchi tornite come le gambe di un pianoforte a coda del secolo scorso. Alcuni vecchietti dall'aspetto malaticcio se ne stavano allungati su sedia a sdraio nelle verande, bene avvolti in coperte. Si vestibolo era ampio e fresco, con un pavimento di legno lucidissimo e senza un solo tappeto. Altadena e calda in estate. Si trova ridosso delle alture e le fresche brezze di montagna non si abbassano abbastanza per disperdere l'afa. Ottant'anni fa la gente sapeva costruire case adatte a questo clima. Un'infermiera di ingrebiule bianco e inamidato prese il biglietto di visita e dopo qualche minuto di attesa il dottor Amos Barley si degnò di ricevermi. Era un uomo alto e robusto, calvo, con un allegro sorriso. Il lungo camice bianco era immacolato, camminava senza rumore sulle sole di gomma. In che cosa posso esservi utile, signor Marlow? Aveva una voce calda e tenera per placare le sofferenze e consolare i cuori colmi d'ansia. Il dottore è qui, non c'è più alcuna ragione di preoccuparsi. Tutto andrà a meraviglia. Aveva i tipici modi da capezzale, strati su strati di miele. Era meraviglioso e duro come una corazza d'acciaio. Dottore, sto cercando un tale a nome Wade, un ricco alcolizzato scomparso da casa. Episodi precedenti ci fanno pensare che si trovi in qualche clinica discreta dove possa essere curato con efficacia. Il solo indizio di cui disponiamo è un'allusione a un certo dottor V. Voi siete il terzo dottor V con il quale parlo e comincio a scoraggiarmi. Sorrise benignamente. Solo il terzo, signor Marlow? Vi sarà senza dubbio un centinaio di medici il cui nome comincia per V a Los Angeles ed intorni? Certo, ma non molti dispongono di stanze con le finestre sbarrate. Ne ho notate alcune qui al primo piano della casa. Persone anziane, disse il dottor Barley in tono malinconico, una malinconia calda e piena. Persone anziane e sole, persone depresse e infelici, signor Marlow. A volte... Fece un gesto espressivo con la mano, un movimento ricurvo all'infuori, una pausa, poi un lento abbassarsi come una foglia morta che cade a terra dondolando. Non curo casi di alcolismo, soggiunse in tono reciso. Ora, se volete scusarmi... Spiacente, dottore. Per caso vi trovavate sulla nostra lista, probabilmente un errore. Noia con l'ispettorato dei narcotici un paio d'anni fa. Davvero? Parve interdetto. Poi la luce gli balenò nella mente. Ah, sì, un assistente di cui mi ero imprudentemente abbalzo, per un periodo brevissimo. Abusò della mia fiducia, sì, è vero. Non è questo che ho saputo, dissi. Sarò stato male informato. E che cosa avete saputo, signor Marlowe? Continuava a trattarmi come un buon cliente, con sorrisi e toni melliflui. Che foste costretto a consegnare il ricettario dei narcotici. Queste parole parvero scuoterlo un poco. Non si accigliò del tutto, ma rinunciò a parecchi strati di miele. Aveva ora negli occhi celesti un gelido bagliore. È la fonte di questa fantastica informazione? Una grande agenzia di investigazioni, che ha avuto modo di formare uno schedario su questo genere di cose. Una banda di miserabili ricattatori, senza dubbio. Miserabili, no, dottore. La loro tariffa minima è di 100 dollari al giorno. L'organizzazione è diretta da un ex colonnello della polizia militare. Non è un uomo che sia contenti di poco, dottore. Ha la mano pesante. Gli darò una lezione, disse il dottor Varley. Con freddo disprezzo. Come si chiama? Il crepuscolo era sceso sulle maniere del dottor Varley. Stava per cominciare una gelida sera. Non posso rivelarvelo, dottore, ma non pensateci più. Per noi sono faccende di ordinaria amministrazione. Il nome Wade non vi ricorda proprio nulla? Credo che sappiate da che parte si esce, signor Marlow. La porta di un piccolo ascensore si aprì alle sue spalle. Un'infermiera spinse fuori una sedia a rotelle. La sedia conteneva i resti di un vecchio rottame umano. L'uomo aveva gli occhi chiusi, la pelle di una tinta bluastra. L'infermiera spinse silenziosamente la sedia a rotelle sul lucido pavimento, uscendo da una porta laterale. Il dottor Varley disse in tono blando «Persone anziane, vecchi, malati e soli, non fatevi vedere mai più, signor Marlow. Potreste seccarmi e quando mi secco posso comportarmi in modo piuttosto sgradevole. Diciamo pure in modo molto sgradevole». «D'accordo, dottore, grazie per il tempo perduto. Un bel posticino per morituri, questa vostra clinica». «Come avete detto?» Fece un passo verso di me e rinunciò agli ultimi strati di miele. Le pieghe soavi della sua faccia si tramutarono in rughe minacciose. «Che cosa vi prende?» Domandai. «Mi rendo conto che Wade non può trovarsi qui. Non verrei a cercarci nessuno che non fosse troppo debole per potersi ribellare. Persone anziane e ammalate, persone anziane e sole, lo avete detto voi stesso, dottore. Vecchi dei quali nessuno vuol sapere, ma che hanno quattrini e avidi eredi. E quasi tutti, con ogni probabilità, giudicati incapaci dal tribunale». «Mi sto seccando», disse il dottor Varley. «Un vitto leggero, leggere dosi di sonnifero, un'inflessibile regola di vita. Portateli al sole e riportateli al letto. Qualche finestra sbarrata, nel caso che in alcuni di loro esista ancora una scintilla di energia. Vi amano, dottore, dal primo all'ultimo. Muoiono tenendovi la mano, vedendo la tristezza di lagarvi negli occhi. Ed è una tristezza sincera, oltretutto». «Certo che lo è», fece lui, con un racquo grugnito. Aveva le mani strette a pugno ora. Avrei dovuto tacere, ma aveva cominciato a nausearmi. «Certo che lo è», disse io. «A nessuno piace perdere un cliente che paga bene, specie quando si tratta di un cliente che non è neppure necessario accontentare». «Qualcuno deve pur farlo», disse. «Qualcuno deve pur occuparsi di questi poveri vecchi, signor Marlowe. Qualcuno deve pure pulire i cessi. A pensarci bene, quest'ultimo è un lavoro pulito e onesto. Arrivederci, dottor Varley. Quando il mio lavoro farà sì che mi senta un miserabile, penserò a voi. Basterà questo a rallegrarmi». «Sporco pidocchio», disse il dottor Varley tra i denti forti e bianchi. «Dovrei rompervi il collo. La mia è un'onorata specialità ad una professione onorata». «Già», lo guardai con aria stanca. «Lo so bene, solo che puzza di morte». Non mi colpì e così mi allontanai e uscì. Giunto accanto alla porta a doppio battente, mi voltai. Non si era mosso. Aveva il suo da fare a ricoprirsi con gli strati di miele. 19. «Quando mi trovai nell'Hollywood Boulevard, mi parve di essere un pezzetto di spago biascicato. Era troppo presto per cenare e faceva troppo caldo. Misi in moto il ventilatore nel mio ufficio. Non rinfrescò l'aria, riusci soltanto a rianimarla un poco. Fuori nel viale il traffico rumoreggiava senza posa. Nella mia mente i pensieri aderivano l'uno all'altro, vischiosi come mosche sulla carta moschicida. Tre tentativi, tre buchi nell'acqua. Non ero riuscito ad altro che a far conoscenza di alcuni medici. Telefonai a casa Wade. Mi rispose un tizio dall'accento messicano dicendo che la signora Wade non era in casa. Chiesi di parlare col signor Wade. La voce disse che anche il signor Wade non era in casa. Diedi il mio nome. Parve capirlo senza alcuna difficoltà. Disse di essere il cameriere. Formai il numero dell'organizzazione Cairn per parlare con George Peters. Forse poteva indicarmi qualche altro medico, ma non si trovava in ufficio. Diedi un nome falso e il giusto numero di telefono. Un'ora passò lentamente, strisciante, come uno scarafaggio in preda a capogiri. Era un granello di sabbia nel deserto dell'oblio. Era un tiratore rimasto senza cartucce. Tre tentativi, tre buchi nell'acqua. Non li sopporto gli insuccessi quando capitano a tre per volta. Vai dal signor A, niente. Vai dal signor B, niente. Vai dal signor C, lo stesso risultato. Una settimana dopo, vieni a sapere che saresti dovuto andare dal signor D. Solo che non ne immaginavi neppure l'esistenza. E quando l'ha scoperta, il cliente ha cambiato idea e rinunciato alle indagini. Il dottor Vucanich e il dottor Varley erano eliminati. Varley faceva le cose troppo in grande per occuparsi di casi di alcolismo. Vucanich era uno spericolato giocatore d'azzardo che conduceva la partita nel suo gabinetto medico. L'infermiera doveva saperlo, o perlomeno alcuni dei clienti dovevano esserne al corrente. Per metterlo fuori combattimento sarebbero bastati un individuo vendicativo e una telefonata. Ubriaco o no, Wade non lo avrebbe mai avvicinato. Poteva non essere l'uomo più intelligente del mondo? Molte celebrità sono tutt'altro che dei giganti dal punto di vista mentale, ma non sarebbe mai stato così stupido da scherzare con il dottor Vucanich. Il solo a cui si potesse pensare era il dottor Varley. Viveva in un luogo appartato e disponeva di locali adatti. Probabilmente aveva la pazienza necessaria, ma il canyon Sepulveda era molto lontano da Idle Valley. Dove si trovava il punto di contatto? Come si erano conosciuti quei due? Inoltre, se Berringer era davvero il proprietario di quel terreno e aveva trovato un acquirente, doveva certamente essersi cacciato in grossi pasticci. Questo mi diede un'idea. Telefonai a un tale che conoscevo e lavorava in una società immobiliare. Volevo informarmi sulla situazione della proprietà. Nessuno rispose. Gli uffici della società immobiliare erano chiusi. Chiusi anch'io e andai in automobile alla Sienaga nel bar-ristorante BQ di Rudy. Diedi il mio nome al capo cameriere e aspettai il gran momento su uno sgabbello del bar di fronte a un whisky, ascoltando i waltzer di Mark Webber. Dopo qualche minuto varcai l'ingresso del ristorante, con i cordoni di velluto, e mangiai una delle bistecche alla Rudy famose in tutto il mondo. Vale a dire, una bistecca di manzo che sembrava un pezzo di legno bruciato, con contorno di patate, cipolle fritte e insalata mista. Uno di questi piatti che gli uomini mangiano con assoluta docilità nei ristoranti, mentre con ogni probabilità si metterebbero a urlare se la moglie glieli servisse in casa. Dopo la cena me ne tornai a casa. Mentre aprivo la porta, il telefono cominciò a squillare. Parla Aileen Wade, signor Marlow. Avete lasciato detto di telefonarvi? Solo per sapere se ci sono novità. Ho visitato medici per tutto il giorno e non mi sono fatto alcun amico. No, mi dispiace. Non si è ancora fatto vivo. Non posso fare a meno di essere piuttosto in ansia. Sicché, presumo, non avete nulla da dirmi. Parlava in tono basso e scoraggiato. La contea è molto popolata, signora Wade. È scomparso ormai da quattro giorni. Lo so, ma non è poi molto. Per me sì. Tacque per qualche attimo. Ho riflettuto intensamente, sforzandomi di ricordare qualcosa. Continuò. Deve pur esserci qualcosa, una reminescenza, un vago ricordo. Roger parla molto su ogni genere di argomenti. Il nome di Weringer non vi dice nulla, signora Wade? No, temo di no. Dovrei conoscerlo. Avete detto che il signor Wade fu accompagnato a casa una volta da un uomo alto di statura, vestito da cowboy. Riconoscereste quest'uomo se doveste rivederlo, signora Wade? Ritengo di sì, disse lei titubante. Nelle stesse condizioni, ma lo intravide appena. Si chiama Weringer? No, signora Wade. Weringer è un uomo corpulento, di mezza età, che dirige o, per essere più precisi, dirigeva una specie di ranch attrezzato al luogo di soggiorno nel canyon Sepulveda. Ha alle sue dipendenze un giovanotto, vestito da cowboy e a nome Earl. E Weringer si fa chiamare dottore. È meraviglioso, esclamò lei con entusiasmo. Non pensate di essere sulla pista buona? Potrei aver preso un grosso granchio. Vi telefonerò quando lo saprò. Per il momento volevo solo accertarmi che Roger non fosse tornato a casa e sapere se per caso non aveste ricordato qualcosa di più preciso. Temo di non esservi stata di grande aiuto, disse in tono afflitto. Vi prego, telefonatemi a qualsiasi ora, per quanto tardi possa essere. Risposi che lo avrei fatto e riattaccammo. Mi munì questa volta di una rivoltella e di una lampadina tascabile a tre pile. La rivoltella era un'arma a canna corta, calibro 36, con proiettili a punta arrotondata. Il dipendente di Weringer, Earl, poteva possedere altri giocattoli, oltre al pugno di ferro. In tal caso era sufficientemente pazzo per adoperarli. Tornai sull'autostrada e guidai alla massima velocità consentita. La notte sarebbe stata senza luna e avrebbe cominciato a far buio quando avessi raggiunto la proprietà del dottor Weringer. Le tenebre mi erano indispensabili. Il cancello era sempre chiuso, con catene e lucchetto. Proseguì e parcheggiai la macchina a una certa distanza dall'autostrada. Ancora induggiava un po' di luce sotto gli alberi, ma non sarebbe durata a lungo. Scavalcai il cancello e salì lungo il fianco della collina cercando una scorciatoia. Lontano, nella valle, mi parve di sentire il verso di una quaglia. Una femmina in lutto protestava contro le infelicità della vita. Non esisteva alcuna scorciatoia, o non riuscì a trovarla. Tornai allora sulla strada e camminai lungo il margine della ghiaia. Gli eucalipti sostituivano le querce e io superai il crinale e cominciai a scorgere alcune luci lontane. Ci vollero tre quarti d'ora per passare dietro la piscina e il campo da tennis e raggiungere un punto dal quale potevo contemplare, in basso, l'edificio principale al termine della strada. Era illuminato e udivo una musica a risuonare all'interno. Vi erano piccoli villini scuri disseminati dappertutto. Seguì un sentiero adesso e improvvisamente una luce si accese nella parte posteriore della casa. Mi immobilizzai. La luce non era puntata contro nessuno. Proiettava semplicemente un cerchio luminoso sulla veranda posteriore e sul terreno. Poi la porta si spalancò ed ecco uscire Earl. Mi resi conto allora di aver centrato il bersaglio. Earl era mascherato da Vaccaro quella sera ed era stato un Vaccaro ad accompagnare a casa Roger Wade. Stava facendo girare in aria una corda. Indossava una camicia scura con ricami bianchi e aveva al collo una sciarpa. Portava un largo cinturone di cuoio sovraccarico di decorazioni in argento e due fondine di cuoio dalle quali sporgevano le impugnature in avorio di due pistole. Indossava eleganti pantaloni da cavallerizzo e calzava stivali con filettature di pelle bianca, lucidissimi. Portava un sombrero bianco spinto all'indietro sulla nuca e quello che sembrava un cordoncino d'argento gli pensolava sulla camicia, con i capi non annodati. Rimase lì, solo, sotto la vivida luce, facendo roteare la corda intorno a sé, entrando e uscendo dal cerchio come un attore senza pubblico. Un alto, snello, bellissimo domatore di cavalli bradi che inscenava uno spettacolo per conto suo e lo gustava attimo per attimo. Earl dalle due pistole. Il terrore della contea Chokies. Avrebbe figurato magnificamente in uno di quei ranch attrezzati ad albergo in cui la messa in scena è così accurata che persino le ragazze del centralino telefonico vanno al lavoro con stivali da cavallerizze. A un tratto udì un rumore o finse di averlo udito. Lasciò cadere la corda, estrasse fulminio le due pistole dalle fondine ed ecco i pollici di lui alzare i percussori mentre le puntava. Sbirciò l'oscurità e io non osai muovermi. Quelle dannate pistole potevano essere cariche ma la luce lo abbagliava e non vedeva nulla. Rimise le pistole nelle fondine prese la corda lasciandola penzolare e tornò in casa. La luce scomparve e io feci altrettanto. Feci un ampio giro tra gli alberi e mi avvicinai al minuscolo villino illuminato. Non si udiva il minimo suono. Mi avvicinai a una finestra chiusa dalla zanzariera metallica e guardai dentro. La luce veniva da una lampada posata sul comodino accanto al letto. Un uomo stava supino sul letto, col corpo rilassato, con le braccia infilate nelle maniche di un pigiama fuori delle coperte. Sembrava grande e grosso. Aveva gli occhi spalancati e fissava il soffitto. La faccia si trovava in parte in ombra, ma vidi che era pallido, che aveva bisogno di sbarbarsi e che ne aveva avuto bisogno da circa quattro giorni. Le mani con le dita distese giacevano immobili sulla coperta. Sembrava che non si fosse mosso per ore. Udì dei passi avvicinarsi lungo il sentiero, dall'altro lato del villino. Una porta cigolò. Poi, ecco la sagoma massiccia del dottor Weringer profilarsi sulla soglia. e il dottore aveva in mano quello che sembrava un grande bicchiere pieno di succo di pomodoro. Accese una lampada al paralume. La luce si posò giallastra sulla sua camicia hawaiana. L'uomo disteso sul letto non lo degnò neppure di uno sguardo. Il dottor Weringer posò il bicchiere sul comodino, accostò una sedia e bisì lasciò cadere. Allungò la mano e prese tra le dita il polso del paziente. Come vi sentite adesso, signor Wade? E il tono della voce era gentile e premuroso. L'uomo disteso sul letto non rispose, né lo guardò. Continuò a fissare il soffitto. Andiamo, andiamo, signor Wade. Non tenete il broncio. Il polso è solo un po' più affrettato del normale. Siete debole, ma per il resto... Teji! Esclamò un tratto l'uomo sul letto. Di a quest'uomo, a questo figlio di puttana che se sa come sto non ha bisogno di domandarmelo. La voce era bella e chiara, ma il tono molto amaro. Chi è Teji? Domandò paziente al dottor Weringer. Il mio portavoce è lassù, nell'angolo. E il dottor Weringer alzò gli occhi. Vedo un piccolo ragno, disse. Finitela di recitarla con media, signor Wade. Non è necessario con me. È la tegenaria domestica. Il comune ragno saltatore, amico. Mi piacciono i ragni. Non indossano praticamente mai camicie hawaiane. E il dottor Weringer si passò la punta della lingua sulle labbra. Non ho tempo da perdere i spiritosaggini, signor Wade. Teji non è affatto una spiritosagine. Wade voltò ad agio la testa, quasi gli pesasse come il piombo, e fissò con disprezzo il dottor Weringer. Teji è immortalmente serio. Vi si arrampica addosso. Quando lo state guardando, spicca un salto rapido e silenzioso. Dopo un poco è abbastanza vicino e spicca l'ultimo salto. E allora vi succhia fino all'ultima goccia, dottore. Fino all'ultimissima goccia. Teji non vi divora. Si limita a succhiare finché resta soltanto la pelle. Se pensate di portare ancora per qualche tempo quella camicia, dottore, direi che non accadrà mai troppo presto. Il dottor Weringer si appoggiò allo schienale sulla sedia. Mi servono 5.000 dollari, disse in tono pacato. Quando me li darete? Vi ho dato 650 dollari, disse Wade con ira. Tutto quello che avevo in tasca, quanto viene a costare questo bordello? 650 dollari sono una quisquilia, rispose il dottor Weringer. Vi dissi che la retta era aumentata. Non diceste che era arrivata fino al monte Wilson? No, state a fare schermaglie con me, Wade, scattò il dottor Weringer. La posizione in cui vi trovate non vi consente di essere spiritoso. Per giunta avete sorpreso la mia buona fede. Non sapevo che ne aveste una. E il dottor Weringer tamburellò ad agio con le dita sui bracciuoli della sedia. Mi telefonaste nel cuore della notte, disse. Eravate in condizioni disperate. Diceste che vi sareste ucciso se non fossi accorso. Non volevo venire e voi sapete perché non sono autorizzato a esercitare la mia medicina in questo stato. Sto cercando di sbarazzarmi di questa proprietà senza rimetterci troppo. Devo badare a Earl, che stava per attraversare una delle sue crisi. Vi dissi che sarebbe venuto a costare parecchio. Insisteste ugualmente e io ho cedetti. Voglio 5.000 dollari. Ero ubriaco fradicio a furia di bere i liquori forti, disse Wade. Non si è legati a promesse date in quelle condizioni. Siete già stato ricompensato maledettamente bene. Inoltre, continuò con voce lenta il dottor Weringer, faceste il mio nome a vostra moglie. Le diceste che sarei venuto a prendervi. Wade parve sorpreso. Non le dissi nulla di simile, rispose. Non la vidi neppure. Dormiva. Glielo diceste in qualche altra occasione, allora. Un investigatore privato è venuto qui a chiedere di voi. Non poteva sapere dove rivolgersi se non fosse stato informato da qualcuno. Sono riuscito a togliermelo dai piedi, ma può rifarsi vivo. Dovete tornare a casa, signor Wade. Prima però voglio i 5.000 dollari. A quanto pare non brillate per intelligenza. Eh, dottore? Se mia moglie avesse saputo che mi trovavo qui, perché avrebbe dovuto rivolgersi a un investigatore? Poteva venire personalmente. Se proprio le stava tanto a cuore. Poteva farsi accompagnare da Candy, il nostro cameriere. Candy taglierebbe a fette il vostro bel sognatore prima che lui avesse deciso quale parte recitare per l'occasione. Avete una perfida lingua, Wade, e una perfida mentalità. Ho anche 5.000 perfidi dollari, dottore. Vediamo un po' se riuscirete a impossessarvene. Mi firmerete un assegno, disse il dottor Berringer in tono fermo. Ora, subito, poi vi vestirete e Earl vi accompagnerà a casa. Un assegno? Per poco Wade non rise. Certo, vi firmerò un assegno. Magnifico! E' come lo incasserete! Il dottor Berringer sorrise con pacatezza. State pensando che darete ordine di non pagarlo, signor Wade? Ma non lo farete. Vi assicuro che non lo farete. Pancione di un delinquente! Gli urlò Wade. E il dottor Berringer scosse il capo. In certe cose sì, non in tutto. Il mio carattere è pieno di contraddizioni, come quello della maggior parte degli uomini. Earl vi accompagnerà a casa con l'automobile. Niente affatto! Quel ragazzo mi fa accapponare la pelle, disse Wade. Il dottor Berringer si alzò ad agio, allungò la mano e batte affettuosamente la spalla dell'uomo disteso sul letto. Con me Earl è del tutto innocuo, signor Wade. Conosco vari modi per tenerlo sotto controllo. Ditene uno! Fece una nuova voce e Earl varcò la soglia nella sua tenuta alla Roy Rogers. E il dottor Berringer si voltò sorridente. «Tenete quel pazzo lontano da me!» gridò Wade, mostrandosi impaurito per la prima volta. Earl portò le mani al decoratissimo cinturone. La sua faccia era completamente priva di espressione. Si lasciava sfuggire tra i denti un lieve sibilo. Entrò nella stanza a passi lenti. «Non avreste dovuto dire questo!» mormorò rapidamente il dottor Berringer. Poi si voltò verso Earl. «Sta bene, Earl. Ci pensero io ad accompagnare il signor Wade. Lo aiuterò a vestirsi e tu intanto porterai qui l'automobile, più vicino alla porta che sia possibile. Il signor Wade è molto debole.» «E fra poco sarà ancora più debole!» disse Earl con una voce similante. «Fuori dai piedi, grassone!» «Un momento, Earl!» Il dottore afferrò il braccio del giovane Adone. «Non vorrei tornare a Camarillo, vero? Basterà che dico una parola e...» Non poteva aggiungere altro. Earl liberò il braccio con uno strattone e la sua mano destra scattò con un lampo metallico. Il pugno corazzato colpì la mascella del dottor Weringer. Questi stramazzò come se fosse stato colpito al cuore. Il tonfo fece tremare il villino. Cominciai a correre. Giunzi dinanzi alla porta e la spalancai con una spinta. Earl piroettò sui tacchi, chinandosi un poco in avanti, fissandomi senza riconoscermi. Faceva un suono gorgogliante dietro le labbra. Rapido venne verso di me. Impugnai la rivoltella e gliela mostrai. Fu come se non l'avesse neppure veduta. O le sue erano scariche o se ne era completamente dimenticato. Gli occorreva soltanto il pugno di ferro. Continuò a farsi avanti. Sparai contro la finestra aperta, dietro il letto. E il colpo di rivoltella nella piccola stanza parve molto più forte del solito. Earl si immobilizzò. Girò la testa e fissò il foro nella zanzariera. Poi tornò a voltarsi verso di me. A poco a poco la sua faccia si rianimò. Sorrise. Che cosa succede? Domandò con viva città. Toglietevi il pugno di ferro. Dissi, fissandolo negli occhi. Sorpreso, si guardò la mano. Si sfilò il pugno di ferro e lo gettò con gesto indifferente in un angolo. E ora il cinturone, dissi. Non toccate le pistole, soltanto la fibbia. Non sono cariche, disse sorridendo. Diavolo, non sono neppure vere pistole. Servono soltanto per mostra. Il cinturone, presto. Fissò la rivoltella calibro 32 a canna corta. È vera quella? Oh, sicuro, la zanzariera, già, la zanzariera. Wade non era più disteso sul letto. Si trovava alle spalle di Earl. Allungò rapidamente la mano ed estrasse una delle vistose pistole. La cosa non gabbò a Earl. Glielo lessi in faccia. Lasciatelo stare, disse irritato. Rimettete quella pistola dove l'avete presa. Ha ragione, disse Wade. sono pistole finte. Indietro Joe e posò la lucente pistola sul tavolo. Cristo, sono debole come un braccio rotto. Via il cinturone, disse per la terza volta. Quando si comincia una cosa con un tipo come Earl occorre portarla a termine. Essere semplici il più possibile e non cambiare idea. Se lo tolse finalmente con grande amabilità. Poi, tenendo in mano il cinturone, si avvicinò al tavolo, prese la pistola, la rimise nella fondina e di nuovo si affibbiò il cinturone alla vita. Lo lasciai fare. Solo in quel momento vide il dottor Berringer afflosciato sul pavimento contro la parete. Diede in un'esclamazione preoccupata, attraversò rapido la stanza, entrò nel bagno e tornò indietro con una brocca piena d'acqua. Versò l'acqua sulla testa del dottor Berringer. Il dottore tossì e si voltò. Poi grugnì, poi si portò una mano sulla mascella. Poi cominciò ad alzarsi. Earl lo aiutò. Scusate, dottore, devo aver sferrato il pugno senza vedere chi fosse. Non importa, non c'è niente di rotto, disse Berringer facendogli cenno di scostarsi. Porta qui la macchina, Earl, e non dimenticarti la chiave per il lucchetto del cancello. La porto qui, certo, immediatamente. La chiave per il lucchetto, vado a prenderla, subito, dottore. Uscì dalla stanza fischiettando. Wade sedeva sul letto e sembrava molto scosso. Siete l'investigatore di cui stava parlando? Domandò. Come avete fatto a trovarmi? Mi sono limitato a chiedere informazioni alla gente che si intende di queste cose, dissi. Se volete tornare a casa fareste bene a vestirvi. Il dottor Berringer si appoggiava alla parete massaggiandosi la mascella. Lo aiuterò, disse con la lingua impastata. Non faccio altro che aiutare il prossimo e tutti mi prendono a calci in faccia. Capisco bene quello che provate, dissi. Uscì e lasciai che se la sbrigassero tra loro. 20. L'automobile era lì accanto quando uscirono ma Earl se n'era andato. Aveva fermato la macchina e spento i fari per poi incamminarsi verso la casa senza rivolgermi la parola. Fischiettava ancora in cerca di un motivetto semi dimenticato. Wade si arrampicò ad agio sul sedile posteriore e io mi misi accanto a lui. Il dottor Weringer guidò. Se la mascella gli doleva e aveva mal di testa non lo lasciò capire e non me ne parlò. Superammo il crinale e scendemmo la china fino al termine della strada inghiaiata. Earl era già venuto ad aprire il lucchetto e a spalancare il cancello. Dissi a Weringer dove si trovava la mia automobile ed egli vi si avvicinò. Wade salì sul macinino e rimase silenzioso fissando il vuoto. Weringer discese girò intorno alla macchina e gli venne accanto. Si rivolse a Wade con dolcezza. C'è la questione dei 5.000 dollari signor Wade l'assegno che mi avete promesso. Wade si lasciò scivolare in avanti e appoggiò la nuca al sedile. Ci penserò Avete promesso mi occorrono Coercizione è il termine esatto Weringer Coercizione come minacce Sono protetto adesso Vi ho nutrito e dissetato si ostinò Weringer Sono accorso in piena notte Vi ho protetto e guarito perlomeno temporaneamente Tutto questo non vale 5.000 dollari disse Wade in tono beffardo Mi avete già preso anche troppo in tasca Weringer non intendeva cedere Mi si offre l'opportunità di fare un affare a Cuba signor Wade Voi siete ricco dovreste aiutare gli altri quando si trovano nel bisogno Devo pensare a Earl per avvalermi di questa opportunità ho bisogno di denaro vi restituirò l'intera somma Cominciai a dimenarmi avevo una gran voglia di fumare ma temevo che il fumo potesse infastidire Wade Non mi restituirete un bel niente disse Wade con voce stanca non vivrete abbastanza a lungo una di queste notti Earl vi ucciderà nel sonno Weringer fece un passo indietro non riuscì a scorgere la sua espressione ma parlò in tono aspro si può morire in modo più spiacevole disse credo che voi farete una brutta fine tornò verso la sua automobile e vi salì svoltò nella strada inghiaiata e scomparve feci marcia indietro voltai e mi diressi verso la città due o tre chilometri dopo Wade bofonchiò perché avrei dovuto dare 5000 dollari a quel ciccione non vera alcun motivo allora perché mi sento un bastardo per non averglieli dati non c'è alcun motivo voltò la testa quanto bastava per sbirciarmi mi ha curato come un bambino disse non mi ha quasi mai lasciato solo temendo che Earl venisse a picchiarmi si è impossessato di tutto quello che avevo in tasca fino all'ultimo centesimo probabilmente glielo avete dato voi state dalla sua parte finitela disse per me questo è soltanto un lavoro tacque per altri tre o quattro chilometri passammo alla periferia di un subborgo Wade ricominciò a parlare forse glieli darò è rovinato la banca gli ha confiscato la proprietà non ne caverà un soldo tutto per quel pazzo perché lo fa non saprei sono uno scrittore disse Wade dovrei capire quali sono i moventi delle azioni umane non capisco un bel niente di niente invece voltai dopo aver superato il passo e al termine di una salita le luci della valle si estesero senza fine dinanzi a noi scendemmo fino all'autostrada nord che porta avventura dopo qualche tempo attraversammo insino fermai di fronte a un semaforo con il rosso e mi voltai a guardare le luci alte sulla collina dove si trovavano le grandi ville in una di esse avevano abitato il Lennox proseguimmo fra poco bisogna voltare disse Wade o forse lo sapete già lo so a proposito non mi avete detto come vi chiamate Philip Marlowe ho un bel nome il tono di lui mutò di colpo mentre lo diceva un momento siete quel tale che è stato coinvolto nel caso Lennox sì mi stava fissando nell'oscurità della macchina superammo gli ultimi caseggiati della strada principale di Ansino la conoscevo disse Wade un poco lui non l'ho mai visto una strana faccenda quelli della polizia vi hanno maltrattato vero non risposi forse non vi garba parlarne disse può darsi perché dovrebbe interessarvi diavolo faccio lo scrittore deve essere un episodio molto interessante riposatevi per questa sera dovete sentirvi molto giù va bene Marlowe va bene non vi sono simpatico ho capito raggiungemmo la strada trasversale voltai dirigendomi verso le colline basse e il varco tra esse che era Idle Valley non mi siete simpatico né antipatico dissi non vi conosco vostra moglie mi ha incaricato di riportarvi a casa quando vi avrò consegnato a domicilio il mio compito sarà finito in quanto alla ragione per cui ha scelto proprio me non saprei dirvela comunque ripeto non è che un lavoro girammo intorno al fianco di una collina e infilammo una strada più larga e meglio pavimentata disse che la sua casa si trovava un chilometro e mezzo più avanti sulla destra mi disse il numero che conoscevo già per un uomo nelle sue condizioni era un parlatore piuttosto ostinato quanto vi dà? domandò non ne abbiamo parlato di qualsiasi somma si tratti non è sufficiente vi devo molta riconoscenza siete stato abilissimo amico non ne valeva la pena così vi sembra adesso? rise sapete una cosa Marlow potreste finire col piacermi siete un piccolo bastardo come me giungemmo di fronte alla casa era una villa a due piani completamente rivestita in legno con una piccola veranda a colonnine e un lungo prato dall'ingresso fino alle folte siepi a ridosso dello steccato verniciato di bianco la luce era accesa nella veranda entrai nel viale di acceso e fermai la macchina accanto al garage ce la fate da solo? certo scese dall'automobile non entrate un momento a bere qualcosa questa sera no grazie aspetterò qui finché non sarete entrato in casa rimase lì per qualche attimo un po' ansimante ok si limitò a dire si voltò e percorse ad agio il sentiero lastricato in pietra fino all'ingresso si sostenne per un momento una colonnina bianca poi provò ad aprire la porta la porta si aprì ed egli entrò la porta rimase aperta e un riquadro di luce illuminò il prato verde vi fu un improvviso levarsi di voci incominciai a fare marcia indietro sul viale poi qualcuno chiamò mi voltai e vidi Eileen Wade in piedi sulla soglia continuai a fare marcia indietro e lei si mise a correre di conseguenza dovetti fermare spensi i fari e scesi dalla macchina quando mi fu accanto dissi avrei dovuto telefonarvi ma non ho osato lasciarlo solo è naturale è stato molto difficile beh un po' più che suonare un campanello entrate in casa vi prego e raccontatemi tutto dovrebbe andare a coricarsi domani sarà come nuovo ci penserà Candy a metterlo a letto disse per stanotte non verrà se è questo di cui vi preoccupate non ci pensavo neppure buonanotte signora Wade dovete essere molto stanco non volete bere qualcosa accesi una sigaretta mi parve di non aver gustato il tabacco da un paio di settimane aspirai avidamente il fumo permettete una boccata soltanto certo credevo che non fumaste è solo di rado si avvicinò e le diedi la sigaretta aspirò una boccata e tossì mi restituì la sigaretta ridendo una vera dilettante come vedete sicché conoscevate Silvia Lennox dissi per questo vi siete rivolta a me chi conoscevo parve interdette Silvia Lennox avevo di nuovo la sigaretta tra le labbra e la stavo consumando molto rapidamente oh fece lei sorpresa la donna che è stata assassinata no non la conoscevo personalmente ne avevo sentito parlare non ve l'ho detto scusate ma ho dimenticato ciò che mi avete detto rimase lì silenziosa esile e alta nel vestito bianco la luce che usciva dalla porta aperta le sfiorava i capelli illuminandoli con una calda aureola perché mi avete domandato se questa è stata la ragione per cui mi sono rivolta a voi poiché non risposi immediatamente soggiunse Roger vi ha detto che la conosceva ha accennato al caso Lennox quando ha saputo come mi chiamo in un primo momento non mi ha posto in rapporto con esso poi se ne è ricordato ha parlato tanto che non ricordo neppure la metà di ciò che ha detto capisco devo andare signor Marlow per assicurarmi che mio marito non abbia bisogno di nulla e se non volete entrare vi lascerò questo disse la ferrai e la strinsi contro di me costringendola a reclinare la testa all'indietro la baciai con forza sulla bocca non mi respinse e non assecondò il bacio si sottrasse con calma l'abbraccio e rimase lì a fissarmi non avreste dovuto farlo disse è stato uno sbaglio siete un uomo troppo compito certo un grosso sbaglio ammisi ma per tutto il giorno mi sono comportato come un cane da caccia fedele e ben addestrato sono stato indotto a cacciarmi in una delle più stupide imprese che abbia mai portato a termine e il diavolo mi porti se non sembra che tutto fosse stato previsto come in un copione volete sapere una cosa credo che voi non abbiate mai ignorato dove si trovava o perlomeno che conosceste il nome del dottor Weringer volevate solo che mi interessassi a lui che mi sentissi legato in qualche modo a lui e tenuto in un certo senso a sorvegliarlo o sono pazzo siete pazzo naturalmente rispose in tono gelido questa è la più offensiva assurdità che mi sia mai capitato di ascoltare si voltò per andarsene aspettate un momento dissi quel bacio non lascerà il segno lo pensate non è così e non dite che sono un uomo troppo per bene preferirei essere un mascalzone mi guardò voltando la testa perché se non mi fossi comportato bene con Terry Lennox sarebbe ancora vivo sì disse in modo pacato come potete esserne tanto certo buonanotte signor Marlow e grazie infinite per quasi tutto tornò indietro lungo il margine del prato la guardai entrare in casa la porta si chiuse la luce della veranda si spense salutai a vuoto con la mano e ripartì 21 la mattina dopo mi alzai tardi tenuto conto del grosso compenso che avevo guadagnato nella serata bevi una tazza di caffè in più fumai una sigaretta più del solito mi consentì una razione supplementare di prosciutto affumicato e per la tredicesima volta giurai che non mi sarei più servito del rossoio elettrico con questo la giornata rientrava nella normalità giunsi in ufficio alle 10 ritirai alcune lettere aprì le buste e lasciai tutto quanto sulla scrivania spalancai le finestre per lasciare uscire l'odore di muffa e di chiuso che sempre si formava nella stanza durante la notte e restava sospeso nell'aria ferma negli angoli tra le stecche delle persiane una falena morta era rimasta con le ali distese su uno spigolo della scrivania sulla valsale della finestra un'ape dalle ali logore si arrampicava sul legno ronzando in modo stanco e remoto come sapesse che tutto era inutile che era finita troppi voli aveva compiuto e non sarebbe mai più tornata all'alveare sapevo che sarebbe stata una giornata stupida capitano a tutti di quando in quando sono i giorni in cui in ufficio non entrano che picchiatelli gente che ha lasciato nel parcheggio il cervello scoiattoli che non riescono più a trovare le noccioline meccanici ai quali avanza sempre un ingranaggio nel cambio il primo fu un pezzo d'uomo biondo un elefante che si chiamava Kaisenen o un nome finlandese pressa poco simile piazzò il massiccio sedere nella poltrona dei clienti piantò due enormi mani callose sulla scrivania e disse di essere un fuchist abitava a Culver City e la dannata donna che era la sua vicina di casa tentava di avvelenargli il cane ogni mattina prima di sciogliere il cane nel cortile era costretto a frugare il giardinetto da uno steccato all'altro per accettarsi che dall'orto della vicina non fossero state gettate polpette avvelenate fino a quel momento ne aveva trovate nove contenevano una polvere verdastra che egli sapeva essere un fertilizzante a base di arsenico quanto volete per sorvegliarla e coglierla in fraglante mi fissò senza battere le palpebre come un pesce nell'acquario perché non lo fate voi stesso devo andare a lavorare per vivere mio caro signore sto perdendo 4 dollari e 25 centesimi all'ora solo per essere venuto qui a chiedervi di occuparvi della faccenda perché non rivolgervi alla polizia già mi rivolgo alla polizia e quelli vengono magari l'anno prossimo alla società per la protezione degli animali allora conosceva la società per la protezione degli animali e non lo interessava affatto poteva andare all'inferno per quelli della protezione degli animali contavano soltanto le bestie di taglia non inferiori alle dimensioni di un cavallo sulla porta c'è scritto che siete un investigatore disse in tono truculento e dunque investigate per l'inferno 50 dollari se la cogliete sul fatto spiacente disse sono impegnato e in ogni caso starmene nascosto per un paio di settimane in una tana di talpa del vostro cortile non è una cosa che possa interessarmi neppure per 50 dollari si alzò irritato siete un pezzo grosso eh disse il malloppo non vi interessa salvare la vita di un cane è una seccatura andate al diavolo pezzo grosso ho anch'io i miei guai signor Quisseren le torco quel maledetto collo se la sorprendo disse e non dubitai minimamente che lo avrebbe fatto sarebbe stato capace di torcere la zampa posteriore di un elefante ecco perché preferisco rivolgermi a qualcun altro polpette avvelenate solo perché la bestiola abbaia quando un'automobile passa sulla strada vecchia strega maligna si avviò verso la porta siete sicuro che stia cercando di avvelenare il cane gli domandai mentre mi voltava le spalle è come se ne sono sicuro aveva già quasi raggiunto la porta quando capì girò fulminio sui tacchi ripetetelo un po' fanfarone mi limitai a scuotere il capo non volevo venire alle prese con lui avrebbe potuto colpirmi alla testa con la scrivania sbuffò uscì e per poco non si trascinò dietro la porta fu poi la volta di una donna né vecchia né giovane né pulita né troppo sporca ovviamente povera meschina querula e stupida la ragazza con la quale condivideva una stanza nel suo ambiente qualsiasi donna che lavori viene chiamata ragazza le rubava del denaro dalla borsetta ora un dollaro ora qualche monetina ma alla lunga la cifra si ingrossava riteneva che in tutto il furto montasse a quasi 20 dollari era troppo per lei e non poteva neppure trovarsi un'altra stanza né permettersi di assumere un investigatore pensava che sarei stato disposto a spaventare la sua compagna con una semplice telefonata senza far nomi impiegò 20 minuti o anche più per dirmi questo parlando non faceva che voltare e rivoltare la borsetta chiunque conosciate potrebbe farlo dissi sì ma poiché voi siete un investigatore con quel che segue non sono autorizzato a minacciare la gente della quale non so nulla le dirò che sono venuta da voi non ho bisogno di dirle che si tratta di lei basterà farle capire che vi occupate della cosa non lo farei se fossi in voi se accennate al mio nome verrà da me in questo caso le riferirò come stanno le cose si alzò schiaffandosi la borsetta sullo stomaco non siete un gentiluomo disse in tono stridulo e chi ha detto che dovrei esserlo usci brontolando dopo colazione venne a trovarmi il signor Simpson W. Edelweiss aveva un biglietto da visita per dimostrare che si chiamava proprio così dirigeva un'agenzia di vendita di macchine per cucire era un ometto dall'aria stanca sui 45 o 50 anni con piccole mani e piccoli piedi con un vestito marrone dalle maniche troppo lunghe il colletto duro una cravatta purpurea una spilla con diamante nero si mise a sedere sull'orlo della poltrona senza dimenarsi e mi fissò con occhi neri e tristi anche i suoi capelli erano neri folti e ispidi senza la minima traccia di grigio a quanto potei vedere aveva corti baffetti che davano sul rossastro sarebbe potuto passare per un 35enne se non gli aveste guardato il dorso delle mani chiamatemi simp disse mi chiamano tutti così è un sinonimo di stupido e me lo merito sono ebreo e ho sposato una gentile di 24 anni bellissima è già fuggita altre due volte prima di questa si tolse di dasca una fotografia della donna e me la mostrò per lui poteva essere bellissima per me non era altro che una grossa vacca di donna dall'area stupida dalla bocca sensuale e quali sono le vostre difficoltà signor Edelweiss non mi occupo di divorzi cercai di restituirgli la fotografia lui rifiutò con un gesto il cliente è sempre un mistero per me soggiunsi perlomeno fino a quando non mi ha detto una mezza dozzina di bugie sorrise le bugie non mi servirebbero non si tratta di un caso di divorzio voglio solo che Mabel torni ma non tornerà fino a quando non l'avrò trovata forse è una specie di gioco per lei mi parlò della donna con pazienza ma senza rancore beveva civettava non era una brava moglie secondo i suoi punti di vista ma forse aveva ricevuto un'educazione troppo severa Mabel aveva un cuore grande come una casa disse e lui l'amava non si illudeva di essere un uomo affascinante era soltanto un indefesso lavoratore portava regolarmente a casa lo stipendio lui e la moglie avevano un conto corrente in comune e Mabel aveva prelevato tutti i loro risparmi ma se l'era aspettato era quasi certo di sapere con chi fosse fuggita e se non aveva preso un granchio quel tizio l'avrebbe piantata in asso lasciandola senza il becco di un quattrino si chiama Kerrigan disse morro Kerrigan non che ce l'abbia contro i cattolici ci sono anche molti cattivi ebrei questo Kerrigan fa il barbiere quando lavora non ce l'ho neppure contro i barbieri ma molti di loro sono degli oziosi e giocano alle corse dei cavalli non è gente di cui ci si possa fidare non si farà viva vostra moglie quando lui l'avrà piantata in asso si vergogna terribilmente potrebbe riuscirle penoso si tratta di scomparsa di persona signor Edelweiss dovreste sporgere denuncia alla polizia no non è che ce l'abbia con la polizia ma voglio evitare la denuncia sarebbe un'umiliazione per Mabel il mondo sembrava pieno di gente contro la quale il signor Edelweiss non ce l'aveva misa del denaro sulla scrivania 200 dollari disse pagamento anticipato preferirei fare a modo mio accadrà ancora osservai certo alzò le spalle e allargò remissivo le braccia ma lei ha 24 anni e io ne ho quasi 50 come potrebbe essere diversamente fra qualche anno si calmerà il guaio è che non abbiamo figli non può averne a noi ebrei piacciono i bambini Mabel lo sa e si sente umiliata siete un uomo molto magnanimo signor Edelweiss beh non sono cristiano disse non che ce l'abbia con i cristiani voi mi capite ma io perdono sul serio non mi limito a dirlo oh quasi dimenticavo il più importante si tolse di tasca una cartolina illustrata e la spinse sulla scrivania accanto al denaro l'ha spedita da Onolulu i quattrini volano via in fretta a Onolulu uno dei miei zii aveva un negozio di gioielliere laggiù adesso si è ritirato degli affari abita a Seattle ripresi in mano la fotografia dovrò tenerla gli dissi e dovrò farne delle copie sapevo già che lo avreste detto signor Marlow prima di entrare qui dentro e così sono venuto preparato mi diede una busta che conteneva cinque copie della fotografia ne ho una anche di Kerrigan ma è soltanto un'istantanea si frugò in un'altra tasca e mi diede una seconda busta osservai Kerrigan aveva una faccia da briccone che non mi stupì dell'istantanea di Kerrigan ve ne erano tre copie il signor Simpson W. Edelweiss mi diede un altro biglietto da visita con il nome l'indirizzo e il numero di telefono disse di sperare che le ricerche non sarebbero costate troppo ma che se gli avessi richiesto altri fondi me li avrebbe versati immediatamente sperava di sapere qualcosa al più presto 200 dollari dovrebbero essere più che sufficienti se si trova ancora Onolulu osservai mi occorre ora una descrizione particolareggiata di entrambi gli interessati in modo da poterla telegrafare la statura il peso l'età la carnagione qualsiasi segno particolare o altri segni di riconoscimento come era vestita lei quali oggetti ha portato con sé e quanto denaro era depositato nel conto corrente se siete già passato attraverso questa esperienza signor Edelweiss saprete che cosa mi occorre provo un particolare risentimento contro questo Kerrigan è spiacevole impiegai un'altra mezz'ora per sondarlo e scribacchiare i miei dati necessari e infine si alzò silenzioso mi strense la mano senza dire nulla e silenziosamente uscì dall'ufficio dite a Mabel che va tutto bene mormorò prima di chiudersi la porta alle spalle la faccenda risultò poi di normale amministrazione spedì un telegramma a un'agenzia di Onolulu facendolo seguire da un plico inviato per via aerea con le fotografie e tutti i dati non contenuti nel telegramma la trovarono che lavorava come cameriere in un albergo di lusso puliva le vasche da bagno lucidava i pavimenti e così via Kerrigan si era comportato proprio come aveva previsto il signor Edelweiss l'aveva derubata di tutto fino all'ultimo centesimo mentre dormiva tagliando poi la corda e lasciando il conto dell'albergo da pagare lei aveva impegnato un anello che Kerrigan non avrebbe potuto togliere senza farle violenza ricavandone una somma sufficiente per pagare il conto ma non per tornare a casa così Edelweiss salì su un aereo e si precipitò a prenderla era troppo buono per lei gli mandai un conto di 20 dollari più il costo di un lungo telegramma l'agenzia di Onolulu arraffò i 200 dollari con un ritratto di Madison nella cassaforte dell'ufficio potevo permettermi tariffe ridotte così trascorre una giornata nella vita di un investigatore privato una giornata non proprio tipica ma neppure molto insolita nessuno sa per quale ragione un uomo sopporti una simile esistenza non arricchisci non ti capita spesso di divertirti a volte ti prendono a pugni o ti sparano contro o ti schiaffano in carcere a volte molto più di rado ci lasci la pelle tutti i mesi decidi di finirla e trovarti un'occupazione più ragionevole finché sei ancora capace di camminare senza scuotere la testa poi suona il campanello e tu apri la porta della sala d'aspetto ed ecco una faccia nuova con un nuovo problema un nuovo fardello di sofferenze e una piccola somma di denaro accomodatevi signor Tingami che cosa posso fare per voi deve pur esservi una ragione tre giorni dopo sul finire del pomeriggio Ellen Wade mi telefonò e mi invitò ad andare a bere qualcosa la sera dopo avrebbero ricevuto alcuni amici per un cocktail Roger sarebbe stato liedo di rivedermi e di potermi ringraziare meglio e per favore volevo mandare il conto non mi dovete nulla signora Wade sono già stato ricompensato di quel poco che ho fatto devo esservi sembrata molto sciocca facendola vittoriana disse sembra che un bacio abbia poca importanza al giorno d'oggi verrete non è vero credo di sì disubbidendo al buonsenso Roger si è rimesso sta lavorando bene sembrate molto solenne oggi suppongo che prendiate la vita troppo sul serio di quando in quando perché rise molto sommessamente e disse arrivederci e riattaccò rimasi a lungo seduto prendendo la vita sul serio poi cercai di pensare a qualcosa di divertente in modo da poterci fare su una grossa risata niente da fare e così tolsi dalla cassaforte la lettera di addio di Terry e la rilessi mi rammentò che non ero mai andato al Victor per il succhiello che mi aveva pregato di bere invece suo era per l'appunto l'ora della giornata in cui il bar sarebbe stato tranquillo come a lui avrebbe fatto piacere se avesse potuto accompagnarmi pensai a Terry con una vaga malinconia e anche con dolorosa amarezza quando giunsi dinanzi al Victor per poco non proseguì ma soltanto per poco avevo in tasca troppo denaro di Terry era riuscito a prendermi in giro ma aveva pagato bene per il privilegio 22 regnava un tale silenzio nel Victor che quasi si sarebbe potuto sentire scendere la temperatura facciandosi sulla soglia una donna in abito a giacca nero che in quella stagione poteva essere soltanto di tessuto sintetico come per esempio l'orlon sedeva solo su uno sgabbello al banco aveva di fronte a sé una bibita di un pallido verde e fumava una sigaretta infilata in un lungo bocchino di giada aveva quell'espressione tesa e intensa che a volte è indizio di nevrosi a volte di appetiti sessuali e talora è soltanto il risultato di una drastica dieta sedetti due sgabbelli più in là il barista mi fece un cenno del capo ma non sorrise un succhiello disse senza amaro posò il tovagliolino di fronte a me e continuò a fissarmi sapete una cosa disse in tono compiaciuto una sera sentii parlare voi e il vostro amico e acquistai una bottiglia di quel succo di cedro marca rose poi non vi siete fatti più vivi e l'ho aperta soltanto questa sera il mio amico non è più in città disse doppio se non vi dispiace e grazie per il gentile pensiero si allontanò la donna vestita di nero mi scoccò un rapido sguardo poi abbassò gli occhi sul bicchiere sono così pochi a berli in questa città disse in tono tanto sommesso che a tutta prima non mi parve si stesse rivolgendo a me poi tornò a guardarmi aveva occhi azzurri e molto grandi e le unghie più scarlatte che mi fosse mai capitato di vedere ma non sembrava una donna da marciapiede e nella sua voce non vera la minima traccia di invito i succhielli voglio dire un tale mi ha insegnato ad apprezzarli disse deve essere inglese il succo di cedro è tipicamente inglese come il pesce bollito con quella spaventosa salsa d'acciughe rossastra sembra che il cuoco ci abbia sanguinato dentro per questo li chiamano cedrini gli inglesi non i pesci credevo invece che fosse una bibita tropicale una di quelle bibite gradevoli dove fa molto caldo in malesia o in qualche altro paese del genere può darsi che abbiate ragione di nuovo si voltò sullo sgabbello e il barista posò il bicchiere dinanzi a me con il succo di cedro rose aveva un colore nebbioso pallido giallo verdastro lo assaggiai era nello stesso tempo dolce e asprigno la donna in nero mi osservava poi alzò il bicchiere verso di me bevemmo entrambi mi accorsi allora che anche il suo era un succhiello la mossa successiva era cosa di ordinaria amministrazione e di conseguenza non la feci rimasi immobile sullo sgabbello non era inglese dissi dopo un attimo forse credo era stato in inghilterra durante la guerra eravamo soliti venire qui di quando e in quando a questa stessa ora prima che la folla cominci a gremire il locale è un'ora piacevole disse forse la sola ora piacevole nei bar vuotò il bicchiere chissà che non conosca il vostro amico soggiunse come si chiama non le risposi subito accesi una sigaretta e la guardai mentre toglieva il muzzicone dal bocchino e vi infilava un'altra sigaretta l'ennox dissi mi ringraziò per averle acceso la sigaretta e mi scoccò una breve occhiata penetrante poi annui sì lo conoscevo benissimo un po' troppo bene forse scesi dallo sgabbello e rimasi lì ad aspettare poteva o no piantarmi in asso non mi importava in modo particolare di quando in quando in questo paese troppo morboso dal punto di vista sessuale un uomo e una donna possono conoscersi e discorrere senza che ci si mettano in mezzo le camere da letto poteva essere una di quelle volte oppure lei pensava soltanto che io intendessi fare degli approcci in tal caso andasse pure al diavolo esitò ma non a lungo prese i guanti neri e una borsetta nera dalla chiusura a fermaglio d'oro si diresse verso un separé d'angolo e si mise a sedere senza pronunciar parola sedetti di fronte a lei dall'altro lato del tavolino mi chiamo Marlow e io Linda Loring fece lei placida siete un po' sentimentale vero signor Marlow perché sono entrato qui a bere un succhiello e voi allora può darsi che mi piacciano potrebbe darsi ma sarebbe una coincidenza piuttosto strana mi sorrise vagamente aveva orecchini di smeraldi e una spilla di smeraldi dal modo nel quale erano tagliati piatti con gli spigoli arrotondati li si sarebbe detti veri e anche nella fioca luce di un bar splendevano con un bagliore intenso dunque siete voi l'uomo disse il cameriere portò i bicchieri e li posò sul lavandino quando si fu allontanato dissi sono un tale che conosceva Terry Lennox che lo aveva in simpatia e di quando in quando beveva qualche cosa con lui erano alla porta in sordina una specie di amicizia incidentale non andai mai a casa sua né conobbi sua moglie la vidi una sola volta in un parcheggio c'era qualcosa di più di questo non è così? prese il bicchiere portava al dito un anello con uno smeraldo incastonato di indiamanti nell'altro dito un sottile cerchietto di platino diceva come fosse sposata giudicai che avesse passato la trentina ma di poco forse risposi Terry mi lasciava interdetto ed è ancora così voi cosa ne pensate? si appoggiò a un gomito e alzò gli occhi su di me senza alcuna espressione particolare ho detto che lo conoscevo molto bene troppo per pensare che importasse molto quanto gli accadeva era ammogliato con una donna ricca che gli acconsentiva ogni lusso e in cambio non domandava altro che di essere lasciata in pace sembra ragionevole osservai non fate il sarcastico signor Marlow certe donne sono fatte così non è colpa loro e lui lo sapeva fin dall'inizio se voleva fare l'orgoglioso la porta era aperta non aveva bisogno di ucciderla sono d'accordo con voi si raddrizzò e mi fissò con ira raggrizzando le labbra così lui fuggì e se quanto mi è stato detto è vero voi lo aiutaste suppongo che ne siate fiero no di certo dissi lo feci solo per il denaro non siete divertente signor Marlow a essere sincera non so davvero perché me ne sto qui seduta a bere con voi è molto facile rimediare signorina Loring afferrai il bicchiere e lo vuotai d'un fiato pensavo che forse avreste potuto dirmi qualcosa che non mi era noto sul conto di Terry non mi interessano le speculazioni sulla ragione per cui Terry Lennox maciullò la faccia della moglie riducendola a una spugna insanguinata è un modo di esprimersi molto brutale disse lei in rosa non vi piacciono queste parole neppure a me e non sarei entrato qui a bere un succhiello se credessi che egli abbia fatto qualcosa del genere mi fissò dopo un attimo disse ad Agio si è ucciso e ha lasciato una completa confessione che cosa volete di più aveva una rivoltella disse nel Messico può essere un pretesto sufficiente perché qualche poliziotto troppo nervoso lo abbia imbottito di pallottole molti poliziotti americani hanno commesso i loro assassini nello stesso modo magari attraverso porte che non si aprivano abbastanza in fretta per soddisfarli e in quanto alla confessione io non l'ho vista senza dubbio la polizia messicana l'ha falsificata fece lei in tono piccato non ne avrebbe avuto la possibilità in un piccolo centro come Otato clan no la confessione è probabilmente autentica ma non dimostra che abbia ucciso la moglie non a mio giudizio almeno dimostra soltanto che Terry non vide altra via di uscita in una situazione del genere un certo tipo di uomo potete chiamarlo debole o impressionabile o sentimentale se vi diverte può decidere di salvare altre persone da uno spiacevolissimo scandalo è fantastico disse un uomo non si uccide o non si fa deliberatamente uccidere per evitare un piccolo scandalo Silvia era già morta in quanto a sua sorella e a suo padre avrebbero potuto difendersi molto efficacemente la gente che dispone di denaro a sufficienza signor Marlow può sempre tutelarsi e va bene mi inganno per quanto concerne il movente forse mi sbaglio da cima a fondo un minuto fa eravate arrabbiatissima con me volete che me ne vada ora e vi lasci in pace a un tratto sorrise scusatemi comincio a credere che siate sincero poco fa pensavo che voleste giustificarvi e non soltanto per Terry ora non so perché non lo penso più non tento di giustificarmi ho commesso una sciocchezza e ne ho scontato le conseguenze fino a un certo punto almeno non nego che la sua confessione mi abbia risparmiato molto di peggio se lo avessero riportato qui e processato sarebbe venuto a costarmi assai più denaro di quanto non possa permettermi per non parlare della licenza disse in tono asciutto può darsi c'è stato un tempo in cui qualsiasi poliziotto che mi servasse rancore avrebbe potuto rovinarmi adesso la situazione è un po' diversa ci si può appellare alla commissione statale per la revoca delle licenze quella gente non ama troppo la polizia beve un sorso e disse ad agio tutto considerato non pensate che sia meglio così niente processo né titoli sensazionali né fango sparso a piene mani solo per aumentare le tirature senza la minima considerazione per la verità o la lealtà o i sentimenti delle persone innocenti non è proprio quello che ho detto e voi avete risposto che era fantastico si scostò dal tavolo e appoggiò il capo nella curva dell'imbottitura del separè fantastico che Terly Lennox si fosse ucciso soltanto per ottenere questo non fantastico che fosse opportuno per tutti gli interessati a evitare un processo ho bisogno di bere qualcos'altro dissi e feci cenno al cameriere sento un soffio gelato sulla nuca sareste per caso imparentata con la famiglia Potter signora Loring Silvia era mia sorella disse con semplicità credevo che lo sapeste il cameriere si avvicinò e io gli comunicai un messaggio urgente la signora Loring scosse il capo e disse che non beveva nient'altro quando il cameriere si fu allontanato osservai con il silenzio che il vecchio Potter scusatemi il signor Arlan Potter ha fatto scendere su questa faccenda sarei già fortunato a sapere con certezza che la moglie di Terry aveva una sorella state senza dubbio esagerando mio padre non è davvero così potente signor Marlow e non è certo così spietato ammetto che ha idee molto all'antica sulla riservatezza della propria vita privata non concede mai interviste neppure ai suoi stessi giornali non si lascia mai fotografare non pronuncia mai discorsi viaggia quasi sempre in automobile o con un aereo privato e piloti personali cioè nonostante è molto umano voleva bene a Terry diceva che Terry era un gentiluomo per 24 ore al giorno e non soltanto nel quarto d'ora tra l'arrivo degli ospiti è il momento in cui cominciano a sentire gli effetti del primo cocktail alla fine ha cambiato idea colpa di Terry il cameriere arrivò trotterellando con il terzo succhiello lo assaggiai per sentirne il sapore e posai il bicchiere tenendo il dito posato sull'orlo la morte di Terry è stata un gran colpo per lui signor Marlow e ora ricominciate a fare il sarcastico evitatelo ve ne prego mio padre sapeva che alcuni si sarebbero insospettiti avrebbe preferito di gran lunga che Terry scomparisse se Terry si fosse rivolto a lui credo che lo avrebbe aiutato oh no signorina Loring sua figlia era stata assassinata ebbe un gesto di irritazione e mi fissò gelida temo che quanto sto per dirvi sembrerà piuttosto crudele da molto tempo il babbo aveva cancellato mia sorella dalla sua vita quando si incontravano quasi non le rivolgeva la parola se dicesse quello che pensa cosa non ha fatto e cosa non farà sono sicura che esprimerebbe sul conto di Terry i vostri stessi dubbi ma poiché Terry è morto che importa avrebbero potuto perdere la vita in un disastro aereo o un incendio o in un scontro automobilistico e se Sylvia doveva morire questo era il momento più opportuno fra dieci anni sarebbe stata una miserabile invasata dal sesso come quelle orribili donne che si incontrano ai ricevimenti a Hollywood o che si incontravano alcuni anni fa i rifiuti dell'ambiente internazionale improvvisamente mi rinfuriai senza alcuna buona ragione balzai in piedi e guardai oltre il separè quello vicino era vuoto nell'altro un tizio stava leggendo tranquillamente il giornale mi rimisi bruscamente a sedere scostai il bicchiere e mi sporsi sul tavolino ebbi il buon senso di tenere la voce bassa per l'inferno signorina Loring che cosa state cercando di darmi a bere che Arlan Potter è buono e adorabile e non si sognerebbe mai di avvalersi della sua influenza sul procuratore distrettuale per soffocare le indagini su un assassino in modo da farle completamente abbandonare che aveva dubbi sulla colpevolezza di Terry ma non consentì ad alcuno di muovere un dito per accertare chi fosse il vero assassino che non si servì del suo potere politico dei suoi giornali e del suo conto in banca nonché dei 900 tirapiedi disposti a camminare sulle mani pur di indovinare i suoi desideri prima che egli stesso ne sia colpevole che non impartì disposizioni affinché soltanto un mansueto avvocato e nessun altro nessun funzionario dell'ufficio del procuratore distrettuale o della polizia andasse nel Messico per assicurarsi che Terry si era effettivamente sparato un colpo alla testa e non era stato ucciso da un qualsiasi insidio troppo incline a servirsi della rivoltella e il vostro vecchio vale 100 milioni di dollari signorina Loring non so con esattezza come le abbia guadagnati ma so maledettamente bene che non avrebbe potuto accumularli senza mettere su una potente organizzazione e i suoi ordini non è un boraccione è un uomo duro e spietato non si può essere diversi al giorno d'oggi se si vuole arricchire e si fanno affari con strani individui magari non li si frequenta né si scambiano con loro strette di mano ma li si ha ugualmente al proprio servizio nell'ombra siete pazzo disse irritata ne ho abbastanza di voi oh sicuro la mia non è la musica che vi piacerebbe ascoltare permettete che vi dica una cosa Terry parlò col vostro vecchio la sera in cui Silvia morì di quali argomenti che cosa gli disse vostro padre vattene nel Messico ragazzo mio e sparati facciamo in modo che questa faccenda resti in famiglia so che mia figlia è una sgualdrina è che uno qualsiasi di una dozzina di bastardi ubriachi avrebbe potuto farle saltare le cervella e maciullarle la faccia ma questo non ha importanza ragazzo mio quell'uomo si pentirà quando gli sarà passata la sbornia tu hai sempre fatto da bella vita e adesso è giunto il momento di pagare noi vogliamo mantenere il bel cognome potter puro come un giglio mia figlia ti ha sposato perché le occorreva un paravento ora che è morta questo paravento le occorre più che mai è il paravento sei tu se riesci a far perdere le tue tracce e sparire tanto meglio ma se ti trovano devi ucciderti ci rivedremo all'obitorio credete davvero domandò la donna in nero con una voce di ghiaccio che mio padre si esprime in questo modo mi appoggiai allo schienale e feci una risata poco piacevole potremmo ingentilire un poco il discorso se può essere utile prese la borsetta e i guanti e si spostò lateralmente sul divano sarà bene che vi dia un avvertimento molto chiaro se pensate che mio padre sia un uomo simile e si andate in giro a diffondere le idee che mi avete appena esposto la vostra carriera in questa città nel lavoro o in qualsiasi altra attività sarà estremamente breve e avrà termine molto bruscamente perfetto signora Loring perfetto così mi dicono gli uomini della legge così mi dice la teppaglia così mi dicono i ricchi le parole mutano ma il significato è sempre quello lascia perdere sono entrato qui a bere un succhiello per un tale che me l'aveva chiesto e ora guardatemi mi trovo praticamente al cimitero si alzò e fece un breve cenno d'assenso tre succhielli doppi forse siete ubriaco misi troppo denaro sul tavolo e mi alzai accanto a lei voi ne avete bevuto uno e mezzo signora Loring perché anche voi lo ha chiesto qualcuno o è stata un'idea vostra avete la lingua un po' troppo sciolta come me chi lo sa signor Marlow chi lo sa si può mai essere sicuri di qualcosa c'è un uomo laggiù al banco che ci osserva lo conoscete forse mi guardai intorno stupito che se ne fosse accorta un tipo smilzo e bruno sedeva sullo sgabbello più vicino alla porta si chiama Cic Agostino dissi è la guardia del corpo di un biscazziere a nome Menendez mettiamolo fuori combattimento e saltiamogli addosso siete senza dubbio ubriaco si affrettò a dire e si incamminò verso l'uscita la seguì l'uomo sullo sgabbello si voltò di scatto girandosi verso il banco quando fui giunto alla sua altezza mi fermai dietro di lui e gli tastai rapidamente la giacca sotto le ascelle forse ero davvero un po' ubriaco si voltò irritato e discese dallo sgabbello state attento amico rinchiò vidi con la coda dell'occhio che ella si era soffermata sulla soglia per guardarsi indietro niente rivoltelle signor Agostino quale imprudenza è quasi buio e se doveste fare un brutto incontro fuori dai piedi ah è una battuta degna del New Yorker mosse le labbra ma non fece un gesto lo lasciai e seguì la signora Loring sotto la tenda del bar un autista negro dai capelli grigi stava parlando con il custode del parcheggio si toccò il berretto si allontanò e tornò con una lussuosa limousine Cadillac aprì lo sportello e la signora Loring salì il negro chiuse lo sportello con delicatezza e girò intorno alla macchina per mettersi al volante ella abbassò il vetro del finestrino e mi guardò quasi sorridente buonanotte signor Marlow è stato un simpatico incontro o no? abbiamo litigato vorrete dire che avete litigato e più che altro con voi stesso succede quasi sempre buonanotte signora Loring non abitate da queste parti vero? non proprio abito nella Idle Valley all'estremità opposta del lago mio merito è medico conoscete per caso delle persone a nome Wade? si accigliò sì conosco Wade perché? perché lo domando sono i soli che conosca a Idle Valley capisco bene di nuovo buonanotte signor Marlow si appoggiò al sedile e la Cadillac ronzò educatamente e scivolò via nel traffico lungo lo strip nel voltarni per poco non urtai contro Cic Agostino chi è la bambola? domandò in tono beffardo è la prossima volta che farete lo spiritoso squagliatevela è una donna che non vorrebbe certo fare la vostra conoscenza dissi ok intelligentone ho preso il numero della targa a Mendy piace essere informato di questi piccoli particolari lo sportello di un'automobile si spalancò un uomo alto quasi due metri e largo un metro e venti balzò fuori diede un'occhiata ad Agostino fece un lungo passo e lo afferrò alla gola con una sola mano quante altre volte dovrò dire a voi altri ruffiali di non venirmi tra i piedi dove mangio ruggì scrollò Agostino e lo scaraventò dall'altra parte del marciapiede contro il muro Cic si rannicchiò contro il muro tossendo la prossima volta urlò l'enorme individuo ti concio per le feste quanto è vero che esiste l'inferno e credimi scimbiotto quando ti tireranno su impugnerai la rivoltella Cic scosse la testa e non disse nulla l'omaccio mi scoccò una penetrante occhiata e soggugnò bella serata disse poi entrò nel Victor guardai Cic raddrizzarsi e riconquistare una parte della sua disinvoltura chi è il vostro amico gli domandai il grande Willy Magoon un tenente della polizia disse con la lingua impastata crede di essere un duro volete dire che non è certo gli domandai in tono cortese mi fissò con uno sguardo vacuo e si allontanò tolsi l'automobile dal parcheggio e me ne andai a casa a Hollywood tutto può succedere assolutamente tutto 23 una bassa Jaguar saettò intorno alla collina di fronte a me e rallentò per non inondarmi con la polvere di granito del chilometro di strada mal pavimentata all'ingresso della Idle Valley sembrava che volessero lasciarla in quello stato per scoraggiare guidatori della domenica viziati a furia di correre sulle super autostrade intravidi appena una sciarpa dalla tinta accesa e un paio di occhiali da sole una mano mi salutò con un semplice accenno da vicino a vicino poi il polverone si posò sulla strada aggiungendosi alla pellicola bianca che già ammantava i cespugli e l'erba cotta dal sole infine eccomi fuori del tratto maltenuto la pavimentazione ricominciò a essere normale e tutto fu di nuovo lindo e leccato le querce sempreverdi si raggruppavano lungo la strada quasi fossero curiose di vedere chi stesse passando e passeri dal capino rosa saltelevano qua e là beccando cose che solo un passero può ritenere degne di essere beccate ecco poi alcuni pioppi ma non un solo ecolipto quindi un fitto boschetto di pioppi della carolina che nascondevano una villa tutta bianca poi una ragazza a cavallo che procedeva al passo sull'argine della strada indossava pantaloni da cavallerizza e una camicia dei colori chiassosi e masticava un ramoscello il cavallo sembrava accaldato ma non sudato e la ragazza gli mormorava qualcosa con dolcezza dietro un muretto di pietre un giardiniere stava guidando una tosatrice a motore sull'immenso prato ondulato di una dimora in stile coloniale Williamsburg una grande villa di lusso chissà dove qualcuno stava suonando esercizi con la mano sinistra su un pianoforte a coda poi tutte queste cose rimasero indietro apparve il luccichio del lago caldo e acceso e io cominciai a osservare i numeri sui pilastri dei cancelli avevo veduto la casa dei Wade una volta sola e al buio ora non mi parve vasta come mi era sembrata di notte il viale d'accesso era pieno di automobili e pertanto parcheggiai sul margine della strada ed entrai a piedi un cameriere messicano in giacca bianca venne ad aprirmi alla porta era un messicano magro pulito di bell'aspetto la giacca gli stava bene aveva l'aria di uno che guadagna 50 dollari alla settimana e non si ammazza di fatica mormorò buonas tardes signor e sorrise come se avesse detto una spiritosaggine su nombre de usted por favor marlow risposi ma chi state cercando di incantare candy abbiamo parlato al telefono ricordate sorrise ed entrai era uno dei soliti ricevimenti in cui tutti parlano a voce troppo alta nessuno ascolta e ognuno si avvinghia alla zattela di salvataggio del bicchiere con gli occhi molto lucidi e le guance accese o pallide o sudate a seconda del quantitativo di alcol consumato e della capacità individuale di tollerarlo poi Alan Wade si immaterializzò accanto a me in un vestito celeste pallido che non le nuoceva affatto aveva un bicchiere in mano ma sembrava che il bicchiere servisse soltanto a scopi propagandistici sono così lieta che siate venuto disse in tono grave Roger vuole parlarvi nel suo studio odia i ricevimenti sta lavorando con questo trambusto sembra che non gli dia alcun fastidio Candy vi porterà qualcosa da bere oppure se preferite andate al bar farò così dissi sono spiacente per quanto è accaduto l'altra notte sorrise mi sembra che vi siate già scusato non è stato nulla nulla questo lo dite voi servo il sorriso delle labbra finché non ebbe annuito e non si fu voltata e allontanata trovai il bar nell'angolo accanto a una grande porta doppio battente era uno di quegli aggeggi a rotelle avevo attraversato a metà la stanza cercando di non urtare qualcuno quando una voce disse oh signor Marlow mi voltai e vidi la signora Loring sul divano accanto a un uomo dall'aspetto azimato con un paio di occhiali non cerchiati e una chiazza sul mento che poteva essere un pizzetto la signora aveva un bicchiere in mano e sembrava annoiata lui sedeva con le braccia concerte accigliato mi avvicinai ella mi sorrise e mi porse la mano mio marito il dottor Loring il signor Philip Marlow Edward l'uomo col pizzetto mi degnò di un breve sguardo e di un ancora più breve cenno del capo per il resto non si mosse sembrava che volesse risparmiare energie in vista di occasioni più importanti Edward è molto stanco disse Linda Loring Edward è sempre molto stanco i medici lo sono spesso dissi posso andarvi a prendere qualcosa da bere signora Loring o a voi dottore ha già bevuto abbastanza disse l'uomo senza guardare nessuno di noi due in quanto a me non bevo più vedo la gente che beve e più sono lieto di essere astemio torna indietro piccola sceba disse la signora Loring in tono sognante lui si voltò di scatto e rispose per le rime mi allontanai dirigendomi verso il bar in compagnia del marito Linda Loring sembrava una persona completamente diversa aveva un tono duro nella voce un che disprezzante nel modo di esprimersi di cui non si era servita neppure con me dopo essersi infuriata Candy era dietro il bar mi domandò che cosa desideravo da bere niente per ora grazie il signor Wade vuole parlarmi es muy occupado signor occupatissimo cominciava a pensare che Candy non mi sarebbe piaciuto dopo che mi fui limitato a fissarlo soggiunse ma andrò a vedere de pronto signor si fece delicatamente strada attraverso la ressa e tornò in men che non si dica ok amico andiamo disse allegramente lo seguì attraverso la stanza che occupava l'intera larghezza della casa aprì una porta passai la chiusi alle mie spalle e il baccano si attuì di molto mi trovavo in una stanza d'angolo basta fresca e silenziosa con porte finestre e rose sulla terrazza e un condizionatore d'aria incassato sotto una delle finestre laterali vidi il lago e vidi Wade disteso sul lungo divano di cuoio chiaro sulla grande scrivania di legno bianco c'era una macchina da scrivere accanto a essa una pila di foglie gialle siete stato gentile a venire Marlow fece lui con pigrizia parcheggiatevi avete bevuto qualcosa non ancora mi misi a sedere e lo guardai era ancora un po' pallido e smunto come va il lavoro bene a parte il fatto che mi stanco troppo rapidamente è un vero peccato che sia così difficile sottrarsi agli strasci che di una sbornia di quattro giorni spesso dopo le sbornie lavoro meglio nel mio mestiere è molto facile inaridirsi e sentirsi come paralizzati allora ciò che si scrive non vale niente quando vale qualcosa scrivere non è faticoso tutto ciò che di diverso potete aver letto o sentito dire è un monte di sciocchezze forse dipende da chi scrive osservai non riusciva facile a Flaubert eppure le sue pagine sono belle ok disse Wade mettendosi a sedere dunque avete letto Flaubert il che fa di voi un intellettuale un critico un sapientone del mondo delle lettere si massaggiò la fronte sto sforzandomi di non bere ed è una cosa che odio odio chiunque abbia un bicchiere in mano devo andare di là e sorridere a quei rettili sanno tutti quanti dal primo all'ultimo che sono un alcolizzato di conseguenza si domandano a che cosa stia cercando di sottrarmi qualche bastardo sequace di Freud ha fatto di ciò un luogo comune non c'è un ragazzetto di dieci anni che non lo sappia se avessi un marmocchio di dieci anni che Dio me ne scampi il monello mi domanderebbe a che cosa cerchi di sottrarti quando ti ubriachi papà stando a quanto ne so io tutto ciò è piuttosto recente osservai la situazione è peggiorata ma sono sempre stato un bevitore quando si è giovani e in gamba si può resistere a molti eccessi dopo i 40 non si superano le crisi con altrettanta rapidità mi appoggiai allo schienale e accesi una sigaretta per quale ragione volevate parlarmi secondo voi Marlow a che cosa sto cercando di sottrarmi non ne ho idea non sono sufficientemente informato a parte ciò tutti quanti cerchiamo di sottrarci a qualcosa non tutti si ubriacano voi che cosa volete fuggire i ricordi della gioventù o un rimorso di coscienza o la consapevolezza di essere un individuo fallito che fa un mestiere da quattro soldi ho capito dissi avete bisogno di poter insultare qualcuno fate pure amico mio quando incomincerà a far male vi avvertirò sogginò e si arruffò i folti capelli ricciuti si puntò con forza l'indice contro il petto l'uomo che vi sta di fronte è un individuo fallito e fa un mestiere da quattro soldi Marlow tutti gli scrittori sono degli incapaci e io sono il più incapace di tutti ho scritto 12 best seller e se riuscirò a completare quella pila di cartaccia sulla scrivania forse ne avrò scritti 13 e non ce n'è uno solo che valga la polvere necessaria per farlo saltare all'inferno ho una bella casa in un elegantissimo quartiere nel quale dimorano pochi e selezionati multimilionari ho una bella moglie che mi ama e un affettuoso editore che mi ha affezionato e io voglio bene a me stesso più di tutti loro sono un egocentrico farabutto una prostituta letteraria o un maneturoloco delle lettere scegliete voi la definizione che più vi piace sono marcio della punta dei piedi alla cima dei capelli e dunque che cosa potete fare per me? che cosa dovrei fare? perché non andate in bestia? non ho alcun motivo di andare in bestia sto solo ascoltandovi mentre odiate voi stesso è noioso ma non ferisce la mia suscettibilità scoppio in una smudata risata mi piacete disse beviamo qualcosa non qui amico mio non io e voi soli non mi importa di vedervi ricominciare nessuno può impedirvelo e credo che nessuno ci proverebbe ma non voglio che la responsabilità ricada su di me si alzò non è necessario bere nel mio studio andiamo di là e diamo un'occhiata a un'accurata scelta delle persone che si conoscono quando si guadagna abbastanza sporco denaro per poter vivere nel loro ambiente sentite dissi finitela lasciate perdere non sono diversi da chiunque altro già fece lui irritato ma dovrebbero esserlo se non lo sono a che cosa servono rappresentano l'elite della contea e non valgono più di una marmaglia di conducenti d'autocarro saturi di whisky a buon mercato valgono di meno anzi finitela ripetei se proprio volete sborniarvi sborniatevi ma non prendetevela con della gente che si ubriaca senza doversi rifugiare nel dottor verringer o senza perdere la testa a scaraventare la moglie giù dalle scale già disse e divenne a un tratto calmo e cogitabondo avete superato la prova amico che ne direste di venire ad abitare in casa mia per qualche tempo la vostra sola presenza potrebbe giovarmi molto non vedo come ma io sì mi aiutereste semplicemente trovandovi qui vi interesserebbero mille dollari al mese ubriaco sono pericoloso non voglio essere pericoloso e non voglio ubriacarmi non riuscirei a impedirvelo provate per tre mesi finirei quel maledetto libro e poi andrei a riposarmi lontano di qui per qualche tempo in una località delle alpi svizzere a ripulirmi il libro vi occorre il denaro no occorre che porti a termine il lavoro iniziato se non lo facessi sarei finito ve lo chiedo a titolo di amicizia per l'ennox avete fatto molto di più mi alzai e mi avvicinai a lui e lo fissai negli occhi l'ennox l'ho fatto ammazzare storie non fate il tenero con me marlow si portò la mano a coltello contro la gola ne ho fin qui di tenerume tenerume domandai o si tratta soltanto di bontà fece un passo indietro e urtò contro il divano ma non perse l'equilibrio andate all'inferno disse in tono blando non se ne fa nulla e non ce l'ho con voi naturalmente c'è una cosa che voglio sapere che devo sapere voi non avete l'idea di cosa si tratta e non ne sono certo io stesso la mia sola certezza è che c'è qualcosa e che devo scoprirla a proposito di chi di vostra moglie mosse le labbra spostandole l'una sull'altra credo che si tratti di me disse andiamo a bere qualcosa si diresse verso la porta la spalancò e uscimmo se aveva cercato di mettermi a disagio vi era riuscito in pieno 24 quando aprì la porta il vocio della sala di soggiorno parve esploderci in faccia sembrava se possibile ancora più alto di prima probabilmente perché i liquori erano stati serviti per altre due volte Wade salutò qua e là e la gente parve lieta di vederlo ma ormai con tutto l'alcol che avevano sullo stomaco gli ospiti sarebbero stati lieti di vedere anche il diavolo la vita non era altro che un grande spettacolo di varietà mentre andavamo avvicinandoci al bar ci trovammo faccia a faccia con il dottor Loring e la moglie il dottore si alzò e si fece avanti fino a fronteggiare Wade aveva una faccia quasi stravolta dall'odio che piacere rivedervi dottore disse Wade in tono amabile salve Linda dove ti sei nascosta in questi ultimi tempi no temo che la domanda sia stata sciocca io signor Wade disse Loring con una voce nella quale vibrava un tremore ho una cosa da dirvi una cosa semplicissima e spero definitiva state lontano da mia moglie Wade lo fissò incuriosito dottore siete stanco e non avete bevuto nulla permettete che vi porti qualcosa non bevo signor Wade come ben sapete mi trovo qui per un unico scopo e vi ho già detto di che cosa si tratta bene credo di aver capito rispose Wade continuando a serbarsi amabile e poiché siete mio ospite non ho altro da dirvi se non che mi sembrate in errore le conversazioni intorno a noi si erano interrotte gentiluomini e gentildonne erano tutto orecchi spettacolo grosso il dottor Loring si tolse di tasca a un paio di guanti li spianò ne prese uno per la punta di un dito e lo sbatté con violenza sul volto di Wade Wade non batte ciglio pistola e caffè all'alba domandò in tono pacato guardai Linda Loring l'ira le accendeva le gote si alzò ad agio e fronteggiò il dottore buon dio quanto sei esagerato tesoro smettila di comportarti come uno sciocco caro o preferisci insistere finché qualcuno non schiaffeggerà a te Loring si voltò di scatto verso di lei e alzò i guanti Wade si interpose fra loro calmatevi dottore nel nostro ambiente ci limitiamo a percuotere le mogli in privato se vi riferite a voi stesso ne sono convinto rimbattè Loring in tono beffardo e non ho bisogno di lezioni di galateo da un uomo come voi accetto soltanto allievi promettenti disse Wade spiacente che dobbiate andarvene così presto alzò la voce Candy che il dr Loring salga ad Echie nell'acto poi tornò a voltarsi con impeto verso Loring nel caso che non conosciate lo spagnolo dottore queste parole significano che quella è la porta e la ditò Loring lo fissò senza muoversi vi ho avvertito signor Wade disse in tono gelido e numerose persone mi hanno udito non vi avvertirò una seconda volta fatene a meno replicò Wade brusco ma se cambiate idea scegliete un territorio neutrale consentitemi un po' più di libertà di azione mi spiace Linda ma lo hai sposato si massaggiò ad agio la gota dove l'estremità più pesante del guanto l'aveva colpito Linda Loring aveva le labbra atteggiate a un amaro sorriso alzò le spalle ce ne andiamo disse Loring vieni Linda ella tornò a sedersi e prese il bicchiere rivolse al marito uno sguardo di pacato disprezzo tu te ne vai tu disse hai molte visite da fare e rammenti verrai con me fece lui furibondo Linda gli voltò le spalle Loring si chinò improvvisamente e le afferrò il braccio Wade lo guantò per la spalla e lo costrinse a girarsi calma dottore non potete imporre a tutti la vostra volontà giù le mani certo ma calmatevi disse Wade ho una buona idea dottore perché non consultate un bravo medico qualcuno scoppiò a ridere Loring si irrigidì come un animale pronto al balzo Wade se ne accorse gli voltò le spalle e si allontanò e con ciò il dottor Loring venne a trovarsi con le spalle al muro se avesse seguito Wade si sarebbe cacciato in una situazione ancora più ridicola di quella in cui già si trovava non gli restava che una via d'uscita andarsene e così fece attraversò rapidamente la stanza guardando fisso dinanzi a sé nella direzione di Candy che teneva la porta aperta uscì Candy chiuse la porta con una espressione imperturbabile e tornò dietro al bar mi avvicinai al bar e chiesi un po' di whisky scozzese non avevo veduto dove si fosse cacciato Wade era semplicemente scomparso e non vedevo neppure Aileen voltai le spalle alla stanza e li lasciai cuocere nel loro brodo mentre sorbivo il whisky una ragazza piccoletta dai capelli color fungo con una banda sulla fronte saltò fuori alle mie spalle posò un bicchiere sul bar e belò qualcosa Candy a noi e le preparò un altro cocktail la ragazza si voltò verso di me vi interessa il comunismo? domandò aveva gli occhi vitri e si passava la punta della lingua sulle labbra come se vi cercasse una briciola di cioccolato penso che tutti dovrebbero interessarsene continuò ma se si pone questa domanda a uno degli uomini qui presenti subito cercano di palpeggiarti a noi e guardai al di sopra del bicchiere il suo nasetto camuso quella sua pelle cotta e irruvidita dal sole non che mi importi molto se mi palpeggiano con delicatezza disse prendendo il nuovo cocktail e mentre ne trangugiava la metà mi mostrò i molari non contate su di me dissi come vi chiamate marlow con la e o senza con la e oh marlow cantile no un nome così triste e bello posè il bicchiere quasi completamente vuoto chiuse gli occhi rovesciò il capo all'indietro e tese le braccia evitando solo per un pelo di colpirmi in un occhio la sua voce vibrò di passione mentre diceva fu questo il volto che varrò mille navi e incendiò le monche torri di troia dolce Elena rendimi immortale con un bacio riaprì gli occhi afferrò il bicchiere e mi fece l'occhiolino vi siete dimostrato molto abile amico mio avete scritto poesie ultimamente non molte potete baciarmi se vi fa piacere disse provocante un tale con una giacca sportiva il colletto della camicia aperto la raggiunse alle spalle e mi sorrise stando dietro di lei aveva capelli corti e rossi e una faccia che sembrava un polmone flaccido non avevo mai visto un individuo più brutto accarezzò la testa della ragazza andiamo gattina è ora di tornare a casa ella si voltò di scatto verso di lui furibonda vuoi andare ad annaffiare un'altra volta quelle maledette begonie strillò oh senti gattina toglimi le mani di dosso dannato stupratore strillò lei e gli gettò in faccia quel che restava nel bicchiere un cucchiaio di liquore e due pezzetti di ghiaccio per amor del cielo bambina sono tuo marito urlò l'altro di rimando strappandosi il fazzoletto di tasca e asciugandosi il viso hai capito tuo marito lei si inghiozzò violentamente e gli si gettò fra le braccia girai loro intorno e mi allontanai tutti i ricevimenti di quel genere sono identici persino i dialoghi gli ospiti cominciavano ora a lasciare la casa sciamando nell'area serotina le voci si attenuavano le automobili partivano i saluti rimbalzavano dappertutto come palle di gomma mi avvicinai alle porte finestre e uscii su una terrazza lastrecata d'impietra il terreno scendeva in lieve d'eclivio verso il lago in moto come un gatto addormentato vera laggiù un corto pontile di legno e ormeggiata a esso con un cavo bianco una barca a remi verso la riva opposta non troppo lontana una folaga nera tracciava pigre curve simili a una pattinatrice sembrava che corrugasse l'acqua con una scia appena visibile mi allungai su una poltroncina d'alluminio imbottita e accesi la pipa e fumai tranquillamente domandandomi che cosa stessi facendo lì a quel che pareva Roger Wade possedeva una sufficiente capacità di autocontrollo per barcamenarsi quando era necessario con l'oring se l'era cavata benissimo e non mi sarei stupito molto se avesse piazzato un diretto sul mento appuntito del dottore in questo caso avrebbe trasgredito le norme della buona creanza ma l'oring le aveva dimenticate molto più di lui se il galateo significa ancora qualcosa non si sceglie una stanza piena di gente per minacciare un uomo e colpirlo in faccia col guanto allorché sia accanto a sé la propria moglie e le si stia praticamente accusando di aver mancato ai doveri coniugali per essere ancora scosso dopo una grave crisi di alcolismo Wade si era comportato realmente bene più che bene anzi naturalmente non lo avevo mai visto ubriaco e non sapevo come si comportasse in quelle condizioni non sapevo neppure se fosse davvero alcolizzato c'è una differenza fondamentale chi eccede occasionalmente nel bere è in ultima analisi la stessa persona di quando non ha bevuto l'alcolizzato il vero alcolizzato non è affatto lo stesso uomo su di lui non si può fare alcuna previsione sicura eccettuato il fatto che ci si troverà di fronte a un individuo completamente sconosciuto passi leggeri risuonarono dietro di me e Ellen Wade dopo aver attraversato la terrazza mi sedette accanto sull'orlo di una poltroncina ebbene che cosa ne dite? domandò in tono apacato del signore che si serve facilmente dei guanti? oh no si accigliò poi rise odio la gente che fa scenate del genere non che non sia un bravo medico ma ha recitato la stessa scena con una buona metà degli uomini della valle Linda Loring non è una di quelle non ne ha l'aspetto e non si esprime né si comporta come una di loro non so per quale ragione il dottor Loring agisca come se lo fosse forse un tempo beveva e ora si è ravveduto dissi molti astemi diventano dei puritani esagerati può darsi mormorò voltandosi a guardare il lago è un posto molto tranquillo questo viene fatto di pensare che uno scrittore dovrebbe trovarvi la felicità ammesso che gli scrittori siano mai felici posò lo sguardo su di me dunque non vi siete lasciato persuadere a fare ciò che Roger desiderava è del tutto inutile signora Wade non potrei far nulla ve l'ho già detto non sarei mai certo di poter essere presente al momento giusto dovrei essere sempre presente e questo sarebbe impossibile anche se non avessi altro da fare se attraversasse una crisi per esempio accadrebbe in un lampo e finora non mi è perso che vada soggetto a crisi del genere mi sembra anzi molto controllato abbassò gli occhi osservandosi le mani credo che se riuscisse a terminare questo libro tutto andrebbe molto meglio neppure in questo posso essergli utile tornò a guardarmi e posò le mani sull'orlo della sedia accanto a sé si sporse un poco in avanti potreste se lui ne è convinto questo è l'essenziale o forse non vi va giù l'idea di essere ospite in casa nostra e di percepire un compenso ha bisogno di uno psichiatra signora Wade purché ne conosciate uno che non sia un ciarlatano parve stupita uno psichiatra perché scossi la cenere dalla pipa e la tenne in mano in attesa che il fornello si raffreddasse prima di rimetterla in tasca se vi preme il parere di un dilettante eccovelo vostro marito è convinto di avere un segreto sepolto nell'inconscio e di non poterlo individuare può trattarsi di una colpa che riguarda lui stesso può trattarsi di qualcos'altro crede che sia questo a indurlo a bere per il fatto che non riesce a capire di che cosa si tratti probabilmente ritiene che qualsiasi cosa possa essere accaduta sia accaduta mentre era ubriaco e pensa di poterla scoprire là dove va la gente quando è ubriaca realmente ubriaca come accade a lui è un caso da psichiatra se le cose stanno davvero così se invece non stanno così allora si ubriaca perché lo desidera e non può farne a meno e la faccenda del segreto è soltanto un pretesto non riesce a scrivere il libro o comunque non riesce a terminarlo perché si ubriaca sembra in altre parole che non possa completare il romanzo perché si stupidisce a forza di bere ma potrebbe anche essere tutto l'opposto oh no disse lei no Roger ha molto talento sono certissima che non ha ancora scritto le sue opere migliori vi ho detto che il mio era il parere di un dilettante l'altra mattina mi diceste che avrebbe potuto essersi disinnamorato di sua moglie anche in questo caso potrebbe essere tutto l'opposto guardò in direzione della casa poi si girò in modo da voltarle le spalle guardai dalla stessa parte Wade era in piedi dietro le porte finestre e ci osservava mentre lo guardavo si spostò verso il bar e prese una bottiglia inutile tentare di impedirglielo si affrettò a dire a Ellen Wade non lo faccio mai mai credo che abbiate ragione signor Marlow non c'è altra alternativa se non consentirgli di fare a modo suo la pipa era ormai fredda e la mise in tasca poiché stiamo frugando in fondo al cassetto che ne direste di parlare dell'eventualità opposta amo mio marito riprese con semplicità non come può amare una fanciulla forse ma gli voglio bene ogni donna è fanciulla una volta sola l'uomo che amava allora è morto è morto in guerra il suo nome strano a dirsi aveva la stessa iniziale del vostro ma ormai non ha più importanza eccettuato il fatto che a volte non riesco a convincermi della sua morte non ne hanno mai trovato le spoglie ma la stessa cosa è accaduta a molti altri mi osservò con uno sguardo penetrante a volte non accade spesso naturalmente quando entro in un bar silenzioso nel vestibolo di un buon albergo nell'ora in cui sono meno frequentati oppure quando passeggio sul ponte di un piroscafo al mattino presto o a notte alta penso di poterlo vedere in qualche angolo scuro ad aspettarmi si interruppe e abbassò gli occhi è molto sciocco me ne vergogno eravamo innamoratissimi una di quelle passioni sfrenate misteriose impossibili che capitano una volta sola nella vita tacque e rimase seduta come in trance contemplando il lago mi voltai ancora una volta a guardare la casa Wade era in piedi subito dietro la soglia della porta finestra spalancata con un bicchiere in mano osservai Aileen per lei non esistevo più mi alzai ed entrai in casa Wade era lì col bicchiere e il bicchiere sembrava molto pieno e negli occhi di Wade covava uno sguardo bieco come vanno le cose con mia moglie Marlow la frase fu pronunciata con una smorfia nella bocca nessuna proposta se è questo a cui alludete è proprio quello che volevo dire l'altra notte l'avete baciata probabilmente credete di essere un conquistatore fulmineo ma state per detto tempo mio caro anche se avete le belle apparenze che occorrono cercai di girargli intorno ma mi bloccò con una solida spalla non abbiate fretta di andarvene vecchio mio ci piace avervi con noi entrano così pochi investigatori privati in casa nostra io sono quello di troppo dissi alzò il bicchiere e beffe quando lo ebbe riabbassato mi sbirciò di traverso con uno sguardo malizioso dovreste concedervi un po' più di tempo per rimettervi in sesto dissi parole gettate al vento eh ok predicate siete un piccolo riformatore morale vero dovreste avere abbastanza buonsenso per non tentare di far rinsavire un ubriaco gli ubriachi non rinsaviscono amico mio si disintegrano e una parte del processo di disintegrazione è divertentissima di nuovo si portò le labbra il bicchiere vuotandolo quasi del tutto e un'altra parte è spaventosamente orribile ma se mi è consentito citare le scintillanti parole del buon dottor Loring bastardo imbastardito con la valigetta nera state lontano da mia moglie Marlow certo che vi piace piace a tutti vi farebbe comodo andare a letto con lei farebbe comodo a tutti vorreste condividere i suoi sogni e aspirare il profumo della rosa dei suoi ricordi forse piacerebbe anche a me ma non c'è nulla da condividere amico nulla 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 rimarreste completamente solo nelle tenebre terminò di bere e capovolse il bicchiere vuota come questo Marlow zero assoluto io lo so bene posò il bicchiere sul bar e si avvicinò con passi rigidi alle scale salì una decina di gradini leggendosi alla ringhiera e si chinò e si appoggiò ad essa abbassò gli occhi su di me con un sorriso acido perdonate il sarcasmo di cattiva lega Marlow siete un brav'uomo non vorrei che vi accadesse qualcosa qualcosa di che genere forse ancora non si è avvalsa di quel magico incantesimo del suo primo amore l'uomo che scomparve in Norvegia voi non vorreste scomparire vero amico siete il mio investigatore personale mi scovate quando mi smarrisco fra gli splendori selvaggi del canyon Sepulveda spostò il palmo della mano con un movimento circolare sul lustro corrimano della ringhiera proverei un grande dolore se anche voi scompariste come quel tale che andò a combattere insieme agli inglesi è scomparso al punto che a volte viene fatto di domandarsi se sia mai esistito pensate che lei avrebbe potuto inventarlo solo per avere un giocattolo con cui trastullarsi come posso saperlo mi fissò dall'altro aveva ora profonde rughe incise nella fronte fra gli occhi e la sua bocca era distorta dall'amarezza chi può saperlo forse non lo sa lei stessa il bambino è stanco il bambino si è divertito troppo a lungo con i giocattoli rotti il bambino vuole andare a nanna continuò a salire le scale scomparve rimasi lì fino a quando candy non entrò per rimettere in ordine il bar raccolse i bicchieri su di un vassoio servò le bottiglie per constatare quanto liquore fosse rimasto e non vado affatto a me o così parve poi disse signor è rimasto dell'ottimo liquore sarebbe un peccato sciuparlo mi mostrò una bottiglia bevetelo voi grazie signor non mi gusta ho un vasso di cervezza no mas non bevo altro che un bicchiere di birra siate prudente un alcolizzato in casa basta disse fissandomi parlo bene l'inglese no certo benissimo ma penso in spagnolo a volte penso con un coltello il padrone è amico mio non ha bisogno di aiuto ombre me ne occupo io di lui capito con magnifici risultati igo della flauta disse fra i denti candidi prese il vassoio carico di bicchierini se lo portò all'altezza della spalla reggendolo con il palmo della mano nello stile dei camerieri d'albergo andai alla porta uscì domandandomi come mai un'espressione che significava figlio di un flauto fosse offessiva e spagnolo non me lo domandai a lungo avevo troppe altre cose di cui meravigliarmi il problema della famiglia Wade non consisteva soltanto nell'alcol l'alcol non era che un mascheramento più tardi quella sera fra le nove e mezzo e le dieci formai il numero di Wade dopo aver sentito squillare otto volte il campanello lo riattaccai ma avevo appena tolto la mano dall'apparecchio quando fui io essere chiamato era Alan Wade qualcuno ha appena telefonato disse ho pensato che potreste essere voi mi stavo acciggendo a fare la doccia ho chiamato io ma non era importante signora Wade Roger sembrava un po' svanito quando me ne sono andato credo di cominciare a sentire una certa responsabilità nei suoi riguardi sta benissimo rispose è a letto e dorme sodo credo che il dottor Loring lo abbia sconvolto più di quanto non sia apparso senza dubbio vi avrà detto un monte di assurdità ha detto che era stanco e che voleva andarsene a letto mi è parso molto ragionevole se non ha detto altro sì bene buonanotte e grazie per aver telefonato signor Marlow non ho affermato che non abbia detto altro seguì una pausa poi tutti si mettono in mente idee fantastiche di quando in quando non prendete Roger troppo sul serio signor Marlow in fin dei conti ha un'immaginazione molto fertile e poi è naturale non avrebbe dovuto bere nulla così presto dopo l'ultima volta vi prego cercate di dimenticarvene suppongo che fra l'altro sia stato villano con voi no non lo è stato mi è parso ricco di buonsenso vostro marito è un uomo che sa guardare con chiarezza nel profondo di se stesso e vedere quello che vi si nasconde la maggior parte della gente vive consumando metà della sua energia nel tentativo di proteggere una dignità che non ha mai posseduto buonanotte signora Wade riattaccò e io preparai la scacchiera caricai la pipa misi in fila i pezzi e li passai in rivista per vedere se si fossero sbarbati e se avessero tutti i bottoni poi giocai un torneo di campionato tra Gort Akhoff e Menikin con 72 mosse uno splendido esempio della forza irresistibile che urta contro l'immobile resistenza una battaglia senza corazze una guerra senza spargimento di sangue e un complicato sciupio di intelligenza umana pari a quello che ha luogo in qualsiasi agenzia pubblicitaria 25 nulla accadde per una settimana se sia eccetto al fatto che continuai a occuparmi del mio lavoro in quel momento piuttosto scarso un mattino George Peters dell'organizzazione Cairn mi telefonò e mi disse di essere passato per caso nei pressi del canyon Sepulveda per pura curiosità era entrato nella proprietà del dottor Weringer ma il dottor Weringer non si trovava più lì alcune squadre di geometri stavano facendo rilevamenti per la lottizzazione del terreno gli uomini con i quali si era intrattenuto non avevano mai sentito parlare del dottor Weringer il povero il povero loco si è lasciato mettere con le spalle al muro disse Peters ho controllato gli hanno dato mille dollari per il trasferimento del titolo di proprietà tanto per risparmiare tempo e denaro e adesso qualcuno guadagnerà un milione di dollari all'anno frazionando la proprietà in piccoli lotti di terreno da costruzione questa è la differenza fra il delitto e gli affari per fare affari occorre disporre di un capitale a volte penso che non vi siano altre differenze un'osservazione opportunamente cinica dissi ma anche il delitto in grande stile richiede un capitale e da dove credi che venga amico non certo dai tipi che commettono furti nei magazzini di liquori arrivederci ci vedremo presto erano le 11 meno 10 di giovedì sera quando mi telefonò Wade aveva la voce impastata quasi gorgogliante ma in qualche modo la riconobbi e udì inoltre al telefono un breve rauco rapido ansimare mi trovo in un brutto stato Marlow pessimo anzi sto perdendo l'ancora non potreste venire qui subito certo ma fatemi parlare un momento con la signora Wade non rispose udì un tonfo poi un silenzio di tomba poi qualche attimo dopo una sorta di pesante tramestio urlai qualcosa al telefono senza ottenere risposta passo ancora qualche secondo infine ecco il leggero scatto del ricevitore rimesso al suo posto e il segnale di linea libera cinque minuti dopo ero in viaggio compì il tragitto in poco più di mezz'ora e non so ancora come superai il passo come se volassi e infilai il Ventura Boulevard con il semaforo rosso riuscì in qualche modo a voltare a sinistra zigzagando fra i veicoli e in genere feci pazzie attraversai Enzino a quasi cento all'ora con un faro acceso dal lato delle automobili parcheggiate in modo che paralizzasse chiunque avesse in mente di partire all'improvviso la fortuna mi fu propizia come accade quando venne infischiate niente poliziotti né sirene né segnalazioni con la luce rossa soltanto fantasticherie su ciò che poteva accadere in casa Wade e non furono fantasticherie piacevoli lei era sola in casa con un maniaco ubriaco giaceva ai piedi delle scale con la spina dorsale spezzata era dietro una porta chiusa a chiave e qualcuno urlava e cercava di sfondarla correva a piedi nudi lungo una strada illuminata dalla luna e un enorme negro infoiato la inseguiva armato di un coltellaccio da macellaio le cose non stavano affatto così quando gettai la Halls nel viale d'accesso della villa le luci splendevano in tutta la casa e lei era in piedi sulla soglia della porta spalancata con una sigaretta tra le labbra discesi e percorsi in fretta il sentiero lastricato indossava un paio di pantaloni e una camicia dal colletto aperto mi guardò con calma se vi era dell'eccitazione nell'atmosfera ero stato io a portarla la prima cosa che dissi fu insensata come tutto il mio comportamento credevo che non fumaste come? no di solito non fumo si tolse la sigaretta dalle labbra la lasciò cadere e la spense col piede solo molto di rado ha telefonato al dottor verringer la sua era una voce remota e placida una di quelle voci che vi raggiungono a volte di notte sull'acqua una voce del tutto distesa non gli sarebbe stato possibile dissi il dottor verringer non risiede più qui ha telefonato a me oh davvero l'ho soltanto udito parlare al telefono e pregare qualcuno di accorrere pensavo che si trattasse del dottor verringer dove si trova adesso è caduto disse devi aver inclinato la sedia troppo all'indietro è successo altre volte si è fatto un taglio alla testa battendo contro qualcosa c'è un po' di sangue non molto bene meglio così dissi molto sangue sarebbe spiacevole vi ho domandato dove si trova adesso mi fissò con aria solenne poi indicò il giardino laggiù in qualche posto al margine della strada o tra le siepi lungo lo steccato mi sporsi in avanti e la scrutai cristo non siete andata a vedere decisi a questo punto che doveva essere in preda uno shock poi mi voltai verso il prato non vidi nulla ma l'ombra era fitta lungo lo steccato no non sono andata rispose calmissima trovatelo voi io sono arrivata al limite della sopportazione ho superato il limite trovatelo voi si voltò ed entrò in casa lasciando la porta aperta non andò molto lontano a poco più di un metro dalla soglia si afflosciò sul pavimento e lì rimase la presi fra le braccia e la misi su uno dei due grandi divani collocati ai lati opposti di un lungo basso tavolino da liquori di legno chiaro le tastai il polso non sembrava molto debole né aritmico aveva gli occhi chiusi e le palpebre erano azzurre la lasciai lì e tornai fuori Wade si trovava proprio dove lei aveva detto giaceva sul fianco all'ombra dell'ibisco il polso era rapido tambureggiante la respirazione affrettata aveva qualcosa di appiccicoso sulla nuca gli parlai e lo scossi un poco gli schiaffeggiai il viso un paio di volte bofonchiò qualcosa ma non rinvenne lo tirai su a sedere e misi sulla spalla una delle sue braccia e lo sollevai voltandogli la schiena cercando di afferrargli una gamba mancai la presa pesava come un blocco di cemento ricademmo entrambi a sedere sull'erba e io presi fiato e riprovai riusci infine a hissarmelo sulle spalle come fanno i pompieri e chino attraversai il prato dirigendomi verso la porta di casa fu come arrivare a piedi fino al Siam i due gradini della veranda sembravano alti tre metri barcollai accanto al divano caddi sulle ginocchia e lo depositai quando tornai a mettermi in piedi mi parve di avere la spina dorsale frantumata perlomeno in tre punti e Ellen Wade non si trovava più lì la stanza era tutta per me ma in quel momento mi sentivo troppo affranto per domandarmi dove fossero andati a cacciarsi gli altri mi misi a sedere e lo guardai e aspettai di riprendere fiato poi gli esaminai la testa era insanguinata il sangue rendeva appiccicosi i capelli non sembrava una cosa grave ma non si può mai sapere con le ferite alla testa poi ecco Eileen in piedi accanto a me e intenta a guardarlo tranquillamente con la stessa remota espressione di prima mi spiace per essere svenuta disse non so perché sia accaduto credo che sarà meglio chiamare un medico ho telefonato al dottor loring è il mio medico come sapete non voleva venire provate a chiamare qualcun altro allora oh sta venendo disse in un primo momento non voleva saperne ma poi ha detto che sarebbe venuto non appena gli fosse stato possibile dov'è Candy oggi è il suo giorno di libertà giovedì la cuoca e Candy hanno il giovedì libero è una consuetudine da queste parti potete portarlo a letto se qualcuno non mi dà una mano no è meglio andare a prendere una coperta la notte è calda ma in casi del genere sono facili le complicazioni polmonari disse che sarebbe andata a prenderla pensai che era molto gentile da parte sua ma non riusciva a pensare in modo troppo intelligente ero troppo sfinito per averlo trasportato stendemmo su di lui una coperta e dopo un quarto d'ora sopraggiunse il dottor loring implacabile col colletto inamidato e gli occhiali non cerchiati e l'espressione di un uomo al quale sia stato chiesto di far pulizia dopo che il cane ha vomitato esaminò la testa di Wade un taglio superficiale e qualche escoriazione disse escludo ogni possibilità di commozione cerebrale d'altronde mi pare che il respiro indichi in modo abbastanza ovvio quali sono le sue condizioni si mise il cappello e prese la valigetta tenetelo al caldo disse potreste fargli qualche impacco con cautela e togliere il sangue gli passerà con una buona dormita non posso portarlo di sopra da solo dottore dissi allora lasciatelo dove si trova mi guardò con indifferenza buonanotte signora Wade come sapete non curo gli alcolizzati e anche se li curassi vostro marito non farebbe parte dei miei pazienti sono certo che ve ne rendete conto nessuno vi sta chiedendo di curarlo disse vi ho chiesto semplicemente di aiutarmi a portarlo nella sua camera da letto in modo che si possa spogliarlo ma voi chi siete mi domandò il dottor loring in tono gelido mi chiamo marlow ero in questa casa una settimana fa vostra moglie ci ha presentati interessante disse come mai conoscete mia moglie che diavolo importa voglio solo quello che volete non mi interessa mi interruppe si voltò verso Eileen fece un breve cenno di saluto e si accinse ad andarsene mi interposi fra lui e la porta e mi addossai a quest'ultima un momento solo dottore deve essere passato molto tempo da quando leggeste quel breve brano di prosa chiamato giuramento ipocratico il signor Wade mi ha telefonato io abito piuttosto lontano sembrava che stesse malissimo e di conseguenza ho violato tutti i regolamenti stradali in vigore in questo stato per arrivare il più presto possibile l'ho trovato disteso per terra nel giardino e l'ho portato qui e credetemi non pesa come un cuscino di piume il cameriere non è in casa e non c'è nessun altro che possa aiutarmi a portarlo di sopra che cosa ne dite? toglietevi di mezzo similò a denti stretti altrimenti telefonerò allo sceriffo gli dirò di mandare un agente come professionista come professionista non valete una manciata di caccatura di mosche dissi e mi scostai dalla porta arrossì ad agio ma visibilmente la bile per poco non lo fece soffocare poi aprì la porta e uscì l'accostò lentamente mentre stava per chiuderla mi fissò fu lo sguardo più perfido che mi fosse mai stato stoccato la faccia più perfida che avessi mai veduto quando mi voltai Aileen sorrideva che cosa c'è di tanto divertente ringhiai a voi non avete peli sulla lingua vero? non sapete chi è il dottor Loring? Sì e so anche che cos'è diede un'occhiata all'orologio da polso Candy dovrebbe essere rientrato ormai disse andrò a vedere ha una stanza dietro l'autorimessa uscì passando sotto un'arcata e io mi misi a sedere e osservai Wade il grande scrittore continuava a russare aveva un velo di sudore sul volto ma non gli tolsi la coperta di dosso uno o due minuti dopo Aileen tornò insieme a Candy 26 il messicano indossava una camicia sportiva a scacchi bianchi e neri pantaloni neri di stoffa pesante senza la cintola scarpe di capretto bianche e nere lucidissime i folti capelli neri erano ben ravviati all'indietro e luccicavano di brillantina signor disse abbozzando un breve sarcastico inchino aiutate il signor marlo a portare di sopra mio marito Candy è caduto ferendosi leggermente mi spiace darvi questo disturbo de nada signora disse Candy sorridendo penso che vi augurerò la buonanotte lei mi disse sono sfinita Candy vi procurerà tutto ciò di cui potrete aver bisogno salì ad agio le scale Candy e io la seguimmo con lo sguardo una gran bella bambola fece lui in tono confidenziale rimanete qui stanotte non credo è siastima si sente molto sola poverina toglietevi quel bagliore dagli occhi figliolo portiamolo a letto questo signore melanconico fissò Wade che russava sul divano pobresito mormorò come se lo pensasse davvero borraccio come una cuba può essere ubriaco ma certo non è leggero dissi prendetelo per i piedi lo portammo su e anche per due uomini pesava come una barra di piombo dopo aver salito le scale percorremmo una balconata aperta passando accanto a una porta chiusa Candy la indicò col mento la signora vi sbigliò bussate molto ad agio e forse vi farà entrare non dissi nulla perché in quel momento avevo bisogno di lui continuammo a trasportare la carcassa entrammo in una stanza passando per un'altra porta e posammo il fardello sul letto poi afferrai il braccio di Candy in alto sotto la spalla dove le dita conficcate con la forza possono fare male le conficcai con forza batte le palpebre poi il volto gli sinduri come vi chiamate ciolo toglietemi le mani di dosso ringhiò e non chiamatemi ciolo il mio nome è Juan Garcia De Soto e Sotomayor sono cileno ok Don Juan ma non uscite dai limiti di questa casa pulitevi la bocca quando parlate delle persone per cui lavorate si liberò con uno strattone e fece un passo indietro gli occhi neri accesi dall'ira infilò la mano nella camicia e la tirò fuori impugnando un coltello lungo e sottile lo tenne in equilibrio con la punta sul dorso della mano e afferrò l'impugnatura del coltello per aria il gesto fu fulminio e compiuto senza alcuno sforzo apparente portò poi la mano all'altezza della spalla la fece scattare in avanti e il coltello fischiò nell'aria e andò a conficcarsi vibrante nell'intalaiatura della finestra cuidado signor disse in tono aspro e beffardo e tenete le zampe a posto nessuno può permettersi di scherzare con me attraversò rapido la stanza estrasse il coltello dal legno lo lanciò in aria girò fulminio sui tacchi e lo afferrò mentre ricadeva in un lampo il coltello scomparve sotto la camicia ben fatto disse ma un po' troppo spettacolare venne verso di me sorridendo con disprezzo inoltre potrebbe procurarvi un gomito rotto dissi in questo modo gli afferrai il polso destro gli feci perdere l'equilibrio con uno strattone mi spostai di lato e un po' indietro rispetto a lui portai l'avambraccio contro la giuntura del gomito ed esercitai una forte pressione sul polso servendomi dell'avambraccio come di un fulcro un colpo forte dissi e il gomito parte un colpo è sufficiente come lanciatore di coltelli sareste fuori uso per parecchi mesi se poi il colpo fosse un po' violento sareste fuori uso per sempre togliete le scarpe al signor Wade lo lasciai andare e lui soggugnò un buon trucco disse lo terrò presente si voltò verso Wade e fece il gesto di togliergli le scarpe poi si fermò vi era una macchia di sangue sul cuscino chi ha ferito il padrone io no amico è caduto e ha urtato con la testa contro qualcosa non è che un taglio superficiale il medico è già venuto si lasciò sfuggire ad agio l'aria dei polmoni lo avete visto cadere è successo prima che arrivassi siete affezionato a quest'uomo vero non rispose si chienò e gli tolse le scarpe spogliamo Wade da poco a poco e Candy tolse da un cassetto un pigiama verde e argento glielo infilammo e lo mettemmo sotto le coperte continuava a sudare e a russare Candy lo guardò con un'espressione triste scuotendo ad agio la testa qualcuno deve tenerlo d'occhio disse vado a cambiarmi andate a dormire lo sorveglierò io posso chiamarvi se avrò bisogno di voi si voltò sarà meglio che lo sorvegliate bene disse in tono pacato molto bene usci andai nel bagno inumidi una salvietta e presi un asciugamano pesante voltai Wade sul letto stesi l'asciugamano sul cuscino e gli lavai il sangue dalla nuca con dolcezza in modo che la ferita non ricominciasse a sanguinare vidi allora un netto taglio superficiale lungo circa 5 cm e il dottor Loring aveva avuto ragione in questo dargli qualche punto non avrebbe fatto danno ma con ogni probabilità non era necessario trovai un paio di forbici e tagliai i capelli quanto bastava per poter applicare un cerotto poi lo rimisi su pino e gli lavai il viso questo suppongo fu un errore aprì gli occhi in un primo momento il suo sguardo rimase vago e incerto poi cominciò a schiariglisi la vista e mi riconobbe mentre stavo in piedi accanto al letto mosse la mano se la portò alla testa e toccò il cerotto bofonchiò qualcosa di incomprensibile poi gli si schiarì anche la voce chi mi ha colpito voi tastava il cerotto non vi ha colpito nessuno siete caduto caduto e quando dove mentre telefonavate avete chiamato me vi ho sentito cadere al telefono vi ho telefonato atteggiò le labbra un lento sorriso sempre disponibile eh amico che ore sono? l'una del mattino e dov'è Eileen? è andata a dormire ha passato un brutto momento riflettè serbando il silenzio aveva gli occhi colmi di sofferenza lo forse si interruppe e batte le palpebre no non l'avete toccata per quanto ne so io se è questo che volevate dire siete uscito nel giardino e vi sono mancate le forze accanto allo steccato non parlate più adesso cercate di dormire dormire? disse in tono sommesso e lento come un bambino che ripete la lezione che cosa significa? forse un sonnifero vi aiuterebbe ne avete? nel cassetto nel cassetto del comodino lo aprì vi era un tubetto di plastica pieno di compresse rosse seconal prescritto dal dottor Loring il simpatico dottor Loring prescritto a sua volta dalla signora Wade ne presi due rimisi a posto il tubetto e riempì d'acqua un bicchiere con il termos che si trovava sul comodino Wade disse che una compressa sarebbe bastata la ingeri beve qualche sorso d'acqua si ridistese e di nuovo cominciò a fissare il soffitto il tempo passò seduto accanto al letto lo osservavo sembrava che non si addormentasse poi disse ad agio mi viene in mente una cosa fatemi un favore Marlow ho scritto delle sciocchezze e non voglio che Aileen le legga i fogli sono sulla macchina da scrivere sotto la custodia strappateli certo non vi viene in mente altro Aileen sta bene ne siete sicuro sì è solo un po' stanca lasciate correre Wade cercate di non pensare non avrei dovuto farvi questa domanda cercate di non pensare dice aveva la voce un po' sonnacchiosa adesso sembrava che parlasse a se stesso cercate di non pensare di non sognare di non amare di non odiare buonanotte dolce principe prenderò quell'altra compressa gliela diedi con un po' d'acqua si ridistese con la testa voltata questa volta in modo da potermi vedere sentite Marlow ho scritto qualcosa e non voglio che Aileen me lo avete già detto lo farò non appena vi sarete addormentato oh grazie è bello avervi vicino molto bello un'altra pausa più lunga le palpebre gli si appesantivano avete mai ucciso qualcuno Marlow si una cosa orribile vero a certi uni piace gli occhi gli si chiusero del tutto poi si riaprirono ma con uno sguardo vago come è possibile non risposi le palpebre tornarono ad abbassarsi molto ad agio come un lento sipario a teatro cominciò a russare aspettai ancora un poco poi abbassai la luce e uscii 27 mi soffermai accanto alla porta di Aileen e ascoltai non udì alcun movimento nella stanza e di conseguenza non bussai se voleva sapere come stava il marito era affar suo al pian terreno la stanza di soggiorno sembrava troppo illuminata e vuota spensi alcune lampade stando accanto alla porta di casa alzai gli occhi verso la balconata la parte centrale della stanza di soggiorno giungeva fino all'altezza del tetto ed era attraversata da travi libere che sostenevano inoltre la balconata quest'ultima era ampia e delimitata su due lati da una massiccia ringhiera che sembrava alta circa un metro e dieci il corrimano e i pilastrini erano quadrati per armonizzarsi con le travi la sala da pranzo si trovava dietro un arco chiuso da doppie porte scorrevoli sopra essa dovevano trovarsi supposi gli alloggi della servitù questa parte del secondo piano era chiusa da una parete e di conseguenza vi si doveva accedere per mezzo di un'altra scala che vi saliva dalla cucina o dai servizi la camera da letto di Wade era all'angolo sopra lo studio vedevo la luce che usciva dalla porta aperta riflettersi sull'alto soffitto e vedevo la parte superiore della porta spensi tutte le luci eccettuata una lampada ad angolo e mi diressi verso lo studio la porta era chiusa ma dentro le luci erano rimaste accese una lampada da tavolo all'estremità del divano di cuoio e una lampada da scrivania la macchina da scrivere si trovava sotto la lampada e accanto a essa sulla scrivania vi era un disordinato guazzabuglio di fogli gialli mi lasciai cadere su una poltrocina imbottita e osservai la scena volevo sapere in che modo si fosse ferito la testa mi mesi sulla sedia della scrivania con il telefono alla mia sinistra se inclinando la sedia fossi caduto all'indietro avrei potuto urtare con il capo contro lo spigolo della scrivania inumidi il fazzoletto e strofinai il legno nessuna traccia di sangue niente da fare sulla scrivania vi erano molti oggetti compresa una fila di libri tra due elefanti di bronzo e un antiquato calamaio di cristallo feci lo stesso esperimento su quegli oggetti senza alcun risultato ed era logico d'altronde poiché se qualcuno lo avesse colpito l'oggetto contundente non si sarebbe trovato nella stanza e nessuno avrebbe potuto colpirlo mi alzai e accesi le lampade nascoste nella moda natura illuminarono anche gli angoli più bui e come era naturale la soluzione risultò in fin dei conti abbastanza semplice un cestino quadrato di metallo si trovava rovesciato contro la parete e da esso pezzi di carta si erano sparsi sul pavimento non poteva essere andato a finire da solo fin lì e quindi doveva esservi stato lanciato o gettato con un calcio provai a passare il fazzoletto inumidito sugli spigoli degli angoli questa volta ecco apparire la macchia rossoruggine del sangue nessun mistero dunque Wade era caduto battendo la testa sullo spigolo del cestino della carta un colpo di striscio con ogni probabilità si era rialzato e aveva scaraventato con un calcio il dannato oggetto dall'altra parte della stanza semplicissimo poi doveva aver traguggiato in fretta un altro po' di liquore il necessario si trovava sul tavolino di fronte al divano una bottiglia vuota un'altra piena per tre quarti un termos e un recipiente d'argento contenente acqua quel che restava dei cubetti di ghiaccio vi era un bicchiere solo uno di quelli grandi dopo aver bevuto Wade si era sentito un po' meglio aveva notato senza capire bene il ricevitore del telefono staccato dall'apparecchio e con ogni probabilità non era riuscito a ricordare a chi avesse telefonato non aveva quindi fatto altro che riavvicinarsi alla scrivania e riattaccare c'è qualcosa di coercitivo in un telefono l'uomo della nostra epoca perseguitato da congegni meccanici lo ama lo odia e lo teme ma lo tratta sempre con rispetto anche quando è ubriaco il telefono è un feticcio qualsiasi uomo normale avrebbe detto pronto nel ricevitore prima di riattaccare tanto per accertarsi che non vi fosse nessuno all'altro capo del filo non così un uomo stordito dall'alcol e che è appena caduto d'altro canto il particolare non aveva importanza poteva essere stata sua moglie poteva darsi che avesse udito il tonfo e lo strepitio del cestino scaraventato contro il muro e fosse entrata nello studio in quel momento l'ultimo bicchiere di liquore doveva avergli ormai dato il colpo di grazia Wade era uscito barcollante dalla casa attraversando il prato e cadendo dove io l'avevo trovato qualcuno sarebbe venuto ad aiutarlo non ricordava più di chi si trattasse forse era il buon dottor Weringer fin qui tutto logico ma come si sarebbe comportata a sua moglie non poteva affrontarlo né ragionare con lui e molto probabilmente aveva paura di provarci non le restava dunque che chiamare qualcuno affinché l'aiutasse la servitù non era in casa e pertanto non poteva fare altro che telefonare e infatti aveva telefonato a qualcuno al simpatico dottor Weringer che gli avesse telefonato dopo il mio arrivo era solo un'ipotesi non me lo aveva detto a partire da questo momento le cose non filavano altrettanto lisce ci si sarebbe potuto aspettare che andasse in cerca del marito e lo trovasse e si accertasse che non era ferito non poteva fargli alcun male restare disteso a terra per qualche minuto in una tiepida notte estiva lei non avrebbe certo potuto muoverlo c'erano volute tutte le mie energie per riuscirvi ma non ci si sarebbe mai aspettati di trovarla in piedi sulla soglia di casa intenta a fumare una sigaretta senza sapere se non molto vagamente dove si trovasse il marito oppure sì ignoravo che cosa avesse passato accanto a lui fino a quel punto egli fosse pericoloso in quelle condizioni quanta paura ella potesse avere di avvicinarlo sono arrivata al limite della sopportazione aveva detto quando era arrivato trovatelo voi poi dopo essere entrata in casa era svenuta tutto ciò continuava a lasciarmi interdetto ma non potevo farci nulla dovevo presumere che dopo essersi trovata in quella situazione un numero sufficiente di volte per rendersi conto che non vi era altro da fare se non lasciar correre si fosse comportata per l'appunto così lasciando correre lasciandolo disteso a terra fino a quando non fosse intervenuto qualcuno abbastanza robusto per occuparsi di lui eppure continuava a non capire e non capivo inoltre perché fosse andata a chiudersi nella sua stanza mentre Candy e io lo portavamo di sopra aveva detto di amare quell'uomo era suo marito vivevano insieme da cinque anni si trattava di una persona molto simpatica quando non era ubriaco lo aveva detto lei stessa ubriaco era tutt'altra cosa un individuo dal quale bisogna stare lontani perché è pericoloso bene inutile pensarci e tuttavia ero sempre interdetto se davvero Eileen aveva paura non sarebbe rimasta sulla soglia con la porta aperta a fumare una sigaretta e se era soltanto amareggiata offesa disgustata non sarebbe svenuta c'era qualcos'altro forse un'altra donna e in questo caso lei lo aveva appena scoperto Linda Loring poteva darsi il dottor Loring ne era convinto e lo affermava pubblicamente rinunciai a riflettere e tolsi la custodia dalla macchina da scrivere i fogli erano lì numerosi foglie di carta gialla scritte a macchina i fogli che avrei dovuto distruggere affinché Eileen non potesse leggerli li presi andai a mettermi sul divano e decisi che meritavo di bere qualcosa leggendoli annesso allo studio vi era uno stanzino con il lavabo andai a sciacquare il bicchiere vi versai un po' di liquore mi misi a sedere e cominciai a leggere e ciò che lessi era davvero pazzesco lo scritto diceva 28 siamo a quattro notti dalla luna piena e c'è un quadrato di luce lunare sulla parete e mi sta fissando come un grande cieco lattiginoso occhio un occhio di muro sciocchezze un paragone maledettamente stupido gli scrittori tutto deve ricordare qualcos'altro ho il cervello soffice come panna montata ma non altrettanto dolce altre analogie vomiterei solo pensando allo schifoso mestiere vomiterei in ogni caso probabilmente vomiterò non incalzatemi datemi tempo i vermi nel mio plesso solare strisciano strisciano e strisciano coricato starei meglio ma ci sarebbe un dannato animale sotto il letto e quella bestia nera striscerebbe qua e là frusciando e si ingobbibirebbe e urterebbe contro il letto e io mi lascerei sfuggire un urlo che nessuno potrebbe udire tranne me un urlo di sogno un urlo nell'incubo non c'è nulla di cui aver paura e io non sono spaventato perché non c'è nulla da temere eppure una volta giacevo in letto e la nera bestia mi ha fatto questo ingobbendosi contro il letto e io ho avuto un orgasmo questo mi ha disgustato più di qualsiasi altra delle scene cose che ho fatto sono sporco ho bisogno di sbarbarmi le mani mi tremano sudo sento il mio stesso puzzo ho la camicia bagnata sotto le ascelle sul petto e sulla schiena anche le mani che sono bagnate nelle pieghe dei gomiti il bicchiere è sul tavolino vuoto mi occorrerebbero tutte e due le mani per versare il liquore adesso potrei forse attaccarmi alla bottiglia per rimettermi in gamba il sapore del whisky è nauseante e non mi servirebbe a nulla alla fine non riuscirei neppure a prendere sonno e il mondo intero gemerebbe nell'orrore dei nervi torturati un buon whisky e Wade ancora per i primi due o tre giorni va tutto bene poi gli effetti sono negativi soffri e bevi e per un po' di tempo va meglio ma in seguito il prezzo aumenta sempre e sempre di più e ciò che ottieni in cambio non fa che diminuire e arrivi sempre al punto in cui non ne ricavi altro che nausea allora chiami verringer d'accordo verringer eccomi qui ma non c'è più nessun verringer è andato a cuba o è crepato la regina lo ha ucciso povero vecchio verringer che destino crepare a letto con una regina una regina di quella sorta andiamo Wade alzati e andiamo in qualche posto i posti in cui non siamo mai stati e dove non torneremo mai più dopo averli veduti ha un senso questa frase no benissimo non pretendo che mi faccia guadagnare del denaro una breve interruzione a questo punto per un lungo annuncio commerciale bene ce l'ho fatta mi sono alzato che uomo mi sono avvicinato al divano mi sono inginocchiato accanto a esso e su di esso ho posto le mani ho premuto il volto contro le mani piangendo poi ho pregato e mi sono disprezzato per aver pregato un ubriaco di terzo grado che si disprezza che diavolo stai pregando imbecille quando un uomo sano prega quella è fede un uomo ammalato prega e la sua è soltanto paura all'inferno chi prega questo è il mondo che tu hai costruito e lo hai costruito tutto da solo e quel po' di aiuto che hai avuto all'aldifuori beh anche quello è opera tua piantala di pregare maniaco rimettiti in piedi e manda giù quel liquore è troppo tardi ormai per qualsiasi altra cosa bene ho preso la bottiglia con tutte e due le mani e ho riempito il bicchiere anche quasi non ho versato una goccia chissà ora se riuscirò a tenerlo senza vomitare meglio aggiungerci un po' d'acqua alza il bicchiere adesso ad agio piano non troppo in una volta comincio ad avere caldo comincio a soffocare oh se potessi smettere di sudare il bicchiere è vuoto è di nuovo sul tavolino c'è un alone intorno al chiaro di luna ma io ho posato il bicchiere a suo dispetto con cautela con estrema cautela come un mazzo di rose in un vaso alto e sottile le rose fanno cent'anni d'assenso col capo ruggiadoso forse sono una rosa fratello sono imperlato di ruggiada ora bisogna salire le scale forse un buon sorso ti rimetterebbe in forza per il tragitto no? e va bene come vuoi verrò di sopra quando ci sarò arrivato sarà come un piccolo premio se ci arrivo se riesco a salire le scale ho diritto a un compenso un segno di stima che concederò a me stesso l'amore che ho per me è meraviglioso e il lato più piacevole di questo mio amore sta nel fatto che non ho rivali duplice spazio sono salito di sopra e ridisceso non mi è piaciuto restare di sopra l'altezza mi fa palpitare il cuore e così continuo a picchiare sui tasti di questa macchina da scrivere che gran mago è il subconscio se solo volesse lavorare con regolarità anche di sopra c'era la luce lunare probabilmente la stessa luna non c'è mai nulla di nuovo nella luna va e viene come il lattaio il latte della luna è sempre lo stesso il latte della luna è sempre controllati amico ti sei cacciato in un ginepraio non è questo il momento di occuparsi della storia della luna hai già tante di quelle preoccupazioni da riempire tutta questa dannata valle dormiva sul fianco lei con le ginocchia piegate senza il minimo suono troppo silenziosa mi è parsa si fa sempre un suono sia pur lieve quando si dorme forse non dormiva forse cercava di dormire se mi fossi avvicinato di più lo avrei saputo ma sarei anche potuto cadere ha aperto un occhio o forse no mi ha guardato o forse non è vero no se sarebbe drizzata a sedere avrebbe detto ti senti male tesoro si mi sento male tesoro ma non preoccupartene affatto cara poiché questo male è il mio male e non il tuo e puoi pure dormire tranquilla e serena e non ricordare mai e io non ti sporcherò col mio fango e nulla si avvicinerà a te che sia repellente e grigio e rivoltante sei uno schifoso Wade tre aggettivi schifosissimo scrittore Cristo possibile che tu non riesca a esprimerti miserabile senza ricorrere a tre aggettivi sono ridisceso al pian terreno tenendomi alla ringhiera le budella mi si contorcevano a ogni scalino e sono riuscito a tenerle insieme con una promessa sono arrivato al pian terreno e sono riuscito a raggiungere lo studio e poi il divano e ho aspettato che il mio cuore si calmasse la bottiglia è a portata di mano una cosa si può dire della preveggenza di Wade che ha sempre la bottiglia a portata di mano nessuno la nasconde nessuno la chiude in un armadio nessuno dice non credi di aver avuto abbastanza tesoro finirai per sentirti male caro nessuno ti dice queste cose lei si limita a dormire sul fianco tenera e morbida come una rosa ho dato a Candy troppo denaro un errore avrei dovuto cominciare con un sacchetto di nocciole e arrivare alla banana un piccolo effettivo miglioramento di questo genere lento e costante ne avrebbero alimentato l'avidità e invece gli dai una grossa fetta della torta fin dall'inizio e ben presto possiede un gruzzolo è in grado di passare un mese nel Messico vivendo da gran signore e dandosi ai bagordi con quello che costa la vita e quando possiede un gruzzolo come si comporta beh c'è un uomo al mondo soddisfatto del denaro che possiede se crede di poterne ottenere dell'altro forse è vero forse dovrei ammazzarlo il bastardo dagli occhi lucidi una volta un brav'uomo morì per me perché non dovrebbe morire uno scarafaggio in giacca bianca lascia perdere Candy c'è sempre il modo di spuntare un ago l'altro non lo dimenticherò mai mi brucia il fegato con fiamme verdi è meglio telefonare sto perdendo il controllo di me stesso li sento saltare saltare meglio chiamare qualcuno subito prima che le cose rosa mi striscino sulla faccia meglio telefonare 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 a su di Sioux City pronto interurbana datemi su di Sioux City qual è il numero non lo so il numero so soltanto il nome signorina la troverete che passeggia lungo la decima strada sul lato in ombra sotto gli alberi delle fitte foglie va bene signorina va bene annullate pure permettetemi di dirvi una cosa cioè di domandarvi una cosa chi le pagherà tutte quelle costose feste che Gifford sta organizzando a Londra se annullate la mia telefonata interurbana già credete che il vostro impiego sia sicuro lo credete voi sentite è meglio che parli direttamente con Gifford datemi la linea il cameriere gli ha appena versato il tè se non può parlare lo faremo sostituire da qualcun altro ma per quale ragione ho scritto tutto questo a che cosa stavo sforzandomi di non pensare il telefono meglio telefonare subito sta diventando terribile molto molto era tutto piegai in quattro i fogli e li misi nella tasca interna della giacca dietro il portafogli mi avvicinai alla porta finestra e la spalancai e uscii sulla terrazza la luce lunare era un po' offuscata ma regnava l'estate nella idle valley e l'estate non è mai offuscata rimasi lì a contemplare l'immoto lago in colore a meditare a pormi degli interrogativi poi udì uno sparo 29 sulla balconata la luce usciva ora da due porte aperte da quella di Aileen e dalla sua la stanza di Aileen era deserta in quella di Wade si udiva un rumore di lotta e io varcai la soglia con un balzo e sorpresi Aileen china sul letto alle prese con lui il nero luccichio di una rivoltella nell'aria due mani una grande mano maschile e una piccola mano di donna afferravano entrambe la rivoltella nessuna delle due per il calcio Roger sedeva sul letto e si chinava in avanti spingendo lei indossava una vestaglia di un pallido azzurro una di quelle vestaglie e trapunte e aveva i capelli sul viso e ora afferrò la rivoltella con tutte e due le mani e con uno strattone fulminio riuscì a togliergliela mi stupì che ne avesse avuto la forza per quanto Roger fosse intontito dall'alcol lui ricadde sui guanciali con uno sguardo d'ira ansimante e lei indietreggiò e venne a urtare contro di me rimase appoggiata a me premendosi con forza contro il petto la rivoltella era squassata da violenti singhiozzi allungai la mano intorno al suo corpo e la posai sulla rivoltella girò fulminia sui tacchi come se soltanto quel gesto l'avesse resa consapevole della mia presenza sbarrò gli occhi e si afflosciò contro di me e lasciò la presa sulla rivoltella era un'arma poco maneggevole pesante una webley automatica a cane interno la canna era calda teni la donna con un braccio mi visi la rivoltella in tasca e guardai roger oltre il capo di lei nessuno fiatò poi roger aprì gli occhi e atteggiò le labbra al consueto stanco sorriso nessuno è ferito mormorò non è stato che un colpo a vuoto contro il soffitto sentì aileen irrigidirsi poi ella cercò di scostarsi da me aveva lo sguardo limpido la lasciai andare roger roger disse con una voce che era poco più di un esausto bisbiglio dovevi proprio far questo lui la fissò come un gufo si lecò le labbra e non disse nulla eileen andò a appoggiarsi al tavolino da toletta mosse la mano con un gesto meccanico e si scostò i capelli dal viso rabbrividì dalla testa ai piedi e scosse il capo da un lato all'altro roger bisbigliò ancora povero roger povero miserabile roger roger fissava ora il soffitto ho avuto un incubo disse ad agio qualcuno si chinava sul letto impugnando un coltello non so chi fosse assomigliava un poco a candy ma non può essere stato candy no naturalmente no tesoro disse lei in tono carezzevole si scostò dalla toletta e si mise a sedere sul letto alzò una mano e cominciò a massaggiarsi la fronte candy è andato al letto da un pezzo e poi perché candy dovrebbe avere un coltello è un messicano hanno tutti il coltello rispose roger nello stesso tono di voce remoto e impersonale adorano i coltelli e io non gli piaccio non piacete a nessuno disse brutalmente eilin voltò rapidamente la testa vi prego vi prego non parlate così non era cosciente sognava dove si trovava la rivoltella grugnì tenendola ad occhio senza prestare la minima attenzione a roger nel comodino nel cassetto del comodino roger voltò la testa e sostenne il mio sguardo la rivoltella non era mai stata nel cassetto e lui sapeva che io lo sapevo vi erano due pillole e alcune altre cianfrusaglie ma non vi avevo veduto una rivoltella o forse sotto il cuscino soggiunse non ricordo bene ho sparato un solo colpo levò la mano con un gesto stanco come gli pesasse e additò lassù alzai gli occhi sembrava davvero che vi fosse il foro nel gesso del soffitto mi spostai in modo da poterlo vedere meglio sì il foro poteva essere stato fatto da un proiettile un proiettile partito da quell'arma avrebbe perforato il soffitto passando dall'altra parte tornai accanto al letto e mi chinai su roger fissandolo con severità storie volevate uccidervi non avete avuto alcun incubo stavate nuotando in un mare di autocompatimento la rivoltella non era nel cassetto e neppure sotto il cuscino vi siete alzato per andare a prenderla siete tornato a letto e stavate per cancellare tutto il disastro della vostra vita ma credo che non ne abbiate avuto il coraggio avete sparato un colpo in aria e vostra moglie a corsa proprio quello che volevate proprio nient'altro che pietà e compatimento amico mio proprio nient'altro persino la lotta è stata una finzione vostra moglie non sarebbe mai potuta riuscire a strapparvi la rivoltella se non aveste voluto mi sento male disse ma potreste aver ragione che cosa importa importa e come vi metterebbero in un manicomio criminale e credete a me la gente che lo amministra è comprensiva quanto un cane da guardia legato alla catena eilin balzò in piedi ora basta disse in tono aspro è malato e lo sapete benissimo vuole essere malato mi limito a ricordargli quali potrebbero essere nelle conseguenze non è questo il momento di dirglielo tornate in camera vostra gli occhi violetti lampeggiarono come osate tornate in camera vostra se non volete che chiami la polizia gli incidenti di questo genere dovrebbero essere denunciati roger riuscì a sorridere sì chiamate la polizia disse come faceste con terry lennox non gli badai continuava a osservare eilin sembrava sfinita ora fragile e bellissima l'attimo di ira lampeggiante era passato allungai la mano e le sfiorai il braccio va tutto bene dissi non ci riproverà tornate al letto gli rivolse un lungo sguardo e uscì dalla stanza quando se ne fu andata mi misi a sedere sul letto dove si era messa lei qualche altra compressa no grazie non ha importanza che dorma mi sento molto meglio ho visto giusto riguardo a quel colpo di rivoltella è stato solo una stupida messa in scena più o meno voltò la testa dall'altra parte forse stavo delirando nessuno può impedirvi di uccidervi se proprio volete farlo me ne rendo conto e ve ne rendete conto anche voi si continuava a evitare il mio sguardo avete fatto ciò che vi ho chiesto quei fogli sulla macchina da scrivere mi stupisce che ve ne ricordiate era roba pazzesca strano che fosse battuta con tanta chiarezza ci riesco sempre ubriaco o no fino a un certo punto almeno non preoccupatevi per candy vi sbagliate se credete di non piacergli e io mentivo quando ho detto che non piacete a nessuno cercavo di scuotere eilin di farla arrabbiare e perché è già svenuta una volta stanotte scosse appena il capo eilin non sviene mai allora è stata una finzione neppure queste parole gli andarono a genio a che cosa alludevate dicendo che un brav'uomo è morto per voi domandai si accigliò riflettendo sciocchezze vi ho detto che stavo sognando sto parlando delle farneticazioni che avete scritto a macchina mi fissò a questo punto voltando la testa sul cuscino come se gli pesasse enormemente un altro sogno riproviamo che cosa sa candy di voi lasciate perdere amico disse e chiuse gli occhi mi alzai e andai a chiudere la porta non si riesce a fuggire per sempre wade candy potrebbe essere un ricattatore certo facilmente e ricattarvi anche con gentilezza mostrandovi sia affezionato e al contempo spillarvi i quattrini di che cosa si tratta di una donna credete a quel matto all'oring disse tenendo gli occhi chiusi non esattamente e se fosse la sorella quella che è morta fu in un certo senso un tentativo alla cieca ma per caso colpì il segno sbarro gli occhi una bolla di saliva gli si gonfiò sulle labbra per questo siete qui domandò ad agio bisbigliando appena sapete che non è vero sono stato chiamato mi avete chiamato voi voltò la testa di qua e di là sul cuscino nonostante il seco i nervi lo divoravano aveva il volto madido di sudore non sono il primo marito innamorato ad aver commesso adulterio lasciatemi in pace maledizione a voi lasciatemi in pace andai nel bagno presi un asciugamano e gli tolsi il sudore dal volto gli sorrisi con aria beffarda ero la goccia che colma la misura aspetta che l'uomo sia sfinito poi prendilo a calci e insisti è debole non può porre resistenza né reagire uno di questi giorni scopriremo insieme la verità dissi non sono pazzo mormorò sperate di non essere pazzo questi giorni sono stati un inferno oh certo è ovvio l'interessante e sta nel sapere perché qua prendete questo tolsi un'altra compressa di seconda dal tubetto e riempì un bicchiere d'acqua si sollevò su un gomito e fece per prendere il bicchiere e lo mancò di 10 centimetri buoni glielo misi in mano riuscì a bere e inghiottire la compressa poi si ridistese e parve come gonfiarsi col volto risucchiato in ogni passione aveva il naso bianco lo si sarebbe detto un cadavere quella notte non avrebbe scaraventato nessuno giù dalle scale e probabilmente non avrebbe più fatto una cosa simile in qualsiasi altra notte quando le palpebre gli si appesantirono uscì dalla stanza la Webley mi pesava sull'anca tendendo la tasca mi diressi verso la scala per discendere la porta di Eileen era aperta l'oscurità regnava nella stanza ma la luna faceva un chiarore sufficiente per delineare la giovane donna in piedi quasi sulla soglia mi disse qualcosa che sembrava un nome ma non era il mio mi soffro mai accanto a lei parlate a bassa voce disse si era addormentato ho sempre saputo che saresti tornato mormorò lei anche dopo dieci anni la sbirciai uno di noi due era matto chiudi la porta disse nello stesso tono di voce carezzevole in tutti questi anni mi sono osservata per te mi voltai e chiusi la porta sembrò una buona idea in quel momento quando mi girai verso di lei mi stava cadendo fra le braccia e così la ferrai non avrei potuto farne a meno si strinse forte contro di me i suoi capelli mi sfiorarono nel viso alzò la bocca verso la mia per essere baciata tremava socchiuse le labbra dischiuse i denti e la lingua dardeggiò poi abbassò le mani e strappò qualcosa e la vestaglia che indossava si aprì e sotto la vestaglia era nuda come una mattinata di settembre ma maledettamente meno pudica portami sul letto bisbigliò così feci cingendola con le braccia toccai nuda pelle tenera pelle cedevo le carne la sollevai la trasportai per i pochi passi che ci separavano dal letto la misi sul letto ella continuò a cingermi il collo con le braccia dalla gola le usciva una sorta di suono sibilante poi si dimenò a gemette era disastroso mi sentivo erotico come uno stallone stavo perdendo il controllo di me stesso non accade spesso di essere invitati in quel modo da quel genere di donna fu candy a salvarmi udì un lieve cigolio e girai sui tacchi e vidi la maniglia della porta abbassarsi mi svincolai dalla stretta e balzai verso la porta la spalancai esplosi sulla balconata ed ecco il messicano che fuggiva correndo e si precipitava giù per le scale a mezza strada si fermò si voltò e mi scoccò uno sguardo di derisione poi scomparve tornai indietro fino alla porta e la chiusi questa volta dall'esterno suoni di lusinga mi giunsero dalla donna distesa sul letto ma non erano altro che questo ormai suoni di lusinga l'incantesimo era spezzato discesi rapidamente le scale ed entrai nello studio e afferrai la bottiglia di whisky scozzese portandomela alle labbra quando non riusci più a inghiottire mi addossai alla parete e anzi mai lasciando che il liquore mi bruciasse dentro e che i fumi dell'alcol mi arrivassero al cervello molto tempo era passato dopo la cena molto tempo era passato dopo la normalità il whisky mi assestò una dura rapida mazzata e io continuai a tracannarlo fino a quando la stanza non cominciò a diventare confusa e tutti i mobili non furono fuori di posto e la luce della lampada non parve un falò agitato dal vento o un lampeggiare estivo poi eccomi supino sul divano di cuoio a tentare di tenermi in equilibrio la bottiglia sul petto la bottiglia sembrava vuota rotolò e cadde con un tonfo sul pavimento fu l'ultimo particolare del quale riuscì ad accorgermi 30 un raggio di sole mi solletticò le caviglie aprì gli occhi e vidi la chioma di un albero che si muoveva ad agio contro il cielo di un azzurro grigio mi voltai sul fianco e il cuoio mi toccò le guance sembrava che una scure mi stesse spaccando la testa mi misi a sedere avevo addosso una coperta la scostai e posai piedi per terra guardai l'orologio aggrottando le sopracciglia l'orologio segnava le 6 e 29 mi alzai e ci volle molta determinazione ci volle forza di volontà ci vollerò quasi tutte le mie energie e non poter risparmiare molte come mi riusciva di farne un tempo gli anni duri e faticosi mi avevano sfiancato mi precipitai nello stanzino del lavabo mi strappai di dosso la cravatta e la camicia mi spruzzai in faccia acqua gelata con tutte e due le mani e mi bagnai la testa quando fui completamente bagnato mi asciugai strofinandomi con selvaggia energia mi rimisi camicia e cravatta e afferrai la giacca e la rivoltella che si trovava nella tasca picchiò contro la parete la presi estrasse il caricatore e mi fece cadere le cartucce nel palmo della mano 5 cariche l'ultima null'altro che un bossolo vuoto poi pensai che era un'operazione inutile poiché se ne trovavano sempre delle altre rimisi a posto il caricatore portai l'arma nello studio e la lasciai in uno dei cassetti della scrivania quando alzai gli occhi candy era sulla soglia perfettamente in ordine con la giacca bianca con i neri lucidi capelli ben ravvivati con gli occhi cattivi volete una tezza di caffè grazie ho spento la luce il padrone sta benissimo dorme ho chiuso la porta della sua stanza perché vi siete ubriacato non ho potuto farne a meno mi fissò con aria scaltra non siete riuscito a convincerla vi ha buttato fuori dalla porta investigatore da strapazzo pensate a quello che vi pare non siete in gamba stamane investigatore da strapazzo non siete in gamba per niente portate quel dannato caffè gli urlai hico della puta con un balzo lo guantai per il braccio non si mosse si limitò a guardarmi con disprezzo risi e lo lasciai andare si voltò e uscì in men che non si dica era di ritorno con un vassoio d'argento sul quale si trovava una piccola caffettiera d'argento zucchero panna e un tovagliolino triangolare posò il tovagliolino sul tavolino e tolse la bottiglia ai bicchieri raccattando poi un'altra bottiglia dal pavimento frischissimo appena fatto disse e uscì bevvi due tazze di caffè provai quindi a fumare una sigaretta andava a meraviglia appartenevo ancora alla razza umana poi ecco candy di ritorno nella stanza desiderate fare colazione? domandò in tono cupo no grazie benissimo allora filate non vi vogliamo tra i piedi noi chi? alzò il coperchio di un portasigarette e ne prese una l'accese e mi soffiò in faccia il fumo con insolenza al padrone ci penso io disse lo fate pagare? si accigliò poi annui oh sì molto denaro e quanto disonestamente per non rivelare quello che sapete tornò allo spagnolo non è intendido capite benissimo per quanto lo ricattate scommetto che non si tratta di più di un paio di metri che cosa significa un paio di metri? duecento dollari sogginò datemeli voi duecento dollari investigatore da strapazzo e in questo caso non dirò al padrone che siete uscito dalla stanza di sua moglie stanotte con duecento dollari si comprerebbe un intero carico di delinquenti come voi fece una scrollata di spalle il padrone diventa molto violento quando va in bestia meglio pagare investigatore da strapazzo elemosine da miserabili messicani disse in tono sprezzante vi accontentate sempre di quattro soldi molti uomini scherzano quando sono provocati e in ogni modo lui sa tutto non avete niente da vendere un bagliore gli accese lo sguardo non fatevi più vedere in questa casa capito? me ne vado mi alzai e girai intorno al tavolo si mosse quanto bastava per restare sempre voltato verso di me gli tenni d'occhio la mano ma evidentemente quel mattino non aveva il coltello quando fui abbastanza vicino lo schiaffeggiai non mi lascio chiamare figlio di puttana della servitù palla di grasso ho un compito da svolgere qui e tornerò in questa casa ogni volta che ne avrò voglia d'ora in avanti badate a come parlate potrei colpirvi col calcio della rivoltella e allora il vostro bel volto non avrebbe mai più lo stesso aspetto non reagì affatto neppure allo schiaffo il ceffone e l'appellativo palla di grasso dovevano essere per lui insulti mortali ma questa volta rimase dove si trovava con un volto di pietra immobile poi senza pronunciar parola prese il vassoio del caffè e lo portò via ah grazie del caffè gli dissi mentre mi voltava le spalle continuò a camminare quando se ne fu andato tastai gli ispi di peli della barba che avevo sul mento e decisi di tagliare la corda ne avevo avuto abbastanza della famiglia Wade mentre attraversavo la stanza di soggiorno ecco Eileen di scendere le scale in pantaloni bianchi camicetta di seta di un celeste pallido e sandali aperti mi fissò con vivo stupore non sapevo che foste qui signor Marlow disse come se non mi vedesse da una settimana e fossi arrivato appena in quel momento per il tè ho messo la rivoltella in un cassetto della scrivania dissi la rivoltella poi parve che cominciassi a capire oh questa notte è stata un po' movimentata davvero credevo però che ve ne foste andato mi avvicinai aveva al collo una catenina d'oro con un medaglione d'oro smaltato in azzurro e in bianco la parte azzurra sembrava un paio d'ali non aperte sullo sfondo di smalto bianco spiccava poi una spada in oro che perforava una pergamena non riuscì a distinguere le parole doveva essere una sorta di emblema militare mi sono ubriacato dissi deliberatamente e senza stile mi sentivo un po' solo avreste potuto farne a meno disse e i suoi occhi erano limpidi come acqua non vera in essi la minima traccia di malizia ognuno pensa a modo suo risposi ora me ne vado e non so se tornerò avete udito ciò che ho detto a proposito della rivoltella l'avete messa nella sua scrivania potrebbe essere una buona idea nasconderla in qualche altro posto ma non intendeva uccidersi sul serio vero? non saprei la prossima volta però potrebbe fare sul serio scossa il capo non credo proprio no il vostro aiuto mi è stato prezioso stanotte signor Marlow non so come ringraziarvi avete fatto un buon tentativo arrossì appena poi rise ho fatto un sogno stranissimo disse ad agio fissando un punto remoto al di sopra della mia spalla qualcuno che conoscevo si trovava qui in casa un uomo che è morto da dieci anni alzò la mano e toccò il medaglione d'oro smaltato per questo portò oggi il medaglione me lo diede lui io pure ho fatto un sogno disse ma non ve lo racconterò fatemi sapere come si comporta Roger e se posso fare qualcosa abbassò gli occhi e mi fissò avete detto che non sareste tornato ho detto che non ero certo può darsi che debba tornare spero di no accade qualcosa di molto sospetto in questa casa e solo in parte è dovuto alle bottiglie mi scrutò accigliandosi che cosa intendete dire credo che lo sappiate parve riflettere profondamente continuava a sfiorare il medaglione con le dita poi si lasciò sfuggire un lungo paziente sospiro c'è sempre un'altra donna disse con pacatezza prima o poi non è necessariamente fatale stiamo parlando partendo da due punti di vista opposti vero forse non parliamo neppure della stessa cosa potrebbe darsi disse era sempre in piedi sulla scala sul terzo gradino cominciando dal fondo sempre sfiorava con le dita il medaglione e sempre era bella come un sogno meraviglioso soprattutto se pensate che l'altra donna sia Linda Loring lasciò cadere la mano dal medaglione e scese di un altro gradino il dottor Loring sembra essere d'accordo con me disse in tono indifferente deve pur essere stato informato da qualcuno diceste che ha recitato la stessa scena con una buona metà degli uomini della valle davvero beh era la sola cosa che potessi dire in quel momento discese un altro scalino non mi sono sbarbato osservai queste parole la colsero di sorpresa poi rise oh non mi aspettavo che mi faceste la corte che cosa vi aspettavate da me in realtà signora Wade all'inizio quando mi persuadeste la prima volta a iniziare delle ricerche perché sceglieste proprio me che cosa posso offrirvi dimostraste di saper essere fedele disse con pacatezza in un momento in cui non poteva essere facile vi ringrazio ma non credo che sia stata questa la ragione discese l'ultimo scalino e dovette alzare gli occhi verso di me quale fu allora la ragione o se lo fu fu pessima la peggiore ragione del mondo si accigliò appena perché perché ciò che feci dimostrando di saper essere fedele è una cosa che neppure gli sciocchi ripetono due volte sapete disse con fatuità la nostra comincia a essere una conversazione molto enigmatica siete voi una donna molto enigmatica signora Wade arrivederci e buona fortuna e se davvero Roger vi sta a cuore sarà bene che gli troviate un medico che faccia il caso suo e subito rise di nuovo oh quella di stanotte è stata una crisi molto leggera dovreste vederlo quando gli attacchi sono gravi oggi pomeriggio sarà in piedi e si rimetterà al lavoro neanche per sogno credetemi sarà così lo conosco benissimo l'ultima frecciata gliela scoccai nel cuore e fu crudele in realtà non volete salvarlo non è così volete solo far credere che state cercando di salvarlo questa rispose con determinazione è stata una frase infelice e bestiale mi passò accanto varcò la soglia della sala da pranzo e la grande stanza rimase vuota e io mi diressi verso la porta e uscì era una splendida mattinata estiva in quella valle luminosa e appartata troppo lontana dalla grande città perché il cielo potesse essere oscurato dal fumo è tagliata fuori dall'umidità dell'oceano grazie alle colline di lì a poco avrebbe cominciato a fare caldo ma con raffinatezza ed eleganza la calura non sarebbe stata brutale come quella del deserto non sarebbe stata vischiosa e soffocante come quella della città Idle Valley era un luogo perfetto in cui vivere perfetto bella gente con belle dimore con automobili di lusso cani di lusso forse anche figli di lusso ma tutto ciò che un uomo a nome Marlow poteva desiderare non vi esisteva 31 tornai a casa feci la doccia mi sbarbai mi cambiai e cominciai a risentirmi pulito preparai qualcosa da mettere sotto i denti mangiai lavai i piatti scopai la cucina e il terrazzino caricai la pipa e avverti il centralino telefonico di passarmi le eventuali comunicazioni che giungessero in ufficio perché andare al lavoro non avrei trovato null'altro nel mio studio che una nuova falena morta e un nuovo strato di polvere nella cassaforte c'era il ritratto di Madison avrei potuto andare a giocherellare con quello e con le 5 nuovissime banconote da 100 dollari che ancora sapevano di caffè avrei potuto ma non ne avevo voglia qualcosa dentro di me se era come inacidito in realtà quel denaro non mi apparteneva che cosa avrebbe dovuto ricompensare fino a qual punto la lealtà può giovare a un morto storie stavo contemplando la vita attraverso le melanconiche brume delle conseguenze di una sbornia era una di quelle mattinate che sembrano destinate a essere eterne mi sentivo depresso stanco e ottuso e i minuti che passavano parevano cadere nel vuoto con un tenue come razzi spenti gli uccelli cinguettavano nei cespugli fuori e le automobili andavano e venivano senza posa nella Laurel Canyon Boulevard normalmente non le avrei neppure udite ma ero triste irritabile abbattuto e ipersensibile decisi di scacciare le conseguenze della sbornia di solito non bevo nulla in mattinata il clima della California meridionale è troppo mite non ci si metabolizza abbastanza rapidamente tuttavia questa volta feci un'eccezione preparai un cocktail mi allungai sulla poltrona con il colletto della camicia sbottonato e sfogliai una rivista leggendo la pazzesca storia di un tale che viveva una doppia vita e consultava due psichiatri uno dei quali umano e l'altro una sorta di insetto in un alveare l'uomo seguitava a passare dall'uno all'altro e la vicenda era scema quanto mai ma in un certo senso divertente mandavo giù il cocktail con cautela un sorso alla volta sorvegliando me stesso era a quasi mezzogiorno quando il telefono squillò e una voce disse parla Linda Loring ho telefonato al vostro ufficio e il centralino mi ha detto di provare a casa vostra vorrei vedervi perché? preferirei spiegarvelo personalmente andrete in ufficio di quando in quando presumo già di quando in quando c'è qualcosa da guadagnare non avevo pensato alla cosa da questo punto di vista ma non ho nulla in contrario se desiderate essere ricompensato potrei trovarmi nel vostro ufficio tra circa un'ora magnifico che cosa vi succede? domandò in tono aspro gli strascichi di una sbornia ma non sono paralizzato verrò a meno che non preferiate venire qui mi sarebbe più comodo trovarvi in ufficio è un bel posticino questo in fondo a un vicolo nessun vicino l'allusione non mi attrae se vi ho ben capito nessuno mi capisce signora Loring sono enigmatico sta bene cercherò di venire nella gabbia mille grazie e riattaccò tardai un poco ad arrivare in ufficio poiché mi fermai per la strada a mangiare un panino arieggiai la stanza feci scattare l'interruttore dell'avvisatore automatico feci capolino nell'anticamera ed eccola già lì seduta sulla stessa sedia che aveva occupato Mandy Menendez e intenta sfogliare con ogni probabilità la stessa rivista indossava quel giorno un abito di gabardin color miele ed era molto elegante posò la rivista mi rivolse un'occhiata seria e disse quella felce ha bisogno di essere annaffiata credo anche che abbia bisogno di essere trapiantata in un vaso più grande ha troppe radici teni la porta aperta per lasciarla passare all'inferno la felce quando fu entrata ed ebbi lasciato che la porta si chiudesse accostai la sedia dei clienti e lei esaminò l'ufficio con il consueto sguardo scrutatore girai intorno alla scrivania il vostro studio non si può certo definire maestoso osservò non avete neppure una segretaria è un'esistenza assordida ma ci sono abituato direi che non deve essere neppure molto redditizia soggiunse oh non saprei dipende volete vedere un ritratto di madison un che cosa un biglietto di banca da 5.000 dollari il compenso di un cliente l'ho messo in casaforte mi alzai mi avvicinai alla cassaforte manovrai il piccolo volante della serratura e spalancai lo sportello e aprì con la chiave il cassetto interno tolsi la banconota dalla busta e la lasciai cadere di fronte a lei la fissò quasi attonita non lasciatevi ingannare dall'ufficio dissi ho lavorato per un tale una volta che possiede una ventina di milioni di dollari persino vostro padre gli farebbe tanto di cappello bene questo tale non aveva un ufficio migliore del mio a parte l'isolamento acustico sul soffitto il pavimento era di linole un marrone e senza tappeto prese il ritratto di madison se lo rigirò fra le dita e lo rimise sulla scrivania lo avete avuto da terry vero perbacco sapete proprio tutto voi signora loring scostò il biglietto di banca accigliandosi ne aveva uno lo portava sempre con sé da quando lui e silvia si erano sposati diceva che era una riserva di emergenza non è stato trovato sul suo cadavere per questo potrebbero esserci altre spiegazioni lo so ma quante persone hanno in tasca una banconota da 5.000 dollari e quanti di coloro che potrebbero permettersi di darvi tanto denaro ve lo darebbero in questa forma non valeva la pena di rispondere mi limitai ad annuire linda loring continuò in tono brusco e che cosa avreste dovuto fare in cambio di questa somma signor marlow vorreste dirmelo nel corso di quell'ultimo viaggio fino a tijuana terry ebbe tutto il tempo di parlare l'altra sera avete asserito con mezzi termini di non credere alla sua confessione vi diede forse un elenco degli amanti di sua moglie in modo che poteste individuare tra loro l'assassino non risposi neppure a questa domanda ma per ragioni diverse e questo elenco comprendeva per caso anche il nome di Roger Wade domandò con voce aspra se non è stato terri a uccidere sua moglie l'assassino dovrebbe essere un individuo fuori di sé solo un uomo di questo genere avrebbe potuto per servirsi della vostra frase repellente ridurle la testa a una spugna insanguinata è questa la ragione per cui vi dimostrate così servizievole con Wade comportandovi come una vera e propria governante che si precipita a curarlo quando è ubriaco a cercarlo quando si smarrisce a riportarlo in casa quando non si regge in piedi permettetemi di chiarirvi le idee su uno o due punti signora Loring terri può avermi o non avermi dato questo splendido esemplare dell'arte dell'incisione ma non mi ha dato alcuna lista ne ha fatto alcun nome nulla mi ha chiesto di fare se non quello che sembrate sapere con certezza cioè di portarlo a Tijuana i miei rapporti con i Wade sono opera di un editore di New York il quale desidera disperatamente che Roger Wade finisca un romanzo e ciò richiede che si accerti anzitutto se esistono particolari preoccupazioni tali da indurre Roger a ubriacarsi qualora esistano e si riesca a individuarle il passo successivo da compiere consisterebbe nel fare un tentativo per eliminarle dico un tentativo perché con ogni probabilità non sarebbe possibile comunque si potrebbe sempre provare potrei dirvi con una sola e semplice frase la ragione per cui si ubriaca rispose Linda in tono sprezzante si tratta di quella bionda anemica e vistosa che ha sposato oh non saprei dissi io non la definirei anemica davvero interessantissimo le balenarono gli occhi presi fra le dita il ritratto di Madison non arzigogolate troppo su ciò che ho detto signora Loring non vado a letto con quella donna spiacente di dovervi deludere mi avvicinai alla cassaforte e rimisi il denaro nel cassetto interno chiusi lo sportello e feci scattare la serratura ripensandoci ella disse mentre le voltavo le spalle dubito molto che qualcuno vada a letto con lei tornai indietro e mi misi a sedere su un angolo della scrivania state diventando volgare signora Loring perché avete una predilezione per il nostro amico alcolizzato oddio questo genere di insinuazioni disse come se volesse mordermi le odio suppongo che la stupida scenata di mio marito vi abbia fatto credere di avere il diritto di insultarmi no non ho alcuna predilezione per Roger Wade non l'ho mai avuta neppure quando non beveva e si comportava in modo corretto tanto meno ce l'ho adesso dopo che è diventato quello che è mi lasciai cadere sulla sedia presi la scatola dei fiammiferi e fissai Linda ella guardò l'orologio che aveva al polso voi ricchi siete davvero straordinari dissi credete che tutto quanto vi salta in mente di dire per quanto perfido sia perfettamente ammissibile pronunciate giudizi offensivi su Wade e su sua moglie con un uomo che quasi non conoscete ma se cerco di ripagarvi sia pure per misura minima allora ecco che vi sentite insultata sta bene lasciamo perdere tutti gli ubriachi finiscono col corteggiare le civette Wade è alcolizzato ma voi siete una donna seria si tratta solo di una casuale spiritosa osservazione fatta da vostro marito tanto per ravvivare l'atmosfera di un ricevimento non parlava sul serio si limitava a scherzare di conseguenza vi escludiamo e ci mettiamo in cerca di un'altra donna dovremo cercarla molto lontano signora Loring per trovare una che vi stia tanto a cuore da trascinarvi qui a scambiare stoccate con me deve trattarsi di una persona del tutto particolare non vi sembra altrimenti perché dovrebbe importarvene servo un assoluto silenzio limitandosi a fissarmi un lungo mezzo minuto trascorse si era sbiancata agli angoli della bocca e teneva le mani rigide sulla borsetta di gabardine della stessa stoffa del vestito non si può dire davvero che abbiate perduto tempo no? mormorò infine quanto è stato opportuno che quell'editore abbia pensato di assumervi sicché Terry non vi fece nomi neppure uno ma questo non ebbe alcuna importanza non è vero signor Marlow d'esteprova di un istinto infallibile posso domandarvi che cosa vi proponete di fare adesso? nulla ma come? quale sciupio di talento? e in che modo potrete conciliare questo atteggiamento con i vostri obblighi nei confronti del ritratto di Madison? senza dubbio dovete poter fare qualcosa resti fra noi due dissi ma state diventando piuttosto maldestra dunque Wade conosceva vostra sorella grazie per avermelo detto sia pure indirettamente lo avevo già intuito e con questo non è che un esemplare di quella che sembra essere una collezione molto ricca ma lasciamo perdere e torniamo piuttosto alla ragione per cui avete voluto parlarmi mescolando le carte l'avevamo in un certo qual modo perduta di vista non vi pare si alzò una volta di più diede un'occhiata all'orologio ho giù la macchina potrei convincervi ad accompagnarmi a casa a bere una tazza di tè continuate dissi sentiamo il resto vi insospettisco davvero tanto ho un ospite che desidererebbe conoscervi il vecchio non lo chiamo in questo modo disse senza scaldarsi mi alzai e mi appoggiò alla scrivania mia cara siede spaventosamente carina in certi momenti sul serio non avete nulla in contrario se prendo la rivoltella senza dubbio non avrete paura di un vecchio e fece una smorffietta con il labbro perché no scommetto che voi lo temete e molto sospirò sì temo di averne paura ho sempre avuto paura di lui può essere spaventoso forse farei meglio a portarne due rivoltelle dissi e subito me ne pentì 32 era la casa più strana che avessi mai veduto uno scatolone quadrato grigio alto tre piani con un tetto a manzarda molto inclinato interrotto da 20 o 30 abbaini intorno e in mezzo ai quali si trovavano innumerevoli decorazioni da torta anunziale ai due lati dell'ingresso vi erano doppie colonne di pietra ma l'elemento più bislacco della costruzione era una scala chiocciola esterna della ringhiera in pietra sormontata da una torretta che doveva consentire di contemplare il lago in tutta la sua lunghezza il cortile in cui venivano parcheggiate le automobili era lastricato in pietra quello che sembrava realmente mancare alla casa era un viale d'accesso lungo circa un chilometro con un duplice filare di pioppi e un parco con i cervi e un giardino all'inglese e una terrazza a tre ripiani e alcune centinaia di rose rampicanti intorno alle finestre della biblioteca e un'ampia verde visuale da ogni finestra che si confondesse con boschi e il silenzio e un isolamento tranquillo in realtà la dimora era circondata da un muro di pietra grigia intorno a 10 o 15 acri di terreno che nel nostro piccolo e gremito paese costituiscono un'estensione notevole lungo il viale di accesso si allineavano cipressi ben potati vi erano qua e là gruppi di alberi ornamentali di ogni genere e non sembravano della California piante importate chi aveva costruito quella dimora si era sforzato di trascinare il litorale atlantico sulle rocciose aveva fatto del suo meglio senza tuttavia riuscirvi Amos l'autista negro di mezza età fermò dolcemente la Cadillac di fronte alle colonne dell'ingresso balzò fuori e girò intorno alla macchina per aprire lo sportello alla signora Loring scesi per primo e lo aiutai a tenere lo sportello poi aiutai lei a scendere quasi non mi aveva rivolto la parola da quando eravamo saliti sulla macchina sotto casa mia sembrava stanca e nervosa forse quel pazzesco ammasso architettonico la deprimeva sarebbe riuscito a deprimere un asino e a farlo tubare come una colomba in lutto chi ha costruito questa casa? domandai e con chi ce l'aveva a morte finalmente sorrise non l'avevate mai vista? non mi ero mai spinto così oltre nella valle mi condusse dall'altro lato del viale e indicò qualcosa in alto l'uomo che la costruì si gettò giù da quella torretta e cadde pressappoco dove vi trovate voi in questo momento era un conte francese a nome Latourel e all'opposto di quasi tutti i conti francesi possedeva molto denaro sua moglie era Ramona Addisburg che dal canto suo non poteva certo considerarsi in miseria ai tempi del cinema muto guadagnava 3000 dollari per settimana Latourel fece costruire questa casa per abitarvi dovrebbe essere una copia in miniatura del castello di Blois lo conoscerete naturalmente come il palmo della mia mano ho risposi ora ricordo ne parlarono le prime pagine dei giornali a un certo momento lei lo abbandonò e lui si uccise vi fu anche uno strano testamento non è vero? Annui lasciò alla moglie qualche milione di dollari per le piccole spese e vincolò tutto il resto del patrimonio la proprietà doveva essere conservata esattamente come era nulla poteva essere mutato la tavola doveva essere apparecchiata ogni sera con grande sfarzo e a nessuno doveva essere consentito entrare eccenzione fatta per la servitù e gli avvocati il testamento venne impugnato naturalmente con l'andare del tempo la proprietà fu in parte frazionata e quando sposai il dottor Loring mio padre mi regalò la casa come d'oro di nozze i soli lavori di riattamento per renderla abitabile devono essergli costati una fortuna la odio l'ho sempre odiata non sarete obbligata ad abitare qui no alzò le spalle con aria stanca per una parte del tempo almeno una delle sue figlie deve pur dargli prova di qualche fermezza di carattere a mio marito la casa piace è logico chiunque sia capace di fare una scenata come quella che fece lui in casa dei Wade dovrebbe portare le ghette con il pigiama inarcole sopracciglia grazie per tutto questo interessamento signor Marlow ma ritengo che abbiamo ormai parlato abbastanza dell'argomento vogliamo entrare a mio padre non piace che lo si faccia aspettare riattraversammo il viale salimmo i gradini di pietra un battente della grande portone si aprì senza rumore e un tipo di cameriere molto suo e molto snob si fece da parte per lasciarci passare l'ingresso era più vasto di tutta la casa in cui abitavo io il pavimento era mosaico e sembrava che sulla parete di fondo vi fossero finestre con vetrate a colori se avessero lasciato passare un po' di luce sarei riuscito a vedere che altro vera nella stanza dall'ingresso passammo per un'altra porta scolpita doppio battente in un salone fiocamente illuminato la cui lunghezza non poteva essere inferiore a una ventina di metri un uomo sedeva lì in attesa silenzioso ci fissò con uno sguardo gelido ho tardato babbo si affrettò a domandare la signora loring ti presento il signor philip marlowe mio padre harlan potter l'uomo si limitò a guardarmi ad abbassare il mento di circa un centimetro suona per il tè disse accomodatevi signor marlowe mi misi a sedere e lo guardai lui mi guardò come un etomologo che osservi uno scarafaggio nessuno aprì bocca regnò un assoluto silenzio fino a quando il tè non venne servito l'enorme vassoio d'argento fu posto su un tavolino cinese l'inda sedette accanto al tavolino per versare il tè due tazze disse harlan potter tu puoi prenderlo in un'altra stanza l'inda si babbo come lo desiderate signor marlowe in qualunque modo va bene dissi la mia voce parveccheggiare lontano e suonò fioca e sperduta ella diede una tazza al vecchio poi ne diede una a me e infine si alzò silenziosa e uscì dalla stanza la seguì in con lo sguardo bevi un sorso di tè e tolsi una sigaretta dal pacchetto non fumate per favore vado soggetto ad attacchi d'asma rimisi la sigaretta nel pacchetto e fissai il vecchio signore non so che cosa si provi a possedere un centinaio di milioni di dollari ma non aveva l'aria di divertirsi era un uomo enorme alto un metro e ottanta e proporzionalmente massiccio indossava un vestito grigio di lana senza imbottiture le sue spalle non ne avevano bisogno portava una camicia bianca una cravatta scura e non aveva il fazzoletto nel taschino dal taschino della giacca sporgeva l'astuccio degli occhiali di cuoio nero come le scarpe anche i capelli di Arlan Potter erano neri senza la minima traccia di grigio disposti di traverso sulla testa alla maniera di MacArthur sospettai che sotto quei capelli non vi fosse che un lucido cranio aveva folte e nere sopracciglia la sua voce sembrava venire da molto lontano sorseggiò il tè come se lo odiasse risparmieremo tempo signor Marlow se vi esporrò con chiarezza quello che penso ritengo che vi stiate intromettendo nei miei affari e se non mi inganno mi propongo di impedirvelo non conosco a sufficienza i vostri affari per potermi intromettere in essi signor Potter non sono d'accordo beve ancora un po' di tè e posò la tazza si appoggiò allo schienale dell'ampia poltrona sulla quale sedeva e mi vivisezionò con quei suoi duri occhi grigi so chi siete naturalmente e come vi guadagnate da vivere ammesso che ci riusciate e in qual modo faceste la conoscenza di Terry Lennox mi è stato detto che aiutaste Terry a lasciare gli Stati Uniti che nutrite dubbi sulla sua colpevolezza e che vi siete posto in contatto con un uomo conosciuto dalla mia defunta figliola non mi è stato detto però per quale scopo lo avete fatto spiegatemelo se quest'uomo ha un nome risposi ditemi come si chiama atteggiò le labbra un lieve sorriso ma non come se provasse della simpatia nei miei riguardi Wade Roger Wade è una specie di scrittore credo l'autore mi dicono di libri piuttosto spinti che non mi sono mai preso la briga di leggere mi risulta inoltre che questo signore è un alcolizzato pericoloso ciò può avervi suggerito una strana convinzione sarà forse bene che mi consentiate di avere delle convinzioni mie signor Potter non sono importanti naturalmente ma non possiedo altro in primo luogo non credo che Terry Lennox abbia ucciso sua moglie per il modo in cui è stata assassinata e perché non ritengo che fosse capace di una cosa simile e in secondo luogo non mi sono affatto posto in contatto con Wade mi è stato chiesto di andare ad abitare in casa sua e di fare il possibile per impedirgli di ubriacarsi finché non avesse terminato il romanzo che sta scrivendo in terzo luogo non ho avuto prove che sia un ubriaco pericoloso in quarto luogo mi misi per la prima volta in contatto con lui su richiesta di un editore di New York e allora non avevo neppure la più vaga idea del fatto che Roger Wade conoscesse vostra figlia in quinto luogo rifiutai la proposta e allora la signora Wade mi pregò di rintracciare il marito che si era allontanato da casa per andare a curarsi in qualche luogo lo ritrovai e lo riportai a casa molto metodico fece lui asciutto non ho ancora finito di essere metodico signor Potter e in sesto luogo siamo arrivati al punto sesto se non sbaglio voi o un vostro intermediario incaricaste un avvocato a nome Sewell Handicott di farmi uscire di prigione non mi disse chi lo aveva mandato ma nessun altro poteva interessarsi di me in settimo luogo quando uscì di prigione un gangster un certo Mandy Menendez mi minacciò ammonendomi di non ficcare il naso in faccende che non mi riguardavano e mi raccontò una lacrimevole storia sul modo con il quale Terry aveva salvato la vita a lui e al proprietario di una casa da giuogo a Las Vegas un certo Randy Star la storia potrebbe anche essere vera per quanto ne so io Menendez si finse addolorato per il fatto che Terry non si era rivolto a lui affinché lo aiutasse a rifugiarsi nel Messico e aveva preferito ricorrere a un fallito come me per bacco Menendez ci sarebbe riuscito con un cenno del dito mignolo e molto meglio di me non penserete certo disse Arlan Potter con un freddo sorriso che il signor Menendez e il signor Star facciano parte delle mie conoscenze non saprei signor Potter non si può accumulare un patrimonio come il vostro con sistemi dei quali riesco a rendermi conto la seconda persona che mi ammonì di disinteressarmi della cosa fu vostra figlia la signora Loring ci incontramo per caso in un bar e conversammo perché stavamo entrambi bevendo un succhielli il cocktail preferito di Terry ma poco conosciuto in questa città non sapevo chi fosse finché non me lo disse le comunicai in parte quello che pensavo sul conto di Terry e lei mi avvertì che avrei avuto una carriera breve e infelice se vi avessi mandato in bestia siete arrabbiato signor Potter quando andrò in bestia rispose gelido non avrete bisogno di domandarmelo per saperlo non nutrirete al riguardo la minima incertezza è quello che pensavo in un certo senso mi aspettavo di vedermi piombare addosso la squadra delle guardie del corpo ma fino a questo momento non si sono fatte vive neppure poliziotti mi hanno dato noia avrei potuto passare un brutto quarto d'ora credo che voi vogliate soltanto la tranquillità signor Potter che cosa ho fatto con esattezza che potesse infastidirvi sorrise in modo piuttosto acido ma era pur sempre un sorriso intrecciole lunghe gialle dita e accavallò le gambe e si appoggiò comodamente allo schienale un abile discorsetto signor Marlow e io vi ho lasciato parlare ora ascoltate me avete perfettamente ragione ritenendo che io desideri soltanto la tranquillità è possibilissimo che i vostri rapporti con i Wade siano stati fortuiti incidentali determinati da una coincidenza ammettiamolo pure io sono un uomo patriarcale in un'epoca in cui l'istituto della famiglia è stato quasi completamente esautorato una delle mie figlie ha sposato uno snob di Boston e l'altra ha fatto una serie di assurdi matrimoni l'ultimo dei quali con uno squattrinato compiacente che le consentì di condurre un'esistenza dissoluta e immorale finché improvvisamente e senza alcuna buona ragione perdette la testa e l'assassinò a voi sembra impossibile potervi credere a causa della brutalità con cui fu commesso il delitto vi ingannate Terry la uccise con una Mauser automatica la stessa rivoltella che aveva con sé nel Messico e dopo averla colpita fece quello che fece per nascondere il foro della rivoltella ammetto la brutalità del gesto ma vi rammento che l'uomo aveva combattuto in guerra era rimasto gravemente ferito aveva molto sofferto e veduto gli altri soffrire può non aver avuto l'intenzione di ucciderla può esservi stata una specie di lotta dato che l'arma apparteneva a mia figlia era una rivoltella piccola ma potente calibro 7.65 un modello chiamato PPK la pallottola attraversò completamente la testa e andò a conficcarsi nella parete dietro una tenda non venne trovata immediatamente il particolare non fu divulgato alla stampa riflettiamo ora sulla situazione si interruppe e mi fissò non potete proprio fare a meno di fumare quella sigaretta oh scusate signor Potter l'ho presa senza neppure accorgermene è la forza dell'abitudine per la seconda volta rimisi la sigaretta nel pacchetto Terry aveva appena ucciso sua moglie i momenti del delitto erano più che sufficienti secondo il punto di vista piuttosto limitato della polizia ma Terry poteva anche difendersi in modo eccellente affermando che l'arma apparteneva a sua moglie che lui aveva cercato di togliergliela senza riuscirvi e che era stata Silvia a far partire il colpo uccidendosi un abile avvocato avrebbe ottenuto molto basandosi su tali elementi probabilmente Terry sarebbe stato prosciolto se si fosse rivolto a me in questo caso l'avrei aiutato ma tramutando l'omicidio in un gesto folle e brutale per distruggere le tracce del proiettile rese la cosa impossibile doveva fuggire ma neppure in questo si dimostrò abile certo signor Potter tuttavia prima vi telefonò a Pasadena non è vero me lo disse lui stesso il grande uomo a Noé gli dissi di scomparire gli dissi che nonostante tutto avrei cercato di fare il possibile per aiutarlo ma non volli sapere dove si trovasse ciò era indispensabile non potevo nascondere un criminale sembra convincente signor Potter c'è una spunta di sarcasmo nelle vostre parole o mi sbaglio non importa quando venni a conoscenza dei particolari non c'era nulla da fare non potevo consentire il processo cui avrebbe dato luogo quel genere di omicidio a essere sincero fui molto lieto quando appresi che Terry si era ucciso nel Messico lasciando una confessione scritta me ne rendo ben conto signor Potter aggrottò le sopracciglia fissandomi vadate giovanotto l'ironia non mi garba capite ora che non posso tollerare alcun'altra indagine di qualsiasi genere da parte di chi che sia e capite per quale ragione mi sono avvalso di tutta la mia influenza per abbreviare il più possibile le indagini della polizia e per fare in modo che la stampa se ne occupasse il meno possibile certo se siete convinto che Terry l'abbia uccisa naturale che lo uccise quali siano state le intenzioni è un argomento a parte e ormai questo non ha più alcuna importanza non sono un uomo conosciuto in pubblico e non intendo esserlo mi sono sempre sobbarcato gravi sacrifici pur di evitare ogni genere di pubblicità godo di una certa influenza ma non ne abuso il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles è un uomo ambizioso e ha troppo buonsenso per compromettere la sua carriera in cambio di una notorietà momentanea vedo un bagliore nei vostri occhi Marlow fatene pure a meno il nostro ordinamento politico viene definito democratico e dovrebbe dipendere dalla maggioranza un ideale magnifico se si potesse applicarlo il popolo elegge i candidati ma sono gli apparati dei partiti che li nominano e per essere efficienti gli apparati dei partiti devono spendere somme enormi di denaro qualcuno deve pur versare tali somme e questo qualcuno si tratti di individui di gruppi finanziari di organizzazioni sindacali o di quello che preferite pretende in cambio una certa considerazione io e le persone come me pretendiamo di poter vivere in un decente isolamento sono il proprietario di parecchi giornali ma non mi piacciono le considero una costante minaccia a quel po' di indipendenza che ci è rimasta le loro incessanti vociferazioni sulla libertà di stampa significano tranne poche onorevoli eccezioni la libertà di speculare sui delitti sul sesso sul sensazionale sull'odio sulla diffamazione la libertà di fare propaganda a scopi politici e finanziari un giornale è un'impresa finanziaria che si propone di guadagnare denaro mediante il reddito agli annunci pubblicitari ciò dipende dalla tiratura e voi sapete bene da che cosa dipenda a sua volta la tiratura mi alzai e girai intorno alla sedia mi fissò con gelida attenzione mi rimisi a sedere avevo bisogno di fortuna diavolo se ne avevo bisogno a vagoni sta bene signor potter e con questo non mi stava ascoltando accigliato era immerso nelle sue riflessioni il denaro ha una sua particolare caratteristica continuò in quantità enormi tende ad avere una vita propria addirittura una propria coscienza e diviene molto difficile tenere sotto controllo la potenza della ricchezza l'uomo è sempre stato un animale venale l'aumento delle popolazioni l'enorme costo delle guerre la pressione incessante di una fiscalità esosa tutto ciò contribuisce a rendere l'uomo sempre più venale l'uomo medio è stanco e spaventato e un individuo stanco e spaventato non può permettersi il lusso di avere ideali deve procurare il cibo alla propria famiglia nei nostri tempi abbiamo assistito a un declino spaventoso della moralità sia di quella pubblica sia di quella privata non si possono pretendere buone qualità da persone le cui esistenze sono soggette a una carenza di valori morali non si può ottenere l'alta qualità con la produzione in serie e non la si desidera neppure perché dura troppo a lungo e di conseguenza viene sostituita con la cosiddetta stilizzazione che è una truffa commerciale intesa a ottenere un artificioso superamento dei prodotti la produzione in serie non riuscirebbe a piazzare i prodotti l'anno prossimo se non facesse in modo che quelli piazzati attualmente sembrino fuori moda e superati di qui a un anno abbiamo le più candide cucine le più smaglianti stanze da bagno del mondo ma nella bella e bianca cucina la media massa e americana non riesce a preparare un pasto mangiabile e la meravigliosa e smagliante stanza da bagno è più che altro un ricettacolo di deodoranti di lassativi di sonniferi e dei prodotti di quella truffa in grande stile che ha nome industria dei cosmetici produciamo le più belle confezioni del mondo signor Marlow ma le merci che contengono sono per la massima parte robaccia di scarto si tolse di tasca un grande fazzoletto bianco e si asciugò le tempie sedevo di fronte a lui con la bocca aperta domandandomi quali fossero gli scopi di quell'uomo non vera cosa che non odiasse fa un po' troppo caldo per me da queste parti disse sono abituato a un clima più mite comincio a esprimermi come un articolo di fondo il cui autore abbia dimenticato la tesi che si proponeva di dimostrare vi ho capito benissimo signor potter non vi piace il modo in cui vanno le cose nel mondo e di conseguenza vi avvalete di tutto il vostro potere per isolarvi in un angolino privato nel quale condurre un'esistenza il più somigliante possibile a quella degli uomini di 50 anni fa prima dell'era della produzione in serie possedete 100 milioni di dollari ma non vi hanno procurato altro che fastidi tese il fazzoletto tenendolo per i due angoli opposti poi lo appollottolò e se lo ficcò in tasca e allora si limitò a domandare e allora niente non c'è altro da dire a voi non importa di sapere chi abbia assassinato vostra figlia signor potter da un pezzo l'avete cancellata dalla vostra vita come un affare fallito anche se non fu Terry Lennox a ucciderla e se il vero assassino è ancora uccell di bosco voi ve ne infischiate non vorreste che venisse arrestato perché ciò farebbe scoppiare una seconda volta lo scandalo e vi sarebbe un processo e il suo avvocato difensore ridurrebbe in briciole il vostro isolamento e farebbe di voi un uomo in vista come l'Empire State Building a meno naturalmente che l'assassino non fosse così servizievole da togliersi la vita prima del processo preferibilmente a Tahiti o nel Guatemala o nel bel mezzo del deserto del Sahara e in qualsiasi luogo dove la contea si guarderebbe bene dall'inviare qualcuno ad accertare che cosa sia successo a un tratto sorrise e fu un largo sorriso con una ragionevole dose di cordialità che cosa volete da me Marlow? se intendete dire quanto denaro nulla non sono venuto qui di mia iniziativa mi ci hanno accompagnato ho detto la verità su come conobbi Roger Wade ma Roger conosceva vostra figlia e ha un passato di violenze anche se io non ho potuto constatare nulla del genere l'altra notte ha tentato di uccidersi è un uomo perseguitato assellato da un massiccio complesso di colpa se per caso dovessi andare in cerca di un individuo fortemente sospetto farebbe al caso mio mi rendo conto che è soltanto uno dei tanti ma per caso è il solo che abbia conosciuto il signor Potter si alzò e in piedi era davvero imponente e anche minaccioso mi si avvicinò e si piantò dinanzi a me un colpo di telefono Marlow basterebbe a togliervi la licenza non venite a ferri corti con me non potrei tollerarlo due colpi di telefono e mi sveglierei con la faccia nel rigagnolo e la nuca sfondata fece una rauca risata non agisco con questi sistemi presumo che nel vostro strano mestiere sia per voi naturale di pensarlo ma vi ho già concesso troppo tempo vi farò accompagnare dal maggiordomo non è necessario dissi alzandomi a mia volta sono venuto qui e mi avete avvertito grazie per il tempo perduto mi tese la mano grazie per essere venuto credo che siate siete un uomo retto ma non fate l'eroe giovanotto non ci si ricava nulla gli strinsi la mano la sua stretta era formidabile come quella di una chiave inglese mi sorrise ora con benevolenza era il signor grand'uomo il vittorioso aveva sistemato ogni cosa uno di questi giorni potrei farvi combinare qualche affare disse e non andatevene convinto che io compri gli uomini politici o la polizia non è necessario arrivederci signor Marlow e grazie ancora per essere venuto rimase in piedi e mi seguì con lo sguardo mentre uscivo stavo già per aprire la porta di casa quando Linda Loring emerse della penombra ebbene mi domandò in tono sommesso com'è andata col babbo benissimo mi ha spiegato la civiltà come la vede lui si capisce le consentirà di sopravvivere ancora per qualche tempo ma farà bene a essere cauta e a non interferire nella sua vita privata se lo facesse lui telefonerebbe a Dio e cancellerebbe l'ordinazione siete un caso disperato disse io ho un caso disperato signora date un'occhiata al vostro vecchio e in confronto a lui sono neonato dagli occhi cerulei con un assonaglietto nuovo di zecca uscì e Amos era lì in attesa con la Cadillac mi riaccompagnò a Hollywood gli offrì un dollaro ma non volle accettarlo gli offrì di acquistargli le poesie di T.S. Eliot disse che le aveva già 33 passò una settimana e non ricevetti notizie dai Wade il tempo era caldo e umido e l'acido odore della nebbia fumosa si spingeva tanto a ovest da raggiungere Beverly Hills dalla sommità di Mulloland Drive si poteva vedere il fumo livellato su intera città simile alla bruna mattutina che gravava sul terreno quando ti avvolgeva potevi gustarlo e odorarlo e ti bruciavano gli occhi tutti se ne lamentavano a Pasadena dove si erano rifugiati i milionari vecchio stampo dopo essere stati defraudati di Beverly Hills dalla turbe del cinematografo i cittadini più eminenti strillavano di rabbia tutto era colpa della famosa nebbia se il canarino non cantava se il lattaio arrivava in ritardo se il cane pechinese aveva le pulci se un vecchio scemo incolletto inamidato veniva colpito da un attacco cardia andando in chiesa la responsabile era la nebbia dove abitavo io l'atmosfera era di solito limpida al mattino presto e quasi sempre durante la notte di quando in quando il cielo restava sgompro per un'intera giornata e nessuno sapeva il perché Roger Wade mi telefonò in uno di questi giorni un giovedì come state? parla Wade sembrava in forma bene e voi? non sono ubriaco temo mi sto sottomettendo un duro sforzo dovremmo fare quattro chiacchiere e credo di dovervi del denaro niente affatto bene che ne direste di venire a pranzo da noi oggi? potreste essere qui verso luna? credo di sì Candy ci sta? Candy? parve interdetto quella notte doveva essere stato quasi completamente incosciente oh vi aiutò a portarmi a letto l'altra volta già è un ometto servizievole quando vuole e la signora Wade? sta bene anche lei è andata in città a far compere riattaccammo e io mi allungai e mi dondolai sulla sedia avrei dovuto domandargli come andava il libro forse si dovrebbe sempre domandare a uno scrittore come va il libro e forse gli scrittori sono maledettamente stanchi di questa domanda di lì a poco ricevetti un'altra telefonata una voce sconosciuta parla Roy Ashtefeld George Peters mi ha detto di telefonarvi Marlow oh sì grazie siete quel tale che conobbe Terry Lennox a New York si faceva chiamare Marston allora esatto era sempre sbronzo ma si trattava senza dubbio dello stesso individuo non sarebbe stato possibile sbagliarsi in questa città l'ho visto una sera da Cisen con la moglie io mi trovavo lì con un cliente e il cliente li conosceva devo però di non potervi rivelare il nome di questa persona me ne rendo conto e ormai non ha più molta importanza presumo sapete quale fosse allora il nome di Lennox oltre al cognome lasciatemi riflettere un momento oh oh sì Paul Paul Marston e c'è un altro particolare se può interessarvi portava un distintivo dell'esercito inglese capisco e dove andò a finire non lo so venne nell'ovest quando lo rividi si trovava anche lui in questa città sposato con la figlia di Arlan Potter ma questo lo sapete meglio di me sono morti tutti e due grazie in ogni modo di avervelo detto di niente lieto di potervi essere utile ci capite qualcosa un bel nulla risposi e menti non gli chiesi mai di parlarmi della sua vita mi disse una volta di essere stato allevato in un orfanotrofio non è possibile che vi sbagliate con quei capelli bianchi e quelle cicatrici in faccia fratello neppure per sogno non arriverò a dire che non dimentico mai un volto ma nel suo caso sarebbe impossibile lui vi vide se mi vide non lo lasciò capire è logico del resto tenuto conto delle circostanze e d'altra parte potevano ricordarsi di me come vi ho già detto era quasi sempre ubriaco fradicio a New York lo ringraziai ancora dissi che era stato un piacere e riattaccai riflettei per qualche minuto il frastuono del traffico nel viale faceva una sorta di accompagnamento ben poco musicale ai miei pensieri era troppo forte nella fosa calura estiva tutto è troppo forte mi alzai chiusi la finestra e telefonai al sergente Green della squadra omicidi fu così cortese da trovarsi in ufficio sentite dissi dopo i soliti preamboli ho saputo qualcosa sul conto di Terry Lennox che mi lascia interdetto un tale che conosco lo incontrò a New York e Terry si faceva allora chiamare con un altro nome avete controllato il suo passato militare i tipi come voi non imparano mai la lezione disse Green in tono aspro non imparate mai a tenere la vostra mano camminando per la strada il caso è chiuso sigillato appesantito con del piombo e sprofondato nell'oceano capito? ho trascorso una parte del pomeriggio con Arlan Potter la settimana passata in casa di sua figlia a Idol Valley volete controllare? e che cosa ci avreste fatto? domandò acido sopponendo che vi creda abbiamo parlato della faccenda sono stato invitato mi ha in simpatia fra parentesi mi ha detto che sua figlia è stata uccisa con una Mauser calibro 7,65 modello PPK vi riesce nuovo? continuate la rivoltella apparteneva a lei amico fa una certa differenza forse ma non fraintendetemi non sto cercando di far luce negli angolini bui è una questione personale dove rimase ferito? Green tacque sentì una porta chiudersi poi e gli disse a bassa voce probabilmente in una rissa a coltellate a sud del confine al diavolo Green avevate le sue impronte digitali sono state spedite a Washington come sempre avete come sempre ricevuto un rapporto non vi ho chiesto altro che qualche notizia sul suo passato militare chi ha detto che ne abbia uno? bene Mandy Menendez tanto per cominciare sembra che Lennox gli abbia salvato la vita a un certo momento proprio per questo rimase ferito fu fatto prigioniero dai tedeschi i quali gli fecero la faccia come l'aveva Menendez eh? e credete a quel figlio di puttana? allora siete proprio picchiato Lennox non aveva alcun passato militare non è risultato nulla del genere sotto alcun nome soddisfatto? se lo dite voi risposi ma non capisco per quale ragione Menendez avrebbe dovuto prendersi la briga di venire nel mio ufficio a rivelarmi un indizio e ad ammonirmi di non ficcare il naso in faccende che non mi riguardavano solo perché Lennox era un amico suo ed il rendi star a Las Vegas e loro non volevano che qualcuno facesse il curioso in fin dei conti Lennox era già morto chi può mai sapere che cosa passa per la testa di un gangster? disse Green amareggiato o perché? forse Lennox era in società con loro prima di sposare tutto quel denaro e di diventare rispettabile per qualche tempo fu direttore di sala nel locale di Star a Las Vegas conobbe la donna era proprio lì un sorriso un inchino e una giacca da sera tenere allegri i clienti e tenere d'occhio i giocatori credo che fosse tagliato per quel vestiere aveva del fascino dissi nella polizia non sanno che farsene molto obbligato sergente come sta il capitano Gregorius ha rassegnato le dimissioni non li legge i giornali la cronaca nera no sergente è troppo sordida feci per saludarlo ma mi interruppe che cosa voleva da voi il signor quattrini abbiamo bevuto insieme una tazza di tè una visita di cortesia disse che avrebbe potuto farmi combinare qualche affare inoltre lasciò capire fu solo un'allusione indiretta che se un poliziotto avesse fatto il prepotente con me si sarebbe trovato di fronte a uno squallido destino non dirige il dipartimento della polizia osservò Green lo ammette senz'altro non compra neppure gli uomini politici o i procuratori distrettuali dice sono loro che vanno a rannicchiarglisi in grembo quando fa un pisolino andate all'inferno disse Green e troccò la conversazione non è facile fare il poliziotto non si sa mai a chi si può pestare i piedi senza conseguenze 34 e il tratto dirottabile mal pavimentata dall'autostrada alla curva della collina danzava nella calura di mezzogiorno e i cespugli che punteggiavano i margini della strada erano ormai cosparsi di bianca farinosa polvere di granito l'odore dell'erba era quasi nauseante spirava una brezza sottile ardente acre mi ero tolto il cappello e avevo le maniche della camicia rimboccate ma lo sportello bruciava troppo per potervi appoggiare il braccio un cavallo impastoiato dormicchiava esausto sotto un gruppo di querce un bruno messicano se ne stava accosciato a terra e mangiucchiava qualcosa che aveva in un giornale un fiore piumato rotolò pigro sulla strada andò andò ad appoggiarsi a uno spuntone di granito e la lucertola che si era trovata in quello stesso posto un attimo prima scomparve come d'incanto quasi senza essersi mossa poi eccomi intorno alla collina sulla sommità bruna dell'altura e in un mondo diverso cinque minuti dopo svoltavo nel viale d'accesso della villa dei Wade parcheggiavo la macchina percorrevo il sentiero lastricato e premevo il pulsante del campanello fu Wade a venirmi ad aprire con una camicia marrone a scacchi bianchi dalle maniche corte con un paio di pantaloni di tela azzurra e le pantofole era abbronzato e sembrava che stesse bene aveva una macchia d'inchiostro sulle dita e un po' di cenere di sigaretta su un lato del naso mi condusse nello studio e parcheggiò se stesso dietro la scrivania sulla scrivania vi era una grossa pila di foglie gialli scritti a macchina misi la giacca su una sedia e mi lasciai cadere sul divano grazie di essere venuto marlow bevete qualcosa assunzi quell'espressione che è inevitabile allorché un alcolizzato vi invita a bere me ne accorsi e lui sorrise io prenderò una coca cola disse siete molto intuitivo osservai non credo di avere voglia di bere per il momento prenderò anch'io una coca cola premette qualcosa col piede e dopo alcuni minuti candy entrò nella stanza sembrava di cattivo umore indossava una camicia azzurra con una sciarpa arancione e non portava la giacca bianca scarpe bianche e nere eleganti pantaloni di gabardine Wade ordinò le bibite candy mi scoccò un'occhiata cattiva e uscì il romanzo dissi additando la pila di fogli sì è una porcheria non lo credo a che punto siete a circa due terzi del cammino per quello che vale e cioè maledettamente poco sapete come fa uno scrittore a rendersi conto di essere finito non so niente in fatto di scrittori caricai la pipa lo sa quando comincia a leggere le sue opere precedenti in cerca di ispirazione queste sono 500 cartelle battute a macchina più di 100.000 parole i miei romanzi sono lunghi al pubblico piacciono i libri lunghi i dannati e stupidi lettori credono che quando le pagine sono molte debbano contenere molto oro io non oso neppure leggerle e non riesco a ricordare la metà di ciò che ho scritto mi sento terrorizzato alla sola idea di rivedere il mio lavoro comunque a guardarvi si direbbe che stiate benissimo osservai dopo l'altra notte non lo avrei mai creduto siete più forti di quanto non pensiate in questo momento non ho bisogno di qualcosa di più della pura energia fisica mi occorre qualcosa che non si ottiene solo perché lo si desidera la fiducia in me stesso sono uno scrittore viziato che non crede più in nulla ho una bella casa una bella moglie i miei libri vanno a ruba ma in realtà non desidero altro che di ubriacarmi e dimenticare appoggiò il mento sulle mani a coppa e fissò il vuoto dall'altra parte della scrivania Eilin ha detto che ho tentato di uccidermi sono arrivato davvero a questo punto non ve ne ricordate scosse la testa non ricordo niente di niente eccettuato il fatto che caddi e mi feci un taglio in testa e che dopo qualche tempo mi trovai a letto e che voi eravate qui fu Eilin a chiamarvi sì non ve l'ha detto non mi ha parlato molto in questa settimana credo che ne abbia avuto abbastanza fin qui si portò la mano al collo di taglio subito sotto il mento la scenata di Loring non ha certo contribuito a chiarire l'atmosfera vostra moglie disse che non aveva alcuna importanza beh non avrebbe potuto dire altro vi pare per caso è proprio la verità ma non credo che fosse convinta di quanto ha affermato quel tipo è anormalmente geloso basta bere una o due volte con sua moglie in un angolo e ridere un poco e darle la buonanotte con un bacio Loring presume subito che si sia andati a letto con Linda fra l'altro perché lui non ci va ai del Valle mi piace dissi perché tutti vi conducono un'esistenza tranquilla e normale si accigliò e poi la porta si aprì e Candy entrò con la bottiglia dell'aperitivo e i bicchieri e li riempì ne posò uno di fronte a me senza guardarmi pranziamo tra mezz'ora disse Wade e dov'è la giacca bianca? oggi è il mio giorno di libertà rispose Candy con un volto completamente inespressivo non sono la cuoca padrone ci accontenteremo di carne fredda o di panini e di una bottiglia di birra disse Wade la cuoca oggi non presta servizio Candy ho un amico a pranzo lo credete vostro amico? domandò Candy in tono beffardo meglio domandarlo a vostra moglie Wade si appoggiò allo schienale della poltrona e gli sorrise badate a come parlate ometto qui avete trovato il paese di Ben Godi non vi chiedo spesso un favore vero? Candy chino gli occhi sul pavimento dopo un attimo alzò la testa e sorrise benissimo padrone mi metterò la giacca bianca e preparerò il pranzo credo si voltò silenzioso e uscì Wade aspettò che avesse chiuso la porta poi si strinse nelle spalle e mi guardò un tempo li chiamavamo servi ora li chiamiamo domestici mi domando quanto tempo dovrà passare prima che saremo costretti a servir loro la colazione a letto lo pago troppo profumatamente quell'uomo è viziato alludete allo stipendio o a compensi meno leciti quali per esempio domandò in tono aspro mi alzai e gli porsi alcuni foglie gialli piegati in quattro fareste bene a leggerli evidentemente non ricordate che mi pregaste di strapparli erano sulla macchina da scrivere sotto la custodia spiegò le gialle pagine e si appoggiò allo schienale per leggerle l'acqua di Sels dell'aperitivo crepitava dimenticata sulla scrivania dinanzi a lui lesse ad agio accigliandosi quando ebbe finito ripiegò i fogli e fece scorrere un dito lungo l'orlo elin li ha letti domandò in tono irriflessivo non saprei potrebbe darsi la pagina è abbastanza pazzesca è vero mi sono piaciute specie la parte in cui si parla di un bravo uomo che è morto per voi di nuovo spiegò i fogli li lacerò con ira in lunghe strisce e gettò i pezzi di carta nel cestino un ubriaco può scrivere o dire o fare qualunque cosa presumo disse ad agio per me sono farneticazioni prive di senso candy non mi sta ricattando mi è affezionato forse fareste meglio a ubriacarvi ancora una volta potreste ricordare quello che non volevate dire potreste ricordare un'infinità di cose ne abbiamo già parlato la notte in cui partì il colpo di rivoltella suppongo che anche il secona la abbia contribuito a farvi perdere la memoria sembrate abbastanza lucido ma ora pretendete di non ricordare di aver scritto i fogli che vi ho appena dato non c'è da meravigliarsi se non riuscite a completare il romanzo Wade è un miracolo che riusciate a vivere si chinò da un lato e aprì un cassetto della scrivania vi frugò dentro con la mano e ne tolse un libretto di assegni lo aprì e prese la penna vi devo mille dollari disse in tono pacato riempì un assegno poi la madre dell'assegno strappò il foglietto girò intorno alla scrivania e lo lasciò cadere dinanzi a me va bene mi appoggiai allo schienale e alzai gli occhi su di lui e non toccai l'assegno né gli risposi aveva il volto tirato e pallido gli occhi erano infossati e vacui credete immagino che io l'abbia ammazzata e abbia lasciato incolpare l'ennox disse ad agio era una sgualdrina d'accordo ma non si fracassa la testa di una donna solo perché è una sgualdrina Candy sa che a volte sono state con lei il lato divertente della cosa è questo sono convinto che non parlerebbe potrò sbagliarmi ma non lo credo anche se lo facesse non avrebbe importanza dissi gli amici di Arlan Potter non gli darebbero retta e inoltre Silvia non fu uccisa con quella statuetta di bronzo fu uccisa con un proiettile della sua stessa rivoltella che le perforò il cranio sì forse aveva una rivoltella disse in tono quasi sognante ma non sapevo che qualcuno le avesse sparato i giornali non l'hanno pubblicato non lo sapevate o non ve ne ricordavate gli domandai no il particolare non è stato reso noto che cosa state cercando di farmi Marlow parlava ancora con una voce sognante quasi tenera che cosa volete che faccia devo dirlo a mia moglie alla polizia a che gioverebbe avete scritto che un bravo uomo è morto per voi intendevo dire semplicemente che se vi fosse stata una vera inchiesta avrebbero potuto individuarmi come uno ma uno solo dei possibili sospetti questo mi avrebbe rovinato in vari modi non sono venuto qui ad accusarvi di assassini o Wade vi tormentate perché non siete sicuro di voi stesso avete tutto un passato di violenze contro vostra moglie quando siete ubriaco non sapete quel che vi fate e non vi giova dire a voi stesso che non si fracasse il cranio di una donna solo perché è una sgualdrina è proprio ciò che qualcuno ha fatto e a me sembrava che l'uomo accusato del delitto fosse molto meno sospettabile di voi si avvicinò alla porta finestra che era spalancata e rimase lì a contemplare la calura che baluginava sul lago non mi rispose non si era ancora mosso ne mi aveva risposto due minuti dopo quando si udì bussare ad agio alla porta e Candy entrò con un tavolino a rotelle coperto da una candida tovaglia sul quale aveva disposto piatti protetti da coperchi d'argento una caffettiera e due bottiglie di birra apro le bottiglie di birra padrone domandò a Wade che gli voltava le spalle voglio una bottiglia di whisky Wade non si voltò spiacente padrone non abbiamo whisky Wade girò sui tacchi e sbraitò ma Candy non cedette abbassò gli occhi sull'assegno posato sul tavolo e piegò la testa da un lato mentre lo leggeva poi mi fissò e sibilò qualcosa tra i denti infine guardò Wade ora me ne vado è il mio giorno di libertà voltò le spalle e uscì Wade rise allora andrò a prendermelo io esclamò andandosene a sua volta alzai uno dei coperchi il piatto conteneva alcuni panini preparati con cura ne presi uno e versai un po' di birra e mangiai il panino stando in piedi Wade rientrò nella stanza con una bottiglia e un bicchiere si misi a sedere sul divano versò una buona dose di whisky e la mandò giù si udì il rumore di un'automobile che si allontanava dalla casa probabilmente Candy che andava in città passando per il cancello di servizio presi un secondo panino accomodatevi e fate come se foste a casa vostra disse Wade dobbiamo ammazzare tutto il pomeriggio già aveva negli occhi una strana luce la sua voce era vibrante e allegra non vi sono simpatico vero Marlow mi avete già posto questa domanda e vi ho già risposto sapete una cosa siete uno spietato figlio di puttana fareste di tutto pur di scoprire quello che volete sapere andaste persino a letto con mia moglie mentre ero ubriaco e impotente nella stanza vicina credete a tutto ciò che viene a dirvi di quel lanciatore di coltelli versò dell'altro whisky nel bicchiere e tenne il bicchiere contro luce no non proprio a tutto ha un bel colore di whisky vero a negare in un diluvio d'oro non è poi così male perire a mezzanotte senza soffrire che cosa ve ne pare oh scusate non potete saperlo è troppo letterario siete una specie di poliziotto vero vi spiacerebbe dirmi perché vi trovate in questa casa beve ancora un po' di whisky e mi sorrise poi notò l'assegno sul tavolino lo prese e lo lesse al di sopra del bicchiere sembra che sia a nome di un certo Marlow perché mi domando per quale ragione a quanto pare l'ho firmato che sciocchezza da parte mia mi lascio infinocchiare facilmente alzò gli occhi compito mia moglie tornerà a casa a suo tempo senza dubbio sarò ormai sbronzo e potrà divertirvi come più vi piacerà la casa sarà tutta per voi dove la rivoltella gli domandai a un tratto non capì gli dissi che l'avevo messa nella scrivania ora non c'è ne sono sicuro rispose potete pure accertarvene se vi fa piacere ma non rubatemi gli elastici mi avvicinai alla scrivania e frugai nei cassetti niente rivoltella era già qualcosa probabilmente Eileen l'aveva nascosta sentite Wade vi ho domandato dove è vostra moglie credo che dovrebbe tornare a casa non nel mio interesse amico ma nel vostro qualcuno deve pur sorvegliarvi è che possa andare all'inferno se quello sarò io mi fissò vagamente aveva ancora in mano l'assegno posò il bicchiere e strappò l'assegno ancora e ancora e lasciò cadere i pezzetti di carta sul pavimento evidentemente la somma era troppo modesta disse i vostri servigi sono molto salati persino mille dollari e mia moglie non vi soddisfano è un vero peccato ma non posso fare di più tranne che con questo accarezzò la bottiglia me ne vado dissi ma perché volevate che ricordassi bene qui in questa bottiglia sono i miei ricordi non andatevene amico quando la mente mi si sarà schiarita abbastanza vi parlerò di tutte le donne che ho assassinato d'accordo Wade rimango ancora un po' ma non qui dentro se avrete bisogno di me fracassate una sedia contro il muro usci e lasciai la porta aperta attraversai la vasta stanza di soggiorno e andai nel patio portai una delle sedie all'ombra dello sbalzo e mi ci allungai dall'altra parte del lago vi era una nebbiolina azzurra contro le alture la brezza oceanica aveva cominciato a filtrare attraverso i bassi monti a ovest ripuliva l'aria e scacciava quel tanto necessario di calore l'estate a idle valley era perfetta qualcuno aveva fatto in modo che così fosse società anonima paradiso e anche ambiente sceltissimo solo la gente migliore assolutamente nessun individuo dell'europa centrale solo la crema i privilegiati la bella gente come loring come Wade oro puro 35 rimasi lì per una mezz'ora cercando di decidere che cosa avrei fatto una parte di me desiderava lasciare che si ubriacasse e stare a vedere che cosa sarebbe saltato fuori non pensavo che potesse accadergli qualcosa di grave nel suo studio in casa sua non era escluso che cadesse una seconda volta ma ci sarebbe voluto ancora molto tempo resisteva bene all'alcol e in qualche modo gli ubriachi non si fanno mai molto male poteva darsi che venisse di nuovo dominato dal complesso di colpa ma più probabilmente questa volta non avrebbe fatto altro che addormentarsi l'altra parte di me voleva andarsene e disinteressarsi della faccenda ma era questa la parte alla quale non davo mai retta poiché se l'avessi ascoltata stare rimasto nella mia città natale e avrei lavorato nel negozio di ferramenta e sposato la figlia del padrone avrei avuto cinque figli avrei letto loro i giornaletti la domenica mattina prendendoli a sberle quando avessero disubbidito litigando con la moglie sulla sommetta sedimanale da dare a ciascuno di loro per i divertimenti e sui programmi della televisione ai quali potevano assistere forse avrei anche conquistato la ricchezza la ricchezza delle piccole cittadine di provincia una casa di otto stanze e due automobili nel garage pollo tutte le domeniche selezione sul tavolino del salotto la moglie con la permanente e io con un cervello tipo sacco di cemento sceglietelo voi questo genere di vita amici io preferisco la grande sordida sporca corrotta metropoli mi alzai e tornai nello studio lo trovai seduto allo stesso posto con lo sguardo perduto nel vuoto con la bottiglia di whisky a metà vuota col volto atteggiato a uno stanco cipiglio e una luce smorta negli occhi mi fissò come un cavallo che si sporga oltre lo steccato che cosa volete niente vi sentite bene non seccatemi io ho un ometto sulla spalla che mi racconta storielle presi un altro panino sul carrello e un altro bicchiere di birra masticai il panino e bevi la birra appoggiandomi alla scrivania sapete una cosa domandò un tratto e la sua voce parve di colpo molto più chiara una volta avevo un segretario ero solito dettare lo licenziai mi infastidiva vedermelo seduto lì davanti ad aspettare che creassi fu uno sbaglio avrei dovuto ottenerlo chissà forse sarebbe corsa la voce che ero un omosessuale gli intelligentoni che recensiscono i libri perché non sanno scrivere altro l'avrebbero saputo e si sarebbero affrettati a coprirmi di lodi sono tutti invertiti sapete tutti quanti dal primo all'ultimo l'invertito è l'arbitro artistico della nostra era amico mio l'omosessuale è il privilegiato davvero ma è sempre stato tra i piedi no non mi guardava pensava solo a parlare ma udì ugualmente ciò che dissi certo da migliaia di anni e soprattutto nei periodi in cui fiorì l'arte ad atene a roma nel rinascimento nell'era elisabettiana durante il movimento romantico in francia tutti questi periodi ne furono pieni zeppi c'erano omosessuali dappertutto avete mai letto il ramo d'oro no è troppo lungo per voi avreste però potuto leggere l'edizione compendiata dovreste leggerla anzi dimostra che le nostre abitudini sessuali sono semplici convenzioni come il portare la cravatta nera con l'abito da sera in quanto a me sono uno scrittore erotico ma affettato e manierato alzò gli occhi su di me e soghignò volete sapere una cosa sono un bugiardo i miei eroi sono alti un metro e ottanta e le mie eroine hanno i calli sulle natiche a furia di giacere sul letto con le ginocchia flesse pizzi e trine spade cocchi eleganze ozzi duelli e morti eroiche tutte balle quella gente adoperava il profumo invece del sapone aveva i denti marci perché non si lo puliva mai e le unghie che puzzavano di grasso rancido la nobiltà francese orinava contro le pareti nei corridoi di marmo di Versailles e quando infine riuscivate a togliere una serie di sottovesti alla squisita marchesa la prima cosa di cui vi accorgevate era che aveva bisogno di fare il bagno dovrei scrivere cose di questo genere beh perché non lo fate ridacchiò già e vivrei in una casa di cinque stanze a Compton se fossi fortunato si chinò e accarezzò la bottiglia di whisky sei sola amica mia hai bisogno di un compagno si alzò e uscì dallo studio camminando con passo abbastanza fermo aspettai senza pensare a niente un motoscafo si avvicinò rombando sul lago quando apparve notai che procedeva con la prua alta sull'acqua e rimorchiava uno sci d'acqua sul quale si teneva in equilibrio un giovanotto robusto cotto dal sole mi avvicinai alla porta finestra e guardai il motoscafo tracciare una curva sull'acqua era troppo veloce per poco non si rovesciò il giovane sullo sci d'acqua danzò su un piede solo tentando di mantenere l'equilibrio poi fu proiettato nel lago il motoscafo rallentò e si fermò e l'uomo in acqua lo raggiunse battendo un pigro crawl poi tornò indietro lungo il cavo di rimorchio e voltandosi nell'acqua si distese sullo sci Wade rientrò nello studio con un'altra bottiglia di whisky il motoscafo riprese velocità e scomparve in lontananza Wade posò una nuova bottiglia sul pavimento accanto alla prima si mise a sedere e parve meditare con un'espressione cupa cristo non vorrete bere tutto quel liquore spero mi fissò strabuzzando gli occhi filate rompiscatole tornatevene a casa e lavate il pavimento della cucina o qualcosa del genere mi togliete la visuale di nuovo aveva la lingua impastata come era solito fare e aveva mandato giù un paio di bicchierini in cucina se mi volete fatemi un fischio non potrò mai abbassarmi al punto da desiderare la vostra presenza già grazie rimarrò qui in giro fino a quando la signora Wade non sarà tornata a casa avete mai sentito parlare di un tale a nome Paul Marston alzò ad agio la testa mesi a fuoco lo sguardo ma con difficoltà vidi che compiva uno sforzo enorme per controllarsi ci riuscì per il momento e il suo volto divenne inespressivo mai sentito nominare disse scandendo le parole parlando molto ad agio chi è? quando tornai a dargli un'occhiata era addormentato con la bocca aperta con i capelli madidi di sudore e puzzava di whisky le labbra erano ritratte sui denti come in una smorfia incontrollata e la superficie patinata della lingua sembrava secca una delle bottiglie di whisky era vuota il bicchiere sul tavolo conteneva tre o quattro dita di whisky e l'altra bottiglia era piena per tre quarti misi quella vuota sul carrello e lo spinsi fuori dalla stanza poi tornai indietro per chiudere le porte finestre e voltare le stecche delle persiane il motoscafo poteva ripassare e destarlo chiusi anche la porta dello studio portai il carrello in cucina un ambiente dipinto in bianco e in celeste spazioso arioso e deserto avevo ancora appetito mangiai un altro panino e bevi quel che restava della birra poi mi versai una tazza di caffè e mandai giù anche quello la birra era tiepida ma il caffè ancora bollente e infine tornai nel patio passò molto tempo prima che il motoscafo tornasse lacerando l'acqua nel lago erano quasi le 4 quando ne udì il rombo lontano gonfiarsi e tramutarsi in un urlo lacerante dovrebbe esserci una legge contro certi rumori probabilmente c'era ma il tipo sul motoscafo se ne infischiava si divertiva a rendersi insopportabile come altre persone delle quali stavo facendo la conoscenza discesi fino alla sponda del lago ci riuscì questa volta il pilota diminui la velocità in misura sufficiente alla curva e il giovane abbronzato sullo sci d'acqua si piegò quanto bastava per vincere la forza centrifuga lo sci era quasi completamente fuori dall'acqua ma un orlo della tavola vi restò appoggiato e poi il motoscafo ricominciò a filare in linea retta e il giovanotto era ancora sullo sci e il motoscafo si allontanò nella direzione da cui era venuto e lo spettacolo ebbe termine le onde alzate dalla veloce imbarcazione vennero alla carica contro la sponda del lago ai miei piedi schiaffeggiarono con violenza i piloni del corto pontile e fecero altalenare su e giù la barca all'ormeggio ancora la stavano sbalestrando di qua e di là quando mi voltai per rientrare in casa mentre salivo sul patio sentì un campanello tintinnare nella direzione della cucina quando suonò ancora mi dissi che poteva essere soltanto quello della porta di casa e andai ad aprire eileen wade era lì in piedi e guardava la strada nel voltarsi disse mi dispiace ho dimenticato la chiave poi mi vide oh credevo di parlare con roger o con candy candy non è in casa è giovedì oggi entrò e io chiusi la porta posò la borsetta sul tavolino tra i due divani sembrava fredda e anche remota si sfilò i guanti bianchi di pelle di cinghiale qualcosa non va beh ha bevuto un poco non eccessivamente si è addormentato sul divano nello studio vi ha telefonato sì ma non per questo mi ha invitato a pranzo temo però che lui non abbia pranzato oh sedette ad agio su uno dei divani sapete avevo completamente dimenticato che fosse giovedì anche la cuoca non è in casa che sciocca candy ci ha preparato il pranzo prima di andarsene credo che taglierò la corda adesso spero che la mia macchina non vi abbia ostacolato nell'entrare sorrise no c'era spazio in abbondanza non gradite una tazza di tè vado a prepararlo sta bene non so perché accettai non desideravo affatto una tazza di tè risposi così ecco tutto lei si tolse la giacca di lino non portava il cappello scusatemi solo un momento vado a vedere se Roger sta bene la seguì con lo sguardo mentre si avvicinava alla porta dello studio e l'apriva rimase un momento sulla soglia poi chiuse la porta e tornò indietro dormi ancora molto profondamente devo salire un momento di sopra scenderò subito la guardai mentre prendeva la giacca i guanti la borsetta mentre saliva le scale ed entrava in camera sua la porta si chiuse mi avvicinai allo studio con l'intenzione di togliere la bottiglia di whisky se dormiva ancora non ne avrebbe avuto bisogno 36 dopo che avevo chiuso le porte finestre la stanza era diventata afosa dalle persiane non penetrava che una luce fioca l'aria era impregnata di un odore acre il silenzio mi parve eccessivo il divano non distava più di 5 metri dalla porta e mi bastò superare meno della metà della stanza per rendermi conto che sul divano giaceva un cadavere era coricato sul fianco con il volto verso la spalliera con un braccio ripiegato sotto di sé e l'avambraccio dell'altro poggiato quasi sugli occhi fra il petto di lui e la spalliera del divano vi era una pozza di sangue e in quella pozza si trovava la rivoltella Weebly un lato della faccia di Roger era una maschera insanguinata mi chinai su di lui scrutando l'occhio spalancato il braccio nudo e bianco sotto il quale scorsi il foro frastagliato e annerito nella testa il sangue gocciolava ancora lo lasciai come si trovava aveva il polso ancora caldo ma non vi era dubbio che fosse morto mi guardai intorno in cerca di un biglietto di un appunto non vi era nulla tranne la pila di fogli sulla scrivania i tipi come lui non lasciano addi la macchina da scrivere era scoperta ma non conteneva alcun foglio per il resto tutto sembrava abbastanza naturale i suicidi si preparano al gran passo in ogni genere di modi i taluni bevono il cuore altri prendendo parte a complicati banchetti annaffiati con champagne alcuni investito da sera altri nudi la gente si è cisa in cima a un muro nei canali nelle stanze da bagno nell'acqua sull'acqua sott'acqua si è impiccata nei granai si è asfissiata nelle autorimesse questo suicidio sembrava semplice non avevo udito lo sparo ma il colpo doveva essere partito mentre mi trovavo sulla sponda del lago e osservavo le evoluzioni del motoscafo vi era stato un gran frastuono perché poi Roger Wade si fosse preoccupato di scegliere proprio quel momento non lo sapevo forse non lo aveva neppure scelto l'impulso finale aveva coinciso con l'arrivo del motoscafo la cosa non mi andava genio ma nessuno si curava di quel che andava genio a me i pezzetti di carta dell'assegno erano ancora sul pavimento e li lasciai dove si trovavano quelli dei fogli che Roger aveva scritto a macchina alcune notti prima erano nel cestino questi ultimi non li lasciai li tirai fuori mi accertai di non averne dimenticato nessuno e me li ficcai in tasca il cestino era quasi vuoto e ciò mi facilitò il compito inutile domandarsi dove si fosse trovata la rivoltella troppi erano i posti in cui avrebbe potuto nasconderla poteva averla messa sul pavimento dietro i libri dovunque uscì chiusi la porta e rimasi in ascolto udì lievi rumori in cucina mi diressi da quella parte Eileen si era messa un grembiule azzurro e il pentolino del tè cominciava a fumare abbassò la fiamma del gas e mi rivolse un breve sguardo impersonale come lo preferite il tè signor Marlow? senza limone né il latte mi addossai alla parete e tolsi una sigaretta dal pacchetto tanto per tenere occupate le dita la piegai e la spezzai in due e gettai a terra una delle metà lo sguardo di lei seguì il gesto mi chinai e raccolsi la metà della sigaretta e la pallottolai insieme all'altra Eileen era affacendata nei preparativi io lo prendo sempre con la panna e molto zucchero disse voltandosi a guardarmi è strano perché il caffè invece mi piace nero ho imparato a bere il tè in Inghilterra adoperavano la saccarina e il luogo dello zucchero e quando scoppiò la guerra la panna divenne introvabile naturalmente siete state in Inghilterra? e vi ho lavorato rimasi laggiù per tutto il tempo dei bombardamenti vi conopi un uomo ma ve ne ho già parlato Roger dove lo conosceste? a New York vi sposaste laggiù? girò sui tacchi accigliandosi no non ci sposammo a New York perché dicevo così tanto per discorrere mentre preparate il tè guardò fuori dalla finestra al di là del lavandino da quel punto poteva vedere il lago si appoggiò all'orlo dello scolapiatti e giocherellò con un tovagliolino da te bisogna finirla disse e non so come fare forse sarà necessario affidarla a una clinica non so perché ma non riesco a convincermi che ne sarò capace dovrò firmare dei documenti vero? potrebbe pensarci lui stesso dissi potrebbe averci già pensato il timer squillò Eileen si voltò verso la cucina a gas e travasò il tè poi mise la teiera nel vassoio sul quale aveva già disposto le tazze mi avvicinai presi il vassoio e lo portai sul tavolino tra i due divani nella stanza di soggiorno lei sedette di fronte a me e riempì due tazze presi la mia e la posai sul tavolino in attesa che il tè si raffreddasse guardai Eileen mettere nel tè due zollette di zucchero e la panna lo assaggiò che cosa intendevate dire con quell'ultima frase domandò un tratto volevate dire non è vero che potrebbe già essersi affidata una clinica è stata una semplice supposizione avevate nascosto la rivoltella di cui vi parlai ricordate quel mattino dopo che aveva recitato la commedia in camera sua nascosta ripetea cigliandosi no non faccio mai nulla di simile è inutile ne sono convinta perché me lo domandate e oggi avete dimenticato le chiavi di casa ve l'ho già detto ma non quelle del garage di solito in questo tipo di abitazioni le chiavi sono unificate non ho bisogno della chiave del garage disse in tono aspro si apre automaticamente c'è un interruttore al cancello che si fa scattare entrando poi un altro interruttore la porta del garage comanda la chiusura del cancello non di rado lasciamo la porta del garage aperta oppure candy va a chiuderla capisco mi state facendo delle domande piuttosto strane osservò con una punta di irritazione nella voce come l'altra mattina ho avuto alcune esperienze piuttosto strane in questa casa rivoltelle che sparano nel cuore della notte ubriachi distesi sul prato dinanzi alla casa e medici che vengono a non fanno nulla bellissime donne che mi abbracciano e parlano come se io fossi qualcun altro camerieri messicani che lanciano coltelli è un vero peccato che non abbiate nascosto la rivoltella ma voi non amate sul serio vostro marito vero mi sembra di avervi già domandato anche questo si alzò ad agio sembrava calmissima ma gli occhi violetti non avevano lo stesso colore e neppure la stessa dolcezza di sempre poi le labbra cominciarono a tremarle e e forse e forse è accaduto qualcosa domandò molto molto ad agio e si voltò a guardare lo studio ebbe appena il tempo di annuire prima che cominciassi a correre giunse alla porta in un lampo la spalancò e si precipitò dentro mi aspettavo un grido acutissimo ma mi ero ingannato non udì nulla mi sentì perfido avrei dovuto impedirle di entrare e a tenermi alla consueta meschina prassi delle brutte notizie fatevi coraggio non volete sedervi temo che sia accaduto qualcosa di grave bla 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 e dopo tutta la messa in scena non riesce a risparmiare nulla a nessuno molte volte anzi peggiori la situazione mi alzai e la seguì nello studio era inginocchiata accanto al divano con la testa appoggiata al petto di Roger e si stava imbrattando di sangue non si lasciava sfuggire il minimo suono teneva gli occhi chiusi si dondolava avanti e indietro sulle ginocchia il più possibile tenendolo stretto a sé uscì e scovai un telefono e l'elenco telefonico chiamai la più vicina stazione di pulizia dello sceriffo d'altronde la lontananza non contava avrebbero in ogni caso diffuso la notizia per radio alle macchine di pattuglia poi tornai in cucina e aprì il rubinetto e lasciai cadere le strisce di carta gialla che avevo in tasca nel trituratore elettrico degli avanzi del cibo dopo le strisce di carta gettai nel lavandino le foglie del tè in pochi secondi tutto era scomparso chiusi il rubinetto e spensi il motore tornai nella stanza del soggiorno aprì la porta di casa e uscì nel giardino un'automobile della polizia doveva essere stata di pattuglia nelle vicinanze poiché arrivò dopo circa sei minuti quando condussi nello studio l'agente dello sceriffo Eileen era ancora inginocchiata accanto al divano l'uomo le si avvicinò immediatamente mi dispiace signora mi rendo conto di quello che provate ma non dovreste toccare nulla Eileen voltò la testa poi si mise faticosamente in piedi e mio marito è stato ucciso l'agente si tolse il berretto e lo mise sulla scrivania poi afferrò il telefono si chiama Roger Wade disse lei con voce acuta e incrinata è il famoso romanziere lo conosco signora disse la gente formando il numero Eileen abbassò gli occhi guardandosi la blusa posso andare di sopra a cambiarmi certo l'uomo fece un cenno del capo e continuò a parlare al telefono poi riattaccò e si voltò dite che è stato ucciso questo significa che qualcuno l'ho assassinato credo che lo abbia assassinato quest'uomo disse senza guardarmi e uscì in fretta dalla stanza l'agente dello sceriffo mi fissò si tolse di tasca un tacquino e scrisse qualcosa sarà bene che mi diate il vostro nome disse in tono indifferente e l'indirizzo siete stato voi ad avvertire la polizia si gli diede il nome e l'indirizzo abbiate pazienza fino a quando non arriverà il tenente Hulse Bernie Hulse si lo conoscete si lo conosco da un pezzo lavorava per l'ufficio del procuratore distrettuale ora non più disse l'agente è il vice comandante della squadra omicidi alle dipendenze dello sceriffo di Los Angeles siete un amico di famiglia signor Marlowe non si direbbe stando a ciò che ha detto la signora Wade alzò le spalle e fece un mezzo sorriso non prendetevela signor Marlowe non siete armato vero no oggi no sarà meglio che me ne accerti così fece poi si voltò a guardare il divano in situazioni come questa non si può pretendere che una moglie si comporti in modo ragionevole faremmo bene ad aspettare fuori 37 Hulse era un uomo di statura media con i capelli tagliati a spazzola sbiaditi biondastri e chiari occhi celesti aveva dure sopracciglia bianche e prima che smettesse di portare il cappello si rimaneva sempre un po' stupiti quando se lo toglieva la testa era molto più grossa di quanto ci si fosse aspettati era un poliziotto severo rigido con l'aria di uomo spietato ma in fondo si trattava di un'ottima persona avrebbero dovuto promuoverlo da anni al grado di capitano aveva superato gli esami una dozzina di volte classificandosi fra i primi tre ma lo sceriffo non lo aveva in simpatia e lui non aveva in simpatia lo sceriffo discese le scale massaggiandosi la mascella i lampi dei fotografi avevano illuminato più e più volte lo studio uomini erano andati e venuti quanto a me ero rimasto seduto nella stanza di soggiorno in compagnia di un agente in borghese ad aspettare alz si misi a sedere sull'orlo di una sedia e lasciò penzolare le mani vi asciugava una sigaretta spenta e mi fissò con aria cupa ricordate i bei tempi quando a idle valley c'era un custode all'ingresso e una polizia privata annui e il gioco d'azzardo certo non si può impedirlo tutta questa valle appartiene ancora a privati come un tempo Harrowed e la baia Emerald da un pezzo non mi occupavo di un caso senza essere asserragliato da giornalisti qualcuno deve aver bisbigliato qualche parolina all'orecchio dello sceriffo Peterson non hanno diramato la notizia con la telescrivente davvero premurosi osservai come sta la signora Wade è troppo calma deve aver inghiottito qualche pillola ce n'è una mezza dozzina di qualità di sopra persino il demerolo o un sonnifero pericoloso i vostri amici non sono troppo fortunati da un po' di tempo a questa parte no? crepano tutti non avrei saputo che cosa ribattere i suicidi con armi da fuoco mi interessano sempre disse Holtz con aria distratta è facilissimo farli passare per tali la moglie dice che lo avete ucciso voi perché dovrebbe affermare una cosa simile non è da prendere alla lettera non c'era nessun altro qui dice che sapevate dove si trovava la rivoltella sapevate che si ubriacava sapevate che lasciò partire un colpo l'altra notte quando dovette lottare con lui per togliergli l'arma eravate qui anche voi quella notte non sembra molto incoraggiante vero? ho frugato nei cassetti della scrivania oggi nel pomeriggio la rivoltella non c'era le dissi dove si trovava e le dissi di nasconderla affermo ora che sarebbe stato inutile e quando sarebbe ora? domandò Holtz brusco quando è tornata a casa e prima della mia telefonata alla polizia avete frugato nei cassetti della scrivania perché? Holtz alzò le mani e le posò sulle ginocchia mi guardava con indifferenza come se non gli importasse quel che dicevo si stava ubriacando mi sembrava più prudente mettere la rivoltella in qualche altro posto ma l'altra notte non tentò di uccidersi fu solo una commedia Holtz annui si tolse di bocca la sigaretta biascicata la lasciò cadere nel portacenere e la sostitui con un'altra ho smesso di fumare disse tossivo troppo ma il dannato vizio continua a perseguidarmi non mi sento a posto senza avere una sigaretta fra le labbra dovevate sorvegliare Wade quando restava solo? no di certo mi invitò a venire a pranzo da lui conversammo ed era piuttosto depresso perché il suo lavoro non procedeva bene decise di attaccarsi alla bottiglia pensate che avrei dovuto impedirglielo? per il momento non penso cerco solo di farmi un'idea della situazione voi che cosa avete bevuto? soltanto birra per voi è stata una sfortuna trovarvi qui in Marlow qual era lo scopo dell'assegno? quello che riempì firmò e strappò volevano tutti quanti che venissi ad abitare in questa casa e gli impedissi di bere dicendo tutti quanti mi riferisco a lui alla moglie al suo editore un certo Howard Spencer è a New York credo potete farvelo confermare da lui rifiutai e in seguito Aileen Wade venne da me disse che suo marito era scomparso si preoccupava per lui e mi pregava di trovarlo e riportarlo a casa così feci la volta successiva lo trovai disteso sul prado dinanzi casa e lo portai a letto respingo ogni responsabilità in questa faccenda Bernie in un certo senso mi ci sono ritrovato in mezzo senza volerlo non ha nulla a che vedere col caso Lennox eh? oh per l'amor del cielo il caso Lennox non esiste troppo giusto disse Holmes asciutto si strizzò le ginocchia un tale si affacciò sulla soglia e parlò all'altro agente poi si avvicinò a Holmes c'è fuori un certo dottor Loring tenente dice di essere stato chiamato è il medico curante della signora fatelo entrare il dottor Loring si fece avanti con la sua lucida valigetta e indossava un abito estivo fresco e elegante mi passò accanto senza degnarmi di uno sguardo di sopra? domandò a Holmes sì nella sua stanza Holmes si alzò per quale ragione le avete prescritto il demerolo dottore? il dottor Loring lo fissò aggrottando le sopracciglia prescrivo i miei pazienti medicinali che ritengo opportuni rispose in modo gelido non sono tenuto a giustificarmi chi dice che abbia prescritto alla signora Wade il demerolo la dico io di sopra c'è il flacone con il vostro nome sull'etichetta possiede una vera e propria farmacia nella stanza da bagno forse non lo sapete dottore ma in città abbiamo un campionario quasi completo di pillolette gli andai azzurre petti rossi canarini cardellini e via dicendo il demerolo è il peggiore di tutti è il sonnifero grazie al quale Goering riusciva a tirare avanti non ricordo chi me l'ha detto ne prendeva 18 compressi al giorno quando lo arrestarono i medici militari ci impiegarono tre mesi per disintossicarlo non so che cosa significano i termini di cui vi siete servito disse il dottor Loring gelido non lo sapete che peccato le ghiandai azzurre sono le compresse di amile di sodio i petti rossi sono i seconal i canarini sono i nembutal i cardellini un barbiturico in combinazione con benzedrina il demerolo è un sonnifero sintetico al quale ci si abitua con estrema facilità voi vi limitate a prescriverli la signora soffre forse di qualche seria indisposizione un marito alcolizzato può effettivamente rappresentare un grave disturbo per una donna sensibile disse il dottor Loring e non siete riusciti a guarire il disturbo un vero peccato la signora Wade è di sopra dottore grazie per il tempo che mi avete concesso siete un impertinente signore vi farò rapporto si fate pure disse Ols ma prima di stendere rapporto fate un'altra cosa fate in modo che la signora abbia la mente snebbiata devo interrogarla farò esattamente quello che riterrò più opportuno tenuto conto delle sue condizioni sapete per caso chi sono io e tanto per chiarire le cose il signor Wade non era un mio paziente non curo gli alcolizzati solo le loro mogli eh? ribatte Ols in tono beffardo sì so chi siete dottore e mi si torcono le viscere per il panico il mio nome è Ols tenente Ols il dottor Loring si avviò su per le scale Ols si rimise a sedere e mi sorrise bisogna essere diplomatici con gli individui di questo genere disse un uomo uscì dallo studio e si avvicinò a Ols un uomo magro e serio con gli occhiali e la fronte spaziosa da intellettuale tenente fuori la ferita è a contatto tipica del suicidio con una notevole distensione dovuta alla pressione dei gas gli occhi sono esoftalmici per la stessa ragione non credo che risulteranno impronte digitali sulla rivoltella è troppo sporca di sangue non potrebbe trattarsi di omicidio se la vittima era addormentata o si trovava in stato di ubriachezza? gli domandò Ols certo ma nulla lo fa pensare l'arma è una Webley Hammerless occorre una trazione molto forte per caricarla ma basta una minima pressione sul grilletto per far partire il colpo il rinculo spiega la posizione in cui è stata trovata fino a questo momento non mi risulta nulla che possa far escludere la tesi del suicidio prevedo di riscontrare una concentrazione alcolica elevata se fosse abbastanza elevata l'uomo si interruppe e alzò le spalle in modo significativo potrei essere incline a dubitare del suicidio grazie qualcuno ha avvertito il magistrato inquirente l'uomo annui e si allontanò Ols sbadigliò e guardò l'orologio poi mi fissò volete andarvene? certo se me lo consentite credevo di essere sospetto potremmo farvi questo onore in seguito restate dove vi si possa rintracciare ecco tutto un tempo avete fatto parte della polizia e sapete come si procede a volte occorre agire rapidamente prima che le prove spariscano in questo caso è tutto l'opposto se si tratta di omicidio chi poteva desiderare la sua morte la moglie non era in casa voi si vi trovavate qui solo e sapevate dove era la rivoltella una situazione ideale non manca alcun elemento tranne il movente e inoltre potremmo anche attribuire un certo peso alla vostra esperienza penso che se aveste voluto sopprimere qualcuno saresti forse stato capace di ucciderlo in un modo un po' meno ovvio grazie Bernie è così infatti la servitù non era in casa era il loro giorno di libertà deve quindi essere stato qualcuno giunto qui per caso questo qualcuno doveva sapere dove si trovava la rivoltella di Wade doveva sorprenderlo abbastanza obbriaco perché fosse addormentato privo di sensi doveva premere il grilletto proprio nel momento in cui quel motoscafo faceva abbastanza frastuono per coprire lo sparo e tagliare la corda prima che voi rientraste in casa è un'ipotesi che non posso accettare in base a quanto mi risulta fino a questo momento la sola persona che abbia avuto il modo e l'opportunità di commettere il delitto è l'unica che non ne avrebbe approfittato proprio perché si trovava in una situazione troppo privilegiata mi alzai per andarmene d'accordo Bernie rimarrò in casa tutta la sera ancora una cosa disse Olsen in tono riflessivo questo Wade era uno scrittore di successo quattrine appalate e una grande notorietà per quanto mi concerne i libri che scriveva non volevano un soldo si potrebbe trovare gente più simpatica dei suoi personaggi in una casa di tolleranza è una questione di gusti e non mi riguarda come poliziotto con tutto quel denaro poteva permettersi una casa meravigliosa in una delle più belle località della Contea aveva una splendida moglie innumerevoli amici e non era tormentato da alcuna preoccupazione vorrei sapere una cosa per quale ragione può essersi disperato al punto da indursi a premere il ghilletto un motivo deve esserci se lo conoscete sarà meglio che vi prepariate a rivelarlo ci vediamo mi avvicinai alla porta l'uomo di guardia sbirciò Olsen ebbe il segnale e mi lasciò uscire salì in macchina e dovetti passare sul prato per girare intorno alle varie automobili della polizia che bloccavano il viale al cancello un altro agente mi esaminò da capo a piedi ma non disse nulla mi misi gli occhiali da sole e mi diressi verso l'autostrada non c'era traffico e regnava un alto silenzio il sole del pomeriggio picchiava sui prati ben curati e sulle vaste spaziose costose di more dietro a essi un uomo abbastanza noto era perito in una pozza di sangue in una casa di Idle Valley ma la pigra pace estiva non era stata turbata fino a quel momento per quanto ne sapevano i giornali sarebbe potuto morire nel Tibet a una svolta della strada i muri di cinta di due proprietà si abbassavano fino all'altezza delle spalle di un uomo in quel punto una macchina verde scuro della polizia un agente discese e alzò la mano fermai si avvicinò al finestrino posso vedere la patente per favore mi tolsi di tasca il portafogli e glielo diedi aperto solo la patente prego non sono autorizzato a toccare il portafogli tirai fuori la patente e gliela consegnai che cosa c'è diede un'occhiata all'interno della macchina e mi restituì la patente nulla disse si tratta solo di un controllo spiacente di avervi disturbato mi salutò con la mano e tornò accanto alla macchina parcheggiata così si comportano i poliziotti non ti spiegano mai la ragione di quello che fanno in questo modo riesci a scoprire che non lo conoscono essi stessi tornai a casa bevi qualcosa di fresco uscii per la cena rientrai spalancai le finestre mi aprì la camicia e aspettai che accadesse qualcosa aspettai a lungo erano le nove quando Bernie Holtz telefonò e mi disse di andare al comando e di non fermarmi a cogliere fiori 38 avevano fatto mettere Candy su una dura sedia contro la parete dell'anticamera dello sceriffo mi lanciò un'occhiata carica di odio mentre gli passavo accanto ed entravo nell'ampia stanza quadrata dove lo sceriffo Peterson troneggiava al centro di una collezione di testimonianze di gratitudine per i suoi vent'anni di fedele attività al servizio dello Stato le pareti erano tappezzate di fotografie di cavalli e lo sceriffo Peterson figurava in ogni fotografia gli spigoli della scrivania erano scolpiti a testa di cavallo il calamaio era costituito da un lucido zoccolo di cavallo e le penne erano conficcate in un altro zoccolo riempito di sabbia una targhetta d'oro su ciascuno dei due zoccoli ricordava memorabili date nel bel mezzo di una cartella da scrivania con un foglio immacolato di carta asciucante si trovavano una borsa di tabacco bull durham e una busta di cartine per sigarette Peterson si faceva le sigarette per conto suo riusciva ad arrotolarle con una mano sola stando in sella e lo faceva spesso specie quando marciava in testa una sfilata su un grande destriero bianco dalla sella sovraccarica di meravigliose decorazioni messicane in argento stando a cavallo portava un sombrero messicano attesa larga cavalcava in modo splendido e il suo cavallo sapeva sempre con certezza quando dovesse mostrarsi mansueto e quando invece dovesse fingere di impennarsi in modo che lo sceriffo serbando quel sorriso calmo imperscrutabile potesse ridurlo alla ragione con una sola mano lo sceriffo sapeva vivere aveva un meraviglioso profilo da falco che cominciava ormai a diventare un po' cascante sotto il mento ma sapeva come tenere la testa in modo che non lo si notasse troppo e impegnava gran parte delle sue energie per farsi fotografare era sui 55 anni e suo padre un danese gli aveva lasciato molto denaro lo sceriffo non sembrava danese poiché aveva i capelli neri e la pelle bruna e lo stesso atteggiamento impassibile dell'indiano delle tabaccherie e pressappoco la stessa quantità di cervello tuttavia nessuno aveva mai potuto accusarlo di essere disonesto c'erano stati dei disonesti nel suo ufficio avevano troffato lui come avevano troffato il pubblico ma lo sceriffo Peterson non era mai stato neppure sfiorato dal disonore egli continuava semplicemente a essere rieletto pur senza alcuna campagna elettorale a cavalcare bianchi destrieri in testa alle sfilate e a interrogare i sospetti di fronte alle macchine fotografiche così dicevano le didascalie nei giornali in realtà lo sceriffo non interrogava mai nessuno non ne sarebbe stato capace si limitava stassa nel seduto alla scrivania a fissare severamente il sospetto mostrando il profilo alle macchine fotografiche i flash lampeggiavano i fotografi ringraziavano con deferenza lo sceriffo il sospetto veniva condotto via senza che avesse aperto bocca e lo sceriffo se ne tornava al suo ranch nella san fernando valley qui si poteva sempre trovarlo e se non si riusciva ad avvicinarlo si poteva parlare con uno dei suoi cavalli di quando in quando al momento delle elezioni qualche sconsigliato uomo politico tentava di conquistare la carica dello sceriffo peterson e si azzardava a definirlo con frasi come l'uomo dal profilo prefabbricato o il prosciutto che affumica se stesso ma non approdava nulla lo sceriffo peterson continuava a essere rieletto vivente testimonianza del fatto che negli stati uniti si può ricoprire indefinitamente un'importante carica pubblica senza alcun'altra dote all'infuori di un naso aquilino di una faccia fotogenica e della bocca ben chiusa se oltre a tutto ciò si figura bene a cavallo ci si può considerare imbattibili quando oltre io entrammo lo sceriffo peterson era in piedi dietro la scrivania e i fotografi uscivano passando per l'altra porta lo sceriffo aveva il cappello in testa e si stava arrotolando una sigaretta era sul punto di tornarsene a casa mi fissò con severità chi è costui domandò con profonda voce baritonale si chiama philip marlow capo disse oltre è la sola persona che si trovasse in casa quando wade si uccise volete una fotografia lo sceriffo mi osservò non credo disse e si voltò verso un uomo alto di statura dall'aria stanca con i capelli grigio ferro se avrete bisogno di me mi troverete al ranch capitano hernandez si signore peterson accese la sigaretta con un fiammifero da cucina che strofinò sull'unghia del pollice gli accendini non erano fatti per lo sceriffo peterson le sigarette se le preparava da sé e le accendeva con i fiammiferi tutto con una mano sola augurò buonanotte usci un tizio dalla faccia inespressiva con gli occhi neri e cattivi lo accompagnò la sua guardia del corpo la porta si chiuse non appena lo sceriffo se ne fu andato il capitano hernandez si avvicinò alla scrivania sedette sull'enorme poltrona del suo superiore e lo stenodattilografo che aspettava in un angolo scostò il tavolino della parete per avere più spazio holtz sedette a un'estremità della scrivania e parve divertito benissimo marlow disse hernandez in tono energico sentiamo come mai non sono stato fotografato avete sentito quello che ha detto lo sceriffo si ma perché gemetti holtz rise sapete maledettamente bene perché perché sono alto bruno è bello volete dire è perché qualcuno potrebbe guardare me finiamola disse hernandez gelito avanti con le dichiarazioni cominciate dal principio riferì loro ogni cosa sin dal principio il colloquio con howard spencer l'incontro con aileen wade la sua preghiera di trovare roger il ritrovamento di roger l'invito in casa wade riferì ciò che wade mi aveva chiesto di fare e dissi come lo avessi trovato privo di sensi accanto ai cespugli e tutto il resto lo stenodattilografo trascrisse le mie dichiarazioni nessuno mi interruppe era tutto vero la verità è null'altro che la verità ma non tutta la verità ciò che omisi era affar mio interessante disse hernandez alla fine ma incompleto era un tipo freddo abile pericoloso quell'hernandez qualcuno doveva pur esserlo nell'ufficio dello sceriffo la notte in cui wade lasciò partire il colpo di rivoltella in camera sua voi entraste nella stanza della signora wade e vi rimaneste per qualche tempo con la porta chiusa che cosa faceste mi chiamò dentro e mi domandò come stava il marito perché chiudere la porta wade si era quasi addormentato e non volevo far rumore inoltre il cameriere gironzolava lì attorno con le orecchie ben tese inoltre ella mi pregò di chiudere la porta non immaginavo che questo particolare avrebbe assunto tanta importanza per quanto tempo rimaneste nella camera da letto della signora wade non saprei un tre minuti forse io direi che vi restaste un paio d'ore fece hernandez in tono gelido sono stata abbastanza chiaro guardai holtz holtz aveva lo sguardo perduto nel vuoto biascicava come sempre una sigaretta spenta siete male informato capitano vedremo dopo essere uscito dalla stanza scendeste al pian terreno nello studio e passaste la notte sul divano forse dovrei dire il resto della notte erano le 11 meno 10 quando wade mi telefonò a casa erano le due passate quando entrai per l'ultima volta nello studio quella notte dite pure il resto della notte se vi fa piacere fate entrare il cameriere disse hernandez holtz uscì e tornò insieme a candy fecero sedere candy hernandez gli pose alcune domande per stabilire quali fossero le sue generalità e così via poi disse benissimo candy vi chiameremo così per maggiore comodità dopo che aiutaste marlow a mettere a letto roger wade che cosa accadde sapevo più o meno quello che avrebbe detto candy candy fece la sua dirghierazione con contenuta violenza quasi senza alcuna inflessione straniera nella voce sembrava che potesse parlare con o senza accento a volontà disse che aveva gironzolato al pian terreno pensando che potesse esservi ancora bisogno di lui era rimasto per qualche tempo in cucina dove aveva preparato qualcosa da mangiare e per qualche tempo nella stanza di soggiorno mentre sedeva nel soggiorno accanto alla porta di casa aveva veduto Eileen in piedi sulla soglia della sua stanza e l'aveva veduta spogliarsi dopo essere rimasta completamente nuda Eileen Wade si era infilata una vestaglia e poi lui mi aveva veduto entrare nella stanza aveva salito le scale e origliato aveva sentito cigolare le molle del letto e udito dei bisbigli fece in modo che il senso delle sue parole risultasse del tutto ovvio quando ebbe finito mi scoccò un'occhiata corrosiva aveva le labbra strette e contorte dall'odio portatelo via disse Hernandez un momento dissi voglio interrogarlo spettami interrogare qui dentro disse Hernandez in tono aspro non sapreste come capitano non eravate presente mente e lo sa e lo so anch'io Hernandez si sporse in avanti e prese una penna dello sceriffo piegò la sticciola della penna era lunga e appuntita e fatta di setole di cavallo incollate quando la lasciò andare la punta scattò indietro avanti disse infine mi voltai verso Candy dove eravate quando vedeste la signora Wade spogliarsi e sedevo accanto alla porta della casa rispose in tono arrogante tra la porta di casa e i due divani posti uno di fronte all'altro e quello che ho detto dove si trovava la signora Wade subito dietro la soglia della sua stanza la porta era aperta quali luci erano accese nella stanza di soggiorno una sola lampada una a paralume e sulla balconata nessuna luce la luce era accesa nella camera da letto che genere di luce c'è nella camera da letto non molta la lampadina del comodino forse non il lampadario no quando si fu spogliata stando sulla soglia della sua stanza avete detto indossò una vestaglia che genere di vestaglia una vestaglia azurra lunga fino ai piedi la strinse alla vita con una fascia pertanto se non l'aveste veduta spogliarsi non avreste potuto sapere se fosse nuda sotto la vestaglia alzò le spalle parve vagamente preoccupato sì è vero ma la vidi spogliarsi siete un bugiardo non c'è alcun punto nella stanza di soggiorno dal quale avreste potuto vederla spogliarsi mentre stava sulla soglia tanto meno se fosse rimasta nella stanza avrebbe dovuto farsi avanti fino alla ringhiera della balconata e in questo caso vi avrebbe veduto si limitò a fissarmi con odio mi voltai verso Holmes voi conoscete la casa il capitano Hernández non la conosce o forse c'è stato Holmes fece un lieve cenno negativo con la testa Hernández si accigliò e non disse nulla non esiste un solo punto in quella casa di soggiorno capitano Hernández dal quale gli fosse possibile scorgere sia pure soltanto la testa della signora Wade anche restando in piedi e afferma che era seduto se lei si trovava sulla soglia della porta o dietro di essa sono più alto di lui di 10 centimetri e riuscirei a scorgere soltanto la sommità della porta stando in piedi accanto all'ingresso la signora Wade avrebbe dovuto avvicinarsi alla ringhiera della balconata perché egli potesse vedere ciò che afferma di aver visto e perché avrebbe dovuto fare una cosa simile non solo ma perché avrebbe dovuto spogliarsi stando sulla soglia della sua stanza è assurdo Hernandez si limitò a fissarmi poi fissò Candy e per quanto concerne l'elemento tempo domandò poi a voce bassa rivolto a me a questo riguardo c'è la sua parola contro la mia mi sono limitato a parlare di ciò che può essere dimostrato Hernandez si rivolse in spagnolo a Candy troppo in fretta perché potessi capire Candy si limitò a fissarlo con un'espressione imbronciata portatelo via disse Hernandez Holmes fece un cenno col pollice e aprì la porta Candy uscì Hernandez si tolse di tasca una scatola di sigarette se ne sfilò una e la messe tra le labbra e la accese con un accendino d'oro Holmes rientrò nella stanza Hernandez spiegò con calma gli ho appena detto che se vi sarà un'inchiesta e farà queste dichiarazioni sul banco dei testimoni andrà dentro da uno a tre anni per falsa testimonianza non è parso molto impressionato ciò che lo rode è ovvio l'eterna solfa della gelosia se si fosse trovato lì avessimo ragione di sospettare un omicidio potrebbe essere il nostro uomo eccettuato il fatto che si sarebbe servito di un coltello in un primo momento ho avuto l'impressione che fosse molto addolorato della morte di Wade vorreste fare qualche domanda Holmes Holmes scosse il capo Hernandez mi guardò e disse tornate domattina a firmare la dichiarazione nel frattempo verrà battuta a macchina per le dieci dovremmo ricevere il rapporto del magistrato inquirente un rapporto preliminare almeno c'è qualcosa che non vi garba in questa faccenda Marlow vi spiacerebbe formulare in un altro modo la domanda così come l'avete posta sembrerebbe che qualcosa possa andarmi a genio sta bene disse con voce stanca filate io me ne torno a casa mi alzai naturalmente non ho creduto neppure per un momento alle panzane che ci ha raccontato Candy disse me ne sono semplicemente servito come di un cavaturacceli nessun rancore spero nessun rancore capitano assolutamente nessuno mi seguirono con lo sguardo mentre uscivo e non mi augurarono la buonanotte percorsi il lungo corridoio fino all'ingresso di Hill Street sali sul macinino e tornai a casa assolutamente nessun rancore era l'esatta verità mi sentivo vuoto come gli spazi che separano gli astri una volta rientrato a casa versai in un bicchiere una buona dose di whisky mi affacciai alla finestra spalancata della stanza di soggiorno sorseggiai il liquore e ascoltai il frastuono del traffico in Laurel Canyon Boulevard e contemplai il bagliore della grande irosa città sospeso sui pendii delle alture attraverso le quali il viale era stato tagliato in lontananza si levava e si spegneva l'urlo sovrannaturale delle sirene della polizia o dei pompieri e nelle une nelle altre tacevano mai molto a lungo per 24 ore al giorno qualcuno fugge e qualcun altro tenta di raggiungerlo laggiù nella notte intessuta di mille delitti individui morivano venivano mutilati tagliozzati da schegge di vetro schiacciati contro i volanti delle automobili o sotto le ruote di pesanti veicoli altri individui venivano percossi derubati strangolati violentati assassinati altri individui ancora erano affamati ammalati annoiati disperati tormentati dalla solitudine o dal rimorso o dal terrore o dall'ira erano crudeli febbricitanti squassati dai singhiozzi una città non peggiore delle altre una città perduta e corrotta e colma di vacuità tutto dipende dalla posizione in cui ci si trova dagli interessi personali io non ne avevo qualcuno e me ne infischiavo terminai di bere e mi coricai 39 l'inchiesta fu un buco nell'acqua e il magistrato vi singolfò prima ancora che i referti medici fossero completati nel timore di essere defraudato della pubblicità avrebbe potuto fare a meno di preoccuparsi la morte di uno scrittore sia pure molto noto non è una notizia che regga a lungo sui giornali e quell'estate molte altre notizie le fecero concorrenza un re abdicò e un altro venne assassinato in una sola settimana grandi aerei per passeggeri precipitarono il dirigente di una società telefonica fu crivellato di pallottole nella sua automobile a Chicago 24 carcerati bruciarono vivi nell'incendio di una prigione e il magistrato della contea di Los Angeles non aveva fortuna perdeva le migliori occasioni scendendo dal banco dei testimoni vidi Candy aveva il volto atteggiato a un luminoso malizioso sorriso non capì perché e come sempre era vestito un po' troppo bene in gabardine color cacao con una camicia bianca di nylon e una cravatta blu a farfalla sul banco dei testimoni servò la calma e fece buona impressione sì negli ultimi tempi il suo padrone aveva preso molte solenni sbornie sì lui mi aveva aiutato a portarlo a letto nella notte in cui al piano di sopra era partito un colpo di rivoltella sì il padrone gli aveva chiesto del whisky l'ultimo giorno prima che lui Candy uscisse per le sue ore libere Candy si era rifiutato di portarglielo no non era informato sul lavoro letterario del signor Wade ma sapeva che il suo padrone era scoraggiato continuava a gettar via i fogli battuti a macchina e poi a riprenderli dal cestino no non aveva mai sentito il signor Wade litigare con qualcuno e così via il magistrato lo munse ma con risultati molto scarsi qualcuno aveva ben ammaestrato Candy Alan Wade era in bianco e nero aveva un viso smorto e parlò con voce bassa e chiara che neppure l'amplificatore riuscì a velare e il magistrato la trattò con due paia di guanti di velluto le parlò come facesse fatica a impedire i singhiozzi quando ella lasciò il banco dei testimoni si alzò e le fece un inchino e lei gli rivolse un lieve fuggevole sorriso che quasi lo lasciò senza fiato uscendo Eileen per poco non mi passò accanto senza degnarmi di uno sguardo poi all'ultimo momento voltò la testa di un paio di centimetri e annui appena quasi io fossi qualcuno che doveva aver conosciuto molto tempo prima ma che non riusciva a ricordare perfettamente fuori sulla gradinata quando tutto fu finito mi imbatte in holes stava sorvegliando il traffico o fingeva di sorvegliarlo molto bene disse senza voltare la testa congratulazioni lo avete lavorato a meraviglia Candy non io amico e il procuratore distrettuale ha deciso che le complicazioni sessuali erano estranee al caso quali complicazioni sessuali a questo punto mi fissò ah 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 fece e non alludo a voi poi la sua espressione divenne remota me ne occupo da troppi anni si finisce con l'averne abbastanza questo era un caso tutto particolare roba sopraffina arrivederci semplicione avvertitemi quando comincerete a portare camice da 20 dollari mi farò vivo e vi aiuterò a infilare la giacca la gente turbinava intorno a noi salendo e scendendo la gradinate holes si tolse di tasca una sigaretta la guardò la lasciò cadere sul cemento e la schiacciò col tacco uno sciupio osservai è soltanto una sigaretta amico non si tratta di una vita tra qualche tempo forse sposerete la donna eh finitela fece un'ironica risata ho parlato all'individuo giusto di cose sbagliate disse in tono acido nessuna obiezione nessuna obiezione tenente risposi e discesi gli scalini disse qualcosa alle mie spalle ma continuai a scendere mi diressi verso un ristorante economico nel flower andava bene per il mio stato d'animo uno sgarbato cartello d'ingresso diceva per soli uomini cani e donne non sono messi il servizio era altrettanto raffinato il cameriere che ti gettava il cibo sul tavolo aveva bisogno di sbarbarsi e deduceva la mancia dal resto senza essere invitato a farlo le vivande erano semplici ma ottime servivano una birra scura svedese efficace quanto i martini quando tornai in ufficio il telefono stava squillando Ols disse vengo lì da voi ho da parlarvi doveva trovarsi alla stazione di polizia di hollywood o nei pressi poiché giunse in ufficio dopo meno di 20 minuti si piazzò sulla sedia dei clienti e a cavallo le gambe e grugnì ho esagerato scusatemi non pensateci più perché non pensarci più riapriamo la ferita invece non ho nulla in contrario resti tra noi però alcune persone vi giudicano un poco di buono a me non risulta che vi stiate mai comportato in modo troppo disonesto che cosa significa la spiritosa battuta sulle camicie da 20 dollari oh all'inferno ero irritato ecco tutto disse holes pensavo al vecchio potter a come disse a un segretario di dire a un avvocato di dire al procuratore di strettuare springer di dire al capitano hernandez che siete un suo amico personale non se ne darebbe la pena lo avete conosciuto vi ha concesso tempo l'ho conosciuto punto e basta non mi è piaciuto ma forse era solo invidia mi ha mandato a chiamare per darmi qualche consiglio è importante è inflessibile e non so che altro ma non credo che sia disonesto non esiste alcun sistema pulito per accumulare 100 milioni di dollari disse holes forse chi comanda crede di avere le mani pulite ma c'è sempre qualcuno che viene messo con le spalle al muro e piccole imprese redditizie si sentono a frenare la terra sotto i piedi e allora devono essere cedute per 4 soldi brave persone perdono l'impiego le quotazioni in borsa vengono manipolate gli agenti di borsa comprati come polvere d'oro e i famosi studi legali incassano parcelle di 100 mila dollari per aver impedito l'applicazione di leggi desiderate dai poveri ma indesiderate dai ricchi perché incidono sui loro profitti la ricchezza è forza e la forza viene usata a fini ingiusti questo è il nostro sistema politico forse è il migliore che possiamo avere ma non per questo è il mio ideale vi esprimete come un comunista disse tanto per pungolarlo non saprei rispose in tono sprezzante ancora non sono stato sottoposto a un'inchiesta avete approvato il verdetto di suicidio vero? quale altro verdetto poteva esservi? nessun altro suppongo posò le dure tozze mani sulla scrivania e osservò le grandi lentiggini marrone che le punteggiavano sto invecchiando queste chiazze brune si chiamano cheratosi non cominciano ad apparire finché non si è superata la cinquantina sono un vecchio poliziotto e un vecchio poliziotto e un vecchio bastardo vi sono alcune cose nella morte di Wade che non mi garbano quali? per esempio mi appoggiai allo schienale e osservai le minuscole rughe che aveva intorno agli occhi si finisce con l'essere in grado di fiutare qualcosa che non va anche quando non si sa un bel niente di preciso allora ci si mette a sedere e si parla come faccio io in questo momento non mi va a genio il fatto che non abbia lasciato neppure un rigo era ubriaco probabilmente fu soltanto un impulso folle e improvviso Holmes alzò gli occhi i scialbi e tolse le mani dalla scrivania lasciandole ricadere ho frugato nei cassetti della scrivania scriveva lettere a se stesso scriveva scriveva e scriveva sbronzo o meno picchiava sui tasti di quella macchina da scrivere ciò che ha scritto è in parte pazzesco in parte in un certo senso divertente in parte triste quell'uomo aveva in mente qualcosa scriveva girando intorno a questo qualcosa ma senza toccarlo mai un tipo come lui avrebbe lasciato una lettera di due pagine se si fosse ucciso era ubriaco ripetei è il suo caso questo non è importanza disse Holmes in tono stanco un'altra cosa che non mi piace è il fatto che si sia ammazzato in quella stanza lasciando che fosse la moglie a trovarlo lo so lo so era ubriaco ma non mi piace ugualmente e non mi piace neppure che abbia premuto il grilletto proprio quando il rombo di quel motoscafo avrebbe potuto soffocare il rumore dello sparo che cosa poteva importare a lui un'altra coincidenza e fu sempre una coincidenza se la moglie dimenticò le chiavi di casa recandosi a fare acquisti e dovette suonare il campanello per entrare in casa avrebbe potuto fare il giro e passare per l'ingresso di servizio dissi si lo so io mi riferisco a una situazione nessuno che potesse aprirle la porta tranne voi e lei disse stando sulla soglia di non aver saputo che foste in casa ma Wade non avrebbe sentito il campanello se fosse stato vivo e avesse lavorato nello studio la porta dello studio è isolata acusticamente la servitù non si trovava in casa in quanto era giovedì la signora Wade se ne dimenticò proprio come dimenticò le chiavi dimenticate qualcosa anche voi Bernie la mia automobile era parcheggiata nel viale lei sapeva dunque che io ero in casa o che qualcuno era in casa prima di suonare il campanello sorrise dimentico questo particolare dite? benissimo ecco qui come stanno le cose voi eravate sulla sponda del lago il motoscafo stava facendo tutto quel frastuono tra parentesi si trattava di una coppia venuta dal lago Harrowed a fare un'escursione col motoscafo sul rimorchio Wade dormiva nello studio o era completamente sbronzo qualcuno aveva già tolto la rivoltella dalla scrivania e lei sapeva che l'avevate messa lì perché glielo diceste la prima volta supponete ora che non abbia dimenticato le chiavi che si è entrata in casa si sia guardata in giro scorgendovi sulla sponda del lago abbia fatto capolino nello studio e visto Wade addormentato supponete che sapendo dove si trovava la rivoltella l'abbia presa aspettato il momento giusto e ucciso il marito e lasciato cadere l'arma dove è stata trovata e poi sia uscita di casa passando per la porta di servizio e abbia aspettato qualche minuto che il motoscafo si allontanasse per poi suonare il campanello e aspettare che le apriste nessuna obiezione? per quale motivo lo avrebbe fatto? già fece lui tetro questo è il guaio se avesse voluto togliere di mezzo il marito le sarebbe stato facile avrebbe potuto disfarsene quando più fosse piaciuto era un alcolizzato aveva commesso atti di violenza contro di lei pingui alimenti una splendida casa assicurata via natural durante no non esiste alcun movente eppure dal punto di vista tempo tutto si è svolto in modo troppo perfetto cinque minuti di anticipo e lei non avrebbe potuto ucciderlo a meno che voi non fosse stato d'accordo feci per parlare ma Ols levò una mano calmatevi non sto accusando nessuno mi limito a fare delle ipotesi cinque minuti di ritardo e le conseguenze sarebbero state identiche disponeva di dieci soli minuti per attuare il piano dieci minuti esclamai irritato non sarebbe stato possibile prevederlo e tantomeno fare un piano su queste basi si appoggiò allo schienale della sedia e sospirò lo so potete rispondere a ogni interrogativo posso rispondere a ogni interrogativo eppure non mi piace che diavolo stavate facendo in casa di quella gente in ogni modo Wade firma un assegno di mille dollari a vostro favore poi lo strappa si infuriò contro di voi dite voi lo volevate d'altronde non l'avreste accettato dite può darsi pensava che andaste a letto con sua moglie piantatela Bernie non vi ho chiesto se andavate a letto con lei vi ho domandato se Roger lo credeva stessa risposta ok passiamo a un altro argomento che potere aveva su di lui il messicano nessuno che io sappia il messicano ha troppi quattrini più di 1500 dollari in banca ogni genere di vestiti un'automobile nuova di zecca forse spaccia stupefacenti dissi holles si tirò su dalla sedia abbassò gli occhi su di me aggrottando le sopracciglia avete una fortuna spaventosa Marlow per due volte siete riuscito a scamparla bella potreste diventare temerario vi rendeste utile con quelle persone senza guadagnare un centesimo aiutaste moltissimo anche un tale a nome Lennox a quanto ho saputo e neppure in quel caso guadagnaste il becco di un quattrino che cosa fate per vivere amico o avete messo da parte tanto di quel denaro da non aver più bisogno di lavorare mi alzai a mia volta girai intorno alla scrivania e andai a mettermi di fronte a lui sono romantico Bernie odo voci gridare nella notte e vado a vedere che cosa succede e in questo modo non si guadagna un centesimo voi invece avete buon senso chiudete le finestre e aumentate il volume del televisore oppure se state guidando premete l'acceleratore e vi allontanate il più rapidamente possibile state alla larga da guai altrui il meglio che possa capitare è uno smacco l'ultima volta che vedi Terry Lennox bevemmo insieme una tazza di caffè che preparai io stesso in questa casa e fumammo una sigaretta e così quando seppi che era morto andai in cucina e preparai il caffè e riempi una tazza per lui e accesi per lui una sigaretta e quando il caffè si fu raffreddato e la sigaretta fu consumata gli augurai la buonanotte e in questo modo non si guadagna un centesimo voi non lo fareste ecco perché siete un abile poliziotto io sono un investigatore privato Aileen Wade è crucciata per il marito e allora io vado a cercarlo e lo trovo e lo riporto a casa Roger Wade si trova un'altra volta nei guai mi telefona io accorro e lo trovo nel giardino di casa sua e lo porto a letto e non ci guadagno niente neppure un soldo niente di niente a parte il fatto che di quando in quando vengo preso a pugni o schiaffato dentro o minacciato da qualche arruffone come Mandy Menendez ma denaro niente non un centesimo ho una banconota da 5.000 dollari nella cassaforte ma non la spenderò mai perché il modo con il quale l'ho avuta non è stato del tutto legittimo a tutta prima mi ci sono trastullato e ancora adesso la tiro fuori ogni tanto per darle un'occhiata ma mi limito a questo non ne spenderò un centesimo deve essere falsa osservò Ols asciutto solo che non falsificano banconote di così grosso taglio ma a che cosa mirate con queste chiacchiere non miro a niente vi ho detto che sono romantico ho capito e non ci guadagna un soldo ho capito anche questo ma non che non posso dire a un poliziotto di andare all'inferno andate all'inferno Bernie non mi direste di andare all'inferno se vi tenessi chiuso in una stanza sotto i riflettori bello mio forse lo sapremo un giorno o l'altro si avvicinò alla porta e la spalancò sapete una cosa amico credete di essere furbo ma siete soltanto stupido ho fatto il poliziotto per vent'anni senza passare mai per un allocco quando cercano di prendermi in giro me ne accorgo e quando un tizio mi nasconde la verità non ho bisogno che me lo venga a dire i furbi ingannano se stessi date retta a me amico io lo so bene ritrasse la testa dallo spiraglio e chiuse la porta i tacchi di lui martellarono il corridoio potevo sentirli ancora quando il telefono sulla scrivania cominciò a squillare una voce in tono limpido e professionale disse New York per il signor Philip Marlowe sono io Philip Marlowe grazie un momento prego signor Marlowe ecco la comunicazione la voce che udì a questo punto mi era nota parla Howard Spencer signor Marlowe abbiamo saputo di Roger Wade è stata una notizia tremenda non siamo a conoscenza di tutti i particolari ma sembra che ci siate di mezzo anche voi mi trovavo in casa sua quando è accaduto si è ubriacato e si è sparato un colpo di rivoltella la signora Wade è arrivata qualche minuto dopo la servitù era fuori il giovedì è il loro giorno di libertà eravate solo con lui non mi trovavo con lui ero fuori nel giardino e stavo gironzolando in attesa che sua moglie tornasse a casa capisco bene suppongo che vi sarà un'inchiesta già fatto signor Spencer verdetto di suicidio e straordinariamente poca pubblicità davvero è curioso non lo si sarebbe detto deluso più che altro interdetto e stupito era tanto noto avrei creduto ma a quello che potevo credere non conta penso che dovrei venire lì in aereo ma non mi sarà possibile sino alla fine della prossima settimana spedirò un telegramma alla signora Wade può darsi che possa fare qualcosa per lei e anche per il romanzo voglio dire che se il libro è sufficientemente a buon punto potremo farlo completare da qualcun altro presumo che tutto sommato voi abbiate accettato l'incarico no per quanto me lo avesse chiesto lui stesso gli dissi chiaro e tondo che non avrei potuto impedirgli di bere a quanto pare non avete neppure provato sentite signor Spencer non capite niente di niente della situazione perché non aspettate prima di arrivare alle conclusioni non che mi senta un po' responsabile non se ne può fare a meno presumo quando succede qualcosa di questo genere ci si trova in mezzo naturalmente disse mi spiace di essermi lasciato andare a quell'osservazione del tutto ingiustificata credete che sia in casa eileen Wade in questo momento o forse non lo sapete non saprei signor Spencer perché non le telefonate temo che non sia ancora in condizioni di parlare con chi che sia disse ad agio perché no ha parlato con il magistrato senza mai battere ciglio si schiarì la voce non sembrate molto compassionevole Roger Wade è morto Spencer era un po' bastardo e forse anche un po' genio non mi riguarda più ormai era un alcolizzato egocentrico e odiava a morte se stesso mi ha procurato molti guai e in ultimo molte sofferenze perché diavolo dovrei essere compassionevole stavo parlando della signora Wade fece lui brusco sì anch'io vi telefonerò al mio arrivo tagliò corto arrivederci riattaccò riattaccai e per un paio di minuti fissai l'apparecchio senza muovermi poi apri sulla scrivania l'elenco telefonico e cercai un numero 40 chiamai lo studio di Sewell Handicott un tale disse che era in tribunale e che non sarebbe stato possibile parlargli fino a tarda ora del pomeriggio volevo lasciare il mio nome no formai il numero del locale di Mandy Menendez sullo strip in quell'anno si chiamava El Tapado e non era neppure un brutto nome fra l'altro in sudamericano significa il tesoro sepolto e in passato aveva avuto altri nomi non molti a un certo momento non era stato altro che un numero in neon azzurro contro un altro muro senza finestre che dava sullo strip il muro di un edificio dietro il quale si elevavano le alture e intorno al quale girava il viale d'accesso allontanandosi dalla strada un locale di gran lusso nessuno lo conosceva bene eccettuati i poliziotti e la gente che poteva permettersi di spendere 30 dollari per una buona cena e qualsiasi altra somma fino a 50.000 dollari nel vasto e silenzioso locale al piano di sopra parlai con una donna che non sapeva nulla poi fui posto in comunicazione con un capitano dall'accento messicano desiderate parlare con il signor Menendez? chi siete? niente presentazioni amico è una questione personale un momento por favor segui una lunga attesa questa volta venne a rispondere un tipo duro sembrava che stesse parlando attraverso la feritoia di un carro armato probabilmente era soltanto la feritoia della sua faccia avanti fuori chi lo vuole? mi chiamo Marlow e chi diavolo è Marlow? siete Chick Agostino? no non sono Chick su finiamola datemi la parola d'ordine andate a farvi friggere ridacchiò restate in linea finalmente un'altra voce disse pronto buono a niente dove vi vanno le cose? siete solo? potete parlare buono a niente sto assistendo alle prove di alcuni numeri nello spettacolo perché non provate a tagliarvi la gola? e che cosa farei dopo il bis? rise risi anch'io avete evitato di fare il ficcanaso? domandò non lo sapevate ho stretto amicizia con un altro tizio che si è ucciso d'ora in poi mi chiameranno l'uomo dal bacio della morte divertente eh? no non è divertente inoltre qualche giorno fa ho preso il tè con Arlan Potter ve la spassate io non bevo mai certi intrugli ha detto che dovete essere cortese con me non l'ho mai conosciuto e prevedo che non lo conoscerò mai è molto influente desidero soltanto una piccola informazione Mandy sul conto di Paul Marston mai sentito nominare siete stato troppo sbrigativo Paul Marston è un nome di cui si servì un certo momento Terry Lennox a New York prima di venire all'Ovest e con questo? le sue impronte digitali sono state trasmesse all'ufficio federale investigativo non risulta niente questo significa che non ha mai fatto il servizio militare e con ciò? vi si è spappolato il cervello? o quelle storie sulla trincea sono tutte balle o è accaduto in qualche altro posto? non ho detto dove è accaduto buono a niente ascoltate un saggio consiglio e lasciate perdere siete stato avvertito è bene che lo teniate a mente oh certo faccio qualcosa che non mi va a genio ed eccomi galleggiare fino a Catalina con un tram attaccato al collo non mi fate paura Mandy siete mai stato in Inghilterra? ragionate buono a niente in questa città un tizio possono capitarne di tutti i colori possono capitarne di tutti i colori a pezzi grossi come il grande Willy Magoon date un'occhiata ai giornali della sera ne comprerò uno se lo dite voi potrebbe anche esserci la mia fotografia che cosa è successo a Magoon? come ho detto possono capitarne di tutti i colori so soltanto quello che hanno pubblicato i giornali sembra che Magoon abbia cercato di dare una lezione a quattro individui su un'automobile con la targa del Nevada la macchina era parcheggiata proprio di fronte casa sua aveva la targa del Nevada con un numero troppo alto per poter essere autentico doveva trattarsi di una specie di scherzo solo che Magoon non si diverte affatto con tutte e due le braccia ingessate la mascella fratturata in tre punti e una gamba in trazione Magoon non è più l'uomo di una volta potrebbe capitare anche a voi vi ha infastidito eh l'ho visto scaraventare il vostro tirapiedi Cic contro il muro di fronte al Victor se telefonassi a un mio amico nell'ufficio dello sceriffo e glielo dicessi provateci buono a niente disse molto ad agio provateci e gli ricorderò che in quell'occasione avevo appena terminato di bere qualcosa in compagnia della figlia di Arlan Potter è una prova accessoria in un certo senso non vi pare o pensate di fracassare anche la figlia di Potter stammi bene a sentire buono a niente siete mai stato in Inghilterra Mandy voi e Randy Star e Paul Marston o Terry Lennox o comunque si chiamasse nell'esercito inglese forse vi cacciaste nei guai a Soho o la situazione si complicò e giudicaste che un po' di tempo nell'esercito potesse essere salutare restate in linea rimasi in linea non accadde nulla a parte il fatto che aspettai e che mi si stancò il braccio posai il ricevitore nell'altra mano finalmente tornò ora ascoltatemi bene Marlow andate a rimestare nel caso di Lennox e siete morto Terry era un amico e anch'io un cuore come lo avete voi ma voglio venirvi incontro fu in un commando inglese accadde in Norvegia in una di quelle isole al largo della costa ce ne sono a milioni fu nel novembre del 1942 e adesso volete coricarvi e far riposare il vostro cervello esausto grazie Mandy lo farò il segreto è al sicuro non lo rivelerò a nessuno tranne che ai miei amici comprate il giornale buono a niente leggete e ricordate il grande inflessibile Willy Magoon picchiato di fronte a casa sua fratello come dovette stupirsi quando rientrò in sé dopo la narcosi riattaccò discesi in strada e comprai un giornale era proprio come aveva detto Menendez c'era una fotografia di Willy Magoon a letto in ospedale si vedeva soltanto metà della faccia e un occhio per il resto era completamente bendato ferito in modo grave ma non mortale i ragazzi erano stati molto cauti in quanto a questo volevano che vivesse e in fin dei conti era un poliziotto nella nostra città i gangster non ammazzano i poliziotti lasciano che lo facciano i minorenni e un poliziotto passato attraverso il tritacarne ha un'efficacia propagandistica di gran lunga maggiore alla lunga si ristabilisce e torna al lavoro ma da allora in poi gli manca qualcosa quel tantino di durezza e di determinazione che costituisce tutta la differenza è una lezione vivente del fatto che si commette uno sbaglio esagerando nella maniera forte con i delinquenti specie se si appartiene alla polizia segreta e si consumano i pasti nei ristoranti migliori e si guida una Cadillac per qualche tempo me ne restai tranquillo a meditare poi formai il numero dell'organizzazione Cairn e chiesi di parlare con George Peters non c'era lasciai il nome e dissi che era urgente lo aspettavo per le 5 e mezzo mi recai alla biblioteca pubblica di Hollywood e mi rivolsi all'ufficio informazioni ma non riuscii a trovare quel che volevo di conseguenza dovetti tornare sulla mia Halls e andare in centro fino alla biblioteca municipale scovai le notizie in un libretto rilegato in rosso edito in Inghilterra copiai i dati che mi occorrevano e tornai a casa telefonai ancora una volta all'organizzazione Cairn Peters era sempre fuori pregai allora alla ragazza del centralino di farmi telefonare a casa misi la scacchiera sul tavolino e mi accinzi a risolvere un problema detto la sfinge figura nell'appendice in un trattato sugli scacchi di Blackburn il mago inglese del gioco degli scacchi anche se probabilmente non avrebbe molto successo nel tipo di guerra fredda scacchistica che si gioca al giorno d'oggi la sfinge è un problema di 11 mosse e giustifica il proprio nome nel gioco degli scacchi i problemi superano di rado le 4 o 5 mosse la difficoltà di risolverli aumenta in progressione quasi geometrica un problema di 11 mosse è una pura e semplice tortura molto di rado quando mi sento abbastanza depresso lo affronto e cerco un nuovo modo di risolverlo è un magnifico e pacifico sistema per impazzire non si arriva fino al punto di urlare ma ci manca davvero poco george peters mi telefonò alle 5 e 40 ci scambiamo i complimenti e condoglianze vedo che ti sei cacciato in un altro pasticcio disse in tono giulivo perché non provi qualche mestiere più tranquillo come quello dell'imbalsamatore ci vuole troppo tempo per imparare sta a sentire voglio diventare cliente della tua agenzia se non costa troppo dipende da quello che desideri vecchio mio e dovresti parlare con Cairn no no bene dillo a me Londra è piena di gente che fa il mio mestiere ma non saprei a chi rivolgermi si chiamano agenzie private di informazioni la tua organizzazione deve essere in rapporto con esse io dovrei scegliere un nominativo a caso e con ogni probabilità farei un buco nell'acqua ho bisogno di alcune informazioni che dovrebbe essere abbastanza facile procurarsi e le voglio subito devo averle entro pochi giorni fuori voglio sapere qualcosa sul passato militare di Terry Lennox o Paul Morston comunque si facesse chiamare era nei Commandos in Inghilterra fu fatto prigioniero ferito nel novembre del 1942 durante un'azione contro qualche isola norvegese voglio sapere di quale reparto faceva parte che cosa gli è successo il ministero della guerra sarà senz'altro in possesso di questi dati non si tratta di notizie segrete o almeno credo potremmo dire che c'è di mezzo la questione di un'eredità non hai bisogno di rivolgerti a un'agenzia di informazioni per sapere questo potresti avere i dati direttamente scrivi una lettera al ministero lascia perdere George potrebbero rispondermi fra tre mesi io ho bisogno di saperlo entro cinque giorni in quanto a questo hai ragione c'è altro? ancora una cosa laggiù tutti i dati anagrafici sono raccolti in un posto che chiamano Somerset House voglio sapere se il suo nome vi figura per qualsiasi motivo nascita matrimonio naturalizzazione e via dicendo perché? cosa? cosa perché? chi lo paga il conto? e se questi due nominativi non risultassero? allora avrai fatto un buco nell'acqua ma se risultano voglio una copia autenticata di qualsiasi certificato possa saltar fuori quanto verrà a costarmi? dovrò domandarlo a Cairn può darsi che non voglia affatto saperne non ci garba il genere di pubblicità che ti fai tu se mi consente di occuparmi della cosa e tu ti impegni a non rivelare a chi ha avuto le informazioni direi 300 dollari quei tali in Inghilterra non pretendono molto secondo il nostro metro il compenso potrebbe essere di 10 sterline meno di 30 dollari più le eventuali spese sostenute diciamo 50 dollari in tutto e Cairn non accetta incarichi per meno di 250 dollari è modesto non sa che cosa sia la modestia passa a prendermi George vogliamo andare a cena insieme da Romanov d'accordo grugnì se mi riserveranno un tavolo cosa di cui dubito possiamo avere quello di Cairn so che è stato invitato da qualcuno stasera è un cliente abituale di Romanov può essere vantaggioso per gli affari frequentare un locale di lusso come quello Cairn è ormai un pezzo grosso in questa città già certo conosco un tale e lo conosco personalmente che potrebbe schiacciare Cairn sotto l'unghia di un mignolo buon lavoro mio caro ho sempre saputo che saresti riuscito ad aprirti una strada ci troviamo verso le 7 nel bar del ristorante Romanov di al capo dei ladroni che stai aspettando il colonnello Cairn farai il vuoto intorno a te in modo che non ti debba trovare a contatto di gomiti con la plebaglia dei soggettisti cinematografici o degli attori della televisione arrivederci alle 7 dissi riattaccammo e tornai alla scacchiera ma la sfinge non riuscì più a interessarmi di lì a poco Peters ritelefonò e dissi che Cairn non aveva nulla in contrario purché il nome dell'agenzia non venisse posto in rapporto con le mie faccende personali Peters soggiunse che avrebbe fatto partire immediatamente una lettera per Londra 41 Howard Spencer mi telefonò la mattina di venerdì alloggiava a Ritz Beverly e mi propose di andare a bere qualcosa con lui al bar dell'albergo meglio vederci nella vostra stanza dissi benissimo se lo preferite stanza 828 ho appena parlato con Aileen Wade sembra rassegnata ha letto il dattilo scritto lasciato da Roger e dice che a suo parere può essere completato molto facilmente sarà più breve degli altri suoi romanzi ma ciò verrà equilibrato dal chiasso che si è fatto sull'autore penserete suppongo che noi editori siamo gente senza cuore Aileen rimarrà in casa tutto il pomeriggio naturalmente vuole vedermi e io voglio vedere lei sarò lì tra mezz'ora signor Spencer aveva uno spazioso appartamento sulla facciata ovest dell'albergo nella stanza vi soggiorno vi erano alte finestre che si aprivano su uno stretto balcone della ringhiera di ferro le sedie e le poltrone erano rivestite con tessuto a strisce dai colori vivaci e ciò insieme al vistoso disegno floreale del tappeto dava all'ambiente un'aria all'antica se si accetta il fatto che dovunque fosse possibile posare un bicchiere vi erano lastre di cristallo e che disseminati dappertutto nella stanza si potevano contare 19 posacenere le stanze d'albergo tradiscono in modo palese le abitudini di chi le occupa il Ritz Beverly prevedeva che i suoi clienti non avessero alcuna cattiva abitudine Spencer mi strinse la mano accomodatevi disse che cosa bevete qualsiasi cosa o anche nulla non è indispensabile che beva qualcosa a me andrebbe un bicchierino di ammuntillado nella California in estate non si può bere a New York si riesce a mandar giù quattro volte più alcol risentendo la metà delle conseguenze prenderò un whisky andò al telefono e diede l'ordinazione poi si mise a sedere su una delle poltrone a strisce multicolori e si tolse gli occhiali per pulirli con il fazzoletto se li rimise se li aggiustò con cura sul naso e mi osservò presumo che abbiate in mente qualcosa per questo avete preferito che ci vedessimo qui e non al bar vero? vi accompagnerò in macchina a Idol Valley vorrei parlare anch'io con la signora Wade parve un poco a disagio non so se desidera vedervi disse so bene che non lo desidera affatto riuscirò a entrare se accompagnato da voi non sarebbe molto diplomatico da parte mia vi pare vi ha detto che non voleva ricevermi? non esattamente non in modo esplicito perlomeno si schiarì la voce ho avuto l'impressione che attribuisca a voi la colpa della morte di Roger già lo disse senz'altro all'agente venuto subito dopo il suicidio probabilmente lo disse anche al tenente che condusse le indagini sulla morte di Wade non lo disse invece al magistrato si appoggiò allo schienale grattandosi ad agio con un dito e il palmo della mano nel gesto di chi stia riflettendo a che cosa vi dovrebbe parlarle Marlowe per lei l'esperienza è stata spaventosa immagino che la vita debba esserle parsa un inferno per qualche tempo perché farle rivivere ciò che ha passato sperate forse di convincerla che non foste un po' imprevidente dissi alla gente che lo avevo ucciso io senza dubbio non voleva essere presa la lettera altrimenti qualcuno bussò alla porta Howard Spencer si alzò e andò ad aprire il cameriere entrò con i liquori e posò il vassoio con la stessa pompa di chi stia servendo un pranzo di sette portate Spencer firmò il conto e gli diede un dollaro di mancia l'uomo se ne andò Spencer prese il suo liquore e si allontanò come se non volesse porgermi il mio lo lasciai stare dov'era altrimenti cosa gli domandai altrimenti avrebbe detto qualcosa al magistrato non vi sembra si accigliò fissandomi credo che stiamo dicendo delle assurdità per quale ragione avete voluto incontrarvi con me siete stato voi a volermi parlare solo perché rispose in tono gelido quando vi telefonai da New York diceste che precipitavo le conclusioni questo lasciava capire secondo me che dovevate chiarire qualcosa ebbene di che si tratta vorrei chiarirlo alla presenza della signora Wade l'idea non mi garba penso che fareste meglio a sbrigarvela per conto vostro nutro la più alta considerazione per Ellen Wade come uomo d'affari vorrei salvare il lavoro di Roger qualora ve ne sia la possibilità se Ellen prova per voi quello che prova non posso essere io a introdurvi in casa sua siate ragionevole oh non ha importanza disse non pensateci più posso andare a farle visita senza alcuna difficoltà pensavo solo che mi avrebbe fatto comodo essere in compagnia di un testimone un testimone di che cosa per poco non mi urlò in faccia queste parole lo saprete alla sua presenza o non lo saprete affatto allora non lo saprò affatto mi alzai probabilmente vi state comportando nel modo giusto Spencer volete quel romanzo di Wade ammesso che sia utilizzabile e volete essere un gentiluomo due ambizioni ugualmente lodevoli io non condivido né l'una né l'altra vi auguro la miglior fortuna del mondo e vi saluto balzò in piedi e mi si avvicinò aspettate un momento Marlow non so che cosa abbiate in mente ma sembra che la prendiate sul serio c'è forse qualche mistero nella morte di Roger Wade nessunissimo mistero è stato ucciso dal proiettile di una rivoltella Weebly Amberless un proiettile che gli ha attraversato il cranio non l'avete letto e reso conto dell'inchiesta? certo era molto vicino a me ora e sembrava interdetto quello che non hanno pubblicato i quotidiani dell'est e un paio di giorni dopo un resoconto molto più completo nel giornale di Los Angeles Roger era rimasto solo in casa benché voi non foste lontano Candy e la cuoca non si trovavano nella villa e Eileen era andata a fare compere in centro e tornò a casa subito dopo il fatto nel momento in cui Roger si uccise un rumorosissimo motoscafo che copiva evoluzioni sul lago soffocò lo sparo impedendovi di udirlo esatto dissi poi il motoscafo si allontanò io che mi trovavo sulla sponda del lago rientrai in casa sentii suonare il campanello e aprì la porta in casa apprendendo così che Eileen Wade aveva dimenticato le chiavi Roger era già morto ella diede un'occhiata allo studio stando sulla soglia pensò che Roger si fosse addormentato sul divano e andò in cucina a preparare il tè pochi minuti dopo io pure mi affacciai sulla soglia dello studio notai che non si udiva il respiro di Roger e ne scoprì la ragione a suo tempo avvertì la polizia e in tutto ciò non vedo alcun mistero disse Spencer con voce sommessa dalla quale era svanito ogni tono aspro la rivoltella apparteneva a Roger e soltanto una settimana prima egli aveva fatto partire un colpo nella sua stanza sorprendeste Eileen che lottava con lui per togliergli l'arma il suo stato d'animo il suo comportamento lo scoraggiamento per il lavoro che non gli riusciva tutto questo è accertato vi ha detto che il romanzo è buono perché avrebbe dovuto essere scoraggiato è solo un giudizio personale sapete può darsi che sia pessimo oppure Roger poteva averlo ritenuto peggiore di quello che era continuate non sono uno sciocco capisco che c'è altro l'ufficiale della polizia che ha condotto le indagini sul caso è un mio vecchio amico un mastino un segugio e una vecchia volpe scaltra ci sono alcuni particolari che non gli garbano perché Roger non lasciò alcun biglietto visto che aveva la mania di scrivere perché si uccise in modo da lasciare alla moglie lo spavento della tragica scoperta perché si diete la pena di scegliere proprio il momento in cui non avrei potuto udire lo sparo perché lei dimenticò le chiavi di casa in modo che qualcuno dovesse farla entrare perché lasciò Roger solo proprio nel giorno in cui la servitù non era in casa ricordate disse di non aver saputo che io mi trovassi lì Dio mio gemette Spencer vorreste dirmi che quel dannato poliziotto sospetta di Eileen la sospetterebbe se riuscisse a supporre un movente è ridicolo perché non sospettare di voi aveste l'intero pomeriggio a vostra disposizione lei non avrebbe potuto avere che pochi minuti di tempo per uccidere Roger e aveva dimenticato le chiavi di casa quale movente avrei avuto allungò la mano afferrò il mio whisky e lo mandò giù d'unfiato posò con delicatezza il bicchiere e si tolse di tasca il fazzoletto e si asciugò le labbra e le dita dove il bicchiere appannato dal gelo le aveva inumidite rimise in tasca il fazzoletto e mi fissò l'inchiesta sta continuando non saprei una cosa è certa sanno ormai se aveva bevuto tanto da perdere i sensi e in questo caso potranno esserci altre complicazioni e volete parlare disse ad agio alla presenza di un testimone esatto e questo a mio parere può significare soltanto due cose Marlow o avete una paura maledetta o pensate che dovrebbe averla lei annui quale delle due ipotesi è la giusta domandò con severità non ho paura guardò l'orologio spero con tutto il cuore che siate pazzo ci scambiamo un'occhiata in silenzio 42 a nord nel canyon cold water cominciò a far caldo quando fumo giunti in cima alla salita e cominciammo a scendere verso la San Fernando Valley l'atmosfera era affosa e infocata sbirciai Spencer aveva la giacca ma la calura non sembrava dargli fastidio qualcos'altro lo infastidiva molto di più guardava dritto dinanzi a sé attraverso il parabrezza e non diceva nulla sulla valle gravava una fitta coltre di bruma fumosa vista dall'alto sembrava che la nebbia aderisse al terreno e quando la raggiungemmo Spencer si decise a rompere il silenzio mio dio credevo che la California meridionale avesse un bel clima disse che cosa stanno facendo bruciano vecchi pneumatici e lei del valle andrà meglio rispose in tono consolante laggiù spirano le brezze dell'oceano sono lieto che vi sia qualcos'altro oltre agli ubriachi disse stando a ciò che ho visto dalla gente del posto nei quartieri ricchi penso che Roger Wade abbia commesso un tragico errore venendo ad abitare da queste parti gli scrittori hanno bisogno di stimoli ma non di quelli che si imbottigliano qui in California non esiste altro che un enorme strascico di sbornia con la tintarella mi riferisco all'elemento migliore della popolazione si intende svoltai e rallentai sul tratto polveroso all'ingresso della Idle Valley poi eccoci di nuovo sulla strada pavimentata e di lì a poco la brezza oceanica si fece sentire giugendo fino a noi attraverso i varchi delle alture all'estremità opposta del lago grandi innaffiatoi a rotazione irroravano i vasti e lisci prati e l'acqua faceva un rumore frusciante mentre veniva spruzzata sull'erba in questa stagione quasi tutti i ricchi si trovavano altrove lo si capiva dalle persiane abbassate delle ville da come le automobili dei giardinieri erano parcheggiate proprio nel bel mezzo dei viali d'accesso raggiungemmo infine la villa dei Wade e io infilai la Halls tra i pilastri del cancello e fermai dietro Jaguar di Haylin Spencer discese e si incamminò con decisione lungo il sentiero lastricato fino all'ingresso della casa suonò il campanello e la porta si aprì quasi immediatamente ecco Candy sulla soglia e in giacchetta bianca col bel viso bruno e i penetranti occhi neri inappuntabile Spencer entrò Candy mi rivolse un breve sguardo e mi sbatté la porta in faccia aspettai e non accadde nulla premetti il dito sul pulsante del campanello e lo sentì squillare la porta si spalancò e Candy uscì digrignando i denti filate scompanite volete un coltello piantato nel ventre sono venuto a parlare con la signora Wade non vuole più saperne di voi fuori dai piedi villano ho qualcosa da fare qui Candy era la voce di lei e imperiosa Candy mi scoccò un'ultima occhiata d'odio e indietreggio nella casa entrai e chiusi la porta Eileen era in piedi all'estremità di uno dei divani e Spencer si trovava accanto a lei mi parve appetibile come un milione di dollari indossava pantaloni bianchi alti in vita e una bianca giacca sportiva dalle maniche corte un fazzoletto color lilla le sporgeva dal taschino sul seno sinistro Candy è diventato piuttosto dittatoriale da qualche tempo in qua disse a Spencer che piacere rivedervi Howard siete stato molto gentile a fare tutta questa strada non sapevo che sareste stato in compagnia Marlow mi ha accompagnato con la macchina disse Spencer inoltre desidera parlarvi non riesco a immaginare per quale ragione fece lei gelida finalmente mi fissò ma non come se il non avermi veduto per una settimana avesse scavato un vuoto nella sua vita ebbene ci vorrà un po' di tempo dissi si mise a sedere ad agio sedetti sull'altro divano Spencer era accigliato si tolse gli occhiali e li pulì ciò gli diede modo di aggrottare le sopracciglia con maggior naturalezza poi sedete a sua volta all'estremità opposta del divano rispetto a me ero convinta che sareste venuto per l'ora di pranzo gli disse Aileen sorridendo non oggi grazie no beh naturalmente siete troppo occupato allora volete semplicemente esaminare il dattilo scritto se posso ma certo Candy oh se n'è andato il romanzo è sulla scrivania nello studio di Roger andrò a prenderlo Spencer si alzò posso andarci io senza aspettare una risposta attraversò la stanza a un tre metri dietro di lei si fermò e mi scoccò un'occhiata inquieta poi proseguì rimasi dove mi trovavo e mi limitai ad aspettare finché Aileen non ebbe voltato la testa per fissarmi con uno sguardo freddo e impersonale per quale ragione volevate parlarmi domandò in tono brusco per varie ragioni vedo che portate ancora quel medaglione lo porto spesso mi è stato donato da un carissimo amico molto tempo fa già me lo avevate detto è un distintivo militare inglese vero lo prese fra le dita all'estremità della catenella è la riproduzione di un distintivo più piccola dell'originale in oro e smalto spencer riattraversò la stanza tornò accanto a noi si rimise a sedere e posò una grossa pila di foglie gialli sull'angolo del tavolino dinanzi a sé li osservò con pigrizia poi i suoi occhi tornarono a posarsi su Aileen potrei esaminarlo più da vicino le domandai ella fece girare la catenella in modo da poter aprire la chiusura mi porse il medaglione o meglio me lo lasciò cadere in mano poi intrecciò le mani in grembo e si limitò ad assumere un'espressione incuriosita perché vi interessa tanto è il distintivo di un reggimento chiamato Ertis Rifles un reggimento territoriale l'uomo che me lo donò fu dato come disperso subito dopo ad Andalzins in Norvegia nella primavera di quell'anno terribile il 1940 sorrise e fece un breve cenno con la mano era innamorato di me Eileen rimasi a Londra durante tutti i bombardamenti osservò Spencer con un tono di voce in remoto non potei allontanarsi lo ignorammo entrambi e voi eravate innamorata di lui disse abbassò gli occhi poi alzò la testa e i nostri sguardi si incrociarono è passato tanto tempo disse e c'è stata la guerra accadono strane cose accadde un po' più di questo signora Wade avete dimenticato suppongo fino a qual punto vi confidaste riguardo a quell'uomo una di quelle passioni sfrenate misteriose impossibili che capitano una volta sola nella vita ho citato le vostre stesse parole in un certo senso siete ancora innamorata di lui è una gran fortuna per me avere le sue stesse iniziali suppongo che la vostra scelta sia caduta su di me anche per questo il suo nome non somigliava affatto al vostro disse Gelida ed è morto 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 correggetemi se sbaglio dissi c'è una larga spada in smalto bianco con taglio in oro la spada è puntata verso il basso e la lama passa su due ali in smalto azzurro incurvati all'insù poi attraversa una pergamena sulla pergamena si leggono queste parole chi osa vince mi sembra esatto disse Spencer ma che importanza ha la signora afferma che è il distintivo del reggimento Artist Rifles un reparto territoriale afferma che l'è stato donato da un uomo inquadrato in quel reparto è dato come disperso nel corso della campagna dell'esercito inglese in norvegia nella primavera del 1940 ad Andalsnes mi degnavano adesso della massima attenzione Spencer non distoglieva gli occhi da me non parlavo a vanvera e lo sapeva anche Eileen se ne rendeva conto le sue fulve sopracciglia erano aggrottate in un cipiglio che poteva soltanto essere sincero e inoltre ostile questo è un distintivo da portare sulla manica dissi fu creato perché il reggimento Artist Rifles venne aggregato incorporato o inquadrato o comunque sia il termine esatto in una unità speciale dell'aviazione in origine era stato reggimento di fanteria territoriale e il distintivo non esistette fino al 1947 perciò nessuno poté regalarlo alla signora Wade nel 1940 inoltre gli Artist Rifles non sbarcarono mai ad Adalsnes in Norvegia nel 1940 i reggimenti dei Sherwood Forrester e dei Leicester Shires sì erano due unità territoriali ma quello degli Artist Rifles no mi sto comportando in modo perfido Spencer posò il medaglione sul tavolino e lo spinse ad agio dinanzi a Eileen senza aprire bocca volete che non sappia quello che affermo disse Eileen in tono sprezzante volete che il Ministero della Guerra Inglese non lo sappia ribattei evidentemente deve esserci un equivoco osservò Spencer in tono blando mi voltai di scatto e lo fissai con severità è una delle possibili interpretazioni un'altra interpretazione è che sono bugiarda disse Eileen in tono gelido non ho mai conosciuto un uomo a nome Paul Morston non l'ho mai amato né lui ha amato me non mi ha mai donato una riproduzione del distintivo del suo reggimento non è mai stato dato come disperso non è mai esistito acquistai io stessa questo distintivo in un negozio di New York che importa oggetti di lusso inglesi valigerie scarpe lavorate a mano cravate distintivi con riproduzioni di stemmi e via dicendo vi soddisferebbe signor Marlow una spiegazione di questo genere? L'ultima parte sì ma non la prima senza dubbio qualcuno vi disse che si trattava del distintivo degli Artist Rifles ma dimenticò di spiegarvi che tipo di distintivo fosse o forse non lo sapeva voi conosceste però Paul Marston e lui prestò effettivamente servizio in quell'unità e fu dato come disperso in Norvegia tuttavia questo non accadde nel 1940 signora Wade accadde nel 1942 e Marston faceva allora parte dei commandos e l'azione non ebbe luogo ad Adalsnes ma in un'isoletta a largo della costa dove i commandos fecero una rapida incursione non mi sembra necessario esprimersi con tanta ostilità osservò Spencer nel tono di un dirigente d'azienda giocherellava ora con i fogli gialli che aveva dinanzi a sé non capivo se stesse cercando di influenzarmi o se fosse semplicemente dispiaciuto prese una pila di fogli gialli e la sorpesò con la mano intendete acquistare quella roba appeso gli domandai parvi stupito poi senza difficoltà atteggiò le labbra un pallido sorriso eilin ha passato dei brutti momenti a londra disse certi piccoli episodi finiscono col confondersi nella memoria mi tolsi di tasca un foglio piegato in quattro certo risposi i piccoli episodi come un matrimonio questa è la copia autenticata di un certificato di matrimonio l'originale si trova nel municipio di Caxton Hall le nozze ebbero luogo nell'agosto del 1942 gli sposi furono Paul Edward Marston e Aileen Victoria Samsell in un certo senso la signora Wade ha ragione Paul Edward Marston non esistette mai e il suo era un falso nome perché sotto le armi occorre un'autorizzazione per poter contrarre matrimonio l'interessato adottò false generalità sotto le armi si fece passare per un altro sono in possesso di tutti i dati relativi al suo passato militare è straordinario la gente non si rende mai conto che per accertare qualcosa basta chiedere informazioni Spencer taceva adesso si appoggiò allo schienale e sbarrò gli occhi ma non fissò me fissò Aileen ella ricambiò lo sguardo con uno di quegli incerti sorrisi fra la deprecazione e la seduzione che riescono tanto bene alle donne ma morì Howard molto tempo prima che conoscessi Roger che importanza poteva avere Roger sapeva tutto io non smisi mai di servirmi del mio nome di ragazza date le circostanze non avrei potuto farne a meno era sul passaporto poi quando lui rimase ucciso si interruppe e si lasciò sfuggire un lento sospiro e posò ad agio con morbidezza la mano sulle ginocchia tutto finì per sempre irrevocabilmente siete certa che Roger lo sapesse domandò Spencer scandendo le parole sapeva qualcosa dissi il nome Paul Maston aveva un significato per lui glielo feci una volta e negli occhi gli si affacciò uno strano sguardo non mi disse perché Eileen mi ignorò e si rivolse a Spencer ma certo Roger sapeva tutto sorrideva ora a Spencer con pazienza come se fosse un po' tardo di comprendonio ah i trucchi delle donne allora perché mentire sulle date domandò Spencer in tono asciutto perché affermare che quell'uomo fu dato per disperso nel 1940 mentre ciò accadde nel 1942 perché portare un distintivo che egli non poté donarvi e insistere nel dire che fu lui a regalarvelo forse ero perduta in un sogno rispose Eileen con dolcezza o per essere più precisa in un incubo molti amici miei rimasero uccisi durante i bombardamenti a quei tempi quando si augurava la buonanotte si cercava di non farlo col tono di un addio ma molte volte era davvero un addio e quando ci si separava da un combattente era ancora peggio sono sempre i più buoni i migliori a restare uccisi Spencer non disse nulla io non dissi nulla Eileen abbassò gli occhi sul medaglione posato sul tavolino lo prese lo infilò nella catenina che portava al collo e si appoggiò in atteggiamento composto alla spalliera non ho alcun diritto di interrogarvi Eileen lo so disse Spencer ad agio non pensiamoci più Marlowe ha attribuito molta importanza al distintivo al certificato di matrimonio e al resto credo che per un momento sia riuscito a lasciarmi interdetto Il signor Marlowe osservò lei in tono apacato attribuisce un'importanza enorme alle inezie ma quando è in gioco qualcosa di realmente importante come il salvare la vita di un uomo se ne sta in riva al lago a contemplare le evoluzioni di uno stupido modoscafo E non rivedeste mai più Paul Morston dissi Come avrei potuto rivederlo se era morto? Non sapevate se era morto la croce rossa non aveva affatto annunciato la morte poteva essere stato fatto prigioniero Improvvisamente rabbrividì Nell'ottobre del 1942 disse parlando con lentezza Hitler impartì l'ordine di consegnare alla Gestapo tutti i commando sfatti prigionieri sappiamo tutti credo che cosa significasse quell'ordine torture e morti in massa in un carcere della Gestapo rabbrividì ancora poi mi fissò con uno sguardo acceso siete crudele volete farmi rivivere tutto quel che ho passato per punirmi di una stupida bugia supponete che una persona a voi cara fosse stata fatta prigioniera da quella gente supponete di aver saputo che cosa le sarebbe accaduto è forse il caso di meravigliarsi se cercai di costruirmi altri ricordi sia pure immaginari ho bisogno di bere qualcosa disse Spencer ne ho gran bisogno posso? Eileen batté le mani e Candy saltò fuori dal nulla come faceva sempre si inchinò a Spencer che cosa gradite signor Spencer whisky puro e molto rispose Spencer Candy si avvicinò a un angolo della stanza e scostò il bar della parete li posò su una bottiglia e versò una buona dose di whisky in un bicchiere tornò indietro e mise il bicchiere dinanzi a Spencer poi fece per allontanarsi forse Candy disse Eileen in tono appaccato anche il signor Marlow gradirebbe bere qualcosa Candy si fermò e la fissò con un volto chiuso e caperbio No grazie dissi non desidero nulla Candy sbuffò col naso e si allontanò seguì un nuovo silenzio Spencer posò il bicchiere vuotato a metà accese una sigaretta e mi rivolse la parola senza guardarmi sono certo che la signora Wade o Candy potrebbero riaccompagnarmi in macchina Beverly Hills altrimenti chiamerò un tassi presumo che abbiate ormai recitato il vostro discorsetto piegai la copia autenticata del certificato di matrimonio e me la misi in tasca siete certo di desiderare questa conclusione gli domandai è il desiderio di tutti noi benissimo mi alzai ritengo di essere stato uno sciocco regolandomi in questo modo essendo un importante editore e possedendo l'intelligenza necessaria per farlo ammesso che occorra avreste potuto capire che non sono venuto qui solo per recitare la parte del brutalone non vado a rivangare il passato né spendo il mio denaro al fine di procurarmi informazioni solo per rinfacciare la gente quello che so non ho indagato sul conto di Paul Marston perché la Gestapo lo assassinò perché la signora Wade portava un medaglione inspiegabile perché confondeva le date perché celebrò con lui uno di quegli sbrigativi matrimoni di guerra quando iniziai le indagini non ero a conoscenza di alcuno di questi particolari conoscevo soltanto il nome di Marston e in che modo lo conoscevo secondo voi senza dubbio ve lo disse qualcuno rispose Spencer in tono brusco esatto signor Spencer qualcuno che lo conobbe a New York dopo la guerra e lo rivide in seguito qui da Chesene in compagnia della moglie Marston è un nome molto comune osservò Spencer sorseggiando il whisky voltò la testa da un lato e la palpebra destra si abbassò di qualche millimetro pertanto mi rimisi a sedere persino i Paul Marston non possono essere rari vi sono per esempio 19 Howard Spencer nell'elenco telefonico di New York e 4 di loro si chiamano semplicemente Howard Spencer senza alcuna iniziale intermedia già ma secondo voi quanti ne possono esistere di Paul Marston con un lato della faccia sfregiato dall'esplosione di un proiettile di mortaio a scoppio ritardato con le cicatrici dell'intervento di chirurgia plastica che ovviò allo sconquasso Spencer spalancò la bocca si lasciò sfuggire una sorta di suono gorgogliante si tolse di tasca il fazzoletto e si asciugò le tempie secondo voi quanti Paul Marston possono aver salvato la vita a due disonesti tenutari di case da gioco a nome di Mandy Menendez e Randy Star in quella stessa occasione questi due individui sono ancora in circolazione e hanno un'ottima memoria potranno parlare se lo riterranno opportuno perché tergiversare ancora Spencer Paul Marston e Terry Lennox erano la stessa persona lo si può provare se in sombra di dubbio non mi aspettavo che qualcuno spiccasse e balzi in aria o urlasse e nessuno infatti si comportò in questo modo ma esiste una sorta di silenzio molto più penetrante di un grido e fu il silenzio che regnò a questo punto regnò tutto intorno a me greve e ossessivo sentivo dell'acqua scorrere in cucina fuori sulla strada udì il tonfo pesante di un giornale arrotolato cadere sul viale poi il sommesso impreciso fischiettare di un ragazzo che si allontanava in bicicletta sentì una lieve puntura sul collo sotto la nuca mi sottrassi a essa bruscamente mi voltai di scatto candy era lì con il coltello in mano il suo volto abbronzato era inespressivo ma negli occhi gli luceva uno strano sguardo non l'avevo mai veduto siete stanco amico disse con suavità vi preparo qualche cosa da bere eh whisky puro grazie risposi d'è pronto signor chiuse di scatto il coltello lo lasciò cadere nella tasca laterale della giacca bianca e si allontanò a passi felpati allora finalmente guardai Aileen sedeva protesa in avanti le mani intrecciate con forza il capo reclinato impediva di scorgere la sua espressione se ne aveva una e quando parlò vi era nella voce di lei la lucida vacuità di quella voce meccanica che annuncia allora al telefono e che si continua ad ascoltarla ma nessuno lo fa perché non venne ragione seguita a dirti per sempre i secondi che passano senza il minimo mutamento di inflessione lo vidi una volta Howard una sola volta non gli rivolsi affatto la parola né lui a me era tremendamente mutato aveva i capelli bianchi e il volto non sembrava più lo stesso ma naturalmente lo riconobbi e naturalmente lui mi riconobbe ci scambiamo uno sguardo e fu tutto poi uscì dalla stanza il giorno dopo lasciò la casa di Linda poiché ci incontrammo in casa Loring un pomeriggio tardi c'eravate anche voi Howard e Roger immagino lo vedeste gli fui presentato disse Spencer sapevo che aveva sposato Linda Loring mi disse che era scomparso se ne andò senza alcuna ragione non vi erano stati liti poi dopo qualche tempo quella Silvia divorziò da lui e in seguito venne a sapere che lo aveva ritrovato era a terra senza un soldo e si risposarono Dio solo sa perché presumo che non avesse denaro e che non gli importasse più nulla sapeva che io ero la moglie di Roger ci eravamo perduti per sempre perché domandò Spencer Candy posò il bicchiere dinanzi a me senza pronunciare parola guardò Spencer e Spencer scosse il capo Candy si allontanò nessuno badava a lui era come l'assistente di un prestigiatore e di un giocoliere il tipo che sposta oggetti sul palcoscenico ed è come se non esistesse tanto per gli attori quanto per il pubblico perché ripetei Lynn oh non riusciresti a capire ciò che avevamo in comune era perduto e non avremmo potuto più ritrovarlo nonostante tutto non era stato consegnato alla Gestapo dovette esserci qualche nazista onesto che non applicò gli ordini impartiti da Hitler di conseguenza era riuscito a sopravvivere e a fare ritorno quanto a me mi ero cullata nella speranza di poterlo ritrovare ma come l'avevo conosciuto un tempo avido di vita giovane ingenuo e invece saperlo sposato con quella sgualdrina dai capelli rossi fu terribile disgustoso sapevo già potevo perdonarlo beveva non sapeva quel che si facesse si cruciava per il suo lavoro e odiava se stesso perché non era altro che uno scrittore mercenario era un uomo debole inquieto deluso ma comprensibile era un marito e nulla più Paul non poteva essere che molto di più oppure nulla e alla fine fu soltanto nulla mandai giù un sorso di whisky Spencer aveva finito il suo stava grattando con l'unghia la stoffa del divano aveva dimenticato la pila di fogli il romanzo non finito del finitissimo romanziere famoso non direi che sia stato nulla osservai alzò gli occhi mi fissò vagamente e di nuovo li riabbassò meno di nulla disse con una nota di sarcasmo nella voce sapeva che cos'era Silvia l'aveva sposata poi proprio perché lei era quello che era la uccise e subito dopo fuggì e si tolse la vita non la uccise dissi e voi lo sapete si alzò molto ad agio e mi fissò con un volto privo di espressione Spencer si lasciò sfuggire un vago suono fu Roger a ucciderla dissi e sapete anche questo fu lui a confessarvelo domandò in tono pacato non era necessario me lo lasciò capire due volte ma prima o poi lo avrebbe detto a me o a qualcun altro il silenzio lo stava dilaniando crollò lentamente il capo no signor Marlow non era questo a tormentarlo Roger non sapeva di averla uccisa se n'era completamente dimenticato sapeva che era accaduto qualcosa di terribile e si sforzava di ricordare ma non vi riusciva lo shock aveva distrutto in lui ogni reminescenza forse col tempo il ricordo sarebbe tornato e forse negli ultimi istanti della sua vita gli tornò ma non prima di allora non prima di allora spencer disse con una sorta di grognito cose di questo genere non accadono il in oh sì accadono ribatte lei conosco due esempi accertati il primo caso è quello di un alcolizzato che uccise una donna pescata in un bar la strangolò con una sciarpa la sciarpa della donna assicurata con una spilla fantasia la poveretta lo accompagnò a casa e non si è mai saputo con precisione ciò che accadde eccettate il fatto che fu uccisa quando l'uomo venne arrestato portava la spilla sulla cravatta e non sapeva affatto dove l'avesse presa non se ne ricordo mai domandò spencer o solo in quel momento non lo confessò mai e adesso non è più possibile domandarglielo fu giustiziato nella camera gas l'altro caso è quello di un tale ferito alla testa abitava con un ricco pervertito uno di quegli individui che collezionano edizioni rare e amano cibi strani e raffinati e posseggono una costosissima biblioteca di libri pornografici nascosta dietro un pannello a muro vi fu una rissa fra i due lottarono per tutta la casa distanza in stanza fracassando ogni cosa il ricco alla fine ebbe la peggio l'assassino quando lo arrestarono aveva decine di lividi e un dito spezzato di una sola cosa era certo di avere un'emicrania tremenda e non gli riusciva più di trovare la strada per tornarsene a Pasadena continuava a seguire un circolo vizioso con la macchina e a fermarsi sempre allo stesso distributore di benzina per chiedere informazioni l'inserviente del distributore ritenne che fosse pazzo e chiamò la polizia quando l'uomo tornò indietro per l'ennesima volta lo stavano aspettando non posso credere una cosa simile di Roger disse Spencer non era più pazzo di me perdeva i sensi quando si ubriacava osservai ero presente lo vidi io ucciderla disse Eileen calma sorrisi a Spencer fu qualcosa di simile a un sorriso non troppo allegro probabilmente ma sentì che il mio volto faceva tutto il possibile sta per dirci che cosa accadde osservai ascoltate sta per dircelo non può farne a meno ormai sì è vero fece lei con gravità a nessuno piace dire certe cose sul conto di un nemico tanto meno sul conto del proprio marito e se dovrò dirle pubblicamente dal banco dei testimoni non vi faranno piacere Howard e il vostro meraviglioso geniale famoso ereditizio autore apparirà una figura molto meschina era un conquistatore un uomo irresistibile con le donne vero sulla carta si intende e come si sforzava di esserlo anche nella vita il povero sciocco quella donna per lui non fu mai altro che un trofeo e io li spiai dovrei vergognarmene ma è pur necessario dire la verità no non mi vergogno di nulla assistei a tutta la disgustosa scena il padiglione degli ospiti di cui Silvia si serviva per i suoi amori è un luogo appartato con un proprio garage e l'ingresso su una stradina laterale un vicolo cieco ombreggiato da grandi alberi giunse il momento ed è inevitabile nel caso di uomini come Roger in cui egli non fu più un amante soddisfacente quella sera era un po' troppo ubriaco cercò di andarsene ma lei gli corse dietro urlando completamente nuda agitando una specie di statuetta si espresse con un linguaggio di una tale oscenità e depravazione che non potrei neppure tentare di darvene un'idea poi tentò di colpire Roger con la statuetta siete uomini e dovete ben sapere come nulla urti un uomo più che il sentire una donna da lui ritenuta raffinata ad operare il linguaggio delle fogne e dei vespasiani Roger era ubriaco aveva avuto improvvise crisi di violenza e ne ebbe una in quel momento le strappò la statuetta di mano il resto potete supporlo dovette esserci molto sangue dissi sangue rise con amarezza avreste dovuto vederlo quando tornò a casa allorché corsi verso la mia automobile per andarmene lui stava lì in piedi e contemplava Silvia poi si chinò e la prese tra le braccia e la portò nel padiglione degli ospiti mi resi conto allora che lo sciocco gli aveva snebbiato in parte il cervello tornò a casa dopo circa un'ora era molto tranquillo trasalì quando vide che lo stava aspettando ma non era più ubriaco era intentito aveva sangue sul viso sui capelli sul davanti della giacca lo portai nello stanzino del lavabo adiacente allo studio e lo spogliai e lo pulì alla meglio quanto bastava per poterlo condurre di sopra nella doccia lo misi a letto tirai fuori una vecchia valigia scesi al pian terreno con gli indumenti insanguinati lavai il lavabo e il pavimento poi presi un asciugamano bagnato e andai a togliere ogni macchia di sangue anche nell'automobile misi la sua macchina nel garage e mi servii della mia andai fino al bacino di Chatsworth e potete ben immaginare quello che feci della valigia piena di indumenti insanguinati e degli asciugamani si interruppe Spencer si stava grattando il palmo della mano sinistra e Eileen gli scoccò un rapido sguardo e continuò mentre ero fuori Roger si alzò e beve molto whisky e la mattina dopo non ricordava più nulla cioè non disse una parola di quanto era avvenuto e si comportò come se fosse tormentato soltanto dagli strascichi di una sbornia neppure io dissi nulla dovette accorgersi che mancavano dei vestiti osservai annui penso che alla lunga se ne sia accorto ma non ne parlò poi tutto parve precipitare improvvisamente i giornali non parlarono d'altro che del delitto Paul scomparve e di lì a poco morì in Messico come potevo sapere che sarebbe accaduta una cosa simile Roger era mio marito aveva fatto una cosa orribile ma Silvia era stata una donna orribile e lui non si era reso conto di quel che faceva poi quasi altrettanto improvvisamente i giornali non si occuparono più della cosa in questo dovette esserci lo zampino del padre di Linda Roger leggeva i giornali naturalmente e fece proprio gli stessi commenti che ci si sarebbe potuto aspettare da un innocente osservatore il quale avesse conosciuto per caso gli interessati non avevate paura le domandò Spencer in tono pacato ero pazza di paura Howard se avesse ricordato probabilmente mi avrebbe uccisa sapeva fingere molto bene quasi tutti gli scrittori sono abili in questo e forse sapeva già e aspettava soltanto l'occasione propizia ma non potevo esserne certa non era neppure escluso che avesse dimenticato per sempre l'accaduto e Paul era morto se non accennò mai ai vestiti che gettaste nel bacino questo dimostra che sospettava qualcosa dissi e ricordate nei fogli che lasciò sulla macchina da scrivere l'altra volta quando lasciò partire il colpo di rivoltella di sopra e io entrai mentre cercavate di togliergli l'arma scrisse che un brav'uomo era morto per lui scrisse questo sbarrò gli occhi non più di quanto fosse indispensabile sì lo scrisse a macchina distrusse i fogli come lui mi aveva pregato di fare supponevo che li aveste già letti non ho mai letto nulla di ciò che scriveva nello studio leggeste però il biglietto che lasciò quando Berringer venne a prenderlo frugaste persino nel cestino quella volta era diverso disse Gelida cercavo di scoprire dove potesse essere andato sta bene dissi e mi appoggiai alla spalliera c'è altro? scosse ad agio la testa con profonda malinconia credo di no all'ultimo momento nel pomeriggio in cui si uccise può darsi che abbia ricordato non lo sapremo mai ed altronde vogliamo forse saperlo? Spencer si schiarì la voce e quale avrebbe dovuto essere il compito di Marlow in tutta questa storia? fu un'idea vostra quella di chiamarlo foste voi a convincermi sapete? ero tremendamente spaventata avevo paura di Roger avevo paura per lui il signor Marlow era amico di Paul fu si può dire l'ultimo di coloro che lo conoscevano a vederlo vivo Paul poteva avergli detto qualcosa e io volevo accertarmene se era pericoloso volevo averlo al mio fianco se aveva già scoperto la verità poteva ancora esserci il modo di salvare Roger improvvisamente e senza che riuscissi a capire perché Spencer si inalberò si sporse in avanti e irrigidi la mascella consentitemi di parlare chiaro Eileen si trattava di un investigatore privato che era già neguè con la polizia lo avevano imprigionato si supponeva che avesse aiutato Paul lo chiamo così perché questo è il nome che gli date voi a rifugiarsi al Messico se Paul fosse stato un assassino avrebbe commesso un reato e secondo voi se Marlow avesse scoperto la verità e fosse stato in grado di scagionarsi se ne sarebbe rimasto con le mani in mano senza far nulla avevo paura Howard non capite vivevo nella stessa casa con un assassino che poteva essere un pazzo sanguinario restavo solo con lui per la maggior parte del tempo questo lo capisco disse Spencer sempre irritato ma Marlow non accettò e continuaste a restare sola poi Roger lasciò partire un colpo di rivoltella e ancora per una settimana rimaneste sola poi Roger si uccise e molto opportunatamente questa volta fu Marlow a restare solo in casa è vero rispose Eline e con questo fu forse colpa mia benissimo disse Spencer c'è un'altra possibilità potreste aver pensato che Marlow sarebbe forse riuscito a scoprire la verità col precedente del colpo di rivoltella avrebbe potuto porgere l'arma a Roger e dirgli qualcosa di questo genere sentite vecchio mio siete un assassino e io lo so e lo sa anche vostra moglie è una donna nobile ha già sofferto abbastanza per non parlare del marito di Silvia perché non fate la sola cosa decente che vi resti da fare perché non premete il grilletto tutti si convinceranno che avete esagerato con l'alcol io andrò a fare una passeggiatina sulla riva del lago e fumerò una sigaretta vecchio mio buona fortuna e addio oh ecco qui la rivoltella è carica ed è tutta per voi state diventando disgustoso Howard non ho mai pensato nulla di simile diceste alla gente che Marlowe aveva ucciso Roger per quale ragione mi rivolse un breve ma quasi timido sguardo fu un errore imperdonabile non sapevo quel che mi dicevo forse pensavate che fosse stato Marlowe a sparargli le suggerì Spencer calmo Eileen socchiuse gli occhi oh no Howard perché perché avrebbe dovuto fare una cosa simile è un sospetto abominevole per quale ragione volle sapere Spencer che cosa c'è di abominevole la polizia ha avuto la stessa idea ed è stato Candy a fornirle il movente ha detto che Marlowe si trattenne per due ore nella vostra stanza la notte in cui Roger esplose il colpo di rivoltella contro il soffitto dopo aver preso un sonnifero prima di addormentarsi Eileen arrossì fino alla radice dei capelli e lo fissò mutolita eravate nuda disse Spencer brutalmente così ha asserito Candy ma all'inchiesta cominciò Eileen con voce tremula Spencer la interruppe la polizia non ha prestato fede a Candy per questo lui non ha più parlato all'inchiesta fu un sospiro di sollievo inoltre continuò gelido Spencer la polizia ha sospettato di voi e continua a nutrire sospetti le manca solo un movente a me sembra che ora si potrebbe individuarlo Eileen balzò in piedi credo che fareste meglio uscire tutti e due da questa casa disse con ira prima ve ne andrete meglio sarà bene foste voi o no domandò Spencer con calma e non si mosse se non per prendere il bicchiere e trovarlo vuoto fui io a fare cosa ad assassinare Roger in piedi lo fissava il rossore era scomparso aveva un volto esangue e teso e cattivo mi limito a porvi la stessa domanda che vi verrebbe rivolta in tribunale non ero in casa avevo dimenticato le chiavi dovetti suonare il campanello per poter entrare e Roger era morto quando arrivai tutto ciò è ben noto che cosa vi siete preso in nome di Dio Spencer si tolse di tasca il fazzoletto e si asciugò le labbra Eileen sono stato ospite in questa casa almeno 20 volte non ho mai saputo che la porta venisse chiusa a chiave durante il giorno non ho affermato che lo abbiate ucciso mi sono limitato a domandarvelo e non ditemi che sarebbe stato impossibile così come si sono svolte le cose sarebbe stato facile avrei ucciso mio marito e la domandò ad agio in tono di stupore supposto disse Spencer nello stesso tono di voce indifferente che fosse vostro marito ne avevate un altro quando lo sposaste grazie Howard grazie mille l'ultimo romanzo di Roger il suo canto del cigno è lì davanti a voi prendetelo e andatevene credo anche che fareste bene a chiamare la polizia e a dire quello che pensate sarà una degna conclusione della nostra amicizia una degnissima conclusione addio Howard sono stanchissima e ho l'emicrania vado a coricarmi nella mia stanza in quanto al signor Marlow e suppongo che sia stato lui a suggerirvi tutte queste idee posso solo dire che non uccise materialmente Roger senza dubbio lo spinse al suicidio si voltò per lasciarci disse in tono aspro signora Wade un momento portiamo a termine l'opera è inutile a dirarsi stiamo cercando tutti quanti di fare ciò che è giusto la valigia che gettasta nel bacino Chatsworth era pesante? girò sui fianchi e mi fissò ho detto che si trattava di una vecchia valigia sì era molto pesante e come riusciste a scavalcare l'alto recinto di rete metallica che circonde il bacino cosa? il recinto? fece un gesto vago credo che nelle circostanze più gravi della vita si sia in possesso di inconsuete energie per poter fare il necessario in un modo o nell'altro riuscì a superarlo ecco tutto non esiste alcun recinto dissi non esiste alcun recinto? ripetè queste parole in tono inespressivo come se non significassero nulla i vestiti di Roger non erano sporchi di sangue e Silvia Lennox non fu uccisa fuori del padiglione degli ospiti ma all'interno del padiglione sul letto e praticamente non perdette sangue perché era già morta freddata da un colpo di rivoltella e quando la statuetta venne adoperata per maciullare la testa qualcuno infierì contro un cadavere e i cadaveri signora Wade sanguinano ben poco incurvò le labbra con disprezzo voi eravate presente suppongo disse in modo befferdo poi ci voltò le spalle la seguimmo con lo sguardo mentre si allontanava salì le scale ad agio muovendosi con placida eleganza scomparve nella sua stanza e la porta si chiuse lentamente ma con fermezza dietro di lei silenzio cos'è stata quella storia sul recinto mi domandò vagamente spencer muoveva la testa in su e in giù era acceso in faccia e sudato cercava di mostrarsi all'altezza della situazione ma non gli riusciva facile nient'altro che una bugia dissi non mi sono mai avvicinato al bacino Chatsworth e non so neppure che aspetto abbia forse c'è un recinto forse no capisco disse in tono dispiaciuto ma il guaio è che non lo sapeva neppure lei no naturalmente li ha uccisi tutti e due 43 vi fu poi un momento furtivo ed ecco Candy in piedi all'estremità del divano intento a fissarmi aveva in mano un coltello a scatto premette il bottone e la lama ballenò premette il bottone e la lama rientrò nell'impugnatura aveva negli occhi un bagliore minaccioso mi onde perdone signor disse mi ero sbagliato sul vostro conto è stata lei a uccidere il padrone credo che io lasciò a mezzo la frase la lama tornò a scattare no mi alzai e tesi la mano datemi quel coltello Candy non siete altro che un cameriere messicano accuserebbero voi e con gioia sareste la cortina fumogena che li farebbe sogginare di felicità non potete rendervi conto della situazione ma io so perfettamente bene che cosa accadrebbe hanno talmente imbrogliato le carte che non riuscirebbero a chiarire le cose neppure se lo volessero e non ne hanno affatto l'intenzione vi strapperebbero una confessione con tale rapidità che non avreste il tempo di dire loro le vostre generalità e fra tre settimane vi trovereste seduto su una branda in qualche cella di San Quentin condannato all'ergastolo vi ho già detto che non sono messicano sono sileno di vigna del mar presso Valparaiso il coltello Candy sì lo so siete libero avete del denaro da parte probabilmente a casa vi aspettano otto fratelli e sorelle siete saggio e tornate là dove siete venuto il vostro lavoro qui è andato in fumo molte altre cose sono andate in fumo disse in tono pacato poi si avvicinò e mi mise il coltello in mano faccio questo per voi mi lasciai cadere il coltello in tasca Candy si voltò a guardare la balconata la signora che cosa facciamo adesso niente non facciamo proprio niente la signora è molto stanca ha passato dei momenti terribili non vuole essere disturbata dobbiamo chiamare la polizia disse Spencer in tono fermo perché oh mio dio Marlow non possiamo farne a meno domani prendete quella pila di fogli e andiamocene dobbiamo chiamare la polizia esistono delle norme che si chiamano legge non dobbiamo fare nulla di simile le prove di cui disponiamo non basterebbero neppure a spiaccicare una mosca lasciate che coloro cui spetta il compito di applicare la legge facciano il loro sporco lavoro lasciate che ci pensino gli avvocati formulano leggi affinché altri avvocati le dissezionino dinanzi ad altri avvocati detti giudici in modo che altri giudici possano affermare che i primi giudici si erano sbagliati e in modo che la corte di Cassazione possa dire che si erano sbagliati anche i secondi naturale che esiste la legge ci siamo dentro fino al collo ma in pratica serve soltanto a dare lavoro agli avvocati quanto credete che resisterebbero i delinquenti in grande stile se gli avvocati non insegnassero loro il modo di agire Spencer ribatte con ira tutto questo non c'entra affatto e in questa casa un uomo è stato assassinato era un romanziere e anche un romanziere molto importante e conosciuto ma anche questo non c'entra era un uomo e voi e io sappiamo benissimo chi l'ha ucciso esiste una cosa chiamata giustizia domani sareste colpevole quanto lei se le permetteste di cavarsela cominciate a insospettirmi un po' Marlow avreste potuto salvargli la vita se foste stato più in guardia in un certo senso lasciaste che lo uccidesse e per quello che ne so io la commedia di poco fa è stata proprio questo una commedia giustissimo una scena d'amore camuffata avete potuto rendervi conto che Aileen è pazza di me quando la situazione si appianerà potremo sposarci dovrebbe possedere un notevole patrimonio e io non ho avuto ancora un soldo dalla famiglia Wade sto diventando impaziente si torse gli occhiali e li pulì si asciugò il sudore sotto gli occhi e si rimise gli occhiali e fissò il pavimento scusatemi disse è stato un gran brutto colpo quello di oggi per me era già abbastanza doloroso sapere che Roger si era ucciso ma questa nuova interpretazione dei fatti mi avvilisce mi avvilisce soltanto il pensarlo alzò gli occhi su di me posso fidarmi di voi perché cosa perché facciate ciò che è giusto di qualsiasi cosa si tratti si chinò prese la pila dei fogli gialli e se la mise sotto il braccio no non mi date alle mie parole dovete sapere presumo quello che fate sono un editore abbastanza abile ma queste cose esorbitano dalla mia competenza suppongo di non essere altro in realtà che un dannato eborioso buono a niente mi passò accanto e Candy si scostò e poi si avvicinò rapidamente alla porta di casa e la tenne aperta Spencer uscì salutandolo con un breve cenno del capo lo seguì mi soffermai accanto a Candy e lo fissai negli occhi neri e lucenti niente scherzi amico dissi la signora è molto stanca mormorò è andata in camera sua e non verrà disturbata io non so niente signor non me acuerdo di nada a sus ordines signor mi tolsi di tasca il coltello e glielo porsi sorrise nessuno si fida di me ma io mi fido di voi Candy lo mismo signor muchas gracias Spencer era già sull'automobile salì a mia volta e accesi il motore e feci marcia indietro nel viale e tornammo a Beverly Hills lo accompagnai fino all'ingresso dell'albergo ho riflettuto per tutto il tragitto disse scendendo non deve essere sana di mente credo che non la condanneranno mai non ci proveranno neppure risposi ma lei non lo sa si affannò con la pila di fogli che aveva sotto il braccio riuscì a raddrizzarla e mi fece un cenno d'assenso lo seguì con lo sguardo mentre apriva la porta ed entrava tolsi il piede dal pedale del freno e la Holtz si allontanò dal marciapiede e quella fu l'ultima volta che vidi Howard Spencer giunsi a casa tardi stanco e sconfortato era una di quelle sere in cui l'aria è greve i rumori notturni sembrano soffocati e remoti vi era in cielo una luna alta lattiginosa indifferente girellai per la stanza suonai alcuni dischi e quasi non li udii mi pareva di sentire in qualche posto un incessante tichettio ma in casa non c'era nulla che tichettasse il tichettio lo avevo nella testa era come se in me girassero gli ingranaggi dell'orologio della morte pensai al primo incontro con Aileen Wade e al secondo e al terzo e al quarto ma poi ella divenne nebulosa non più reale gli assassini sono sempre irreali quando si sa quello che hanno fatto vi sono individui che uccidono per odio per paura o per avidità vi sono gli assassini scaltri che si attengono a un piano e ritengono di potersela cavare vi sono gli assassini iracondi e impulsivi che non riflettono affatto e quelli innamorati della morte per i quali l'assassinio è una sorta di remoto suicidio in un certo senso sono tutti pazzi ma non come pensava Spencer era quasi l'alba quando mi coricai il trillo del telefono mi fece emergere da un nero pozzo di sonno mi voltai sul letto brancolai in cerca delle pantofole mi resi conto di non aver dormito per più di due ore mi sentivo come un pasto semidigerito mandato giù in un ristorante economico avevo le palpebre apiccicose e la bocca piena di sabbia a stento mi misi in piedi entrai barcollante nella stanza di soggiorno strappai i ricevitori dell'apparecchio e dissi restate in linea posai il ricevitore sul tavolo andai nel bagno e mi spruzzai la faccia con acqua fredda fuori di fronte alla finestra qualcosa faceva zip 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 guardai vagamente da quelle parti e vidi una faccia bruna inespressiva era il giardiniere giapponese che veniva una volta alla settimana lo chiamavo Harry dal cuore duro stava potando la siepe come può potarla un giardiniere giapponese gli dite quattro volte di farlo e lui risponde la settimana prossima e poi viene alle sei del mattino e comincia a portarla proprio di fronte alla finestra della camera da letto mi asciugai e tornei al telefono si? parla Candy signor buongiorno Candy la signora è smuerta morta una parola fredda nera silenziosa e in qualsiasi lingua la signora è morta non per colpa vostra spero per colpa della medicina credo si chiama Demerolo c'erano 40 o 50 compresse nella boccetta credo ora è vuota ieri sera la signora non ha cenato stamane ho appoggiato la scala a pioli al muro e ho guardato alla finestra era vestita proprio come ieri nel pomeriggio ho rotto i vetri la signora è smuerta fria come acqua da nieve fredda come acqua ghiacciata avete telefonato a qualcuno si al dottor loring avvertirà lui la polizia non è ancora arrivato il dottor loring proprio il tipo da arrivare troppo tardi non gli mostrerò la lettera disse Candy la lettera per chi per il signor Spencer datela alla polizia Candy non al dottor loring soltanto alla polizia e ancora una cosa Candy non nascondete nulla non dite loro alcuna bugia siamo stati lì dite la verità questa volta la verità è tutta la verità seguì un breve silenzio poi disse sì ho capito asta la vista amico e riattaccò formai il numero del Ritz Beverly e domandai di Howard Spencer un momento prego vi passo la portineria una voce di uomo disse qui la portineria e in cosa posso esservi utile ho chiesto di parlare con Howard Spencer so che è presto ma si tratta di una cosa urgente il signor Spencer ha lasciato l'albergo ieri sera ha preso l'aereo delle otto per New York andai in cucina a preparare il caffè fiumi di caffè denso forte bollente spietato corrotto e il sangue degli uomini esausti erano passate circa due ore da quando Bernie Holtz mi telefonò ok furbone disse venite qui e soffrite ok 44 fu come la volta precedente eccettuato il fatto che era di giorno che ci trovavamo nell'ufficio del capitano Hernandez e che lo sceriffo si trovava a Santa Barbara per inaugurare la fiesta erano presenti il capitano Hernandez Bernie Holtz un rappresentante del magistrato il dottor Loring con l'area di essere stato colto in fragrante mentre procurava un aborto illegale e un tale a nome Lawford in rappresentanza dell'ufficio del procuratore distruttuale un uomo alto magro inespressivo si sussurrava che suo fratello fosse il capo di una banda del lotto clandestino nella zona di Central Avenue Hernandez aveva dinanzi a sé alcuni fogli di tacquino scritti a mano fogli di carta rosa riempiti con uno scritto in inchiostro verde questa riunione non è ufficiale disse Hernandez non appena tutti si furono accomodati come è possibile accomodarsi su dure sedie di legno né stenografi né registratori a nastro potrete dire quello che vi piacerà il dottor Weiss rappresenta il magistrato che deciderà se un'inchiesta sia necessaria dottor Weiss Weiss era un uomo grasso dall'aria allegra e sembrava competente non ritengo sia necessaria un'inchiesta disse tutto fa credere che siamo di fronte a un caso di avvelenamento con sonniferi quando l'ambulanza arrivò la donna respirava ancora debolmente si trovava in stato di grave coma e tutti i riflessi erano negativi in questo stadio non se ne salva uno su cento l'epidermide era fredda e non sarebbe stato possibile rilevare la respirazione senza un attento esame il cameriere ritenne che fosse morta morì invece dopo circa un'ora mi risulta che la signora andava soggetta a occasionale violente attacchi di asma bronchiale il demerolo fu prescritto dal dottor Loring come cura di emergenza nessun dato nessuna deduzione sul quantitativo di demerolo ingerito dottor Weiss una dose mortale rispose Weiss con un pallido sorriso non è possibile determinarlo rapidamente senza conoscere i precedenti clinici la tolleranza naturale o acquisita stando alla sua confessione la signora ha ingerito 2300 milligrammi vale a dire da 4 a 5 volte la dose letale minima per i non a suoi fatti di droga Weiss fissò con aria interrogativa il dottor Loring la signora Wade non prendeva abitualmente droga disse Loring in tono gelido la dose prescritta era di una o due compresse di 50 milligrammi 3 o 4 compresse in un periodo di 24 ore erano il massimo che avessi consentito ma le avete dato un flacone di 50 compresse osservò il capitano Hernandez è molto pericoloso avere a portata di mano una simile quantità di quel medicinale non credete quest'asma presentava sintomi di gravità dottore il dottor Loring atteggiò le labbra a un sorriso sprezzante era intermittente come quasi sempre accade tuttavia non ha mai raggiunto quello che noi definiamo status asthmaticus vale a dire è una crisi tanto grave da far temere che il paziente possa soffocare nessun commento dottor Weiss bene rispose il dottor Weiss parlando lentamente supponendo che la lettera non esistesse e supponendo che non disponessimo di altre prove sul quantitativo ingerito potrebbe trattarsi di una dose eccessiva ingerita per errore il margine di sicurezza non è molto ampio lo sapremo con certezza domani non vorrete non tener conto della lettera Hernandez in nome di Dio Hernandez abbassò preoccupato gli occhi sulla scrivania stavo solo stavo solo riflettendo non sapevo che i narcotici fossero la normale cura dell'asma si imparano cose nuove ogni giorno Loring arrossì eh l'ho già detto una misura di emergenza capitano il medico non può trovarsi dappertutto nello stesso momento l'insorgere della crisi asmatica può essere molto improvviso Hernandez gli scoccò un rapido sguardo poi si voltò verso Loford come reagirebbe il vostro ufficio se comunicassi alla stampa il contenuto di questa lettera e il rappresentante del procuratore distrattuale mi sbirciò con uno sguardo vacuo che cosa fa qui questo signore Hernandez l'ho convocato io come potete essere certo che non riferirà ai giornalisti nulla di quanto diremo già è un gran parlatore voi avete potuto accertarvene quando lo faceste arrestare Loford soghignò poi si schiarì la voce ho letto quella cosiddetta confessione disse soppesando le parole e non credo una parola di ciò che ha dice c'è uno sfondo di spossanti crisi emotive di squallida infelicità un certo ricorso agli stupefacenti la tensione degli anni di guerra a Londra sotto i bombardamenti il matrimonio segreto l'uomo che torna qui e via dicendo senza alcun dubbio si determinò in lei un senso di colpa e la donna tentò di liberarsene mediante una sorta di transfert si interruppe e si guardò intorno ma non vide altro che volti privi di espressione non sono autorizzato a parlare in nome del procuratore distrettuale ma a mio parere non ci si potrebbe basare su questa confessione per un'accusa neppure se la donna avesse vissuto e avendo già creduto a una confessione non vi garberebbe dover credere a una seconda confessione che contraddice la prima osservò Hernández in tono caustico calmatevi Hernández chiunque debba far applicare la legge non può non tener conto delle ripercussioni sul pubblico se i giornali pubblicassero questa confessione ci troveremmo nei guai non vi è dubbio abbiamo già alle calcagna troppi gruppi rifornisti che aspettano anziosamente un'occasione del genere per piantarci un coltello nella schiena c'è una grande giuria che ha già i nervi a fior di pelle per le botte che ha preso quel vostro tenente della squadra in borghese la scorsa settimana Hernández disse ok la confessione è vostra firmatemi la ricevuta mise i fogli rosa e l'offord si chinò per firmare un modulo di ricevuta prese poi i fogli li mise nella tasca interna della giacca e uscì dalla stanza il dottor Waze si alzò era sicuro di sé placido indifferente l'ultima l'ultima inchiesta sulla famiglia Wade ha avuto luogo troppo di recente disse credo che non ci daremo la pena di tenerne un'altra salutò Holtz e Hernández con un cenno del capo strense la mano a Loring con modi formali e uscì Loring si alzò a sua volta per andarsene poi esitò presumo di poter riferire a una certa persona interessata alla cosa che non vi saranno ulteriori indagini su questo episodio vero disse in tono sprezzante spiacente di avervi tenuto così a lungo lontano dai vostri pazienti dottore non avete risposto alla mia domanda disse Loring con voce aspra è meglio che vi avverta fuori dai piedi disse Hernández lo stupore per poco non fece barcollare il dottor Loring poi voltò le spalle e uscì rapidamente dalla stanza la porta si chiuse e trascorse mezzo minuto prima che qualcuno aprisse bocca Hernández si riscosse e accese una sigaretta poi mi fissò ebbene disse ebbene cosa che diavolo state aspettando e questa è la conclusione allora è tutto finito caput diteglielo voi Bernie già sicuro è tutto finito disse Hulls stavo già per farla venire qui a interrogarla Wade non si è ucciso aveva la mente troppo annebbiata dall'alcol ma come ebbi già occasione di dirvi quale poteva essere il movente la confessione può essere errata nei particolari tuttavia dimostra che la donna lo spiava e lynn wade conosceva la disposizione del padiglione degli ospiti a ensino la sgualdrina lennox le aveva rubato tutti e due i suoi uomini nel padiglione degli ospiti può essere accaduto tutto quello che preferite immaginare avete però dimenticato di porre a spencer una domanda possedeva una mauser ppk si possedeva una piccola mauser automatica stamane siamo riusciti a metterci in contatto con spencer per telefono wade era un alcolizzato che perdeva completamente la memoria di quel che faceva in stato di ubriachezza il povero bastardo credette forse di aver ucciso silvia lennox oppure l'uccise per davvero o ancora aveva ragione di ritenere che l'avessi assassinata sua moglie in ogni caso prima o poi avrebbe parlato certo beveva da molto tempo ma era un uomo di un certo valore sposato con una bellissima nullità il messicano è informatissimo al riguardo non c'è cosa che quel piccolo bastardo non sappia eileen wade era una donna perduta nei sogni una piccola parte di lei viveva nel presente ma il resto della sua personalità si rifugiava nel passato semmai si innamorò non amò suo marito capite a cosa alludo non gli risposi foste sul punto di andare a letto con lei vero continuai a tacere tanto holz quanto hernandez fecero un sorriso poco spontaneo non siamo completamente tonti disse holz sapevamo che c'era qualcosa di vero in quella storia di lei tutta nuda riusciste a smentire candy con la vostra dialettica e lui vi ha lasciato fare era addolorato e confuso e voleva bene a wade e voleva essere sicuro una volta che fosse stato sicuro si sarebbe servito del coltello era una questione personale per lui non spiò mai wade fu eileen a fare questo e imbrogliare deliberatamente la situazione in modo da confondere il marito è tutto chiaro alla fine credo che avesse paura di lui e wade non la gettò mai giù dalle scale fu solo un incidente inciampò e suo marito cercò di afferrarla candy vide anche questo tutto ciò non spiega perché mi abbia voluto tra i piedi potrei immaginare varie ragioni una di esse è storia vecchia non c'è poliziotto che non l'abbia sperimentata centinaia di volte eravate l'elemento incerto nella situazione l'uomo che aveva aiutato l'ennox a fuggire il suo amico e con ogni probabilità fino a un certo punto il suo confidente che cosa sapeva l'ennox che cosa vi aveva detto si era impossessato della rivoltella e aveva ucciso silvia e sapeva che l'arma era stata adoperata eileen avrebbe potuto pensare che lo avesse fatto per lei e questo la induceva a credere che l'ennox sapeva che era stata lei a sparare quando terry lennox si uccise ne fu certa ma voi eravate sempre l'elemento pericoloso della situazione voleva farvi parlare poteva avvalersi del suo fascino e di un pretesto già belle pronto per avvicinarvi le attribuite un'eccessiva conoscenza dei fatti osservai holtz spezzò in due una sigaretta e cominciò a biascicarne una metà l'altra metà se la mise dietro l'orecchio un'altra ragione è che desiderava un uomo un uomo robusto violento che la stritorasse tra le braccia e la facesse sognare ancora mi odiava dissi no questa non la bevo naturalmente si intromise hernandez in tono asciutto voi non ne voleste sapere ma ci sarebbe passata sopra e poi le spifferaste in faccia tutta la verità alla presenza di spencer avete consultato uno psichiatra voi due ultimamente gesù disse holtz come non lo sapevate ormai abbiamo psichiate tra i piedi dalla mattina alla sera due di loro fanno parte del comando questo non è più un reparto di polizia finirà col diventare una clinica gli psichiatri sono di casa nelle prigioni nei tribunali nelle stanze degli interrogatori compilano relazioni di 15 pagine sulle ragioni per cui un delinquente minorenne ha rubato un bar o violentato una compagna di scuola o spacciato stupefacenti fra dieci anni gli uomini come marty e me faranno prove di ross charge e altri test psicologici invece di esercitarsi nel pugilato nel tiro al bersaglio quando andremo a indacare su un delitto porteremo con noi valigette nere con apparecchi portatili per individuare i bugiardi e bottiglie di siero della verità è un vero peccato che non ci sia stato possibile mettere le mani sui quattro scimmiotti che hanno conciato per le feste Willy Magoon saremmo riusciti a riportarli alla normalità e a indurli ad amare le loro mammine posso andarmene adesso? di che cosa non siete convinto? domandò Hernandez facendo schioccare un elastico sono convintissimo il caso è chiuso Eileen è morta tutti sono morti ogni cosa è andata liscia non resta altro che tornarsene a casa e dimenticare quello che è successo e farò proprio questo Ols si tolse dall'orecchio la mezza sigaretta la fissò come se fosse stupito di averla trovata e la gettò dietro di sé di cosa vi lamentate? se non fosse rimasta a corto di rivoltelle avrebbe potuto centrare un altro bersaglio inoltre disse Ols a arcigno ieri il telefono funzionava oh certo dissi sareste accorsi avreste trovato una confusa versione dei fatti che confessava soltanto alcune stupide bugie stamane siete in possesso di quella che ritengo sia una confessione completa non me l'avete fatta leggere ma non avreste convocato qui rappresentante del procuratore distrettuale se si fosse trattato di un messaggio amoroso se sin dall'inizio si fosse investigato sul serio sul caso Lennox qualcuno avrebbe chiesto informazioni sul suo passato militare su come era rimasto ferito e su tutto il resto e allora sarebbe saltato fuori qualche rapporto con i Wade Roger Wade sapeva chi era Paul Marston e lo sapeva anche un'altra persona con la quale mi sono posto in contatto può essere ammise Hernández ma la polizia non svolge le indagini in questo modo non si perde tempo quando si alle prese con un caso evidente anche se nessuno esercita pressione affinché venga archiviato e dimenticato ho indagato su centinaia di omicidi alcuni sono semplici chiari indubbi e rispettano le regole dei manuali nella grande maggioranza dei casi ci sono punti chiari e punti oscuri ma quando tutto è evidente il movente l'arma l'opportunità la fuga una confessione scritta immediatamente seguita dal suicidio non c'è più nulla da fare nessuna polizia al mondo ha tanti uomini e tanto tempo a sua disposizione da potersi permettere il lusso di porre in dubbio l'evidenza il solo elemento contro la tesi che Lennox fosse un assassino consisteva nel fatto che qualcuno lo riteneva un bravo ragazzo incapace di fare una cosa simile e che esistevano altre persone le quali avrebbero potuto commettere l'omicidio ma queste altre persone non presero la fuga non confessarono non si fecero saltare il cervello fu lui a comportarsi così e in quanto all'essere un bravo ragazzo presumo che dal 60 al 70 per cento degli assassini giustiziati nelle camere a gas o sulla sedia elettrica o sulla forca siano individui che i loro vicini ritenevano innocui come un commesso viaggiatore di articoli casalinghi innocui tranquilli e ben educati come la moglie di Roger Wade volete leggere ciò che ha scritto nella lettera e va bene leggete io devo assentarmi un momento si alzò aprì un cassetto e mise una cartella sulla scrivania qui dentro ci sono cinque copie fotostatiche del documento Marlow non lasciatevi cogliere a portarne via una si avviò verso la porta poi volto la testa e disse a Ols volete accompagnarmi a Pishorek Ols annui e uscì dietro di lui non appena fui rimasto solo nell'ufficio aprì la cartella e osservai le fotostatiche poi sfiorandone solamente gli orli le contai erano sei ciascuna di parecchie pagine unite da un fermaglio ne presi una la rotolai e me la infilai in tasca e infine lessi la prima della serie quando ebbi finito mi misi a sedere e aspettai dopo dieci minuti circa Hernandez rientrò solo nell'ufficio si misi a sedere dietro la scrivania ordinò le fotostatiche nella cartella la chiuse e la mise nel cassetto alzò gli occhi e mi fissò con una faccia inespressiva soddisfatto lawford sa che le avete non lo ha saputo da me e neppure da bernie è stato bernie a fotografare il documento perché che cosa succederebbe se una delle copie andasse smarrita fece un freddo sorriso non può succedere ma se accadesse la responsabilità non ricadrebbe sull'ufficio dello sceriffo anche in quello del procuratore distrettuale c'è l'apparecchiatura per le copie fotostatiche il procuratore distrettuale ne sia servito pensava suppongo di avere spaventato tutti quanti potrebbe darsi disse Hernandez in tono indifferente prese un elastico e lo tese fra i due pollici lo tese sempre e sempre di più finalmente si spezzò con uno schiocco Hernandez si strofinò il pollice dove l'estremità dell'elastico rotto lo aveva colpito non c'è nulla che non possa essere teso fino a spezzarsi disse per quanto forte possa sembrare ci vediamo mi chiusi la porta alle spalle e usci in fretta dall'edificio 45 rientrato nel canile al sesto piano del palazzo Kauenga mi accisi alla consueta duplice manovra con la posta del mattino dalla cassetta postale alla scrivania al cestino della carta straccia sgombrai il piano della scrivania e vi stesi la fotostatica l'avevo arrotolata in modo che non si piegasse rilessi la confessione era abbastanza particolareggiata e abbastanza ragionevole da soddisfare chiunque avesse una mente aperta Aileen Wade aveva ucciso la moglie di Terry in un accesso di ira e di gelosia e in seguito non appena le si era offerta l'opportunità aveva ucciso Roger essendo certa che egli sapesse il colpo di rivoltella sparato contro il soffitto della stanza di Roger quella notte aveva fatto parte del suo piano restava aperto e sempre sarebbe rimasto aperto un interrogativo perché Roger Wade non aveva reagito consentendole di attuare il piano doveva aver capito quale ne sarebbe stata la conclusione e si era messo da parte senza curarsene le parole erano il suo mestiere aveva trovato parole per ogni cosa ma non per questa restano 46 compresse di demerolo nella boccetta scriveva Aileen intendo ora prenderle tutte e stendermi sul letto la porta è chiusa a chiave tra poco nessuno potrà più salvarmi dovete rendervi conto di questo Howard la morte mi è vicina mentre scrivo ogni parola è vera non ho alcun rimpianto tranne forse quello di non aver potuto sorprenderli insieme e ucciderli insieme non ho rimpianti per Paul che avete sentito chiamare Terry Lennox era il guscio vuoto di un uomo che amai e sposai non contava più nulla per me l'unica volta in cui lo rividi quel pomeriggio dopo il suo ritorno nella guerra a tutta prima non lo riconobbi neppure poi lo ravvisai ed egli mi riconobbe immediatamente sarebbe dovuto morire giovane nelle levi di Norvegia il mio amante che consegnai alla morte era tornato amico di loschi individui marito di una ricca sgualtrina un uomo corrotto e rovinato probabilmente con un passato disonesto il tempo rende meschina squallida e repellente ogni cosa la tragedia della vita Howard non sta nel fatto che il bello perisce prematuramente ma nel fatto che invecchia e si corrompe questo non accadrà a me addio Howard mesi la fotostatica nel cassetto e lo chiusi a chiave era ora di pranzo ma non avevo appetito tolsi dal cassetto e in basso la bottiglia che tenevo in ufficio mandai giù un sorso poi portai l'elenco telefonico sulla scrivania e cercai il numero del giornal formai il numero e chiesi alla ragazza del centralino di parlare con Lonnie Morgan il signor Morgan non viene in redazione fino alle 4 poteste provare alla sala stampa del municipio telefonai lì e riuscì a parlargli si ricordava ancora di me ho saputo che siete stato molto occupato in questi ultimi tempi ho una cosa per voi se la volete ma non credo che la vogliate ah sì e di che si tratta è la fotostatica della confessione di due assassini dove siete glielo dissi chiese altre delucidazioni non vogli dargliele per telefono disse che non si occupava più di cronaca nera dissi che era pur sempre un giornalista ed è l'unico giornale indipendente della città volle ancora discutere dove ve lo siete procurato questo documento di qualsiasi cosa si tratti come posso sapere che non perderò inutilmente del tempo l'originale si trova nell'ufficio del procuratore distrettuale non lo renderanno pubblico rivela un paio di cose che avevano messo in ghiacciaia verrò da voi devo prima parlare col principale riattaccammo scesi alla tavola calda mandai giù un panino imbottito con pollo freddo e bevi un po' di caffè il caffè era troppo lungo e il panino saporito come un lembo di vecchia camicia gli americani divorano qualsiasi cosa purché sia tostata venuta insieme con due stecchini e contenga qualche foglia di lattuga preferibilmente appassita che sporge ai lati verso le tre e mezzo Lonnie Morgan passò da me era sempre lo stesso campione lungo e smilzo di stanca e inespressiva umanità come lo avevo conosciuto la sera in cui era stato così cortese da accompagnarmi dal carcere a casa mia mi strinse la mano con aria distratta e frugò in uno spiegazzato pacchetto di sigarette il signor il signor Sherman il direttore del giornale ha detto che potevo venire a vedere di che cosa si tratta resti tra noi a meno che non accettiate le mie condizioni aprì il cassetto con la chiave e gli porsi la fotostatica lesse rapidamente le quattro pagine poi le rilesse più ad agio parve molto eccitato resta poco come un impresario di pompe funebri a un funerale di terza classe datemi il telefono lo spinsi verso di lui sulla scrivania formò il numero aspettò e disse qui è Morgan fatemi parlare con il signor Sherman aspettò ancora parlò con un'altra donna e infine ottenne la comunicazione e chiese a Sherman di richiamarlo con un'altra linea rimase seduto con il ricevitore in grembo tenendo abbassato con l'indice il gancio dell'apparecchio il telefono squillò ancora e lui si portò il ricevitore all'orecchio ecco il contenuto del documento signor Sherman lesse ad agio scandendo le parole alla fine vi fu una pausa poi un momento signore abbassò il ricevitore e mi guardò vuole sapere come ne siete entrato in possesso mi sporsi sulla scrivania e gli tolsi la fotostatica ditegli che non è a far suo sapere come ne sono entrato in possesso in quanto al dov'è è un altro paio di maniche lo dimostra il timbro apposto sul retro dei fogli signor Sherman si tratta a quanto pare di un documento ufficiale dell'ufficio dello sceriffo di los angeles credo che potremmo controllarne abbastanza facilmente l'autenticità c'è anche la questione del prezzo ascoltò ancora per qualche momento poi disse sì signore subito spinse l'apparecchio sulla scrivania vuole parlarvi la voce era brusca autoritaria signor marlow quali sono le vostre condizioni e ricordate che il journal è l'unico quotidiano di los angeles disposto a occuparsi di questo argomento beh non faceste molto nel caso l'ennox signor Sherman lo so ma in questo momento si trattava semplicemente di provocare uno scandalo per amore dello scandalo nessuno poneva in dubbio la colpevolezza dell'accusato ciò di cui disponiamo ora se il documento è autentico è qualcosa di molto diverso quali sono le condizioni beh pubblicherete la confessione integralmente con una riproduzione fotografica del documento altrimenti non la pubblicherete affatto ne controlleremo l'autenticità me ne rendete conto non vedo come potreste signor Sherman se lo domanderete al procuratore distrettuale negherà oppure diramerà il testo della confessione a tutti i giornali cittadini non potrebbe farne a meno se lo domanderete all'ufficio dello sceriffo si rimetteranno al procuratore distrettuale non preoccupatevi di questo signor Marlow abbiamo i nostri sistemi quali sono le condizioni ve l'ho già detto oh non prendete un compenso non in denaro beh immagino che sappiate quello che volete posso riavere la comunicazione con Morgan di nuovo spinzi l'apparecchio verso Lonnie Morgan parlò per qualche attimo e riattaccò è d'accordo disse io prendo in consegna le fotostatiche e lui ne fa controllare l'autenticità le pubblicherà come desiderate ridotte alla metà del formato occuperanno mezza pagina gli consegna il documento lo prese e si toccò con due punta le dita del naso lungo vi offendete se dico che siete matto sono d'accordo con voi potete ancora cambiare idea niente affatto ricordate quella notte quando mi accompagnaste a casa dalla bastiglia cittadina diceste che dovevo dire addio a un amico bene non mi è mai riuscito di dirgli realmente addio se pubblicate queste fotostatiche glielo avrò detto è passato molto tempo molto molto tempo ok amico fece un sorriso simile a una smorfia ma continuo a pensare che siate pazzo devo proprio dirvi perché dite pure sono più informato sul vostro conto di quanto non crediate è la parte più deludente del nostro lavoro di giornalisti si sanno sempre innumerevoli cose di cui non ci si può servire e si diventa cinici se questa confessione verrà pubblicata nel journal molta gente andrà in bestia il procuratore distrettuale il magistrato i dipendenti dello sceriffo un influente potente cittadino al nome poter e due bricconi che si chiamano Menendez e Star probabilmente finirete all'ospedale o tornerete in carcere non credo credete quello che vi pare amico mi limito a dirvi come la penso io il procuratore distrettuale andrà in bestia perché aveva lasciato cadere nel dimenticatoio il caso Lennox anche se la confessione e il suicidio di Lennox possono in apparenza giustificare il suo atteggiamento molta gente vorrà sapere come mai Lennox un innocente si sia indotto a confessare per quali ragioni morì se davvero si uccise o se venne ucciso come mai non vi furono indagini sulla sua morte e per quali ragioni il caso fu archiviato con tanta fretta inoltre se il procuratore distrettuale è in possesso del documento originale si convincerà di essere stato giocato dagli uomini dello sceriffo non è necessario che pubblichiate il timbro apposto sui documenti non lo pubblicheremo infatti siamo amici dello sceriffo pensiamo che sia un uomo onesto e non lo rimproveriamo perché non riesce a togliere di mezzo individui come Menendez nessuno può impedire il gioco d'azzardo fino a quando in taluni luoghi è legale in qualsiasi forma e in altri luoghi è legale in una forma o nell'altra vi siete appropriato di questo documento nell'ufficio dello sceriffo non so come ci siate riuscito volete dirmelo? no? ok il magistrato andrà in bestia perché aveva convalidato la tesi del suicidio di Wade appoggiato in questo dal procuratore distrettuale Arlan Potter andrà in bestia perché si aprirà un caso che egli era riuscito a far chiudere avvalendosi di tutti i mezzi a sua disposizione Menendez e Star andranno in bestia per motivi che non conosco con precisione so però che siete stato avvertito e quando individui come quelli si infuriano contro qualcuno questo qualcuno ci lascia le penne vi capiterà quello che è capitato a Willy Magoon Magoon cominciava probabilmente a calcare troppo la mano nel suo mestiere e perché? mi domandò Morgan perché con quella gente non si può scherzare se si danno la pena di dirvi di piantarla dovete piantarla se ve ne infischiaste se loro lasciassero correre verrebbero giudicati degli inetti e gli spietati capitani di industria gli ingranaggi importanti i consigli di amministrazione non sanno che farsene degli inetti è gente pericolosa e poi c'è Chris Maddy il padrone del Nevada oppressa poco mi dicono siete stato ben informato amico Maddy è una simpatica persona ma sa quello che occorre nel Nevada i ricchi furfanti che agiscono a Reno e a Las Vegas sanno bene attenti a non infastidire il signor Maddy se lo facessero dovrebbero pagare tasse molto più alte e sarebbero assai meno protetti dalla polizia e poi i grossi capi all'est potrebbero decidere che si rendono necessari alcuni mutamenti chi non riesce ad andare d'accordo con Chris Maddy sa il fatto suo toglietevelo dunque dai piedi e mettete qualcun altro al suo posto toglierselo dai piedi significa per quella gente una cosa sola ficcarlo in una cassa da morto non hanno mai sentito parlare di me dissi Morgan si accigliò e agitò un braccio su e giù con gesti vaghi non è necessario la proprietà di Maddy nel Nevada confina con quella di Arlan Potter può darsi che si scambino un saluto di quando in quando può darsi che un tipo alle dipendenze di Maddy venga a sapere da un altro tipo alle dipendenze di Potter che un miserabile verbe a nome Marlow si occupa un po' di affari che non lo riguardano può darsi che la fuggevole osservazione faccia squillare il telefono di qualche appartamento di Los Angeles e che un tale dalla muscolatura robusta riceva l'ordine di andare a esercitarsi con due o tre amici suoi se qualcuno desidera che veniate posto fuori combattimento o fracassato gli uomini muscolo non hanno bisogno di sapere perché per loro è cosa di ordinare amministrazione nessun rancore personale statevene tranquillamente seduto mentre vi spezziamo le braccia volete che ve la restituisca mi porse la fotostatica sapete quello che voglio risposi Morgan si alzò ad agio e mise il documento nella tasca interna della giacca potrei anche sbagliarmi disse potreste anche saperla più lunga di me non si può mai prevedere in quale modo veda le cose un uomo come Arlan Potter aggrottando le sopracciglia disse l'ho conosciuto ma non ricorrerebbe mai a una banda di picchiatori questo non potrebbe conciliarsi con il suo ideale della vita secondo me disse Morgan in tono aspro bloccare le indagini su un assassino con un colpo di telefono bloccarlo eliminando i testimoni è solo una questione di metodo ed entrambi i metodi puzzano nelle narici della civiltà ci rivedremo spero uscì dall'ufficio come un pezzo di carta spinto dal vento 46 andai in automobili al Victor con l'intenzione di bere un succhiello e di aspettare che venisse posta in vendita l'edizione serale dei giornali ma il bar era affollato e non fu divertente non appena il barista che conoscevo mi ebbe veduto mi chiamò per nome vi piace con uno schizzo da maro vero? di solito no ma per questa volta mettetecele due adoppio visto la vostra amica quella con gli smeraldi neppure io si allontanò e tornò col succhiello lo sorseggiai ad agio per farlo durare poiché non me la sentivo di bere troppo niente vie di mezzo o prendere una sbornia solenne o restare completamente lucido dopo un poco ne ordinai un altro erano le sei passate da qualche minuto appena quando lo strillone entrò nel bar uno dei baristi gli urlò di squagliarsela ma lui riuscì a fare un rapido giro dei clienti prima che il cameriere lo agguantasse e lo portasse fuori uno dei clienti fui io aprì il journal e guardai la seconda pagina il documento era stato pubblicato avevano invertito le fotostatiche lettere nere su sfondo bianco anziché bianche su sfondo nero e riducendone le dimensioni erano riusciti a farle entrare nella prima metà della pagina vi era un breve e brusco articolo di fondo in un'altra pagina vi era una mezza colonna firmata da Lonnie Morgan in un'altra pagina terminai di bere uscì andai a cena in un altro locale e tornai a casa la mezza colonna di Lonnie Morgan era una concisa e concreta ricapitolazione del caso Lennox e del suicidio di Roger Wade esponeva i fatti come erano stati divulgati dalla stampa non aggiungeva nulla non deduceva nulla non muoveva alcuna accusa un pezzo informativo chiaro stringato obiettivo l'articolo di fondo era invece una cosa del tutto diversa poneva interrogativi gli interrogativi che pongono i giornali e i pubblici funzionari colti con le mani nel sacco verso le nove e mezzo squillò il telefono e Bernie Holtz disse che sarebbe passato da me tornando a casa visto il journal domandò in tono sornione e riattaccò senza aspettare la risposta quando giunse a casa mia brontolò per gli scalini e disse che avrebbe bevuto volentieri una tazza di caffè se potevo offrirgliela dissi che glielo avrei preparato e mentre ero in cucina girellò da padrone per la casa un posto molto solitario osservò per chi si diverte a restare in piedi alla gente che cosa c'è dall'altra parte della collina una strada perché così domandavo quei cespugli avrebbero bisogno di essere sfrondati portai il caffè nella stanza di soggiorno e lui si accomodò sul divano e sorseggiò il liquido bollente accese una delle mie sigarette e fumò per uno o due minuti poi la spense non mi piacciono più disse forse è colpa della pubblicità della televisione finiscono col farti odiare tutto quello che cercano di venderti Dio mio devono proprio credere che il pubblico sia deficiente una volta che un buffone in camice bianco con lo stetoscopio al collo mostra un dentifricio un pacchetto di sigarette o una bottiglia di birra o un vasetto di shampoo una scatoletta di non so quale sostanza che fa profumare un grosso lottatore come una montagna di gigli mi affretto a prendere nota di non comprare mai più quella roba diavolo non la comprerei neppure se mi piacesse avete letto il journal eh? mi ha avvertito un mio amico un giornalista avete amici? domandò in tono di meraviglia non vi ha detto per caso come sono entrati in possesso di quel documento? no e in questo stato non sono tenuti a dirlo Springer è pazzo di rabbia Loford il rappresentante del procuratore distrettuale quello che ritirò la lettera stamane afferma di averla consegnata immediatamente al suo capo ma è molto strano il documento pubblicato dal journal sembra un'autentica riproduzione dell'originale sorseggiai il caffè e non dissi nulla gli sta bene continuò Holmes Springer avrebbe dovuto occuparsene personalmente per quanto mi riguarda non credo che il responsabile sia Loford anche lui è un uomo politico mi fissò con una faccia di bronzo perché siete venuto Bernie io non vi piaccio eravamo amici una volta come si può essere amici con un poliziotto duro ma nel nostro rapporto qualcosa si è un po' incrinato si sporse in avanti e sorrise scoprendo un po' troppo i denti nessun poliziotto gradisce che un privato cittadino si diverta a rubargli il mestiere alle spalle se quando morì Wade mi avreste rivelato i rapporti fra lui e la sgualdrina Lennox avrei risolto il caso se mi aveste detto dei rapporti tra la signora Wade e questo Terry Lennox l'avrei avuta in pugno viva se aveste parlato sin dal principio Roger Wade potrebbe essere ancora in vita per non parlare di Lennox credete di essere uno scimmiotto molto furbo vero? che cosa vorreste che vi dicessi? niente è troppo tardi vi dissi che i furboni finiscono colpestare i piedi soltanto a se stessi ve lo dissi chiaro e tondo ma non mi daste retta e così ora fareste una cosa molto saggia andandovene da Los Angeles non piacete a nessuno e due messeri che vi hanno in antipatia stanno facendo qualcosa in proposito l'ho saputo da un informatore non sono importante come credete Bernie finiamola di ringhiare l'uno contro l'altro fino a quando Wade non morì voi non cominciaste neppure a occuparvi del caso e in seguito parve che la cosa non interessasse né a voi né al magistrato né al procuratore distrettuale né alcun altro può darsi che abbia commesso qualche errore ma intanto la verità è saltata fuori avreste potuto arrestare Aileen Wade ieri nel pomeriggio ma su che cosa vi sareste basato? su quello che avreste avuto da dirci sul suo conto chi? io? per avervi rubato il mestiere alle spalle? si alzò bruscamente era rosso in faccia e va bene furbone sarebbe vissuta avremmo potuto arrestarla per sospetti ma voi voleste che morisse e lo sapete vogli che guardasse bene e a lungo e con calma in se stessa le conseguenze che ne trasse sono affar suo vogli discolpare un innocente me ne infischiavo del modo con il quale ci sarei riuscito e me ne infischio anche adesso sarò a vostra disposizione quando giudicherete opportuno occuparvi di me saranno i duri a occuparsi di voi spaccone io non avrò bisogno di prendermi questo fastidio credete di non essere abbastanza importante per infastidirli come investigatore privato a nome Marlow Passi per loro non esiste ma poiché vi è stato detto di togliervi di mezzo e invece li avete sbeffeggiati pubblicamente in un giornale la cosa è diversa sono stati feriti nell'orgoglio un vero peccato dissi solo a pensarci mi sento rivoltare le viscere per servirmi della vostra espressione andò alla porta e l'aprì si soffermò a contemplare gli scalini di legno rosso e gli alberi sull'altura dell'altra parte della strada e la salita dove la strada terminava ho un posto piacevole e solitario disse solitario quanto basta discese gli scalini e salì sull'automobile e se ne andò i poliziotti non dicono mai addio sperano sempre di rivedervi dentro 47 per breve tempo il giorno dopo la situazione parve scongelarsi il procuratore distrettuale Springer tenne di buon'ora una conferenza stampa e fece una dichiarazione era quel tipo di individuo ben portante florido dalle sopracciglia nere dai capelli prematuramente brizzolati che ha sempre tanto successo in politica ho il documento la pretesa confessione della disgraziata e infelice donna che si è tolta di recente la vita il documento può essere o no autentico ma se lo è si tratta evidentemente del parto di una mente sconvolta sono disposto a presumere che il journal abbia pubblicato in buona fede questo documento nonostante le molte assurdità e incongruenze che non starò a elencarvi per non annoiarvi se Elaine Wade ha scritto queste parole e il mio ufficio insieme al personale del mio rispettato coauditore lo sceriffo Peterson accetterà al più presto se le abbia scritte allora vi dico che non aveva la mente lucida né la mano ferma sono passate soltanto alcune settimane da quando la povera donna trovò il marito coperto di sangue sangue dovuto a una ferita mortale che gli stesso si era inferto potete ben immaginare l'orrore la disperazione l'estrema solitudine che dovettero seguire a una così grave tragedia c'è forse qualcosa da guadagnare disturbando le cenere dei morti qualcos'altro amici miei oltre la vendita di poche copie di un giornale la cui tiratura è paurosamente bassa nulla amici miei nulla lasciamo dunque le cose come stanno al pari di ofelia in quel grande capolavoro drammatico che ha nome amleto scritto dall'immortale william shakespeare e lynn wade ha subito il suo dolore in un modo diverso dagli altri i miei avversari politici vorrebbero attribuire molta importanza a questa diversità ma i miei amici e coloro che mi danno i loro voti non si lasceranno ingannare sanno che da tempo io mi batto per una saggia e matura applicazione della legge per la giustizia temperata della pietà per un governo solido stabile e conservatore il journal si batte per non so che cosa e neppure mi preme molto di saperlo lasciamo che sia l'illuminata opinione pubblica a giudicare il journal pubblicò questa buffonata nella prima edizione era un quotidiano molto tempestivo e Henry Sherman il direttore replicò a Springer con un commento firmato il signor procuratore distrettuale Springer era in forma stamane è un uomo imponente parla con una voce di baritono che è un piacere ascoltare non ci ha annoiato con dati di fatto in qualsiasi momento il signor Springer possa desiderare che gli venga dimostrata l'autenticità del documento in questione il journal sarà lietissimo di porsi a sua disposizione non ci aspettiamo che il signor Springer intraprenda passi per riaprire casi che sono stati ufficialmente chiusi con la sua sanzione o sotto la sua direzione proprio come non ci aspettiamo che se ne stia in equilibrio con la testa in giù sulla torre del municipio come si esprime con tanta opportunità il signor Springer c'è forse qualcosa da guadagnare disturbando le ceneri dei morti oppure come preferirebbe esprimersi il journal anche se in modo meno elegante che cosa ci si guadagna scoprendo l'autore di un assassino quando il preteso assassino è già morto nulla naturalmente eccettuate la giustizia e la verità a nome del defunto William Shakespeare il journal desidera ringraziare il signor Springer per la lusinghiera lodee dell'amleto e per la quasi ma non completamente esatta allusione a Ofelia dovete sopportare il dolore con una diversità non fu detto di Ofelia ma da lei stessa e l'esatto significato della frase non è mai riuscito molto chiaro nelle nostre menti meno erudite ma lasciamo perdere suona bene e serve a imbrogliare la matassa forse sarà consentito anche noi citare sempre nel dramma amleto che riscuote tante approvazioni ufficiale un'ottima cosa detta da un pessimo uomo e là dove è l'offesa si abbatta la grande scure Lonnie Morgan mi telefonò verso mezzogiorno e volle sapere che cosa pensassi della situazione gli dissi che a mio parere la cosa non avrebbe danneggiato Springer alludevo a voi disse Lonnie Morgan a me nessuna novità me ne sto qui ad aspettare che un mite cerbiatto venga a strofinarmi il muso contro la gota non intendevo parlare di questo godo ancora di buona salute finitela di cercare di spaventarmi ho ottenuto quello che volevo se Lennox fosse ancora vivo potrebbe andare da Springer e sputargli in un occhio lo avete fatto invece sua e ormai Springer lo sa posso ricorrere a cento espedienti per mettere al fresco chi non va loro a genio non riesco a capire perché ne valesse la pena Lennox non lo meritava è questo che c'entra tacque per un attimo poi disse scusatemi Marlow chiudo la mia boccaccia buona fortuna riattaccammo dopo i consueti saluti verso le due del pomeriggio mi telefonò Linda Loring non fate nomi per piacere disse sono appena arrivata da quel grande lago lassù al nord c'è qualcosa in pentola da quelle parti a causa di ciò che ha pubblicato ieri sera il journal per il mio quasi ex marito è stata un'ammazzata il mio povero uomo stava piangendo quando sono partita si è precipitato a riferire che cosa vuol dire quasi ex marito non siate sciocco per una volta tanto mio padre è d'accordo Parigi è una città ideale per ottenervi il divorzio senza pubblicità di conseguenza partirò presto per Carmici e se vi resta ancora un briciolo di buonsenso potreste fare molto di peggio che spendere una parte di quella bellissima incisione per andare voi stesso molto lontano che centro io in tutto questo è la seconda domanda stupida che mi fate non riuscite a ingannare nessuno all'infuori di voi stesso Marlow sapete come si uccidono le tigri? come potrei saperlo? si lega una capra a una staccionata e poi ci si nasconde è molto probabile che la capra non se la passi liscia mi piacete sono sicura di non sapere perché ma mi piacete non sopporto l'idea che possiate essere la capra vi siete tanto sforzato di ottenere giustizia come la vedevate voi molto gentile da parte vostra dissi se allungo troppo il collo e qualcuno mi taglia la testa il collo appartiene a me non fate l'eroe sciocco ribatte con voce aspra solo perché qualcuno che conoscevamo ha voluto essere il capo espiatorio non è detto che dobbiate imitarlo vi offrirò da bere se vi trattenete qui abbastanza a lungo offritemi da bere a Parigi Parigi è adorabile in autunno piacerebbe anche a me mi dicono che è ancora più bella in primavera non essendoci mai stato non posso sapere se è vero non lo saprete mai se continuate così arrivederci Linda vi auguro di trovare quello che desiderate arrivederci disse con freddezza trovo sempre quello che voglio ma quando lo trovo non lo voglio più riattaccò il resto della giornata trascorse senza che accadesse nulla cenai e lasciai la Halls in un'autorimessa che restava aperta tutta la notte per far revisionare i freni tornai a casa in tassi la strada era deserta come sempre nella cassetta della posta c'era un tagliando propagandistico che dava dritto a una saponetta salì ad agio la scala era una notte tiepida con una lieve nebbiolina nell'aria gli alberi sull'altura non si muovevano non soffiava un alito di vento girai la chiave nella serratura aprì in parte la porta e poi mi immobilizzai lo spiraglio era di circa venticinque centimetri dentro regnava l'oscurità e non si udiva il minimo suono ma sentivo che doveva esserci qualcuno nella stanza forse una molla aveva cicolato appena oppure avevo intravisto il lampo di una giacca bianca nell'oscurità forse in una notte calda e silenziosa come quella la stanza dietro la porta non era abbastanza calda forse nell'aria galleggiava un odore di uomo o forse avevo semplicemente i nervi troppo tesi mi scostai di lato sulla veranda scendendo sul terreno in pendio e chinandomi accanto ai cespugli non accadde nulla nessuna luce si accese nella casa non udì il benché minimo movimento avevo la rivoltella nella fondina sul fianco sinistro una rivoltella della polizia a canna corta calibro 38 la impugnai di scatto senza alcun risultato il silenzio continuò decisi che ero un maledetto stupido mi raddrezzai e feci un passo per tornare alla porta di casa e poi una macchina voltò l'angolo si arrampicò rapida per il pendio e si fermò quasi silenziosa di fronte agli scalini era una grande berlina nera col profilo di una Cadillac sarebbe potuta appartenere a Linda Loring e ce si è fatta per due cose nessuno aprì lo sportello e i finestrini dal lato dove mi trovavo io erano ermeticamente chiusi attesi e rimasi in ascolto rannicchiato contro i cespugli e non vi fu nulla da udire e nulla da aspettare null'altro che un'automobile ferma ai piedi della scala di legno rosso con i finestrini chiusi se anche il motore era in movimento non lo sentivo poi un grosso faro rosso si accese e il fascio di luce andò a perdersi un 6 metri più in là dietro l'angolo della casa e infine molto lentamente la grossa automobile indietreggiò in modo che il fascio di luce potesse spostarsi sulla facciata della casa i poliziotti non guidano Cadillac le Cadillac con fari rossi appartengono a personaggi importanti ai capi agli ispettori della polizia magari ai procuratori distrettuali magari ai gangster il fascio di luce si avvicinò mi gettai a terra ma mi trovò ugualmente si fermò su di me non accadde altro gli sportelli dell'automobile continuarono a restare chiusi nella casa continuarono a regnare il silenzio e l'oscurità poi una sirena gemette in tono rauco per uno o due secondi e tacque e finalmente le luci si accesero nella casa e un uomo in giacca bianca da sera uscì sul pianerottolo della rampa di scale e si voltò a guardare il muro ai cespugli su entra buono a niente disse menendez ridacchiando hai compagnia avrei potuto sparargli senza alcuna difficoltà ma si trasse indietro e fu troppo tardi poi un finestrino dell'automobile si abbassò e potei udire il lieve cigolio mentre si apriva poi un fucile mitragliatore entrò in azione e sparò una breve raffica contro il pendio della collina a una decina di metri da me entra buono a niente tornò a dire menendez dalla soglia di casa non ti rimane altro da fare è così mi misi in piedi e il faro mi seguì accuratamente rimisi la rivoltella nella fondina che avevo sulla cintola salì sul piccolo pianerottolo di legno rosso e varcai la soglia ed entrai in casa un uomo sedeva in mezzo alla stanza con le gambe accavallate e una rivoltella posata sulla coscia sembrava snello e robusto aveva quella pelle arida e secca della gente che vive in climi molto caldi portava una giacca a vento di gabardino marrone e la chiusura lampo era aperta sin quasi alla cintola mi fissava e nei suoi occhi nella rivoltella si mossero era calmo come un muro di mattoni illuminato dalla luna 48 lo guardai troppo a lungo mi resi conto vagamente di un rapido movimento al mio fianco e un dolore ottuso cominciò a irradiarsi dentro di me dalla spalla l'intero braccio divenne insensibile fino alla punta delle dita mi voltai e vidi un messicano grande e grosso dall'aria cattiva non sorrideva si limitava a fissarmi abbassò fino al fianco la grossa rivoltella che stringeva nella mano bruna aveva i baffi e una gran zazzera di neri capelli imbrillantinati pettinati all'insù e all'indietro in tutte le direzioni portava uno sporco sombrero spinto indietro sulla nuca e la cinghia di pelle del copricapo pensolava sul davanti di una camicia rammendata e puzzolenta di sudore non c'è nulla di più spietato del messicano crudele come non ben nulla di meglio del messicano buono nulla di più onesto del messicano onesto e soprattutto nulla di più triste del messicano melanconico questo individuo apparteneva alla categoria dei messicani crudeli non esiste gente più perfide in alcun altro luogo del mondo mi massaggiai il braccio senti i brevi traffiture ma il dolore e l'insensibilità persistettero molto probabilmente se avessi tentato di impugnare la rivoltella l'avrei lasciata cadere menendez tese la mano verso il massacratore questi quasi senza alzare gli occhi su di lui lanciò la rivoltella e menendez l'afferrò al volo si piantò di fronte a me ora e la faccia gli si illuminò dove la preferiresti buono a niente gli occhi neri danzavano mi limitai a fissarlo non c'era risposta ti ho fatto una domanda buono a niente mi inumidi le labbra e gliene feci una mia volta che cosa gli è capitato ad agostino credevo che fosse lui il vostro armigero chic si è rammollito rispose in tono soave è sempre stato rammollito come il suo padrone l'uomo sulla sedia ebbe un guizzo negli occhi mancò poco che non sorridesse il gorilla che mi aveva paralizzato il braccio non si mosse né parlò sapevo però che stava respirando sentivo il fetore dal fiato qualcuno ti ha ortato il braccio buono a niente ho inciampato contro un'inchilada con indolenza senza neppure guardarmi mi colpì in piena faccia con la canna della rivoltella non fare lo spiritoso con me buono a niente non è più il momento ormai sei stato avvertito e con le buone maniere quando mi prendo la briga di andare personalmente a fare una visita a dire a un tizio di piantarla questo tizio la pianta altrimenti cade a terra e non si rialza più sentivo un filo di sangue rigarmi la guancia sentivo il dolore sordo del colpo sullo zigomo il dolore si irradiò fino a tormentarmi tutto il capo e il colpo non era stato violentissimo ma sferrato con un oggetto non certo affatto di gomma riuscivo ancora a parlare e nessuno cercò di impedirmelo come mai siete voi a picchiare Mandy credevo che fosse un lavoro da servi per tipi come quelli che le hanno suonate a Willy Magoon è il tocco personale rispose Mellifluo così come ebbi motivi personali per avvertirti l'affare Magoon è stato un episodio di ordinaria amministrazione l'idiota si era ficcato in mente di potermi pestare i piedi a me che gli compravo i vestiti e le automobili che gli avevo riempito la cassetta di sicurezza in banca e pagato le rate della casa i bambocci della polizia in borghese sono tutti uguali gli pagavo persino le tasse scolastiche dei marmocchi sarebbe illogico pensare che il bastardo provasse per me una certa gratitudine e invece cosa ti fa entra nel mio ufficio privato e mi schiaffeggia di fronte agli impiegati per quale ragione gli domandai nella speranza di poter incanalare la sua collera verso qualcun altro perché una sbrindola dipinta disse che ci servivamo di dadi truccati sembra che la cagna andasse a letto con lui l'ho fatta scacciare dal circolo con tutti i soldarelli che vi aveva investiti sembra comprensibile disse ma gun dovrebbe sapere che nessun tenutario di case da gioco si permette di barare non ne ha bisogno ma io che vi ho fatto mi colpì ancora con fredda premeditazione mi hai fatto passare per scemo nel mio mestiere non si ripetono le cose due volte neppure i tipi che si credono in gamba tutti devono rigare dritto e ubbidire o non si comanda e se non si comanda non si lavora ho il vago sospetto che non si tratti soltanto di questo disse scusatemi se prendo il fazzoletto la rivoltella mi sorvegliò mentre mi toglievo il fazzoletto di tasca e mi asciugavo il sangue dal volto un investigatore da due soldi disse lentamente Menendez crede di poter prendere in giro men di Menendez di fare in modo che la gente rida alle mie spalle di trattarmi come un pagliaccio crede di poter fare questo a me a Menendez dovrei prenderti a coltellate buona niente dovrei tagliarti a fette Lennox era vostro amico dissi e lo guardai negli occhi crepò fu seppellito come un cane senza neppure un nome sulla nuda terra dove lo misero e se la sua innocenza è stata dimostrata un po' del merito è mio ma voi andate in bestia per questo eh vi salvò la vita e perdette la sua ma voi ve ne infischiate ve ne stropicciate altissimamente di tutti tranne che di voi stesso siete fumo senza arrosto la faccia gli si raggelò portò il braccio all'indietro per colpirmi una terza volta questa volta con tutta la forza di cui era capace ancora stava portando indietro il braccio quando io feci un mezzo passo avanti e gli sferrai un calcio alla bocca dello stomaco non pensai non riflettei non soppesai i rischi non mi domandai se avessi una probabilità di scampo ne avevo solo avuto abbastanza dei suoi colpi e soffrivo e sanguinavo e forse ero ormai un poco ubriaco di percosse si piegò in due boccheggiante e la rivoltella gli cade di mano brancolò selvaggiamente per afferrarla lasciandosi sfuggire dalla gola strani e rauchi versi gli sferrai una ginocchiata in faccia strillò l'uomo sulla sedia rise rimasi sbalordito poi si alzò e contemporaneamente alzò la rivoltella non ammazzatelo disse in tono blando ci serve vivo come esca poi vi fu un movimento nella penombra del corridoio e oles entrò nella stanza con uno sguardo freddo con una faccia inespressiva estremamente calmo abbassò gli occhi su menendez menendez era inginocchiato con la testa appoggiata sul pavimento è un rammollito disse oles è rammollito come un fungo non è rammollito disse io soffre chiunque può soffrire era forse un rammollito willy magoon il grosso oles mi fissò l'altro uomo mi fissò il messicano accanto alla porta non aveva aperto bocca toglietevi di bocca quella dannata sigaretta ringhiaia oles fumatela oppure gettatela via sono stufo di vedervi sono stufo di voi punto e basta sono stufo di poliziotti parve stupito poi sorrise era una trappola figliolo disse in tono allegro vi ha fatto molto male l'uomo cattivo ha pestato il vostro bel visetto beh per quello che mi riguardata ve lo siete meritato e la lezione è stata maledettamente utile abbassò gli occhi su mendi mendi era adesso rannicchiato con le ginocchia sotto di sé stava emergendo da un pozzo profondo lo risaliva centimetro per centimetro respirava ansimando quanto è charliero disse oles quando non è in compagnia di tre loschi avvocati che gli tengono le labbra cucite afferrò menendez e lo tirò su di colpo mendi faceva sangue dal naso frugò nella tasca della giacca da sera bianca in cerca di un fazzoletto e se lo tenne contro il naso non aprì bocca sei stato messo in trappo la dolcezza mia gli disse oles scandendo le parole non che mi affligga troppo per magun se lo meritava ma era un poliziotto e i mascalzoni come te devono stare alla larga dei poliziotti non devono toccarli mai e poi mai menendez abbassò il fazzoletto e guardò oles guardò me guardò l'uomo sulla sedia si voltò ad agio e guardò il messicano accanto alla porta tutti lo fissarono tutti avevano facce inespressive poi la lama di un coltello balenò come saltata fuori dal nulla e mendi balzò contro oles oles si scansò e lo afferrò alla gola con una mano e con disinvoltura quasi con indifferenza gli fece cadere il coltello divaricò i piedi e raddrizzò il dorso e flette appena le gambe e sollevò menendez dal pavimento con una sola mano tenendolo per il collo attraversò la stanza reggendolo sospeso in aria e lo inchiodò contro la parete lo lasciò calare fino a terra ma non mollò la presa sulla gola toccami con un solo dito e ti ammazzo disse con un solo dito poi lasciò la presa mendi gli sorrise con derisione guardò il fazzoletto e lo piegò per nascondere la macchia di sangue di nuovo lo premette contro il naso e infine abbassò gli occhi sulla rivoltella di cui si era servito per colpirmi l'uomo seduto disse in tono blando anche se riuscissi a prenderla non è carica una trappola disse mendi a hols ti ho sentito prima hai ordinato tre massacratori disse hols hai avuto invece tre agenti del nevada a qualcuno a las vegas non garba che tu abbia dimenticato di spiegarti con loro questo qualcuno ti vuole parlare puoi andare con gli agenti oppure puoi venire in centro con me a farti attaccare alla porta con le manette ci sono due ragazzi che vorrebbero vederti da vicino che dio aiuti il nevada mormorò mendi in tono pacato voltandosi ancora a guardare il messicano accanto alla porta poi si segnò rapidamente e uscì il messicano lo seguì quell'altro il tipo asciutto vissuto nel deserto prese la rivoltella e il coltello e uscì a sua volta si chiuse la porta alle spalle hols aspettò immobile si udì un tonfo di sportelli chiusi con violenza poi un'automobile si allontanò nella notte siete certo che quei ceffi fossero agenti domandai a hols si voltò come se fosse stupito di vedermi lì avevano la stella fu la brusca risposta bel lavoro berni magnifico credete che arriverà vivo a las vegas o figlio di una puttana dal cuore di pietra entrai nel bagno e feci scorrere l'acqua fredda e mi premetti l'asciugamano zuppo sulla gota dolorante mi guardai allo specchio la gota era gonfia e bloastra e verano escoriazioni dai margini irregolari prodotte dai colpi del calcio della rivoltella contro lo zigomo avevo inoltre un livido sotto l'occhio sinistro per alcuni giorni non sarei stato bello poi l'immagine di hols apparve alle mie spalle nello specchio si stava facendo scorrere tra le labbra la maledetta sigaretta spenta come il gatto che stuzzica un topo mezzo morto cercando di farlo scappar via un'ultima volta in avvenire non cercate di infinocchiare la polizia crugni credete che vi abbiano lasciato rubare quelle fotostatiche così per burla prevedevano che mandy vi avrebbe cercato per farvi la pelle e allora abbiamo parlato chiaro a star gli abbiamo detto che non potevamo impedire il gioco d'azzardo nella contea ma che potevamo ostacolarlo al punto di annullare ogni profitto nella nostra giurisdizione a nessun delinquente consentito per quotere un poliziotto sia pure un cattivo poliziotto senza incorrere in gravi conseguenze star ci ha convinti di essere rimasto completamente estraneo alla cosa ha detto che tutti i suoi uomini erano furibondi per l'accaduto e che menendez sarebbe stato avvertito è così quando men ha richiesto una squadra di duri non residenti in città perché venissero a praticarvi la cura star gli ha mandato a proprie spese tre suoi amici con una delle sue macchine star è un capo della polizia a las vegas girai sui tacchi e fissai i suoi uomini è un vero peccato per voi eroe disse con improvvisa e fredda violenza a stento mi sono trattenuto da ridere quando siete entrato nel salotto di casa vostra a farvi picchiare è stato uno spasso figliolo la faccenda era losca e bisognava risolverla in modo losco per far parlare questi individui occorre da loro la sensazione di essere strapotenti non vi ha fatto un gran male ma in ogni modo dovevamo permettergli di colpirvi un poco sono spiacente risposi sono spiacentissimo che abbiate dovuto soffrire a questo punto avvicinò alla mia la faccia irrigidita odio i tenutari di case da gioco disse con voce aspra li odio quanto gli spacciatori di stupefacenti diffondono un contagio che non è meno malefico della cocaina credete che quei palazzi di rino e di las vegas esistano solo a scopi di innocuo divertimento storie esistono per l'uomo comune per l'ingenuo e l'allocco per il tipo che vi entra con la busta paga in tasca e perde i quattrini che gli occorrono per le spese settimanali il ricco giocatore di azzardo perde 40.000 dollari e ci fa su una risata e torna a puntarne altri ma i grossi proventi sono formati da ventini e quarti di dollaro e mezzi dollari e di quando in quando da dollari al massimo da biglietti da 5 dollari i grossi proventi del gioco d'azzardo affluiscono come l'acqua dal rubinetto del bagno sono un rivolo incessante che non si esaurisce mai ogni volta che qualcuno desidera togliere di mezzo un tenutario di case da gioco o uno dei furfanti che ne speculano sulle scommesse quello è il compito che fa per me mi piace e ogni volta che gli stati premono i quattrini del gioco d'azzardo e chiamano ciò tassazione non fanno che incrementare il gioco clandestino il barbiere o la ragazza dell'istituto di bellezza investono un paio di dollari nelle puntate clandestine questi dollari vanno alle associazioni a delinquere e sono essi a formare i grossi profitti la gente vuole una polizia onesta no? ma per quale ragione? per proteggere le persone privilegiate forse? ci sono corse di cavalli autorizzate in questo stato ce ne sono per tutto l'anno agiscono onestamente e lo stato incassa la sua parte ma per ogni dollaro puntato con i bookbackers autorizzati 50 dollari vanno ai bookbackers clandestini ci sono 7 corse o 8 corse in ogni riunione ippica e anche se l'uomo della strada non se ne accorge in una buona metà di queste corse può esserci l'imbroglio se qualcuno lo ordina e il fantino può vincere le corse in un solo modo ma può perderle in 20 modi diversi anche se appositi incaricati lo sorvegliano lungo tutta la pista poiché se il fantino conosce il fatto suo non possono fare un bel niente e questo è il gioco d'azzardo legale mio caro una cosa onesta sanzionata dallo stato ma non per me perché io affermo che tutti i giochi d'azzardo appartengono a un'unica categoria e sono disonesti dal primo all'ultimo truffe belle buone per gli allocchi adesso vi sentite meglio domandai pennellandomi le ferite con tintura di iodio sono un poliziotto stanco e sconfitto non posso sentirmi altro che rabbioso mi voltai e lo fissai siete un ottimo poliziotto Bernie ma ciò non vi impedisce di essere anche maniaco in un certo senso i poliziotti sono tutti uguali individuano tutti quanti le cause di determinate situazioni in fattori che non c'entrano affatto se un tale perde la sua busta paga al tavolo da gioco bisogna abolire il gioco d'azzardo se si ubriaca bisogna vietare i liquori se investe qualcuno con la macchina si deve vietare la fabbricazione delle automobili se si fa sorprendere con la ragazza in una camera d'albergo basta con i rapporti sessuali se casca giù dalle scale non si devono più costruire case oh piantatela certo chiudetemi il becco io non sono che un privato cittadino toglietevelo dalla testa Bernie noi non abbiamo delinquenti e sindacati del delitto e squadre di massacratori perché gli uomini politici sono disonesti e si servono di tirapiedi del municipio e negli organi legislativi il delitto non è una malattia è un sintomo i poliziotti sono come il medico che ti prescrive un'aspirina quando sei affetto da un tumore al cervello a parte il fatto che i poliziotti te lo curerebbero con il banganello siamo un popolo numeroso ricco primitivo sfrenato e il delitto è lo scotto che paghiamo per questo e la malavita organizzata è lo scotto che paghiamo per l'organizzazione non potremo farne a meno per molto tempo la malavita organizzata non è altro che l'aspetto più sudicio del potere d'acquisto del dollaro e quale sarebbe l'aspetto pulito non l'ho mai visto forse potrebbe dirvelo Arlan Potter beviamoci sopra eravate in gamba marcando la soglia di quella porta disse Holtz eravate ancora più in gamba mentre Mandy cercava di aggredirvi col coltello disse io lasciate stare fece lui con un gesto di diniego bevemmo insieme qualcosa e poi Bernie se ne andò passando per la porta di servizio che aveva forzato entrando dopo aver gironzolato la sera prima intorno alla casa a scopi esplorativi le porte di servizio sono facili a lavorarsi se si aprono esternamente e in genere sono abbastanza vecchie perché il legno abbia avuto il tempo di asciugarsi e screpolarsi basta togliere i perni dalle cerniere e il resto è facile Holmes mi mostrò un'intaccatura nel telaio quando se ne andò diretto verso la collina dove aveva lasciato la sua automobile in una strada laterale avrebbe potuto aprire quasi altrettanto facilmente la porta principale ma sarebbe stato costretto a forzare la serratura e Mandy se ne sarebbe accorto lo seguì con lo sguardo mentre si arrampicava tra gli alberi facendosi luce con la lampadina tascabile e lo vidi scomparire dietro l'altura chiusi a chiave la porta di servizio tornai a riempire il bicchiere andai nella stanza di soggiorno e mi misi a sedere guardai l'orologio era ancora presto per quanto mi sembrasse che fosse trascorsa un'eternità da quando ero rientrato a casa andai al telefono chiamai il centralino e diedi il numero dei Loring e il maggiordomo volle sapere chi parlava poi andò a vedere se la signora Loring era in casa c'era ho fatto senz'altro la parte della capra dissi ma la tigre è stata catturata viva ho qualche scalfittura dovete raccontarmi che cos'è accaduto un giorno o l'altro sembrava remota come se già si trovasse a Parigi potrei raccontarvelo se andassimo a bere qualcosa qualora ne abbiate tempo questa sera oh sto preparando i bagagli per la partenza temo che sarebbe impossibile già capisco bene pensavo che potesse farvi piacere essere messa al corrente è stato gentile da parte vostra a pormi sull'avviso vostro padre non c'entrava per nulla ne siete certo? assolutamente oh scusatemi un attimo si allontanò per qualche minuto poi tornò all'apparecchio e parve più cordiale forse riuscirò a trovare il tempo di vederci dove? in qualsiasi luogo preferiate non ho la macchina questa sera ma posso trovare un tassi assurdo passerò io a prendervi ma fra un'ora o più qual è il vostro indirizzo? glielo diedi e lei riattaccò e io accesi la luce della veranda e andai a riempirmi i polmoni con l'aria pura della notte il tempo si era rinfrescato molto rientrai e cercai di telefonare all'onni morgan ma non riuscì a pescarlo poi tanto per fare un tentativo chiamai il club terrapin a las vegas e chiesi del signor randy star pensavo che con ogni probabilità non avrebbe risposto e invece venne all'apparecchio aveva una voce pacata decisa da uomo d'affari lieto di parlarvi marlow ogni amico di terry è amico mio che cosa posso fare per voi mendy è in viaggio in viaggio per dove per las vegas con i tre giannizieri che avete mandato da lui su una grossa cadillac nera con il faro rosso e la sirena è vostra presumo rise a las vegas come dice qualche giornalista le cadillac le adoperiamo come rimorchi cos'è questa storia mendy si era nascosto qui in casa mia con un paio di manigoldi la sua intenzione era quella di massacrarmi a dir poco a causa di certe notizie apparse in un giornale secondo lui per colpa mia ed è stata colpa vostra non sono un proprietario di giornali signor star e io non ho mandato giannizieri su una cadillac signor marlow forse erano agenti non saprei dirlo c'è altro mendy mi ha percosso con il calcio della rivoltella gli ho sferrato un calcio nello stomaco e gli ho schiacciato il naso con una ginocchiata non sembra troppo soddisfatto comunque spero ugualmente che arrivi vivo a las vegas sono certo che ci arriverà se sta avvenendo qui e ora temo che dovrò troncare questa conversazione un momento solo star avete avuto anche voi una parte nell'episodio di otato clan o è stato soltanto mendy ad agire ci risiamo non scherzate star mendy non ce l'aveva con me per il motivo che ha adotto non fino al punto di introdursi in casa mia e di assoggettarmi allo stesso trattamento riservato a willy magoon il grosso non avrebbe avuto ragioni sufficienti per farlo mi avvertì di non ficcare il naso in faccende che non mi riguardavano invitandomi a disinteressarmi del caso l'ennox ma io me ne interessai ugualmente perché così andarono le cose e lui ha agito come vi ho detto dunque doveva essere spinto da ben altri motivi capisco disse ad agio sempre in tono pacato e sommesso pensate che vi sia stato qualcosa di illegale nella morte di terri che non sia stato lui a uccidersi per esempio ma che qualcun altro gli abbia fatto la pelle credo che i particolari siano significativi scrisse una confessione che era falsa scrisse una lettera diretta a me e la lettera venne spedita un cameriere o un fattorino dell'albergo doveva portarla fuori di nascosto e imbucarla lui era bloccato nell'albergo e non poteva uscirne c'era una banconota di grosso taglio nella lettera e la lettera venne terminata proprio mentre qualcuno stava bussando alla porta mi piacerebbe sapere chi entrò in quella stanza perché se si fosse trattato di un fattorino di un cameriere terri avrebbe aggiunto un rigo alla lettera per dirmelo se si fosse trattato di un poliziotto la lettera non sarebbe stata spedita chi entrò nella stanza allora e perché terri scrisse quella confessione non ne ho idea Marlow non ne ho la più pallida idea spiacente di avervi disturbato signor Star nessun disturbo mi ha fatto piacere conversare con voi domanderò a Mandy se ne sa qualcosa già se lo rivedrete vivo e se non lo rivedrete cercate ugualmente di appurare come stanno le cose se no lo farà qualcun altro voi la voce gli si indurì ora benché continuassi a essere pacata no signor Star non io qualcuno che potrebbe scacciarvi da Las Vegas con un soffio senza doversi riempire d'aria i polmoni credete a me signor Star datemi retta è la pura verità rivedrò Mandy vivo non preoccupatevi per questo Marlow pensavo che sapeste voi come erano andate le cose buonanotte signor Star 49 quando l'automobile si fermò di fronte alla casa e lo sportello si aprì uscì sul pianerottolo per scendere ma l'autista negro di mezza età stava tenendo lo sportello aperto per la signora Loring la seguì poi su per la rampa di scale portando una valigetta di conseguenza aspettai ella giunse sul pianerottolo e si voltò verso l'autista il signor Marlow mi accompagnerà all'albergo con la macchina Amos grazie di tutto vi telefonerò domattina sì signora Loring posso fare una domanda al signor Marlow posò la valigetta nell'ingresso e lei ci passò accanto e ci lasciò soli sto invecchiando sto invecchiando porterò i pantaloni rimboccati che cosa significa questo verso signor Marlow non significa un bel niente suona bene e basta sorrise fa parte del canto d'amore di J. Alfred Prafrock ecco un altro nella stanza le donne vanno e vengono parlando di Michelangelo significa qualcosa per voi signore sì secondo me significa che quel tale non conosceva bene le donne proprio quello che penso io signore pur tuttavia ammiro moltissimo T.S. Elliot avete detto pur tuttavia sì signor Marlow è forse un modo di dire errato no ma non servitevene con i milionari potrebbero pensare che vogliate prenderli in giro atteggiò le labbra un malinconico sorriso non me lo sognerei mai avete avuto un incidente signore no no era tutto prestabilito buonanotte Amos buonanotte signore discese la scala e io entrai in casa Linda Loring era in piedi nella stanza di soggiorno e si guardava intorno Amos si è laureato all'università Howard disse non abitate in un luogo molto sicuro per essere così spericolato non vi sembra non esistono luoghi sicuri oh la vostra povera faccia chi è stato Mandy Menendez e cosa gli avete fatto non molto solo un paio di calci ben assestati è caduto in trappola in questo momento sta viaggiando verso il Nevada in compagnia di tre o quattro agenti di quelli duri non sentirete più parlare di lui si mise a sedere sul divano che cosa volete bere domandai aprì la scatola delle sigarette e gliela porsi disse che non desiderava fumare disse che avrebbe bevuto qualsiasi cosa penso che lo champagne possa andare osservai non ho il secchiello per il ghiaccio ma è fresco l'ho tenuto da parte per anni due bottiglie cordon rouge dovrebbe essere buono non me ne intendo perché lo avete tenuto da parte domandò per voi sorrise ma continuava a fissarmi la faccia siede tutto tagliato allungò la mano e mi sfiorò appena la guancia con la punta delle dita tenuto da parte per me non è molto probabile ci conosciamo soltanto da un paio di mesi diciamo allora che l'ho tenuto da parte per il giorno in cui ci saremmo conosciuti vado a prenderlo afferrai la valigetta e mi allontanai dove andate con quella valigetta domandò in tono aspro è un SSR da notte no? mettetela giù e tornate qui UBD aveva gli occhi stellanti e al contempo sonnacchiosi è una situazione nuova disse ad agio assolutamente nuova in che senso? non mi avete mai toccata con un dito nessuna proposta nessuna frase a doppio senso nessun palpeggiamento niente di niente mi credevo indifferente cinico crudele e freddo suppongo di esserlo a volte ora mi trovo qui e immagino che vi proponiate dopo aver bevuto uno champagne a sufficienza di afferrarmi senza alcun preambolo e di scaraventarmi sul letto e così? francamente dissi un'idea del genere mi aveva attraversato la mente sono lusingata ma se non volessi saperne mi piacete molto questo non vuol dire però che desideri andare a letto con voi non siete un po' troppo frettoloso nel concludere solo perché ho portato con me un SSR da notte? può darsi che abbia preso un granchio risposi andai a prendere la valigetta e la portai accanto alla porta e ora lo champagne dissi non intendevo offendervi forse sarà meglio che teniate lo champagne per qualche occasione più propizia sono soltanto due bottiglie risposi per un'occasione realmente propizia ne occorrerebbe una dozzina oh capisco esclamò improvvisamente i rosa io non sarei altro che un riempitivo fino all'arrivo di una donna più bella e attraente vi ringrazio infinitamente ora siete riuscito a offendere me ma sarà bene avvertirvi non corro alcun pericolo qui se credete che una bottiglia di champagne possa fare di me una donna arrendevole posso assicurarvi che vi ingannate di molto ho già ammesso di essermi ingannato il fatto che vi abbia detto che sto per divorziare da mio marito e che mi sia fatta accompagnare qui da Amos con un SSR per la notte non significa che sia così facile avermi disse sempre irritata dannazione alla valigetta ringhiai all'inferno nominatela ancora una volta e la scaravento giù dalle scale vi ho chiesto se desideravate bere qualcosa e ora vado in cucina a prendere quello che occorre ecco tutto non mi sognavo neppure di farvi ubriacare voi non volete venire a letto con me me ne rendo conto perfettamente non avete alcun motivo di farlo ma possiamo ugualmente bere una o due coppe di champagne no? questo non implica che si debba litigare per stabilire chi di noi due verrà sedotto e quando e come con quanto champagne non è necessario che vi adiriate disse arrossendo questa è soltanto un'altra mossa di apertura ringhiai ne conosco 50 e le odio dalla prima all'ultima sono tutte finzioni e hanno in sé qualcosa di beffardo si alzò mi venne vicina e passò con dolcezza la punta delle dita sui tagli e sui gonfiori del mio volto scusatemi sono una donna stanca e delusa vi prego siate gentile con me non mi vendo a nessuno non siete stanca e non siete più delusa di chiunque altro secondo tutte le leggi delle probabilità dovreste essere lo stesso tipo di donna da poco superficiale viziata e viziosa che era vostra sorella ma per non so quale miracolo non lo siete avete tutta l'onestà e una gran parte del coraggio della vostra famiglia non c'è nessun bisogno che qualcuno sia gentile con voi le voltai le spalle uscì dalla stanza percorsi il corridoio fino alla cucina tolsi una bottiglia di champagne dal frigorifero feci saltare il turaccio lo riempì rapidamente due coppe e ne vuotai una ad un fiato benché il vino pungente mi facesse bruciare gli occhi tornai a riempire la coppa mesi tutto quanto su di un vassoio e lo portai nella stanza di soggiorno linda non c'era la valigetta non c'era posai il vassoio e spalancai la porta di casa non l'avevo udita aprirsi e linda non aveva l'automobile non avevo udito alcun rumore poi ella parlò dietro di me idiota credevi davvero che volessi andarmene chiusi la porta e mi voltai si era sciolta ai capelli e aveva infilato i piedi nudi in un paio di pantofole indossate una vestaglia di seta del colore del tramonto in una stampa giapponese venne ad agio verso di me con uno strano sorriso imprevedibilmente timido le porsi un bicchiere lo prese beve due sorse di champagne e me lo rostituì è ottimo disse poi molto serena e senza la minima traccia di affettazione mi si rannecchiò tra le braccia e premette la bocca contro la mia ed ischiuse le labbra e i denti la punta della sua lingua toccò la mia dopo molto tempo trasse indietro il capo ma seguitò a tenermi le braccia al collo aveva gli occhi stellanti l'ho sempre desiderato disse dovevo solo fare la difficile non so perché colpa dei nervi forse non sono affatto una donna leggera davvero ti spiace se lo avessi pensato gli avrei fatto delle proposte fin dalla prima volta quando ci incontrammo al bar di victor scosse ad agio la testa e sorrise non lo credo per questo sono qui forse quella sera no dissi quella sera apparteneva a qualcun altro forse non fai mai proposte alle donne nei bar non accade spesso c'è troppa poca luce ma molte donne vanno nei bar solo per sentirsi fare delle proposte molte donne si alzano ogni mattina con la stessa idea ma i liquori sono un afrodisiaco fino a un certo punto i medici li raccomandano chi ha parlato di medici voglio lo champagne la baciai ancora era una fatica lieve piacevole voglio baciare la tua povera gota disse e così fece scotta disse tutto il resto di me è gelido non è vero voglio lo champagne perché non sarà bello se non beviamo e poi mi piace sta bene mi ami molto o mi amerai se verrò a letto con te forse non sei obbligato a venire a letto con me sai non insisto in modo assoluto grazie voglio lo champagne quanto denaro possiedi complessivamente come posso saperlo 8 milioni di dollari circa ho deciso di venire a letto con te mercenario disse ho pagato lo champagne al diavolo lo champagne disse 50 un'ora dopo allungò il braccio nudo mi solletticò l'orecchio e disse vorresti sposarmi non durerebbe sei mesi bene per l'amor del cielo disse suppone che non sia così non ne varrebbe la pena che cosa chiede alla vita un'assicurazione garantita contro ogni impossibile rischio ho 42 anni sono viziato da un'esistenza indipendente tu sei un poco viziata non troppo dalla ricchezza ho 36 anni non è vergognoso essere ricchi e non è disonorevole sposare una donna ricca quasi tutti coloro che possiedono la ricchezza non la meritano e non sanno che cosa farne ma non durerà a lungo ci sarà un'altra guerra e alla fine nessuno avrà più denaro eccettuati i furfanti e i profittatori tutti gli altri non potranno più essere tassati le accarezzai i capelli e me ne avvolsi una ciocca intorno al dito forse hai ragione potremmo andare a Parigi in aereo e divertirci pazzamente si sollevò su un gomito e mi fissò scorgevo il luccichio dei suoi occhi ma non riuscivo a leggerne l'espressione sei contrario al matrimonio per due persone su cento è meraviglioso gli altri si limitano a tirare avanti dopo vent'anni a tutti i mariti non rimane altro che un banco da falegnam nel garage le donne americane sono orribili come mogli occupano maledettamente troppo territorio inoltre voglio un po' di champagne inoltre dissi per te non sarebbe che un episodio trascurabile soltanto il primo divorzio è un ostacolo difficile a superarsi in seguito divorziare non è altro che un problema economico voglia dire un problema che per te non esiste tra dieci anni potresti incontrarmi per la strada e domandarmi dove diavolo mi avevi conosciuto oppure non riconoscermi affatto sei un bastardo orgoglioso pieno di te borioso intoccabile voglio un po' di champagne così mi ricorderai e se anche vanaglorioso un mucchio di vanagloria un po' ammaccata per il momento credi che mi ricorderò di te credi che per quanti uomini possa sposare o accontentare a letto ti ricorderò e perché dovrei spiacente ho esagerato a mio favore vado a prenderti un po' di champagne non siamo carini e ragionevoli disse con sarcasmo sono una donna ricca tesoro e sarò infinitamente più ricca potrei comprarti il mondo se valesse la pena di acquistarlo che cosa possiedi adesso una casa dove nessuno ti aspetta quando torni neppure un cane o un gatto o un ufficetto ammuffito nel quale te ne stai seduto ad aspettare non si sa cosa anche se divorziassi da te non ti permetterei mai di tornare a questa vita come potresti impedirmelo non sono Terry Lennox te ne prego non parliamo ancora di lui e neppure di quel ghiacciolo biondo la Wade né del suo povero marito alcolizzato e distrutto vuoi essere il solo uomo che mi abbia respinto che coraggio è mai questo ti ho fatto la più grande lode di cui sia stata mai capace ti ho chiesto di sposarmi mi hai lusingato in un modo ancora più importante cominciò a piangere sciocco incredibile sciocco aveva le gote umide sentì le lacrime che le bagnavano supponi pure che possa durare soltanto sei mesi o un anno o due anni che cosa avresti perduto tranne la polvere sulla scrivania dell'ufficio e la sporcizia tra le stecche delle persiane e la solitudine di una vita completamente vuota desideri ancora un po' di champagne sì la strinzi a me e lei mi pianse sulla spalla non mi amava e lo sapevamo entrambi non piangeva per me era semplicemente giunto il momento di versare qualche lacrima si scostò poi e io scesi dal letto e lei andò nel bagno a truccarsi il viso versai lo champagne quando tornò sorrideva mi spiace di aver piagnucolato disse tra sei mesi non mi ricorderò neppure più del tuo nome porta tutto nella stanza di soggiorno voglio che ci sia molta luce feci come aveva detto sedemmo entrambi sul divano come prima e misi lo champagne dinanzi a lei guardò il bicchiere ma non lo toccò mi presenterò dissi brinderemo insieme come questa notte non sarà mai più come stanotte levò il calice beve ad agio alcuni sorsi poi si voltò sul divano e mi gettò in faccia quel che restava del bicchiere infine ricominciò a piangere mi tolsi di tasca il fazzoletto e mi asciugai la faccia e asciugai la sua non so perché l'ho fatto disse ma per amor di dio non sentenziare che io sono una donna e che le donne non sanno mai quello che fanno le versai ancora un po' di champagne nel bicchiere e risi di lei lo sorseggiò ad agio poi si voltò dall'altra parte e mi si rovesciò sulle ginocchia sono stanca disse dovrai portarmi tra le braccia questa volta dopo un poco si addormentò al mattino quando mi alzai e preparai il caffè dormiva ancora feci la doccia mi sbarbai e mi vestii a questo punto si svegliò facemmo colazione insieme chiamai un tassì e portai giù la valigetta ci dicemmo addio seguì con lo sguardo il tassì fino a quando non fu scomperso salì la rampa di scale entrai nella camera da letto e disfeci il letto completamente e lo rifeci vi era un lungo capello nero su uno dei due cuscini vi era un grumo di piombo nel mio stomaco i francesi hanno un modo di dire per situazioni del genere quei bastardi hanno un modo di dire per tutto ed è sempre giusto dirsi addio è un po' come morire 51 Sewell Handicott disse che lavorava fino a tardi e che potevo passare da lui in serata verso le sette e mezzo aveva un ufficio d'angolo con un tappeto azzurro una scrivania di mogano rosso dagli angoli scolpiti molto antica e ovviamente molto preziosa la solita libreria a vetri con i consueti volumi legali color giallo senape le solite caricature di spy di famosi giudici inglesi e una parete un unico grande quadro il ritratto del giudice Oliver Wendell Holmes la poltrona di Handicott era rivestita in cuoio nero accanto a lui si trovava uno scrittoio più piccolo carico di documenti era un ufficio che nessun decoratore aveva avuto modo di rallegrare Sewell Handicott aveva le maniche della camicia rimboccate e sembrava stanco ma la sua era una di quelle facce dall'aria eternamente esausta fumava una delle sue insipide sigarette la cenere era caduta sulla cravatta dal nodo allentato aveva i capelli neri e arruffati mi fissò in silenzio dopo che mi fui seduto poi disse siete un cocciuto figlio di puttana come non ne ho mai conosciuti non mi direte che continuate a vangare in quell'imbroglio e c'è qualcosa che mi preoccupa un po' mi è consentito ora presumere che rappresentavate il signor Harlan Potter quando veniste a trovarmi in gabbia annui mi toccai ad agio un lato della faccia con la punta delle dita la ferita era completamente guarita e il gonfiore era scomparso ma uno dei colpi doveva aver leso un nervo una parte della guancia sembrava ancora intorpidita non riuscivo a fare a meno di toccarla ma l'inconveniente sarebbe scomparso col tempo e che quando andaste a otato clan vi fu affidato temporaneamente l'incarico di rappresentare il procuratore di stettuale sì ma non riaprite una ferita Marlow il signor Potter era un cliente importante forse me l'ha presi troppo a cuore lo è ancora spero scosse il capo no è finita il signor Potter si avvale ora di studi legali di San Francisco New York e Washington credo che mi odia a morte quando ci ripensa Handicott sorrise strano a dirsi attribuì tutta la colpa a suo genero il dottor Loring non è ammissibile che possa sbagliarsi ritenne che se Loring non avesse prescritto alla donna sonniferi pericolosi non sarebbe successo nulla si sbaglia a Otato clan vedeste il cadavere di Terry Lennox vero? sì infatti nel retrobottega di un mobiliere non hanno un obitorio laggiù e il falegname stava costruendo una bara il cadavere era gelido vidi la ferita alla tempia l'identità del morto non si può porre in dubbio se per caso avevate sospetti del genere no signor Handicott non ne avevo perché nel suo caso ben difficilmente sarebbe stato possibile tuttavia era un po' camuffato no? aveva il volto e le mani più scuri i capelli tinti in nero ma le cicatrici erano pur sempre evidenti e naturalmente fu facilissimo controllare le impronte digitali mediante quelle rilevate in casa sua che genere di polizia hanno da quelle parti primitiva il liefe sapeva malappena leggere e scrivere ma di impronte digitali se ne intendeva faceva caldo sapete molto caldo si accigliò si tolse la sigaretta dalle labbra e la lasciò cadere con negligenza in una sorta di enorme posacenere di basalto nero dovettero farsi dare il ghiaccio dall'albergo soggiunse molto ghiaccio di nuovo mi fissò laggiù non c'è modo di imbalsamare i cadaveri occorre sbrigarsi parlate lo spagnolo signor handicott solo poche parole e il direttore dell'albergo fungeva da interprete sorrise un damerino ben vestito quel tale sembrava rozzo ma fu molto cortese servizievole sbrigammo ogni cosa in men che non si dica ricevetti a suo tempo una lettera da terry suppongo che il signor potter ne sia informato lo dissi a sua figlia la signora loring gliela mostrai conteneva un ritratto di madison un che cosa una banconota da 5.000 dollari inarco le sopracciglia davvero beh poteva permetterselo senz'altro sua moglie gli diede un quarto di milione di dollari quando si sposarono per la seconda volta ritengo che intendesse recarsi nel messico a rifarsi una nuova vita lontano da tutto ciò che era accaduto non so dove si è andato a finire il denaro non spettava a me accertarlo ecco la lettera signor handicott se vi interessa leggerla me la tolse di tasca e gliela diedi la lesse attentamente come leggono qualsiasi cosa agli avvocati la posò sulla scrivania si appoggiò allo schienale e guardò dritto dinanzi a sé un po' letteraria non vi pare osservò in tono pacato mi domando perché lo abbia fatto perché abbia fatto che cosa perché si uccise perché confessò perché scrisse la lettera perché confessò e perché si uccise naturalmente rispose a handicott in tono duro la lettera è comprensibile perlomeno foste ricompensato in misura ragionevole di quanto avevate fatto per lui e per molto tempo è la cassetta postale a lasciarmi interdetto osservai il punto in cui dice che c'era una cassetta postale nella strada sotto la sua finestra e che il cameriere dell'albergo doveva tenere sollevata in alto la lettera prima di imbucarla in modo da consentire a Terry di accertarsi che l'avrebbe infilata nella buca qualcosa si spense nello sguardo di handicott perché domandò in tono indifferente tolse da una scatola quadrata un'altra delle sue sigarette col filtro e io avvicinai l'accendino alla sigaretta sporgendomi sulla scrivania non è probabile che ci sia una cassetta postale in un villaggio come Otato Klan dissi continuate a tutta prima non me ne resi conto poi mi informai sulla località non è che un minuscolo villaggio la popolazione conta mille o 1200 anime c'è un'unica strada pavimentata solo in parte l'automobile degli Efe è una vetusta Ford modello A l'ufficio postale si trova in un angolo dell'emporio che serve al contempo da drogheria e macelleria ci sono un albergo un paio di osterie un piccolo aeroporto senza strade decenti c'è molta selvaggina sui monti circostanti questo spiega l'esistenza dell'aeroporto il solo mezzo comodo per raggiungere il posto è l'aereo continuate sapevo già della selvaggina di conseguenza in quel villaggio c'era una cassetta postale come può esservi un ippodromo come possono esservi una pista per le corse dei cani e un campo di golf e un campo di pallacanestro e un parco con fontane colorate e il chiosco per la banda allora si sbagliò evidentemente disse Endicott in tono gelido forse si trattava di qualcosa che gli parve una cassetta postale diciamo una cassetta per i rifiuti mi alzai presi la lettera la piegai e me la rimisi in tasca una cassetta per i rifiuti ripetei certo è così senz'altro una bella cassettina verniciata con i colori della bandiera messicana verde bianco e rosso e una chiara scritta in grosse lettere mantenete pulita la nostra città in spagnolo naturalmente e sdraiati tutto intorno parecchi cani randaggi non fate lo spiritoso marlow spiacente di aver sfoggiato la mia arguzia ma c'è un altro piccolo particolare di cui ho già parlato con Randy Star come mai la lettera venne imbucata stando a quanto scrisse Terry tutto era prestabilito qualcuno gli parlò dunque della cassetta postale qualcuno di conseguenza mentì e ciò nonostante qualcuno imbucò ugualmente la lettera con i 5.000 dollari è misterioso non è convenite soffiò una boccata di fumo e lo guardò di sperdersi a quale conclusione pervenite e perché mettere di mezzo Star Star è un serpenti al nome Menendez ormai eliminato da Los Angeles furono commilitoni di Terry nell'esercito inglese sono in un certo senso dei delinquenti direi anzi in quasi tutti i sensi ma hanno ugualmente una loro fierezza il senso dell'orgoglio e così via le carte sono state imbrogliate qui per ragioni ovvie e c'è stato un altro genere di imbroglio otato clan per motivi del tutto diversi a quale conclusione pervenite mi domandò ancora in tono molto più aspro e voi non mi rispose di conseguenza lo ringraziai per il tempo che mi aveva concesso e me ne andai era accigliato quando apri la porta ma il suo mi parve un sincero cipiglio di disorientamento o forse cercava di ricordare che aspetto avesse l'albergo e se vi fosse una cassetta postale da quelle parti fu un'altra rotellina che cominciò a girare nulla di più girò per un mese intero prima che accadesse qualcosa poi in un certo venerdì mattina trovai uno sconosciuto che mi aspettava in ufficio era un messicano o un sudamericano molto ben vestito sedeva accanto alla finestra aperta fumando una sigaretta di tabacco scuro dall'odore acre era alto molto esile e molto elegante con baffetti neri e capelli neri un po' più lunghi di come li portiamo noi americani indossava un vestito marrone di lana ruvida e portava un paio di occhiali da sole verti si alzò educatamente il signor marlow in che cosa posso esservi utile mi porse un foglio di carta piegato in quattro un avviso da parte del signor star in las vegas signora habla usted spagnol si ma non correntemente preferirei l'inglese parliamo in inglese allora disse per me fa lo stesso presi il foglio di carta e lessi la presente per presentarvi cisco majoranos un mio amico credo che possa spiegarvi ogni cosa esse entriamo pure signor majoranos dissi teni la porta aperta per lasciarlo passare sentì che era profumato mentre entrava anche le sue sopracciglia erano maledettamente troppo delicate ma con ogni improbabilità non era raffinato quanto sembrava poiché aveva cicatrici di coltellate su entrambi i lati del viso 52 si mise a sedere sulla poltrona dei clienti e accavallò le gambe mi è stato detto che desiderate certe informazioni sul signor Lennox solo per quanto riguarda la scena finale mi trovavo proprio lì in quel momento signor avevo un posto in albergo alzò le spalle un impiego umile naturalmente temporaneo ero il portiere diurno parlava perfettamente l'inglese ma con il ritmo spagnolo lo spagnolo lo spagnolo del sudamerica cioè segue un preciso andamento di alti e bassi di tono che all'orecchio di un americano sembrano non essere affatto in rapporto con quanto si dice è come il flusso e riflusso dell'oceano non sembrate il tipo osservai tutti vengono a trovarsi in difficoltà nella vita chi imbucò la lettera diretta a me mi porse una scadola di sigarette provate una di queste scossi il capo troppo forti le sigarette colombiane mi piacciono ma quelle cubane ammazzano sorrise appena ne accese una e soffiò fuori il fumo era maledettamente elegante e cominciava a infastidirmi so della lettera signor il mosso aveva paura di salire nella stanza di questo signor Lennox dopo che la guarda era stata posta di servizio il poliziotto o la gente come dite voi di conseguenza portai io stesso la lettera al correo dopo la sparatoria si intende avreste dovuto guardare che cosa conteneva c'era una banconota di grossissimo taglio la lettera era chiusa disse con freddezza e l'onor non si muove di lato come lo scongreios vale a dire l'onore non si sposta di lato come i granchi signor vi faccio tutte le mie scuse continuate prego il signor Lennox aveva un biglietto di banca da cento pesos nella mano sinistra quando entrè nella stanza e chiusi la porta in faccia alla guardia con la destra impugnava una rivoltella sul tavolo dinanzi a lui si trovava la lettera e c'era anche un altro foglio che non lessi non vogli accettare il cento pesos troppo denaro osservai ma non reagì al sarcasmo insistette così alla fine li presi e in seguito li diedi al mosso portai fuori la lettera nascondendola sotto il tovagliolo del vassoio con il quale era stato servito il caffè il poliziotto mi osservò attentamente ma non disse nulla ero già a metà delle scale quando udì lo sparo molto rapidamente nascosi la lettera e corsi di sopra il poliziotto stava cercando di sfondare la porta a calci mi servì della chiave che avevo in tasca il signor Lennox era morto spostò ad agio la punta delle dita sullo spigolo della scrivania e sospirò il resto senza dubbio lo sapete già era pieno l'albergo e no non pieno c'era una mezza dozzina di ospiti americani due americanos del norte cacciatori americani autentici o semplicemente messicani trapiantati sfiorò lentamente con un dito il tessuto marrone dei pantaloni sul ginocchio credo che uno dei due potesse essere di origine spagnola parlava lo spagnolo del confine un linguaggio assai rozzo si avvicinarono per caso alla stanza di Lennox alzò bruscamente la testa ma gli occhiali verdi mi impedirono di interpretare la sua espressione perché avrebbero dovuto avvicinarsi signor annui bene è stato molto gentile da parte vostra venire qui a riferirmi questi particolari signor majoranos dite a rendi che gli sono estremamente grato volete no è di che signor non è nulla e un'altra volta se ne avrà il tempo potrà mandarmi qualcuno che sappia quello che dice signor la voce era melliflua ma gelida dubitate della mia parola voi altri non fate che parlare dell'onore l'onore può essere a volte il mantello dei ladri non vi arrabbiate restatevene tranquillamente seduto e permettetemi di esprimermi in un altro modo si appoggiò sullo schienale con aria sdegnosa non sono che supposizioni badate potrei sbagliarmi ma potrei anche avere ragione quei due americanos si trovavano lì con uno scopo arrivarono in aereo e si finsero cacciatori uno dei due si chiamava menendez ed era un tenutario di case da gioco può darsi che abbia dato false generalità e può darsi di no non saprei l'ennox sapeva che si trovavano lì e sapeva perché mi scrisse quella lettera perché la coscienza gli rimordeva mi aveva ingannato ed era un uomo troppo buono per poter passare sopra la cosa tanto facilmente mise la banconota una banconota da 5.000 dollari nella lettera perché aveva molto denaro e sapeva che io sono uno squattrinato scrivendo la lettera mi diede inoltre un indizio indiretto del quale avrei potuto accorgermi o meno era uno di quegli uomini che vogliono sempre agire rettamente ma che in qualche modo finiscono per comportarsi in modo del tutto diverso dite che portaste la lettera al correo perché non la imbucaste nella cassetta postale di fronte all'albergo la cassetta postale signor sì e il caillon cartero dite voi se non sbaglio sorrise otato clan non è una grande città signor è un luogo molto primitivo una cassetta postale a otato clan nessuno capirebbe a cosa serve nessuno andrebbe a ritirare le lettere dissi oh andiamo finitela non portaste nessun vassoio con il caffè nella stanza del signor Lennox signor Majoranos e neppure entraste in quella stanza passando accanto al poliziotto ci entrarono però i due americani il poliziotto era d'accordo naturalmente e altrettanto si può dire di varie altre persone uno degli americani stordì Lennox con un colpo alla testa standogli alle spalle poi prese la rivoltella Mauser estrasse il caricatore aprì una delle cartucce ne tolse la pallottola e rimise la cartuccia nella camera di scoppio infine appoggiò la rivoltella contro la tempia di Lennox e premette il grilletto ne risultò una ferita dall'aspetto spaventoso che però non lo uccise poi Lennox fu portato fuori coperto e ben nascosto su una barella quando arrivò l'avvocato americano Lennox venne addormentato con un sonnifero coperto di ghiaccio e tenuto in un angolo oscuro della carpinteria dove il falegnave stava costruendo la bara l'avvocato americano vide Lennox lì dentro era gelido profondamente addormentato e aveva una ferita alla tempia coperta di sangue raggrumato sembrava più che morto e il giorno dopo la bara venne sepolta piena di sassi l'avvocato americano partì con le impronte digitali e un documento che era un falso in piena regola che cosa ne dite signor Majoranos si strinse nelle spalle potrebbe essere possibile signor occorrerebbero denaro e influenza sarebbe possibile forse se questo signor Menendez fosse imparentato con persone importanti di Otato clan con l'alcalde e il proprietario dell'albergo e così via bene può darsi anche questo è una buona idea spiegherebbe perché abbiano scelto una piccola e sperduta località come Otato clan subito sorrise allora il signor Lennox può essere ancora vivo no? certo il suicidio doveva essere una specie di commedia per convalidare la confessione bisognava che fosse una commedia abbastanza efficace per ingannare un avvocato che era stato procuratore distrettuale ma avrebbe mandato in bestia l'attuale procuratore distrettuale se la verità fosse trapelata Menendez non è un duro come crede di essere ma lo è stato abbastanza da colpirmi con il calcio della rivoltella perché non avevo evitato di cacciare il naso in affari che non mi riguardavano dovevano quindi esserci delle ragioni molto importanti se il falso fosse stato rivelato Menendez sarebbe venuto a trovarsi in guai di portata internazionale la corruzione della polizia non piace ai messicani quanto non piace a noi tutto questo è possibile signor come io so bene ma mi avete accusato di mentire avete detto che non entrai nella stanza del signor Lennox e che non ritirai la lettera eravate già lì amico mio e scriveste la lettera alzò una mano e si tolse gli occhiali scuri nessuno è in grado di mutare il colore degli occhi suppongo che sia un po' troppo presto per un succhiello disse 53 a città di Messico lo avevano operato in modo meraviglioso e perché no i medici i tecnici gli ospedali i pittori gli architetti messicani valgono quanto quelli americani a volte anche di più fu un poliziotto messicano a inventare la prova alla paraffina per le polveri da sparo non erano riusciti a rendere perfetto il volto di Terry ma avevano ottenuto ottimi risultati gli avevano modificato il naso togliendone un po' d'osso e rendendolo più appiattito meno nordico non avrebbero potuto eliminare ogni intraccia delle cicatrici e di conseguenza gli avevano segnato anche l'altro lato della faccia con un paio di cicatrici i segni delle coltellate non sono insoliti nei paesi latini hanno persino trapiantato un nervo quassù disse e si toccò quello che era stato il lato sfregiato del volto fino a che punto ho indovinato quasi tutto qualche particolare non è esatto ma si tratta di particolari privi di importanza si dovette agire in fretta improvvisando in parte lì per lì e io stesso non sapevo bene che cosa sarebbe accaduto mi fu detto di regolarmi in un certo modo affinché si potesse ricostruire facilmente il mio viaggio a Mandy non andava a genio l'idea che vi scrivessi ma non volli cedere vi sottovalutò un poco non si accorse neppure del particolare della cassetta postale sapete chi ha ucciso Silvia non mi diede una risposta diretta è molto spiacevole accusare una donna di assassino anche se non la si è mai molto amata il mondo è spietato c'è stato lo zampino di Arlan Potter in tutto questo sorrisi ancora e credete che lo lascerebbe capire a qualcuno secondo me no secondo me crede che io sia morto chi potrebbe andargli a dire la verità a meno che non lo facciate voi quello che gli direi si potrebbe scriverlo su un filo d'erba Mandy come se la cava o esiste ancora se la cava benissimo ad Acapulco si è salvato grazie a Randy ma ai ragazzi non piace che si maltrattino ai poliziotti Mandy però non è cattivo come credete voi ha un cuore ce l'hanno anche i serpenti bene che ne direste di un succhiello mi alzai senza rispondergli e mi avvicinai alla cassaforte l'apri e presi la busta con il ritratto di Madison e le cinque banconote da cento dollari che odoravano di caffè lasciai cadere tutto quanto sulla scrivania e poi presi cinque biglietti da cento dollari questi li tengo sono andati via tutti in spese ricerche il ritratto di Madison mi è servito per trastullarmici adesso appartiene a voi lo spianai sulla scrivania dinanzi a lui lo fissò ma non lo toccò dovete tenerlo disse ho denaro in abbondanza avreste potuto lasciare le cose come stavano lo so dopo aver assassinato il marito ed essersela cavata Aileen avrebbe potuto cambiare vita lui non contava affatto naturalmente non era altro che un essere umano con sangue nelle vene un cervello e passioni si rendeva conto di ciò che accadeva anche e faceva del suo meglio per tirare avanti ugualmente scriveva libri può darsi che lo abbiate sentito nominare state a sentire non potei fare a meno di comportarmi come mi sono comportato disse ad agio non volevo far del male a nessuno qui non avrei avuto alcuna possibilità di salvarmi nei momenti critici non si può prevedere ogni cosa ero spaventato e sono fuggito come avrei dovuto regolarmi non lo so Aileen non era una donna normale avrebbe potuto ucciderlo ugualmente sì avrebbe potuto bene siate un po' meno gelido andiamo a bere qualcosa in un locale fresco e tranquillo in questo momento non ne ho il tempo signor Majoranos una volta eravamo molto amici disse con aria infelice davvero? me ne sono dimenticato mi sembra che si trattasse di due persone diverse vi siete stabilito definitivamente nel Messico? oh sì la mia presenza qui non è neppure legale non lo è mai stata vi dissi che ero nato a Salt Lake City sono nato invece a Montreal e tra poco diventerò cittadino messicano occorre soltanto un buon avvocato il Messico mi è sempre piaciuto ma non sarebbe molto rischioso andare da Victor a bere quel succhiello riprendete il vostro denaro signor Majoranos è troppo sporco di sangue ma siete povero che cosa ne sapete? prese la banconota la lasciò fra le dita affusolate e la mise con gesto indifferente nella tasca interna della giacca si morse il labbro con i denti bianchissimi che si hanno sempre quando la pelle è scura non avrei potuto dirvi più di ciò che vi dissi la mattina in cui mi accompagnaste a Tijuana vi offrì l'opportunità di chiamare la polizia e di farmi arrestare non ce l'ho con voi siete fatto così e basta per molto tempo non riuscì affatto a capirvi avevate bei modi e ottime qualità ma c'era qualcosa che non andava avevate i vostri criteri morali e li rispettavate ma erano individualistici non avevano alcun rapporto con qualsiasi sorta di etica o di scrupoli eravate un simpatico ragazzo perché di indole buona ma vi sentivate a vostro agio tanto con i delinquenti e gli arruffoni quanto con le persone oneste purché i delinquenti parlassero un buon inglese e sapessero stare a tavola siete un disfattista morale forse è colpa della guerra forse siete nato così e non capisco disse davvero non capisco cerco di ricompensarvi e non me lo permettete non avrei potuto dirvi più di quanto vi dissi non avreste accettato la situazione questo è il più bel complimento che mi sia stato mai fatto sono lieto che qualcosa di me vi piaccia veni a trovarmi in un brutto pasticcio conoscevo per caso persone che sanno come imbrogliare situazioni del genere erano in debito con me per un episodio che accadde molto tempo fa in guerra probabilmente fu l'unica volta in vita mia in cui feci quello che era giusto fare con la rapidità di un topolino e quando ebbe bisogno di loro mi aiutarono senza nulla chiedere in cambio non siete il solo uomo al mondo a non avere il cartellino del prezzo Marlow si sporse sulla scrivania e prese con un gesto improvviso una delle mie sigarette aveva chiazze di rossore sul volto sotto la bronzatura e le cicatrici si stagliarono contro quelle chiazze lo osservai mentre si toglieva di tasca un accendino a cartuccia e aspirava la prima boccata della sigaretta mi giunse una zaffata di profumo avete avuto molto da me Terry e in cambio di un sorriso e di un cenno del capo e di un saluto fatto con la mano e di qualche minuto di serenità in un bar silenzioso di quando in quando ed è stato bello finché è durato arrivederci amico non vi dico addio vi dissi addio quando significava qualcosa vi dissi addio in un momento di tristezza e di solitudine quando sembrava definitivo sono tornato troppo tardi mormorò questi interventi di chirurgia plastica richiedono tempo non sareste tornato affatto se non vi avessi stanato ebbe improvvisamente un luccichio di lacrime negli occhi e si rimise in fretta gli occhiali scuri non sapevo quel che avrei fatto disse non avevo deciso volevano che non vi dicessi nulla non avevo preso una decisione ecco tutto non state a crociarvi Terry troverete sempre qualcuno che agirà per voi sono stato nei commandos amico non ti prendono se sei uno smidollato rimasi gravemente ferito e non fu un divertimento con quei medici nazisti e subì le conseguenze lo so Terry siete un bravissimo ragazzo sotto molti aspetti non vi giudico non l'ho mai fatto è solo che non esistete più ve ne siete andato da molto tempo avete bei vestiti e siete profumato ed elegante come una sgualdrina da 50 dollari è soltanto finzione disse in tono quasi disperato la cosa vi eccita non è vero? le labbra gli si incurvarono in un sorriso triste alzò le spalle con una mossa espressiva e tutta latina naturalmente non c'è altro che finzione non esiste nient'altro qui dentro e si toccò il petto con l'accendino non c'è nulla ne ho abbastanza Marlow è da un pezzo che ne ho abbastanza bene ora tutto è chiaro credo si alzò mi alzai mi tese una mano magra la strenzi arrivederci signor Majoranos è stato un piacere conoscervi sia pure fuggevolmente addio si voltò e attraversò la stanza e uscì guardai la porta che si chiudeva ascoltai i suoi passi che si allontanavano nel corridoio del pavimento in finto marmo dopo qualche attimo divennero fiocchi poi non udì più nulla continuai ugualmente ad ascoltare per quale ragione desideravo forse che si fermasse improvvisamente e si voltasse e tornasse indietro a parlarmi a scacciare da me l'amarezza che provavo bene non lo fece e non lo vidi mai più non vidi mai più nessuno di loro eccettuati i poliziotti il sistema per dir loro addio non è stato ancora inventato a scacciare da me non è stato a scacciare da me Grazie a tutti